Harry Potter e il prigioniero di Azkaban di J.K. Rowling narrato da Francesco Pannofino un audiolibro offerto da Pottermore from J.K. Rowling posta via gufo Harry Potter era un ragazzo insolito sotto molti punti di vista prima di tutto odiava le vacanze estive più di qualunque altro periodo dell'anno poi voleva davvero fare i compiti ma era costretto a studiare di nascosto nel cuore della notte e per giunta era un mago era quasi mezzanotte e Harry era steso sul letto a pancia in giù le coperte tirate sulla testa come una tenda una torcia in mano e un grosso libro rilegato in pelle storia della magia di Batilda Beckshot aperto e appoggiato al cuscino fece scorrere la punta della penna d'aquila sulla pagina aggrottando le sopracciglia alla ricerca di qualcosa che potesse aiutarlo a scrivere il tema perché i roghi di streghe nel quattordicesimo secolo furono completamente inutili la penna si arrestò all'inizio di un paragrafo promettente Harry si sistemò sul naso gli occhiali rotondi avvicinò la torcia al libro e l'esse nel medioevo i non maghi comunemente noti come babbani nutrivano un particolare timore per la magia ma non erano molto abili nel riconoscerla nelle rare occasioni in cui catturavano una vera strega o un vero mago i roghi non avevano comunque alcun effetto la strega o il mago eseguivano un semplice incantesimo fredda fiamma e poi fingevano di urlare di dolore mentre in realtà provavano una piacevole sensazione di solletico Wendelin la stramba era così contenta di farsi bruciare che si lasciò catturare non meno di 47 volte sotto vari travestimenti Harry si infilò la penna tra i denti e frugò sotto il cuscino in cerca dell'inchiostro e di un rotolo di pergamena lentamente e con molta attenzione stappò la boccetta vi intinse la penna e cominciò a scrivere interrompendosi ogni tanto per tendere l'orecchio perché se uno dei darsley andando in bagno avesse sentito lo scricchiolio della penna probabilmente Harry si sarebbe ritrovato chiuso nel ripostiglio del sottoscala per il resto dell'estate la famiglia darsley di private drive numero 4 era il motivo per cui Harry non si era mai goduto le vacanze estive zio Vernon, zia Petunia e il loro figlio Dudley erano i suoi unici parenti tutti e tre babbani e con un atteggiamento davvero medievale nei confronti della magia i genitori scomparsi di Harry, una strega e un mago non venivano mai nominati sotto il tetto dei darsley e per anni, zia Petunia e zio Vernon avevano tiranneggiato Harry in tutti i modi nella speranza di soffocare in lui ogni scintilla di magia con loro grande scorno avevano fallito e in quei giorni vivevano nel terrore che qualcuno scoprisse che Harry aveva trascorso gran parte degli ultimi due anni alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts il massimo che potevano fare comunque era mettere sotto chiave i libri di incantesimi la bacchetta, il calderone e la scopa di Harry sin dall'inizio delle vacanze estive e proibirgli di parlare con i vicini il sequestro dei libri era un autentico problema per Harry dal momento che aveva da fare un sacco di compiti per le vacanze tra l'altro l'insegnante meno amato da Harry, il professor Petun gli aveva assegnato un tema particolarmente difficile sulle pozioni restringenti e non aspettava altro che una scusa per punirlo un mese di fila così Harry aveva colto l'occasione durante la prima settimana di vacanza mentre zio Vernon, zia Petunia e Dudley erano in giardino ad ammirare la nuova auto aziendale a voce molto alta in modo che si sapesse in tutto il vicinato Harry era scivolato da basso aveva forzato il lucchetto del ripostiglio del sottoscala aveva afferrato rapidamente alcuni libri e li aveva nascosti sotto il letto fin tanto che non lasciava macchia di inchiostro sulle lenzuola i Dursley non avrebbero mai scoperto che studiava di notte oltretutto Harry stava particolarmente attento a evitare guai con gli zii perché erano già parecchio arrabbiati con lui a causa di una telefonata giunta una settimana prima da un compagno di scuola Ron Weasley, uno dei migliori amici di Harry a Hogwarts proveniva da una famiglia composta interamente da maghi e sapeva un sacco di cose che Harry ignorava ma non aveva mai usato un telefono per colmo di sfortuna era stato zio Vernon a sollevare la cornetta qui Vernon Dursley Harry, che era per caso lì accanto udì la voce di Ron e si sentì gelare pronto? pronto? mi sente? vorrei parlare con Harry Potter! Ron gridava così forte che zio Vernon sobbalzò e allontanò il ricevitore dall'orecchio guardandolo con un misto di furia e spavento chi parla? ruggì chi sei? Ron Weasley! urlò Ron in risposta come se lui e zio Vernon si stessero parlando dagli estremi opposti di un campo di calcio sono un compagno di scuola di Harry! gli occhietti di zio Vernon rotearono fermandosi su Harry, che era come inchiodato al pavimento qui non c'è nessun Harry Potter! ruggì tenendo il ricevitore più lontano possibile come se temesse di vederlo esplodere non so di che scuola stai parlando non chiamare mai più non osare avvicinarti alla mia famiglia! e scaraventò via la cornetta come se fosse un ragno verenoso la sfuriata che ne seguì era stata una delle peggiori in assoluto come hai osato dare questo numero a gente come... gente come te! aveva strillato zio Vernon sputacchiando saliva tutto intorno Ron naturalmente capì di aver messo Harry nei guai perché non richiamò nemmeno l'altra sua grande amica di Hogwarts Hermione Granger si era fatta viva Harry sospettava che Ron avesse avvertito Hermione di non chiamare il che era un peccato perché Hermione, la studentessa più brillante del loro anno aveva genitori babbani sapeva perfettamente come usare un telefono e probabilmente avrebbe avuto abbastanza buonsenso da non dire che frequentava Hogwarts così Harry non aveva notizie dei suoi amici da cinque lunghe settimane e quell'estate si stava rivelando brutta quasi come quella precedente ci fu solo un piccolissimo miglioramento dopo aver giurato che non l'avrebbe usata per spedire lettere a nessuno dei suoi amici Harry aveva avuto il permesso di lasciare libera almeno di notte la sua civetta, Edvige Siover non aveva ceduto per via del fracasso che Edvige faceva se restava sempre chiusa in gabbia Harry finì di scrivere di Wendelin la stramba e tese di nuovo l'orecchio il silenzio nella casa buia era rotto solo dal lontano fragoroso russare del suo enorme cugino Dudley doveva essere molto tardi gli occhi di Harry bruciavano dalla stanchezza forse era meglio finire il tema domani notte Harry richiuse la boccetta prese una vecchia federa vi infilò la torcia la storia della magia il tema la penna e l'inchiostro si alzò e nascose il tutto sotto il letto in uno spazio coperto da un asse mobile poi si alzò di nuovo si stiracchiò e guardò la sveglia luminosa sul comodino era luna di notte lo stomaco di Harry fece un buffo sobbalzo aveva tredici anni già da un'ora senza saperlo un'altra cosa strana di Harry era la scarsa considerazione in cui teneva i suoi compleanni non aveva mai ricevuto un biglietto d'auguri in tutta la sua vita i Dursley avevano completamente ignorato l'evento nei due anni passati e non c'era motivo di credere che si sarebbero ricordati di questo Harry attraversò la stanza buia oltrepassò la grande gabbia vuota di Edwige e andò verso la finestra aperta si sporse sul davanzale l'aria fresca della notte era piacevole sulla faccia dopo tutto quel tempo passato sotto le coperte Edwige era via da due notti ormai Harry non era preoccupato era stata lontana da casa altrettanto a lungo prima di allora ma sperava che tornasse presto era l'unica creatura vivente in quella casa che non si scomponesse alla sua vista Harry, benché ancora piuttosto piccolo e mingerlino per la sua età era cresciuto di qualche centimetro nell'ultimo anno i suoi capelli nerissimi comunque erano quelli di sempre ostinatamente in disordine qualunque cosa facesse gli occhi dietro le lenti erano verde brillante e sulla fronte, chiaramente visibile attraverso il ciuffo c'era una sottile cicatrice a forma di saetta di tutte le cose insolite di Harry quella cicatrice era la più straordinaria non era come i Dursley avevano sostenuto per dieci anni il segno dell'incidente d'auto in cui erano morti i genitori di Harry perché Lily e James Potter non erano morti in un incidente erano stati uccisi dal più temuto mago oscuro degli ultimi cento anni Voldemort ma Harry era scampato all'attacco senz'altro segno che quella cicatrice la maledizione di Voldemort invece di ucciderlo si era ritorta contro chi l'aveva scagliata più morto che vivo Voldemort era fuggito in seguito Harry si era trovato faccia a faccia con lui a Hogwarts nel ricordare il loro ultimo incontro lì in piedi davanti alla finestra buia Harry dovette ammettere di essere fortunato ad aver raggiunto il suo tredicesimo compleanno scrutò il cielo stellato alla ricerca di un segno di Edwige magari di ritorno con un topo morto pensolante dal becco in attesa di lodi il suo sguardo vagava assente sui tetti così ci mise qualche secondo a capire cosa fosse ciò che gli si parò davanti agli occhi stagliata contro la luna d'oro sempre più grande man mano che si avvicinava c'era una grande creatura stranamente sghemba che volava verso di lui Harry rimase immobile a fissarla per un attimo esitò la mano sulla maniglia della finestra chiedendosi se non fosse il caso di chiuderla rapidamente ma poi la bizzarra creatura planò su uno dei lampioni di private drive Harry che finalmente aveva capito cosa fosse fece un balzo di lato per farla passare dalla finestra entrarono tre gufi due di loro sorreggevano il terzo che sembrava privo di sensi atterrarono con un morbido flamp sul letto di Harry e il gufo in mezzo che era grosso e grigio si rovesciò su un fianco e giacque immobile aveva un voluminoso pacco legato alle zampe Harry riconobbe immediatamente il gufo privo di sensi si chiamava Errol e apparteneva alla famiglia Weasley Harry balzò subito sul letto slegò le corde attorno alle zampe di Errol prese il pacco e portò l'uccello nella gabbia di Edwige Errol aprì un occhio appannato fece un debole verso di ringraziamento e tuffò il becco nella vaschetta dell'acqua Harry si voltò verso gli altri uccelli uno dei due, una grossa civetta candida era la sua Edwige anche lei portava un pacco e sembrava estremamente soddisfatta di sé chiede a Harry un colpetto affettuoso col becco mentre lui la liberava del fardello poi volò attraverso la stanza per raggiungere Errol Harry non riconobbe il terzo gufo un bel esemplare di allocco ma capì all'istante da dove veniva perché, oltre a un terzo pacchetto portava una lettera con il sigillo di Hogwarts quando Harry gli prese il pacco il gufo arruffò le piume con aria di importanza spalancò le ali e spiccò il volo nella notte, attraverso la finestra Harry si sedette sul letto e prese il pacco di Errol strappò l'involucro e scoprì un regalo avvolto in carta dorata insieme al primo biglietto d'auguri della sua vita con dita tremanti aprì la busta ne scivolarono fuori due fogli di carta una lettera e un ritaglio di giornale il ritaglio proveniva chiaramente dal quotidiano dei maghi la gazzetta del profeta perché le foto in bianco e nero erano animate Harry lo prese lo dispiegò e lesse dipendente del ministero della magia vince grosso premio Arthur Weasley direttore dell'ufficio per l'uso improprio dei manufatti dei babbani al ministero della magia ha vinto il primo premio della lotteria annuale super galeone d'oro della gazzetta del profeta il signor Weasley soddisfattissimo ha dichiarato alla gazzetta del profeta useremo il premio per una vacanza in Egitto dove mio figlio maggiore Bill lavora come spezza incantesimi per la banca dei maghi Gringot la famiglia Weasley trascorrerà un mese in Egitto ma tornerà in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico a Hogwarts dove attualmente sono iscritti cinque dei sette ragazzi Weasley Harry guardò la foto animata e un gran sorriso gli si allargò in volto quando vide tutti i nove Weasley che lo salutavano agitando freneticamente un braccio in piedi davanti a un'alta piramide la piccola e rotondetta signora Weasley l'alto signor Weasley sempre più stempiato sei figli e una figlia tutti quanti anche se dall'immagine in bianco e nero non si vedeva forniti di capelli rosso fiamma proprio al centro della foto c'era Ron alto ed inoccolato con il topo crosta sulla spalla e il braccio attorno alle spalle della sorellina Ginny per Harry nessuno meritava di vincere un bel mucchio d'oro più dei Weasley che erano molto simpatici ed estremamente poveri prese la lettera di Ron e la aprì caro Harry buon compleanno senti mi dispiace davvero per quella telefonata spero che i babbani non ti abbiano strapazzato ho chiesto a papà e ha detto che non dovevo urlare è bellissimo qui in Egitto Bill ci ha portati a vedere le tombe e non ti immagini nemmeno tutte le maledizioni che quegli antichi maghi egizi ci hanno ficcato dentro la mamma non ha voluto che Ginny mettesse piede nell'ultima era piena di scheletri mutanti di babbani che erano riusciti a entrare e gli erano cresciute delle teste in più e roba del genere non ci potevo credere quando papà ha vinto il super galeone d'oro della gazzetta 700 galeoni li abbiamo spesi quasi tutti per questa vacanza ma mi compreranno una nuova bacchetta per il prossimo anno Harry ricordava fin troppo bene la circostanza in cui la vecchia bacchetta di Ron si era spezzata era successo quando l'auto volante con cui stavano andando a Hogwarts si era schiantata contro un albero nel cortile della scuola torneremo una settimana prima dell'inizio della scuola e andremo a Londra a comprare la mia bacchetta e i libri nuovi ci vediamo là? non farti mettere sotto dai babbani cerca di venire a Londra Ron PS Percy è diventato capo scuola ha ricevuto la lettera la settimana scorsa Harry guardò di nuovo le fotografie Percy che frequentava il settimo e ultimo anno a Hogwarts aveva l'aria particolarmente compiaciuta un nuovo distintivo d'argento scintillava sul fez che portava sopra gli occhiali cerchiati di corno poi Harry rivolse la sua attenzione al regalo e lo scartò dentro c'era quella che sembrava una trottola di vetro in miniatura sotto c'era un altro biglietto di Ron Harry questo è uno spioscopio tascabile se nei dintorni c'è qualcuno di cui non fidarsi dovrebbe accendersi e cominciare a girare Bill dice che ero baccia per Maggie in vacanza e che non ci si può far conto perché ieri sera ha continuato ad accendersi per tutta la cena ma non si era accorto che Fred e George gli avevano messo degli scarafaggi nella minestra ciao da Ron Harry posò lo spioscopio tascabile sul comodino dove rimase fermo in equilibrio sulla punta a riflettere le lancette luminose della sveglia lo guardò con gioia per qualche secondo poi prese il pacco portato da Edvige anche lì dentro c'erano un regalo incartato un biglietto e una lettera questa volta da parte di Hermione caro Harry Ron mi ha scritto raccontandomi della sua telefonata con tuo zio Vernon spero che tu stia bene sono in vacanza in Francia al momento e non sapevo come fare a spedirti questo pacco e se per caso lo aprivano alla frontiera ma poi è spuntata Edvige credo che volesse essere sicura che tu ricevessi qualcosa per il tuo compleanno una volta tanto ti ho comprato questo regalo via Gufo c'era la pubblicità sulla gazzetta del profeta me la faccio recapitare qui è bello tenersi aggiornati sulle novità del mondo della magia hai visto la foto di Ron e della sua famiglia una settimana fa? scommetto che sta imparando un sacco di cose sono davvero invidiosa i maghi dell'antico Egitto erano affascinanti anche qui ci sono tracce di un passato di stregoneria comunque ho riscritto tutto il tema di storia della magia per inserire alcune delle cose che ho scoperto spero che non sia troppo lungo sono due rotoli di pergamena in più di quello che ha chiesto il professor Beans Ron dice che sarà a Londra l'ultima settimana di vacanze tu ce la farai? tua zia e tuo zio ti lasceranno venire? spero proprio di sì altrimenti ci vediamo su Logwarts Express il primo settembre con affetto Ermione PS Ron dice che Persi è diventato caposcuola scommetto che ne è felice Ron invece non sembra troppo contento Harry rise posò la lettera di Ermione e prese il suo regalo era molto pesante conoscendo Ermione era certo che fosse un grosso libro pieno di incantesimi molto difficili e invece no il cuore di Harry diede un gran balzo mentre lui strappava la carta quello che vide fu una custodia di pelle nera con una scritta d'argento kit di manutenzione per scope wow Ermione sussurrò Harry aprendo la cerniera c'era un grosso barattolo di lucido per manici extra lusso il quercione un paio di lucenti forbici coda ciuffi d'argento una piccola bussola d'ottone da assicurare al manico durante i lunghi viaggi e un libro intitolato Guida fai da te alla manutenzione delle scope oltre ai suoi amici la cosa di Hogwarts che a Harry mancava di più era il quidditch lo sport più popolare del mondo della magia altamente pericoloso molto eccitante si giocava a cavallo di manici di scopa Harry eccelleva nel quidditch era il più giovane giocatore degli ultimi cento anni una delle cose più preziose che Harry possedeva era la scopa da corsa Nimbus 2000 mise da parte l'astuccio di pelle e prese l'ultimo pacco riconobbe immediatamente lo scarabocchio sulla carta marrone era di Hagrid il guardacaccia di Hogwarts strappò il primo strato di carta e intravide qualcosa di verde apparentemente di pelle ma prima che finisse di scartarlo il pacchetto ebbe uno strano fremito e il suo contenuto qualunque cosa fosse mandò uno schiocco secco e forte come se avesse le mascelle Harry si sentì gelare sapeva che Hagrid non gli avrebbe mai spedito di proposito qualcosa di pericoloso ma d'altra parte Hagrid aveva una percezione del pericolo ben diversa dalla media era famoso per aver addomesticato ragni giganti aver comprato un malefico cane a tre teste e aver tenuto di nascosto uova di drago illegali nella sua capanna Harry tastò nervosamente il pacco l'oggetto misterioso schioccò di nuovo Harry afferrò saldamente la lampada sul comodino e la levò alta sopra la testa pronto a colpire poi afferrò con l'altra mano il resto della carta che avvolgeva il pacco e tirò ne uscì un libro Harry ebbe appena il tempo di notare la bella copertina verde con soprainciso a lettere d'oro il titolo il libro mostro dei mostri prima che il volume scattasse in equilibrio sul bordo dandosi alla fuga di traverso sul letto come un granchio bizzarro oh oh borbottò Harry il libro cadde dal letto con un tonfo sordo e attraversò rapido la stanza Harry lo seguì guardingo si era nascosto nello spazio buio sotto la sua scrivania pregando che i darsley fossero ancora profondamente addormentati Harry si mise a quattro zampe e cercò di agguantare il volume aia il libro si chiuse di colpo sulla sua mano e poi corse via sbatacchiando sempre di sghembo sui bordi della copertina Harry avanzò carponi si slanciò in avanti e riuscì ad appiattirlo dalla camera accanto giunse un grugnito sonnolento di zio Vernon Edvige ed Errol osservarono con interesse Harry che prendeva il libro e lo stringeva con forza fra le braccia correva verso il cassettone e ne estraeva una cintura che legò attorno al curioso oggetto il libro mostro fu scosso dalla rabbia ma non poteva più aprirsi e chiudersi di scatto così Harry lo gettò sul letto e prese il biglietto di Hagrid caro Harry buon compleanno credo che troverai questa cosa interessante per il prossimo anno non ti dico altro adesso ti dico quando ti vedo spero che i babbani ti trattano come si deve stammi bene Hagrid a Harry parve alquanto allarmante che Hagrid considerasse utile un libro mordace ma mise il suo biglietto vicino a quelli di Ron e di Ermione con un sorriso più largo che mai restava solo la lettera da Hogwarts notando che era più voluminosa del solito Harry aprì la busta estrasse il primo foglio di pergamena e lesse caro signor Potter ci pregiamo di informarla che il nuovo anno scolastico comincerà il primo settembre l'Hogwarts Express partirà dalla stazione di King's Cross binario 9 e tre quarti alle 11 in punto gli studenti del terzo anno hanno il permesso di visitare il villaggio di Hogsmeade in alcuni fine settimana stabiliti la preghiamo di restituirci l'autorizzazione allegata firmata da un genitore o da un tutore allego la lista dei libri di testo per il prossimo anno cordialmente professoressa M. McGonagall vicepreside Harry estrasse l'autorizzazione e la guardò senza più sorridere sarebbe stato meraviglioso poter visitare Hogsmeade nei fine settimana sapeva che era un villaggio abitato esclusivamente da maghi e non vi aveva mai messo piede prima ma come avrebbe fatto a convincere gli zii a firmare il permesso guardò la sveglia erano le due del mattino Harry decise che avrebbe pensato a Hogsmeade al suo risveglio tornò a letto e si sporse per cancellare un altro giorno sulla tabella che si era fatto per contare i giorni mancanti al suo ritorno a Hogwarts poi si tolse gli occhiali e si distese a occhi aperti fissando i tre biglietti di compleanno per quanto fosse un ragazzo decisamente insolito in quel momento Harry Potter si sentì proprio come chiunque altro felice per la prima volta nella vita che fosse il suo compleanno il grosso errore di zia Marge quando Harry scese a colazione la mattina dopo trovò i tre Dursley già seduti al tavolo di cucina a guardare la televisione l'apparecchio era nuovo di zecca un regalo di fine scuola per Dudley che si era sempre lamentato del lungo tragitto dal frigo alla tv del salotto Dudley aveva passato gran parte dell'estate in cucina masticando ininterrottamente con i piccoli occhi porcini fissi sullo schermo e i cinque doppi menti che tremolavano Harry sedette tra Dudley e zio Vernon un omone bene in carne con il collo cortissimo e folti baffi nessuno si sognò di augurare buon compleanno a Harry anzi nessuno dei Dursley diede segno di accorgersi che fosse entrato in cucina ma Harry c'era troppo abituato per farci caso prese una fetta di pane tostato e guardò il mezzo busto sullo schermo parlava di un detenuto evaso Black è armato ed estremamente pericoloso è stata attivata una linea telefonica speciale e chiunque lo ha visti è pregato di comunicarlo immediatamente alle autorità è chiaro che è un delinquente bofonchio zio Vernon fissando l'ex prigioniero da sopra il giornale guardatelo un po' guardate com'è sporco e i capelli poi scoccò un malevolo sguardo obliquo a Harry la cui chioma ribelle lo aveva sempre molto infastidito ma in confronto all'uomo sullo schermo il volto magro incorniciato da un groviglio sporco che gli arrivava alle spalle Harry si sentì molto ordinato ricomparve il mezzo busto il ministero dell'agricoltura e della pesca annuncerà oggi ehi abbaiò zio Vernon fissando furente il giornalista non ci hai detto da dove è fuggito quel maniaco che razza di modo è quel pazzo potrebbe spuntare qui intorno da un momento all'altro zia Petunia una donna ossuta con la faccia cavallina si alzò di scatto e gettò un'occhiata fuori dalla finestra della cucina Harry sapeva che zia Petunia sarebbe stata felicissima di poter chiamare il numero speciale era la donna più ficcanaso del mondo e passava gran parte del suo tempo a spiare i vicini anche se erano noiosi e rispettosi della legge quando impareranno che la pena di morte è il solo modo di trattare con gente del genere disse zio Vernon picchiando il grosso pugno violaceo sul tavolo verissimo disse zia Petunia ancora intenta a sbirciare tra i rampicanti del vicino zio Vernon finì il suo tè guardò l'orologio e disse esco tra un minuto Petunia il treno di Marge arriva alle dieci Harry, i cui pensieri erano tutti per il suo kit di manutenzione per scope ripiombò bruscamente nella realtà zia Marge! esclamò non è che sta venendo qui, vero? zia Marge era la sorella di zio Vernon anche se per lui era solo una parente acquisita la madre di Harry era la sorella di zia Petunia era costretto a chiamarla zia zia Marge viveva in campagna in una casa con un grande giardino e allevava Bulldog non veniva spesso a Privet Drive perché non riusciva a separarsi dai suoi amatissimi cani ma tutte le sue visite erano vividamente orribilmente impresse nella memoria di Harry per il quinto compleanno di Dudley zia Marge aveva picchiato Harry sugli stinchi con il bastone da passeggio perché la smettesse di battere Dudley al gioco dei mimi qualche anno dopo, a Natale era arrivata con un aereo telecomandato per Dudley e una scatola di biscotti per cani per Harry durante la sua ultima visita Harry aveva calpestato per errore la coda del suo cane preferito Squarta che l'aveva rincorso per tutto il giardino finché il ragazzo non aveva trovato riparo su un albero sia Marge aveva richiamato il cane solo a mezzanotte passata l'episodio faceva ancora ridere Dudley fino alle lacrime Marge rimarrà da noi per una settimana sibilò zio Vernon e visto che siamo in argomento sarà il caso di chiarire qualche cosetta prima che io vada a prenderla aggiunse puntando un grasso dito minaccioso verso Harry Dudley fece un sorrisetto e distorse lo sguardo dallo schermo guardare il padre che strapazzava Harry era il suo divertimento preferito prima di tutto ringhio zio Vernon tieni a posto la lingua quando parli con Marge lo farò ribatte Harry aspramente se lei lo fa con me secondo disse zio Vernon fingendo di non aver sentito dal momento che Marge non sa nulla della tua anormalità non voglio che succedano cose cose strane mentre lei è qui comportati bene capito? sì se lo fa lei disse Harry a denti stretti terzo riprese zio Vernon gli occhietti malvagi ridotti a fessure nel faccione violaceo abbiamo detto a Marge che frequenti il centro di massima sicurezza san bruto per giovani criminali irrecuperabili che cosa? esclamò Harry e sarà meglio che tu glielo lasci credere ragazzo o saranno guai ribatte zio Vernon Harry rimase seduto pallido e furibondo guardando zio Vernon con aria incredula sia Marge ospite per una settimana era il peggior regalo di compleanno che i Darsley gli avessero mai fatto peggio anche dei vecchi calzini di zio Vernon bene Petunia disse zio Vernon alzandosi goffamente vado alla stazione vuoi venire anche tu Daddars? no rispose Dudley ora che suo padre aveva smesso di minacciare Harry era tornato a guardare la televisione diddi adesso si fa bello per la zietta disse zia Petunia accarezzando i folti capelli biondi di Dudley la mamma gli ha comprato un bel cravattino nuovo nuovo zio Vernon diede una pacca sulla spalla porcina di Dudley ci vediamo fra poco allora disse e uscì Harry che era rimasto immobile come impietrito dall'orrore all'improvviso ebbe un'idea lasciò perdere il pane tostato scattò in piedi e seguì zio Vernon nell'ingresso zio Vernon si infilò il giaccone non ho intenzione di portare te ringhiò non ho intenzione di venire rispose Harry gelido volevo chiederti una cosa zio Vernon lo squadrò con sospetto i ragazzi del terzo anno a Og voglio dire alla mia scuola hanno il permesso di visitare il villaggio di tanto in tanto disse Harry e allora? scattò zio Vernon prendendo le chiavi dell'auto da un gancio vicino alla porta devi firmare il permesso disse Harry in fretta e perché dovrei? chiese zio Vernon beffardo beh spiegò Harry scegliendo con cura le parole non sarà facile per me far finta con sia Marge di frequentare quel centro non so che centro di massima sicurezza san bruto per giovani criminali irrecuperabili mugizio Vernon e Harry fu lieto di cogliere un'evidente nota di panico nella sua voce esatto disse Harry fissando tranquillamente il faccione paonazzo di zio Vernon è lungo da ricordare e dovrò sembrare credibile vero? e se per sbaglio mi lascio scappare qualcosa? ti spezzo le ossa una per una capito? ruggì zio Vernon avanzando verso Harry con il pugno alzato ma Harry rimase immobile spezzarmi le ossa non farebbe dimenticare a zia Marge quello che le potrei dire ribatte ironico zio Vernon si fermò col pugno ancora alzato grigiastro in volto ma se mi firmi il permesso riprese Harry in fretta giuro che mi ricorderò il nome della scuola che hai detto e mi comporterò come un bab come uno normale Harry capì che zio Vernon stava riflettendo anche se aveva i denti scoperti e una vena che gli pulsava alla tempia va bene esclamò alla fine zio Vernon starò molto attento a come ti comporti durante la visita di Marge e se alla fine avrai rigato dritto ti firmerò quel maledetto permesso girò sui tacchi aprì la porta e la sbatté così forte che uno dei pannelli di vetro cadde fragorosamente Harry non tornò in cucina invece andò di sopra nella sua camera se doveva comportarsi come un vero babbano era meglio cominciare subito lentamente malinconicamente raccolse i regali e i biglietti di auguri e li nascose sotto il letto insieme ai compiti poi andò alla gabbia di Edvige Errol si era ripreso lui ed Edvige erano addormentati il capo sotto l'ala Harry sospirò poi gli svegliò Edvige disse in tono sconsolato devi sparire per una settimana vai con Errol Ron si prenderà cura di te gli scriverò un biglietto per spiegargli e non guardarmi così gli occhi ambrati di Edvige erano colmi di rimprovero non è colpa mia è l'unico modo per avere il permesso di andare a Hogsmeade con Ron e Ermione dieci minuti dopo Errol ed Edvige che aveva un messaggio per Ron legato a una zampa volarono fuori dalla finestra e sparirono Harry decisamente triste ripose la gabbia vuota nell'armadio non dovete aspettare molto in men che non si dica zia Petunia prese a strillare su per le scale ordinandogli di scendere per salutare l'ospite e fai qualcosa a quei capelli gli disse mentre Harry si avviava verso l'ingresso Harry non capiva perché dovesse cercare di lisciarsi i capelli sia Marge adorava criticarlo e quindi più lui era disordinato più sarebbe stata contenta ben presto si sentì scricchiolare la ghiaia mentre l'autodizio Vernon percorreva il vialetto poi si udirono il rumore delle portiere che si chiudevano e i passi sul sentiero del giardino vai alla porta sibilò zia Petunia a Harry lo stomaco ridotto a un nodo Harry aprì la porta sulla soglia c'era zia Marge somigliava molto a zio Vernon larga bene in carne e paonazza aveva perfino i baffi anche se non c'è spugliosi come quelli dello zio in una mano reggeva un'enorme valigia e infilato sotto l'altro braccio c'era un vecchio bulldog dal pessimo carattere dove è il mio dadders rugizia Marge dove è il mio nipotino tesorino Dudley caracollò avanti i capelli biondi incollati piatti sul testone il cravattino appena visibile sotto molteplici strati di doppio mento zia Marge scagliò la valigia nello stomaco di Harry mozzandogli il respiro sollevò da terra Dudley lo strizzò forte con il braccio libero e gli stampò un grosso bacio sulla guancia Harry sapeva benissimo che Dudley tollerava gli abbracci di zia Marge solo perché veniva ben ricompensato ed era certo che una volta sciolto l'abbraccio Dudley avesse una crocchiante banconota da venti sterline ben stretta nel pugno ciccione Petunia esclamò zia Marge passando davanti a Harry come se fosse un appendi abiti zia Marge e zia Petunia si baciarono o meglio zia Marge urtò il mascellone contro lo zigomo ossuto di zia Petunia zio Vernon entrò sorrise gioviale e chiuse la porta tè Marge chiese e squarta che cosa prende squarta prende il tè dal mio piattino disse zia Marge mentre entravano tutti in cucina lasciando Harry solo nell'ingresso con la valigia ma lui non si lamentò ogni scusa era buona per non dover stare con zia Marge così prese a trascinare la valigia di sopra nella stanza degli ospiti e ci mise più tempo che poteva quando tornò in cucina a zia Marge erano stati serviti tè e torta alla frutta e squarta in un angolo leccava rumorosamente il piattino Harry vide zia Petunia rabbrividire impercettibilmente notando le gocce di tè e bava che macchiavano il pavimento pulito zia Petunia odiava gli animali chi ti cura gli altri cani Marge chiese zio Vernon oh c'è il colonnello Fubster che si occupa di loro esclamò zia Marge ora è in pensione ed è contento di avere qualcosa da fare ma non ho proprio potuto lasciare a casa il povero vecchio squarta quando è lontano da me piange squarta prese a ringhiare mentre Harry si sedeva per la prima volta da quando era arrivata l'attenzione di zia Marge si concentrò sul ragazzo allora abbaiò sei ancora qui sì disse Harry non dire sì con quel tono ingrato ringhiozzi a Marge Vernon e Petunia sono maledettamente gentili a tenerti io non l'avrei fatto saresti andato dritto filato all'orfanotrofio se ti avessero abbandonato sulla porta di casa mia Harry moriva dalla voglia di dire che avrebbe preferito stare in un orfanotrofio invece che con i Darsley ma il pensiero del permesso per Hogsmeade lo fermò così sorrise a fatica non fare quelle smorfie tuo no zia Marge vedo che non sei affatto migliorato dall'ultima volta speravo che la scuola ti avrebbe ficcato in testa un po' di buone maniere prese una gran sorsata di tè si asciugò i baffi e disse dove hai detto che lo mandate Vernon a San Bruto rispose prontamente zio Vernon è un istituto di primordine per casi senza speranza ho capito disse zia Marge usano la frusta a San Bruto ragazzo abbaiò ehm zio Vernon fece sì con la testa dietro la schiena di zia Marge sì disse Harry poi pensando che tanto valeva far le cose per bene aggiunse sempre ottimo disse zia Marge io non la capisco questa mania di non darle alla gente che se lo merita è da smidollati da bollaccioni una bella batosta è quello che ci vuole in novanta casi su cento e te ti picchiano spesso oh sì rispose Harry un sacco di volte zia Marge socchiuse gli occhi il tuo tono continua a non piacermi ragazzo profferì se usi quel tono svagato per parlare delle frustate che prendi è chiaro che non te ne danno abbastanza petunia se fossi in te scriverei una lettera al direttore per ribadire che approvi l'uso delle maniere forti con il ragazzo forse zio Ver non temeva che Harry dimenticasse il loro patto comunque cambiò bruscamente discorso hai sentito il telegiornale stamattina Marge di quel prigioniero evaso che storia mentre zia Marge cominciava a fare come se fosse a casa sua Harry si sorprese a pensare con nostalgia alla vita al numero 4 senza di lei zio Vernon e zia Petunia di solito lo esortavano a stare fuori dai piedi cosa che Harry faceva con gran gioia sia Marge invece voleva tenere Harry sempre sott'occhio in modo da poter dispensare consigli su come migliorare i suoi modi era felice di poter paragonare Harry a Dudley provava un gran piacere nel comprare al nipote regali costosi e nel darglieli fissando Harry sfidandolo a chiedere perché non ci fosse un regalo anche per lui in più continuava a lasciar cadere cupe allusioni su ciò che faceva di Harry una persona così manchevole non devi rimproverarti per come è venuto su il ragazzo Vernon disse a pranzo il terzo giorno se c'è qualcosa di marcio dentro uno non può farci niente Harry cercò di concentrarsi sul piatto ma gli tremavano le mani ed era rosso di rabbia ricordati il permesso si disse pensa a Hogsmeade non dire niente non alzare Zia Marge prese il bicchiere pieno di vino è una delle regole base dell'allevamento disse con i cani è sempre così se c'è qualcosa che non va nella madre anche i cuccioli avranno qualcosa che non in quel momento il bicchiere esplose in mano a Zia Marge frammenti di vetro volarono in tutte le direzioni e Zia Marge prese a sputacchiare e a strizzare gli occhi il faccione rosso grondante di vino Marge squittizia Petunia Marge va tutto bene? non è niente grugnizia Marge asciugandosi la faccia col tovagliolo devo averlo stretto troppo mi è successa la stessa cosa l'altro giorno a casa del colonnello Fabster non agitarti Petunia è solo che ho una presa molto salda ma Zia Petunia e Zio Vernon lanciarono Harry occhiate sospettose così lui decise che era meglio saltare il dolce e allontanarsi da tavola più in fretta che poteva in corridoio appoggiò la schiena al muro e respirò profondamente da tanto tempo non gli succedeva di perdere il controllo e far esplodere qualcosa non poteva permettersi che accadesse di nuovo il permesso per Hogsmeade non era la sola posta in gioco se continuava così sarebbe finito nei guai con il ministero della magia Harry era ancora un mago minorenne e la legge dei maghi gli proibiva di fare magie fuori dalla scuola ma il suo curriculum non era proprio immacolato in questo senso solo l'estate precedente aveva ricevuto una severa ammunizione ufficiale se il ministero avesse avuto notizia di altre pratiche magiche compiute a private drive Harry sarebbe stato espulso da Hogwarts Harry sentì che i Dursley si alzavano da tavola e corse di sopra fuori dai piedi Harry riuscì a superare i tre giorni che seguirono sforzandosi di pensare alla guida fai da te alla manutenzione delle scope tutte le volte che Zia Marge se la prendeva con lui la cosa funzionò anche se a quanto pare lo costringeva a una certa fissità dello sguardo tanto che Zia Marge cominciò a vociferare che secondo lei Harry doveva essere ritardato finalmente arrivò l'ultima sera della vacanza di Zia Marge Zia Petunia preparò una cenetta speciale e Zio Vernon stappò parecchie bottiglie di vino mangiarono la minestra e il salmone senza far cenno ai difetti di Harry al momento della meringata al limone Zio Vernon li tediò tutti con un lungo discorso sulla Grannings la sua ditta produttrice di trapani poi Zia Petunia fece il caffè e Zio Vernon tirò fuori una bottiglia di brandy un bicchierino Marge Zia Marge aveva già bevuto parecchio il suo faccione era molto rosso ma sì appena appena disse ridacchiando ancora un po' un po' di più bravo ragazzo Dudley stava facendo sparire la quarta fetta di meringata Zia Petunia beveva il caffè con il mignolo teso Harry avrebbe tanto voluto eclissarsi in camera sua ma incontrò lo sguardo furioso di Zio Vernon e capì che doveva resistere disse Zia Marge schioccando le labbra e posò il bicchiere vuoto che mangiata Petunia di solito la sera mi faccio due cosette veloci con dodici cani a cui badare ruttò sonoramente e si batte il grosso stomaco ricoperto di tweed scusate ma mi piace vedere un ragazzo sano riprese strizzando l'occhio a Dudley diventerai un bellomone Dudders proprio come tuo padre sì ancora un po' di brandy Vernon quello lì invece piegò il capo verso Harry che si sentì stringere lo stomaco la guida fai da te pensò in fretta quello lì ha l'aria poco sana è così piccolo succede anche con i cani il colonnello Fabster l'anno scorso me ne ha negato uno una specie di topo ecco cos'era debole malnutrito Harry stava tentando di ricordarsi la pagina 12 del manuale un incantesimo per porre rimedio alle retromarce riluttanti dipende tutto dal sangue come dicevo l'altro giorno cattivo sangue non mente ora non sto dicendo che la tua famiglia ha qualcosa che non va a Petunia e batte sulla mano ossuta di Petunia con la sua simile a un badile ma tua sorella era la mela marcia capita anche nelle migliori famiglie poi è scappata con un buono annulla ed ecco il risultato Harry fissò il piatto uno strano ronzio nelle orecchie prendete la scopa per la coda con fermezza pensò ma non riusciva a ricordare cosa veniva dopo la voce di zia Marge si faceva strada dentro di lui come uno dei trapani di zio Vernon quel potter disse zia Marge ad alta voce afferrando la bottiglia di Brandy e versandone ancora un po' bicchiere un po' sulla tovaglia non mi avete mai detto che lavoro faceva zio Vernon e zia Petunia erano tesi come corde di violino perfino Dudley alzò gli occhi dalla torta per osservare i genitori lui non lavorava disse zio Vernon lanciando a Harry un'occhiata obliqua era disoccupato lo immaginavo disse zia Marge buttando giù una gran sorsata di Brandy e asciugandosi il mento con la manica una nullità uno scroccone uno sfaticato che non è vero disse Harry all'improvviso tutti tacquero Harry tremava non era mai stato così arrabbiato ancora un po' di Brandy strillò zio Vernon che era impallidito svuotò la bottiglia nel bicchiere di zia Marge tu ragazzo si bilò rivolto a Harry vai a dormire vai no Vernon disse zia Marge le era venuto il singhiozzo tese una mano per interrompere il fratello gli occhiettini iniettati di sangue fissi su Harry va avanti ragazzo va avanti sei fiero dei tuoi genitori vero figurati due che si ammazzano in un incidente d'auto saranno stati ubriachi non sono morti in un incidente esclamò Harry scattando in piedi sono morti in un incidente piccola perfido bugiardo e ti hanno scaricato come un fardello sulle spalle dei loro bravi operosi parenti strillò zia Marge furiosa sei un insolente ingrato moccioso ma zia Marge all'improvviso tacque per un attimo fu come se le mancassero le parole sembrava gonfia di una rabbia inesprimibile una rabbia che continuava a premere a premere da dentro il suo faccione rosso cominciò ad allargarsi i suoi occhietti presero a sporgere e la sua bocca si stirò a tal punto da impedirle di parlare un attimo dopo parecchi bottoni saltarono dalla giacca di tweed e rimbalzarono sulle pareti si stava gonfiando come un pallone mostruoso con lo stomaco che esplodeva dalla gonna di tweed e le dita simili a salsicce Marge gridarono zio Vernon e zia Petunia in coro mentre il corpo di zia Marge cominciava a sollevarsi dalla sedia e a librarsi verso il soffitto ormai era completamente rotonda un'enorme boa di salvataggio con gli occhi porcini e le mani e i piedi sporgevano in modo bizzarro mentre navigava a mezz'aria con uno scoppiettio soffocato squarta entrò a scivoloni abbaiando furiosamente nooo zio Vernon afferrò un piede di zia Marge e cercò di tirarla giù ma rischiò a sua volta di sollevarsi da terra un istante dopo squarta fece un balzo e affondò i denti nella gamba di zio Vernon Harry scattò prima che qualcuno potesse fermarlo diretto al ripostiglio del sottoscala la porta si spalancò da sola per magia in un attimo trascinò il suo baule verso la porta filò su per le scale e si gettò sotto il letto strappò l'asse mobile e afferrò la federa che conteneva i libri e i regali di compleanno strisciò fuori prese la gabbia vuota di Edvige e si precipitò di nuovo da basso proprio mentre zio Vernon usciva dalla sala da pranzo la gamba del pantalone ridotta a brandelli sanguinolenti torna subito qui strillò vieni a rimetterla a posto ma Harry preso da una rabbia incontenibile aprì con un calcio il baule afferrò la bacchetta e la puntò su zio Vernon se l'è meritato disse respirando affannosamente se l'è proprio meritato stai lontano da me tese l'altra mano all'indietro cercando a tentoni la maniglia me ne vado disse ne ho abbastanza e un attimo dopo era fuori lungo la strada buia e tranquilla trascinando il baule con la gabbia di Edvige sotto braccio il nottetempo Harry era già abbastanza lontano quando crollò su un muretto in magnolia crescent ansimando per lo sforzo sedette immobile ancora sopraffatto dall'ira ad ascoltare i tonfi affannosi del suo cuore ma dopo dieci minuti di solitudine totale nella stradetta buia una nuova emozione lo travolse il panico non si era mai trovato in un guaio peggiore in tutti i sensi era solo abbandonato nel cupo mondo babbano senza un posto dove andare e quel che era peggio aveva appena praticato una vera magia il che voleva dire che sarebbe stato quasi certamente espulso da Hogwarts aveva violato il decreto per la restrizione delle arti magiche tra i minorenni con tanta evidenza che era sorpreso che gli emissari del ministero della magia non gli fossero già alle costole Harry rabbrividì e guardò magnolia crescent da una parte e dall'altra che cosa gli sarebbe successo sarebbe stato arrestato o semplicemente bandito dal mondo della magia pensò a Ron e Ermione e il suo cuore sprofondò ancora un po' Harry era certo che criminale o no Ron e Ermione sarebbero stati pronti ad aiutarlo ma erano tutti e due all'estero e senza Edvige non aveva modo di comunicare con loro non aveva nemmeno del denaro babbano c'erano alcune monete dei maghi in un sacchetto in fondo al baule ma il resto della fortuna ereditata dai genitori era depositato in una camera blindata della Gringot la banca dei maghi a Londra e non sarebbe mai riuscito a trascinare il baule fino a Londra a meno che guardò la bacchetta che teneva ancora stretta in pugno se era già praticamente espulso al pensiero il cuore gli batteva così forte da fargli male un altro po' di magia non poteva guastare aveva il mantello dell'invisibilità ereditato da suo padre e se avesse gettato un incantesimo sul baule per renderlo leggero come una piuma lo avesse legato al manico della scopa si fosse avvolto nel mantello e fosse volato fino a Londra così avrebbe potuto prelevare il resto del denaro dalla camera blindata e cominciare la sua vita di reietto era una prospettiva orribile ma Harry non poteva restare lì seduto per sempre o si sarebbe trovato a dover spiegare a un poliziotto babbano che cosa ci faceva nel cuore della notte con una scopa e un mucchio di libri di incantesimi Harry riaprì il baule e spinse da una parte il contenuto per cercare il mantello dell'invisibilità ma prima ancora di averlo trovato si alzò all'improvviso e si guardò intorno un'altra volta avvertiva un curioso formicolio alla nuca era come se qualcuno lo stesse osservando ma la strada pareva deserta e le luci erano tutte spente nelle grandi case squadrate si chinò di nuovo sul baule ma si rialzò quasi immediatamente e strinse più forte la bacchetta lo avvertiva più che sentirlo con le orecchie c'era qualcuno o qualcosa lì nello stretto passaggio tra il garage e la staccionata alle sue spalle Harry cercò di strizzare gli occhi per vedere meglio se solo la cosa si fosse mossa avrebbe scoperto se si trattava di un gatto landaggio o di qualcos'altro lumos mormorò Harry e una luce abbagliante apparve sulla punta della bacchetta la tenne alta sopra la testa e l'intonaco incrostato di ghiaino del numero due all'improvviso prese a brillare la porta del garage scintillò e Harry scorse distintamente il vasto profilo di qualcosa di molto grosso dagli enormi occhi lucenti Harry fece un passo indietro inciampò nel baule e cadde la bacchetta gli sfuggì di mano mentre allungava un braccio per attutire la caduta Harry atterrò bruscamente nel canaletto di scolo si udì un bang assordante e Harry alzò le mani per ripararsi da un'improvvisa luce accecante con un grido rotolò sul marciapiede appena in tempo un attimo dopo un gigantesco paio di ruote sovrastate da due enormi fanali inchiodava a pochi centimetri da lui come Harry poté constatare il tutto apparteneva a un autobus a tre piani di un viola intenso apparso dal nulla le lettere d'oro sul paraprezza dicevano il nottetempo per un attimo Harry si chiese se la caduta lo avesse rimbambito poi un autista in uniforme viola balzò giù dal pullman e prese a parlare ad alta voce nella notte benvenuti sul nottetempo mezzo di trasporto di emergenza per maghi e streghe in difficoltà allungate la bacchetta salite a bordo e vi portiamo dove volete mi chiamo Stan Tiracorto e sono il vostro bigliettaio per questa notte il bigliettaio si interruppe alla vista di Harry che era ancora seduto per terra Harry afferrò la bacchetta e si rialzò visto da vicino Stan Tiracorto sembrava poco più grande di lui aveva 18-19 anni al massimo con grandi orecchie a sventola e un bel po' di brufoli che ci fai lì per terra domandò Stan abbandonando il tono professionale sono caduto disse Harry ma davvero chiese Stan con una risatina non l'ho fatto apposta rispose Harry seccato aveva i jeans strappati al ginocchio e la mano che aveva gettato indietro per frenare la caduta sanguinava all'improvviso gli venne in mente perché era caduto e si voltò rapido a guardare il passaggio tra il garage e la staccionata i fari del nottetempo lo inondavano di luce ed era vuoto che guardi disse Stan c'era una cosa nera disse Harry indicando riluttante il passaggio come un cane ma grosso guardò Stan che lo fissava bocca aperta a disagio Harry vide lo sguardo di Stan posarsi sulla cicatrice che aveva sulla fronte che hai sulla testa chiese Stan bruscamente niente rispose rapido Harry schiacciandosi i capelli sulla cicatrice se il ministero della magia lo stava cercando non voleva certo facilitargli il compito com'è che ti chiami insistette Stan Neville Longbottom disse Harry sparando il primo nome che gli venne in mente allora questo autobus riprese in fretta sperando di distrarre Stan hai detto che vada per tutto ci puoi scommettere disse Stan tutto fiero dove ti pare finché c'è strada sott'acqua però no che non ci va ehi disse di nuovo sospettoso tu ci hai fermato giusto hai messo fuori la bacchetta vero sì rispose Harry in fretta senti quanto costa andare fino a Londra undici falci rispose Stan ma per tredici ti becchi anche una cioccolata bella fumante e per quindici una borsa dell'acqua calda e uno spazzolino da denti del colore che vuoi eh Harry frugò ancora una volta nel baule estrasse un sacchetto e porse a Stan alcune monete d'argento poi insieme caricarono il baule sul pullman con la gabbia di Edvige sopra in bilico dentro non c'erano i sedili al loro posto una mezza dozzina di letti d'ottone vicini ai finestrini chiusi da tende accanto a ogni letto c'era una candela accesa in un candeliere che illuminava il rivestimento a pannelli di legno della carrozza in fondo al pullman un piccolo mago con un berretto da notte mormorò no no ragazzi sto mettendo le lumache in salamoia e si rigirò nel sonno puoi pigliarti questo sussurrò Stan spingendo il baule di Harry sotto il letto dietro il conducente seduto in poltrona al volante lui è il nostro autista Ernie Botto questo è Neville Longbottom Ernie Botto un anziano mago con gli occhialoni spessi fece un cenno a Harry che si appiattì nervosamente la frangia e si sedette sul letto diamoci una mossa Ernie disse Stan prendendo posto nella poltrona accanto a quella di Ernie si udì un altro terribile bang e un attimo dopo Harry si trovò lungo disteso sul letto sbalzato all'indietro dalla velocità del nottetempo si raddrizzò guardò fuori dal finestrino e vide che sfrecciavano lungo una strada del tutto nuova Stan osservò divertito l'espressione stupefatta di Ernie è qui che eravamo quando ci hai fatto segno di fermarci spiegò dov'è che siamo Ernie? in Galles? mmm disse Ernie come mai i babbani non sentono il rumore dell'autobus? chiese Ernie figurati disse Stan sprezzante non ci sentono e non ci vedono non si accorgono mai di nulla quelli meglio che vai a svegliare madame Marsh Stan disse Ernie tra un minuto saremo ad Abergavenny Stan superò il letto di Harry e scomparve su per una scaletta di legno Harry guardò ancora fuori dal finestrino sempre più nervoso pareva che Ernie non avesse idea di come si usa un volante il nottetempo continuava a salire sobbalzando sul marciapiede ma non urtava nulla file di lampioni cassette delle lettere e bidoni si ritraevano al suo passaggio e tornavano al loro posto subito dopo Stan scese di nuovo seguito da una strega verdina avvolta in un mantello da viaggio eccoci madame Marsh disse Stan allegramente mentre Ernie frenava di colpo e i letti scivolavano in avanti madame Marsh si portò un fazzoletto alla bocca e scese i gradini barcollando Stan le lanciò la borsa e richiuse la portiera ci fu un altro bang assordante ed eccoli avanzare rombando lungo una stretta stradina di campagna con gli alberi che si toglievano di torno a balzi Ernie non sarebbe riuscito a dormire nemmeno se fosse stato a bordo di un autobus che non faceva bang e non andava a 150 all'ora sentì una stretta allo stomaco mentre tornava a riflettere su quello che lo aspettava e a chiedersi se i Dursley erano riusciti a far scendere sia Marge dal soffitto Stan aveva aperto la gazzetta del profeta e ora leggeva con la lingua fra i denti una grossa foto di un uomo con il volto scavato e lunghi capelli arruffati strizzò l'occhio a Ernie dalla prima pagina aveva l'aria stranamente familiare quell'uomo disse Ernie dimenticando i suoi guai per un istante era al telegiornale dei babbani Stan guardò la prima pagina e ridacchiò Sirius Black disse e annui ma dove vivi certo che era al telegiornale dei babbani allo sguardo vacuo di Ernie reagì con una risatina di superiorità sfilò la prima pagina e gliela porse tocca che leggi i giornali Neville sì sì Ernie sollevò la pagina alla luce della candela e lesse Black ancora latitante Sirius Black probabilmente il più efferato criminale mai rinchiuso nella fortezza di Azkaban è ancora in libertà come ha confermato oggi il ministero della magia stiamo facendo tutto il possibile per riacciuffare Black ha dichiarato stamane il ministro della magia Cornelius Fudge e chiediamo alla comunità magica di mantenere la calma Fudge è stato criticato da alcuni membri della confederazione internazionale dei maghi per aver informato il primo ministro babbano della fuga di Black ho dovuto farlo ha ribattuto Fudge seccato Black è pazzo è un pericolo per chiunque lo incontri mago o babbano il primo ministro mi ha personalmente garantito che non svelerà a nessuno la vera identità di Black e poi diciamocelo chi gli crederebbe se lo facesse mentre tra i babbani è stata diffusa la notizia che Black è armato di pistola una specie di bacchetta di metallo che i babbani usano per uccidersi a vicenda la comunità magica vive nel terrore di una strage come quella di 12 anni fa quando Black uccise 13 persone con un'unica maledizione Harry guardò gli occhi tenebrosi di Sirius Black l'unica parte di quel volto scavato che avesse una parvenza di vita Harry non aveva mai incontrato un vampiro ma aveva visto delle figure sui libri al corso di difesa contro le arti oscure e Black con la sua pelle di un bianco cereo lo sembrava proprio fa paura eh disse Stan che aveva osservato Harry mentre leggeva ha ucciso 13 persone chiese Harry restituendo la pagina a Stan con un'unica maledizione sì disse Stan in mezzo alla folla in pieno giorno sì sì bel pasticcio vero Ern commentò Ern cupo Stan fece ruotare la poltrona per guardare meglio Harry Black stava dalla parte di tu sai chi disse chi Voldemort chiese Harry senza riflettere Stan impallidì brufoli compresi Ern sterzò così bruscamente che un'intera fattoria dovette fare un balzo indietro per evitare l'autobus ma sei fuori strillo Stan che ti viene in mente di dire quel nome eh mi dispiace disse Harry in fretta scusate io io mi sono dimenticato dimenticato disse Stan debolmente miseria ho il cuore che mi scoppia allora allora Black era un sostenitore di tu sai chi esclamò Harry per farsi perdonare sì sì disse Stan senza smettere di massaggiarsi il petto sì proprio così molto vicino a tu sai chi dicono ma quando il piccolo Harry Potter ha dato una bella lezione a tu sai chi Harry si appiattì di nuovo la frangia con un gesto nervoso hanno beccato a tutti quelli che stavano con tu sai chi vero Erne molti hanno capito che era finita senza più tu sai chi e si sono calmati ma Sirius Black no dicono che credeva di essere il braccio destro di tu sai chi comunque hanno circondato Black in una via piena di babbani lui ha tirato fuori la bacchetta e ha fatto saltare tutta la via e così ci ha rimesso la pelle un mago più una dozzina di babbani che passavano di lì ti rendi conto e lo sai che cosa ha fatto dopo Black continuò Stan in un sussurro cosa si è messo a ridere disse Stan a ridere capito e quando sono arrivati i rinforzi del ministero della magia si è fatto portare via come se niente fosse piegato in due dalle risate perché è matto vero Erne non è matto se non lo era quando è andato ad Azkaban lo è diventato disse Erne con la sua voce lenta io mi tirerei un colpo piuttosto che mettere piede là dentro gli sta bene comunque con quello che ha combinato hanno fatto una bella fatica a mettere tutto a tacere vero Erne disse Stan la strada per aria e tutti quei babbani stecchiti com'è che l'hanno chiamata Erne una fuga di gas brugni Erne e adesso è fuori disse Stan tornando a osservare la foto della faccia scavata di Black sul giornale nessuno era mai scappato da Azkaban vero Erne chissà come ha fatto spaventoso eh voglio dire contro le guardie di Azkaban deve essere stata una bella fatica Erne Erne all'improvviso rabbrividì parliamo di qualcos'altro Stan da bravo quelle guardie di Azkaban mi fanno torcere le budella solo a pensarci Stan riluttante ripiegò il giornale Ernie appoggiò la fronte al finestrino del nottetempo si sentiva malissimo non riusciva a immaginare che cosa avrebbe raccontato Stan ai passeggeri di lì a qualche notte sentito di quell'Harry Potter ha fatto esplodere la sua zietta e poi è salito qui sul bus proprio qui vero Erne stava cercando di fuggire sì sì lui Harry aveva infranto la legge dei maghi proprio come Sirius Black gonfiare zia Marge era così grave da farlo finire ad Azkaban Harry non sapeva nulla della prigione dei maghi anche se ne parlavano tutti con autentico terrore Hagrid il guardacaccia di Hogwarts ci aveva trascorso due mesi solo l'anno prima Harry non avrebbe dimenticato facilmente la paura sul viso di Hagrid quando gli avevano detto dove l'avrebbero portato e Hagrid era una delle persone più coraggiose che Harry conoscesse il nottetempo viaggiava nell'oscurità mettendo in fuga parchimetri e cespugli alberi e cabine del telefono e Harry disteso sul materasso di piume nell'oscurità si sentiva irrequieto e abbattuto dopo un po' Stan si ricordò che Harry aveva pagato la cioccolata calda ma gliela versò tutta sul cuscino mentre il bus si trasferiva bruscamente da Anglesey ad Aberdeen uno alla volta maghi e streghe in vestaglia e ciabatte vennero giù dai piani superiori per scendere dall'autobus sembravano tutti molto felici di farlo alla fine Harry rimase l'unico passeggero allora Neville disse Stan battendo le mani a Londra dove? a Diagonalley disse Harry va bene disse Stan allora tieniti forte bang ed ecco risfrecciare lungo Charing Crossroad Harry si rizzò a sedere e osservò gli edifici e le panchine che si ritraevano dal percorso del nottetempo il cielo impallidiva lentamente Harry riflette sul da farsi stare tranquillo per un paio d'ore andare alla Gringot non appena apriva poi partire per dove non lo sapeva Ern schiacciò il freno e il nottetempo si arrestò davanti a un piccolo pub dall'aria squallida il paiolo magico dietro il quale c'era l'ingresso segreto a Diagonalley grazie disse Harry a Ern scese i gradini con un balzo e aiutò Stan a scaricare il baule e la gabbia di Edvige beh disse Harry allora addio ma Stan era distratto in piedi vicino alla portiera scrutava il buio ingresso del paiolo magico eccoti qui Harry disse una voce prima ancora di voltarsi Harry sentì una mano sulla spalla nello stesso istante Stan esclamò per la miseria Harry vieni qui vieni qui Harry si voltò a guardare il proprietario della mano e si sentì gelare era Cornelius Fudge il ministro della magia in persona Stan balzò a un passo da loro come l'ha chiamato Neville il ministro domandò eccitato Fudge un ometto corpulento con un lungo mantello gessato aveva l'aria stanca e infreddolita Neville ripeté accigliato questo è Harry Potter lo sapevo strillò Stan giulivo Ern Ern indovina chi è il nostro Neville Ern è Harry Potter si si ha la cicatrice si disse Fudge asciutto e sono molto contento che il nottetempo abbia dato un passaggio a Harry ma io e lui ora dobbiamo entrare al paiolo magico Fudge premette più forte la spalla di Harry pilotandolo dentro il pub una sagoma curva che reggeva una lanterna apparve da dietro il bancone era Tom l'avvizzito sdentato proprietario del locale l'ha trovato ministro disse Tom qualcosa da bere birra brandy del tè magari rispose Fudge che non aveva ancora lasciato andare Harry alle loro spalle si sentì un rumore di cose trascinate e una serie di sbuffi e apparvero Ern e Stan con il baule di Harry e la gabbia di Edwige i due si guardarono intorno eccitati per la miseria perché non ce l'hai detto subito chi è Ernie Neville chiese Stan sorridendo mentre la faccia guffesca di Ernie spiava curiosa da sopra la sua spalla un salottino privato Tom per favore disse Fudge con uno sguardo eloquente addio Harry salutò Stan ed Ernie in tono sconsolato mentre Tom indicava a Fudge il corridoio dietro il bancone addio Neville gridò Stan Fudge guidò Ernie lungo lo stretto corridoio e seguendo la lanterna si ritrovarono in un salottino Tom schioccò le dita il fuoco si accese nella stufa e l'oste uscì con un profondo inchino siediti Ernie disse Fudge indicando una sedia vicino al fuoco Ernie sedette con la pelle d'oca sulle braccia nonostante il calore Fudge si sfilò il mantello gessato e lo gettò da una parte poi si tirò su i pantaloni del completo verde bottiglia e si sedette davanti a Ernie sono Cornelius Fudge Ernie il ministro della magia Ernie lo sapeva già naturalmente aveva già visto Fudge una volta ma siccome in quella circostanza indossava il mantello dell'invisibilità di suo padre Fudge non poteva e non doveva saperlo Tom ricomparve con un grembiule infilato sopra la camicia da notte portava un vassoio con tè e tartine lo posò sul tavolo tra Fudge e Ernie e uscì dal salottino richiudendosi la porta alle spalle bene Ernie disse Fudge versando il tè ci hai fatto prendere un bello spavento lo ammetto scappare così da casa dei tuoi zii cominciavo a pensare ma sei sano e salvo e questa è la cosa importante Fudge imburrò una tartina e spinse il piatto verso Ernie mangia Ernie sembri un fantasma allora ti farà piacere sapere che abbiamo risolto l'increscioso gonfiore della signora Marge Dursley due membri della squadra di cancellazione della magia accidentale sono stati mandati a private drive qualche ora fa la signora Dursley è stata bucata e la sua memoria è stata modificata non ricorda nulla dell'incidente è tutto ed è finita bene Fudge sorrise a Ernie sopra l'orlo della tazza di tè come uno zio che osservi il nipote preferito Ernie che non credeva alle sue orecchie aprì la bocca non riuscì a pensare a niente di sensato da dire e la richiuse ah sei preoccupato per la reazione dei tuoi zii chiese Fudge beh non lo nego sono molto arrabbiati Ernie ma sono pronti a riprenderti con loro la prossima estate purché tu rimanga a Hogwarts per le vacanze di Natale e di Pasqua Ernie finalmente riuscì a parlare rimango sempre a Hogwarts per le vacanze di Natale e di Pasqua disse e non voglio tornare mai più a private drive su su sono sicuro che cambierai idea quando ti sarai calmato un po' disse Fudge in tono preoccupato sono la tua famiglia dopo tutto e sono certo che in fondo vi volete bene molto in fondo Ernie non si curò di correggere Fudge stava ancora aspettando di sapere che cosa gli sarebbe toccato quindi riprese Fudge imburrandosi un'altra tartina resta da decidere dove passerai le ultime tre settimane di vacanza il mio suggerimento è che tu prenda una stanza qui al paiolo magico e avanti sbottò Ernie qual è la punizione che mi aspetta Fudge strizzò gli occhi punizione ho infranto la legge disse Ernie il decreto per la restrizione delle arti magiche fra i minorenni oh caro ragazzo non vogliamo certo punirti per una cosetta del genere esclamò Fudge agitando impaziente la tartina è stato un incidente nessuno finisce ad Azkaban solo per aver gonfiato una zia ma ciò non collimava affatto con i precedenti di Ernie con il ministero della magia l'anno scorso ho ricevuto un'ammunizione ufficiale solo perché un elfo domestico ha spiaccicato una torta in casa di mio zio disse a Fudge accigliato il ministero della magia ha detto che sarei stato espulso da Hogwarts se avessi praticato un altro incantesimo laggiù a meno che i suoi occhi non lo ingannassero Ernie notò che Fudge assumeva all'improvviso un'aria circospetta le circostanze cambiano Ernie dobbiamo tener conto nel clima attuale non vuoi essere espulso vero certo che no rispose Ernie bene allora qual è il problema disse Fudge sollevato mangia una tartina Ernie io vado a vedere se Tom ha una camera libera per te Fudge uscì dal salottino mentre Ernie lo fissava stupito stava succedendo qualcosa di molto strano perché Fudge lo aveva atteso al paiolo magico se non per punirlo e ora che ci pensava era normale che il ministro della magia in persona si occupasse di incantesimi di minorenni Fudge tornò accompagnato da Tommy lo candiere la camera 11 è libera Ernie disse Fudge credo che starai molto comodo solo una cosa sono certo che capirai non voglio che tu vada in giro per la Londra babbana chiaro resta a Diagon Alley e torna qui tutte le sere prima che faccia buio sono certo che capirai Tom ti terrà d'occhio per conto mio d'accordo disse Ernie lentamente ma perché non vogliamo perderti di nuovo ecco disse Fudge ridendo di cuore no no meglio sapere dove ti trovi voglio dire Fudge si schiarì la voce si alzò e presa il mantello gessato beh ora devo andare ho tante cose da fare notizie di Black chiese Ernie per poco il mantello non sfuggì dalle mani di Fudge cosa oh hai sentito beh no non ancora ma è solo questione di tempo le guardie di Azkaban non hanno mai fallito e non le ho mai viste così arrabbiate Fudge rabbrividì impercettibilmente allora arrivederci tese la mano e Ernie stringendola ebbe un'idea improvvisa eh ministro posso chiederle una cosa ma certo rispose Fudge sorridendo beh i ragazzi del terzo anno a Hogwarts hanno il permesso di andare a Hogsmeade ma i miei zii non hanno firmato il modulo crede che potrebbe Fudge prese un'aria imbarazzata ah disse no no mi dispiace tanto Ernie ma dal momento che non sono un tuo parente né il tuo tutore ma lei è il ministro della magia disse Ernie impaziente se mi desse il permesso no mi dispiace Ernie ma le regole sono regole disse Fudge in tono piatto forse potrai andare a Hogsmeade il prossimo anno in effetti credo che sia meglio se non sì bene adesso vado divertiti Ernie e con un ultimo sorriso e un'ultima stretta di mano Fudge uscì dalla stanza Tom si avvicinò con un ampio sorriso se vuole seguirmi signor Potter disse ho già portato di sopra i suoi bagagli Ernie seguì Tom su per una bella scala di legno fino a una porta con il numero 11 in cifre d'ottone Tom l'aprì con la chiave dentro c'erano un letto dall'aria molto comoda mobili di quercia lucidissimi un fuoco che scoppiettava allegramente e appollaiata in cima all'armadio Edvige esclamò Ernie la civetta candida fece schioccare il becco e volò sulla spalla di Ernie gran bella civetta disse Tom ridendo è arrivata cinque minuti prima di lei se ha bisogno di qualcosa signor Potter non esiti a chiederla fece un altro inchino e se ne andò Ernie rimase seduto a lungo sul letto accarezzando Edvige con aria assente il cielo oltre il vetro mutò rapidamente da un blu intenso e vellutato a un freddo grigio acciaio e poi piano piano si fece rosa e oro Ernie non riusciva a credere di aver lasciato private drive solo poche ore prima di non essere stato espulso e di avere davanti a sé tre intere settimane lontano dai Darsley è stata una strana notte Edvige disse sbadigliando e senza nemmeno togliersi gli occhiali sprofondò tra i cuscini e si addormentò Il paiolo magico Ernie ci mise diversi giorni ad abituarsi alla nuova strana libertà prima di allora non aveva mai potuto alzarsi quando voleva o mangiare quello che gli andava poteva perfino andare dove gli pareva purché rimanesse a Diagon Alley e dal momento che sulla lunga via acciottolata si affacciavano uno accanto all'altro i negozi di magia più affascinanti del mondo Ernie non provò il desiderio di mancare alla parola data a Fudge e di addentrarsi nel mondo babbano Ernie faceva colazione ogni mattina al paiolo magico osservando gli altri ospiti buffe streghette di campagna in città per un giorno di shopping maghi dall'aspetto venerabile che discutevano l'ultimo articolo su trasfigurazione oggi stregoni dall'aria selvatica nani rauchi e una volta perfino una fattucchiera che ordinò un piatto di fegato crudo parlando attraverso un pesante passamontagna di lana dopo colazione Ernie andava nel cortile sul retro estraeva la bacchetta colpiva il terzo mattone da sinistra sopra il bidone dell'immondizia e faceva un passo indietro mentre nel muro si apriva il passaggio che portava a Diagon Alley trascorreva le lunghe giornate estive esplorando i negozi e mangiando sotto gli ombrelloni colorati fuori dai caffè dove gli avventori si mostravano i loro acquisti è un lunascopio vecchio mio basta perdere tempo con le carte lunari o discutevano il caso di Sirius Black personalmente non permetterò a nessuno dei ragazzi di uscire da solo finché quello non torna al sicuro ad Azkaban Ernie non doveva più fare i compiti sotto le coperte alla luce della torcia ora poteva sedersi alla luce del sole fuori dalla gelateria Florian di Florian Fortescue a finire i compiti e a volte gli dava una mano Florian Fortescue in persona che oltre a sapere un sacco di cose sui roghi di streghe nel medioevo gli serviva un gelato gratis ogni mezz'ora dopo aver riempito la borsa di galeoni d'oro falci d'argento e zellini di bronzo ritirati dalla sua camera blindata alla Gringot Ernie dovette esercitare un notevole autocontrollo per non spendere tutto in una volta solo continuando a ripetersi che lo aspettavano ancora cinque anni a Hogwarts e quanto sgradevole sarebbe stato dover chiedere ai Dursley il denaro per i libri di incantesimi riuscì a trattenersi dal comprare un magnifico set di gobiglie d'oro massiccio un gioco magico simile alle biglie in cui le sferette spruzzavano un liquido puzzolente sulla faccia dell'avversario quando perdeva un punto fu tremendamente tentato anche da un perfetto modellino semovente della galassia in una grande sfera di vetro che gli sarebbe servito per non dover seguire più nemmeno una lezione di astronomia ma la cosa che più mise alla prova la fermezza di Harry comparve nel suo negozio preferito accessori di prima qualità per il quidditch una settimana dopo il suo arrivo al paiolo magico curioso di scoprire che cosa attirasse la folla nel negozio Harry riuscì a sgusciare dentro e si infilò tra le streghe e i maghi eccitati finché non riuscì a scorgere un espositore nuovo di zecca nel quale troneggiava la scopa più bella che avesse mai visto è appena uscita è un prototipo disse un mago dalla mascella volitiva rivolto al suo vicino è la scopa più veloce del mondo vero papà strillò un ragazzino più piccolo di Harry strattonando il braccio del padre gli Irish International ne hanno appena ordinate sette disse il proprietario del negozio alla folla e sono i favoriti alla coppa del mondo una grassa strega davanti a Harry si spostò e così lui riuscì a leggere il cartello appeso sotto la scopa Firebolt questa scopa da corsa all'avanguardia è fornita di un raffinato aerodinamico manico di frassino trattato con vernice ad abantina e numerato a mano i ramoscelli di betulla che formano la coda selezionati uno per uno sono stati sfrondati e lavorati fino a raggiungere un perfetto design per offrire alla Firebolt un ineguagliabile equilibrio e una precisione millimetrica la Firebolt ha un'accelerazione da 0 a 250 km orari in 10 secondi in dotazione un incantesimo frenante indistruttibile prezzo su richiesta prezzo su richiesta Harry preferì non pensare a quanto potesse costare la Firebolt non aveva mai desiderato nulla così ardentemente ma non aveva mai perso una partita a Quidditch sulla sua Nimbus 2000 e a che cosa serviva vuotare la camera blindata alla Gringot per la Firebolt quando possedeva già un'ottima scopa non chiese il prezzo ma tornò a vederla quasi tutti i giorni Harry dovette comunque fare degli acquisti andò dallo speziale a rifornire le scorte di ingredienti per pozioni e dal momento che la sua divisa ormai si era accorciata parecchio andò da Madame Malkin abiti per tutte le occasioni e ne scelse una nuova ma soprattutto dovette comprare i libri compresi quelli per le due nuove materie cura delle creature magiche e divinazione in libreria Harry ebbe una sorpresa invece della solita bella mostra di libri di incantesimi grandi come mattonelle con le scritte in oro in vetrina c'era una grande gabbia di legno che conteneva un centinaio di copie del libro mostro dei mostri pagine strappate volavano dappertutto mentre i libri si azzuffavano fra loro allacciati in furiosi combattimenti di lotta libera schioccando aggressivi Harry estrasse la lista dei libri dalla tasca e la lesse per la prima volta il libro mostro dei mostri era nell'elenco come volume di testo per cura delle creature magiche ora Harry capiva perché Hagrid aveva scritto che si sarebbe rivelato utile si sentì sollevato allora Hagrid non aveva bisogno d'aiuto con qualche nuovo cucciolo terrificante mentre entrava al Ghirigoro il proprietario li corse incontro Hogwarts gli chiese a bruciapelo sei venuto a comprare i libri nuovi? sì disse Harry ho bisogno spostati disse il libraio impaziente spingendo Harry di lato si infilò un paio di guanti molto spessi prese un grosso nodoso bastone da passeggio e avanzò verso la porta della gabbia dei libri mostri un momento disse Harry in fretta quello ce l'ho già davvero? sul viso del libraio apparve un'espressione di enorme sollievo grazie al cielo mi hanno già morsicato cinque volte stamattina si udì un rumore di pagine strappate due libri mostri ne avevano afferrato un terzo e lo stavano facendo a pezzi basta basta gridò il libraio infilando il bastone tra le sbarre e dividendo i libri con un colpo deciso non li terrò mai più mai più è un manicomio credevo che avessimo toccato il fondo quando abbiamo comprato duecento copie del libro invisibile dell'invisibilità ci sono costate una fortuna e non le abbiamo mai trovate beh ti serve altro? sì disse Harry scorrendo la lista mi serve svelare il futuro di Cassandra Wablaski ah quest'anno cominci divinazione eh disse il libraio sfilandosi i guanti e guidando Harry nel retro bottega dove c'era un angolo dedicato alla lettura del futuro un tavolino era carico di libri come prevedere l'imprevedibile proteggetevi dai traumi e sfere infrante quando le sorti si rovesciano ecco qui disse il libraio che si era arrampicato su una scaletta per prendere un grosso libro nero svelare il futuro ottima guida a tutti i metodi base di divinazione la lettura della mano le sfere di cristallo le viscere di uccello ma Harry non lo ascoltava lo sguardo gli era caduto su un altro libro posato su un tavolino presagi di morte che fare quando si prepara il peggio oh io non lo leggerei se fossi in te disse il libraio allegramente quando vide che cosa aveva attirato l'attenzione di Harry cominceresti a vedere presagi di morte dappertutto ce n'è abbastanza per spaventare a morte chiunque è proprio il caso di dirlo ma Harry continuò a fissare la copertina c'era un cane nero grosso come un orso con gli occhi ardenti che lo fissavano aveva un'aria stranamente familiare il commesso mise svelare il futuro tra le mani di Harry nient'altro disse sì disse Harry distogliendo gli occhi da quelli del cane e consultando la lista un po' stordito ho bisogno di trasfigurazione livello intermedio e del manuale degli incantesimi volume terzo dieci minuti più tardi Harry uscì dal ghirigoro con i libri nuovi sotto il braccio e fece ritorno al paiolo magico camminava come in trance e urtò parecchie persone salì le scale fino alla sua camera entrò e fece scivolare i libri sul letto qualcuno era venuto a riordinare le finestre erano aperte e il sole entrava a fiotti Harry sentiva gli autobus sfrecciare lungo la strada babbana alle sue spalle e il rumore della folla invisibile di sotto lungo Diagon Alley vide il proprio riflesso nello specchio sopra il lavandino non poteva essere un presagio di morte disse in tono di sfida al suo doppio ero già terrorizzato quando ho visto quella cosa in Magnolia Crescent probabilmente era solo un cane randaggio alzò la mano meccanicamente e cercò di appiattirsi i capelli combatti una battaglia persa caro disse lo specchio in un sibilo mentre i giorni passavano Harry prese a cercare Ronno e Hermione dappertutto molti studenti di Hogwarts arrivavano a Diagon Alley con l'inizio della scuola ormai così vicino Harry incontrò Simus Finnegan e Dean Thomas due compagni di Grifondoro da accessori di prima qualità per il Quidditch dove anche loro occhieggiavano la Firebolt e fuori dal Ghirigoro incrociò Neville Longbottom un ragazzino tondo e distratto Harry non si fermò a chiacchierare Neville a quanto pareva aveva perso la lista dei libri e sua nonna una vecchietta terribile lo stava sgridando Harry sperò che non venisse mai a sapere che si era spacciato per Neville mentre tentava di sfuggire al Ministero della Magia Harry si svegliò l'ultimo giorno delle vacanze pensando che almeno avrebbe incontrato Ron e Hermione il giorno dopo su Logworth Express si alzò si vestì andò a dare un'ultima occhiata alla Firebolt e stava pensando a dove pranzare quando qualcuno lo chiamò costringendolo a voltarsi Harry Harry erano lì tutti e due seduti a un tavolino della gelateria di Florian Fortescue Ron era incredibilmente lentigginoso Hermione molto abbronzata e tutti e due lo salutavano freneticamente con la mano era ora disse Ron sorridendo a Harry che prendeva posto al loro tavolo siamo andati al paiolo magico ma ci hanno detto che è riuscito e poi al Ghirigoro e da Madame Malkin e ho comprato tutte le cose per la scuola la settimana scorsa spiegò Harry come facevate a sapere che sto al paiolo magico papà disse Ron semplicemente il signor Weasley che lavorava al ministero della magia doveva aver sentito tutta la storia di zia Marge hai davvero gonfiato tua zia Harry chiese Hermione in tono molto serio non volevo rispose Harry mentre Ron scoppiava a ridere è che ho perso il controllo non c'è niente da ridere Ron disse Hermione seccamente davvero mi stupisco che Harry non sia stato espulso anch'io ammise Harry a parte l'espulsione credevo che mi avrebbero arrestato guardò Ron tuo padre non sa perché Faggio mi ha lasciato andare probabilmente perché sei tu no? disse Ron scrollando le spalle con un'ultima risatina il famoso Harry Potter eccetera eccetera preferisco non sapere che cosa farebbe a me il ministero se gonfiassi una zia comunque dovrebbero prima tirarmi fuori dalla fossa perché mamma mi ucciderebbe di sicuro puoi sempre chiederlo direttamente a papà stasera anche noi dormiamo al paiolo magico così domattina possiamo andare insieme a King's Cross e c'è anche Hermione Hermione annui sorridendo i miei mi hanno accompagnato qui stamattina con tutte le mie cose per Hogwarts ottimo disse Harry allegro allora avete già tutti i libri nuovi e il resto? guarda un po' disse Ron estrasse da una borsa una lunga scatola piatta e l'aprì bacchetta nuova di zecca quattordici pollici legno di salice con un crine di coda di unicorno incorporato e abbiamo tutti i libri disse indicando una grossa borsa sotto la sedia forti quei libri mostri eh? il commesso si è quasi messo a piangere quando gli abbiamo detto che ne volevamo due e quelli cosa sono Hermione? chiese Harry indicando non una ma tre borse stracolme sulla sedia accanto a lei quest'anno seguirò più corsi di te dichiarò Hermione sono i libri per aritmanzia cura delle creature magiche divinazione antiche rune babbanologia perché anche babbanologia? chiese Ron sgranando gli occhi tu sei di famiglia babbana i tuoi genitori sono babbani sai già tutto dei babbani ma sarà affascinante studiarli dal punto di vista dei maghi disse Hermione entusiasta ha intenzione anche di mangiare e dormire ogni tanto quest'anno Hermione chiese Harry mentre Ron ridacchiava Hermione fece finta di niente ho ancora dieci galeoni disse controllando il portafogli in settembre compio gli anni e mamma e papà mi hanno dato dei soldi perché mi comprassi un regalo in anticipo un bel libro magari? chiese Ron con fare innocente no non credo rispose Hermione seria vorrei proprio un gufo voglio dire Harry è Edvige e tu hai Errol non è mio disse Ron Errol è il gufo di casa io ho solo Crosta estrasse il suo topo dalla tasca e voglio fargli dare un'occhiata aggiunse deponendo Crosta sul tavolo temo che l'Egitto non gli abbia fatto troppo bene Crosta era più magro del solito e i baffi gli ricadevano flosci c'è un negozio di creature magiche proprio laggiù disse Harry che ormai conosceva Diagon Alley come le sue tasche tu potresti vedere se hanno qualcosa per Crosta e Hermione può comprarsi il suo gufo così pagarono i gelati e attraversarono la strada fino al serraglio stregato non c'era molto spazio all'interno tutte le pareti erano tappezzate di gabbie c'era uno strano odore e un gran fracasso perché gli ospiti delle gabbie strillavano, squittivano borbottavano e sibilavano tutti insieme la strega dietro il bancone stava dando dei consigli a un mago su come allevare i tritoni a due code così Harry, Ron e Hermione aspettarono il loro turno osservando le gabbie due enormi rospi violetti dall'aria bavosa si stavano facendo una scorpacciata di tafani morti una tartaruga gigante con il carapace tempestato di pietre preziose luccicava vicino alla finestra parecchie lumache velenose di colore arancione strisciavano lente su per la parete del loro terrario di vetro e un grasso coniglio bianco continuava a trasformarsi in un cappello a cilindro e poi di nuovo in coniglio accompagnando ogni metamorfosi con uno schiocco secco poi c'erano gatti di tutti i colori una rumorosa gabbia di corvi un cestino di buffe palle di pelo color crema che ronzavano forte e sul bancone una grande gabbia piena di lustri topi neri che giocavano a saltare la corda con le lunghe code glabre il mago del tritone a due code uscì e ron si avvicinò al bancone è per il mio topo disse alla strega è un po' giù di tono da quando siamo tornati dall'Egitto mettilo qui sopra disse la strega ed estrasse dalla tasca un paio di occhialoni neri ron prese crosta dalla tasca interna della giacca e lo posò vicino alla gabbia dei topi che smisero di saltare e si affollarono contro la rete per vedere meglio come quasi tutte le cose di ron il topo crosta era di seconda mano prima era appartenuto al fratello di ron persi e un po' sciupato vicino ai luci di topi della gabbia sembrava particolarmente abbacchiato mmm disse la strega sollevando crosta quanti anni ha non lo so rispose ron deve essere vecchio era di mio fratello che poteri ha chiese la strega osservando crosta da vicino disse ron la verità era che crosta non aveva mai mostrato la minima traccia di qualche potere interessante la strega spostò lo sguardo dall'orecchio sinistro del topo che era tutto smuzzicato alla zampa anteriore a cui mancava un dito e fece un verso di disapprovazione ne ha viste delle belle questo qua esclamò era così quando persi me l'ha passato disse ron sulla difensiva un topo ordinario comune o da giardino come questo non può vivere più di tre anni disse la strega se cerchi qualcosa di più resistente forse ti potrebbe andar bene uno di questi e indicò i topi neri che subito ricominciarono a saltare esibizionisti mormorò ron beh se invece non vuoi sostituirlo puoi provare con questo sciroppo ratto disse la strega estraendo una bottiglietta rossa da sotto il banco d'accordo disse ron quanto aia ron barcollò dalla sommità della gabbia più alta qualcosa di grosso e arancione era piombato sulla sua testa per poi lanciarsi verso crosta soffiando furiosamente no gratta stinti no gridò la strega ma crosta le guizzò via dalle mani come una saponetta atterrò a pelle d'orso sul pavimento e poi filò verso la porta crosta gridò ron schizzando a sua volta fuori dal negozio harry lo seguì impiegarono quasi dieci minuti per riprendere crosta che si era rifugiato sotto un cestino della carta straccia davanti ad accessori di prima qualità per il quidditch ron si ficcò in tasca il topo tremante e si alzò massaggiandosi la testa che cos'era o un grosso gatto o una tigre piccola disse harry dov'è ermione probabilmente si sta comprando il gufo ripercorsero la strada affollata fino al serraglio stregato ermione stava uscendo dal negozio ma non con un gufo teneva ben stretto l'enorme gatto rosso hai comprato hai comprato quel mostro chiese ron a bocca spalancata è magnifico vero questione di gusti pensò harry il gatto aveva un bel pelo fulvo e soffice ma le zampe erano decisamente storte e il muso era imbronciato e un po' schiacciato come se il suo proprietario si fosse schiantato contro un muro ora che crosta non era in vista comunque il gatto faceva le fusa soddisfatto tra le braccia di ermione ermione quella cosa mi ha quasi tirato via lo scalpo disse ron non l'ha fatto apposta vero grattastinchi disse ermione e crosta disse ron indicando il rigonfiamento nella tasca della giacca ha bisogno di riposo e di quiete come farà con quella cosa in giro a proposito hai dimenticato lo sciroppo ratto disse ermione e porse a ron la bottiglietta rossa smettila di preoccuparti grattastinchi starà nel mio dormitorio e crosta nel tuo dov'è il problema povero grattastinchi la strega ha detto che ce l'aveva in negozio da un secolo nessuno lo voleva chissà perché commentò ron sarcastico e i tre si diressero al paiolo magico dopo aver recuperato le borse con i libri il signor weasley era al bar a leggere la gazzetta del profeta harry disse con un sorriso alzando lo sguardo come stai bene grazie disse harry mentre lui ron e ermione si sistemavano con tutti i loro acquisti il signor weasley mise da parte il giornale e harry vide il viso ormai familiare di sirius black che lo guardava non l'hanno ancora preso allora chiese no rispose il signor weasley in tono molto serio al ministero ci hanno dispensato dagli incarichi ordinari per concentrarci tutti sulle ricerche ma finora non abbiamo avuto fortuna c'è una ricompensa se lo prendiamo chiese ron non sarebbe male un po' di soldi non essere ridicolo ron disse il signor weasley che da vicino appariva molto stanco e teso black non si farà prendere da un mago di tredici anni saranno le guardie di askaban a riacciuffarlo vedrete in quel momento entrò la signora weasley carica di borse e sacchetti seguita dai gemelli fred e george che stavano per cominciare il quinto anno a hogwarts dal neo eletto caposcuola persi e dalla più piccola della famiglia l'unica femmina ginny ginny che aveva da sempre una grande passione per harry fu ancora più imbarazzata del solito quando lo vide probabilmente perché lui le aveva salvato la vita l'anno prima a hogwarts diventò tutta rossa e mormorò ciao senza guardarlo persi invece gli tese la mano con solennità come se lui e harry non si conoscessero e disse harry che piacere vederti ciao persi replicò harry cercando di non ridere spero che tu stia bene disse persi pomposo stringendogli la mano era un po' come essere presentati al sindaco molto bene grazie harry esclamò fred dando una gomitata persi per toglierlo di torno e facendo un profondo inchino è semplicemente magnifico vederti ragazzo meraviglioso disse george spingendo fred da una parte afferrando la mano di harry assolutamente splendido persi gli guardò storto ora basta disse la signora weasley mamma esclamò fred come se l'avesse vista solo in quell'istante e poi afferrandole la mano è fantastico vederti ho detto basta così disse la signora weasley depositando i sacchetti su una sedia vuota buongiorno harry caro hai sentito la bella novità vero indicò il distintivo d'argento nuovo di zecca appuntato sul petto di persi è il secondo caposcuola in famiglia disse orgogliosa e l'ultimo mormorò fred tra i denti non ne dubito disse la signora weasley improvvisamente accigliata voi due non siete diventati prefetti a quanto ne so e perché dovremmo chiese george inorridito alla sola idea toglierebbe tutto il gusto ginny ridacchiò dovreste dare il buon esempio a vostra sorella esclamò la signora weasley ginny ha altri fratelli che possono darle il buon esempio mamma disse persi altezzoso salgo a cambiarmi per la cena scomparve su per le scale e george sospirò abbiamo cercato di chiuderlo in una piramide disse a harry ma la mamma ci ha scoperti la cena fu molto piacevole tom loste unì tre tavoli nel salottino e i sette weasley harry e ermione consumarono insieme cinque deliziose portate come facciamo ad andare a king's cross domattina papà chiese fred mentre attaccavano un sontuoso budino al cioccolato il ministero ci presta un paio di macchine disse il signor weasley tutti lo fissarono perché chiese persi incuriosito è per te pers disse george serissimo e ci saranno tante bandierine sul cofano con scritto sopra gz che vuol dire gran succone completò fred tutti ridacchiarono nel budino tranne persi e la signora weasley perché il ministero ci dà le macchine papà chiese di nuovo persi in tono austero beh siccome noi non ce l'abbiamo più spiegò il signor weasley e visto che il lavoro per loro ci fanno questo piacere la sua voce suonava normalissima ma harry non poté fare a meno di notare che le orecchie del signor weasley erano diventate rosse proprio come succedeva a ron quando era nervoso e meno male esclamò seccamente la signora weasley ma avete visto quanti bagagli avete tutti quanti sareste proprio un bello spettacolo sulla metropolitana babbana avete fatto tutte le valigie vero ron non ha ancora messo nel baule le cose nuove che ha comprato disse persi in tono di sopportazione le ha accatastate tutte sul mio letto sarà meglio che tu vada a fare i bagagli come si deve ron perché domattina non avremo molto tempo disse la signora weasley ron lanciò un'occhiata torva a persi dopo cena tutti erano sazi e sonnolenti uno dopo l'altro salirono nelle loro camere a controllare che tutto fosse in ordine per il giorno dopo ron e persi dormivano nella stanza accanto a quella di harry quest'ultimo aveva appena chiuso a chiave il suo baule quando sentì un'esplosione di voci dall'altra parte della parete incuriosito andò a vedere che cosa succedeva la porta della 12 era spalancata e persi gridava era qui sul comodino l'ho tirato fuori per lucidarlo io non l'ho toccato va bene urlò di rimando ron che cosa succede chiese harry il mio distintivo da caposcuola è sparito disse persi anche lo sciroppo ratto di crosta disse ron lanciando una serie di oggetti fuori dal suo baule forse l'ho lasciato giù al bar tu non vai da nessuna parte finché non salta fuori il mio distintivo strillò persi vado io a prendere la roba per crosta ho già finito con i bagagli disse harry a ron e scese le scale era a metà del corridoio verso il bar a quell'ora molto buio quando sentì altre due voci concitate provenire dal salottino un attimo dopo le riconobbe erano quelle dei signori weasley esitò non voleva che lo scoprissero ad ascoltarli mentre litigavano ma quando sentì pronunciare il suo nome si fermò e si avvicinò alla porta non ha senso non dirglielo stava dicendo il signor weasley in tono accalorato harry ha il diritto di sapere ho cercato di spiegarlo a fudge ma lui insiste nel trattare harry come un bambino ha tredici anni e arthur la verità lo spaventerebbe troppo disse la signora weasley con voce acuta vuoi davvero che torni a scuola con un peso del genere per l'amor del cielo può essere solo felice di non saperlo non voglio spaventarlo voglio metterlo in guardia ribatte il signor weasley lo sai come sono fatti harry e ron sempre in giro per conto loro sono entrati due volte nella foresta proibita ma harry quest'anno non deve farlo assolutamente quando penso a cosa gli sarebbe potuto succedere la notte che è scappato di casa se il nottetempo non gli avesse dato un passaggio scommetto che sarebbe stato ucciso prima che il ministero lo ritrovasse ma non è morto sta benissimo e allora spiegami perché molly dicono che sirius black è pazzo e forse lo è ma è stato abbastanza furbo da fuggire da azkaban e questo dovrebbe essere impossibile è passato un mese e nessuno ne ha visto l'ombra e non mi importa quello che faggio continua a ripetere alla gazzetta del profeta non siamo più vicini alla cattura di black che all'invenzione delle bacchette auto incantanti la sola cosa che sappiamo per certo è ciò che black sta cercando ma harry sarà assolutamente al sicuro a hogwarts credevamo che azkaban fosse un posto assolutamente sicuro se black è riuscito a fuggire da azkaban può anche penetrare a hogwarts ma nessuno ha la certezza che black stia cercando harry si udì un tonfo di certo il signor weasley aveva battuto il pugno sul tavolo molly quante volte te lo devo ripetere non era scritto sui giornali perché faggio ha voluto che non si sapesse ma faggio è andato ad azkaban la notte della fuga di black le guardie gli hanno detto che black negli ultimi giorni parlava nel sonno diceva sempre le stesse cose è a hogwarts è a hogwarts black è incontrollabile molly e vuole harry morto secondo me è convinto che l'assassinio di harry riporterà al potere tu sai chi black ha perso tutto la notte in cui harry ha fermato tu sai chi e ha avuto 12 anni di solitudine ad azkaban per rimuginarci sopra cadde il silenzio harry si avvicinò alla porta ansioso di saperne di più beh arthur devi fare quello che ritieni giusto ma dimentichi albus silente non credo che possa succedere niente a harry finché silente è il presidente sa tutto immagino ma certo abbiamo dovuto chiedergli il permesso di disporre le guardie di azkaban attorno alla scuola non era felice ma ha accettato non era felice perché non dovrebbe esserne felice se sono lì per catturare black a silente le guardie di azkaban non piacciono disse il signor weasley e nemmeno a me se è per quello ma quando si ha a che fare con un mago come black a volte bisogna allearsi con forze da cui sarebbe meglio tenersi lontano se servono a salvare harry allora non dirò mai più una parola contro di loro disse il signor weasley stancamente è tardi molly andiamo di sopra harry sentì muoversi le sedie più silenziosamente possibile corse lungo il corridoio fino al bar la porta del salottino si aprì e qualche istante dopo un rumore di passi disse a harry che i weasley stavano salendo le scale lo sciroppo ratto era sotto il tavolo della cena harry attese finché non sentì chiudersi la porta della camera dei weasley poi prese il flaconcino e andò di sopra fred e george erano nascosti nell'ombra del pianerottolo e si rotolavano dalle risate mentre persi smantellava la sua camera alla ricerca del distintivo ce l'abbiamo noi sussurrò fred a harry l'abbiamo migliorato ora sul distintivo c'era scritto su caposcuola harry scoppiò in una risata forzata consegnò la boccetta a ron si chiuse in camera e si distese sul letto e così sirius black lo stava cercando questo spiegava tutto fudge aveva chiuso un occhio con lui perché era contento di trovarlo vivo gli aveva fatto promettere di rimanere a diagonale dove c'erano un sacco di maghi a tenerlo sotto controllo e mandava due auto del ministero per portarli alla stazione il giorno dopo in modo che i weasley potessero sorvegliarlo finché non fosse salito sul treno harry rimase disteso ad ascoltare le grida soffocate nella camera accanto e a chiedersi perché si sentisse così poco spaventato sirius black aveva ucciso tredici persone con un'unica maledizione i weasley erano convinti che harry sarebbe stato preso dal panico se avesse saputo la verità ma harry era d'accordo con la signora weasley il posto più sicuro del mondo era quello dove si trovava albus silente non dicevano tutti che silente era l'unica persona di cui voldemort avesse mai avuto paura ti sicuro black il braccio destro di voldemort lo temeva allo stesso modo e poi c'erano le guardie di azkaban di cui tutti parlavano pareva potessero fare impazzire la gente di paura e se si piazzavano attorno alla scuola le probabilità che black riuscisse a entrare sembravano molto remote no tutto sommato la cosa che più turbava harry era che la possibilità di andare a hogsmeet era ormai ridotta a zero nessuno gli avrebbe permesso di allontanarsi dal castello l'unico posto sicuro finché black non fosse stato catturato in effetti harry sospettava che ogni suo movimento sarebbe stato strettamente sorvegliato fino alla fine dell'emergenza fissò imbronciato il soffitto buio credevano che non sapesse badare a se stesso era sfuggito tre volte a voldemort quindi non era proprio una frana non richiesta l'immagine della bestia nell'ombra di magnolia crescent gli attraversò la mente che fare quando si prepara il peggio nessuno sta per uccidermi disse harry ad alta voce è così che si fa caro commentò lo specchio assonnato il dissennatore la mattina dopo tom svegliò harry con il suo solito sorriso sdentato e una tazza di tè harry si vestì e stava convincendo una riottosa edvige a tornare dentro la gabbia quando ron entrò nella sua camera sbattendo la porta con una felpa infilata a metà e l'aria irritabile prima saliamo sul treno meglio è disse almeno a hogwarts riuscirò a stare alla larga da persi ora mi accusa di aver versato il tè sulla sua foto di penelope clearwater sai ron fece una smorfia la sua fidanzata si è nascosta sotto la cornice perché le si è riempito il naso di brufoli devo dirti una cosa esordì harry ma furono interrotti da fredde george che si congratulavano con ron per aver fatto di nuovo arrabbiare persi scesero per la colazione il signor weasley leggeva accigliato la prima pagina della gazzetta del profeta e la signora weasley raccontava a ginni e a ermione di un filtro d'amore che aveva preparato da ragazza avevano tutte e tre la ridarella che cosa stavi dicendo chiese ron a harry sedendosi a tavola te lo dico dopo borbottò harry vedendo entrare persi harry non riuscì a parlare con ron né con ermione nel caos della partenza furono troppo occupati a trascinare tutti i loro bauli giù per la stretta scala del paiolo magico e a catastarli vicino alla porta con edvige e ermes il gufo di persi in cima al tutto nelle loro gabbie un cestino di vimini vicino al mucchio di bauli sputacchiava rumorosamente va tutto bene gratta stinchi lo blandì ermione attraverso i vimini ti farò uscire sul treno nemmeno per idea scattò ron e il povero crosta indicò il davanti della giacca dove un grosso rigonfiamento segnalava la presenza di crosta appallottolato nella tasca interna il signor weasley che era uscito ad aspettare le auto del ministero infilò dentro la testa sono arrivate disse harry andiamo il signor weasley scortò harry verso la prima delle due auto fuori moda verde scuro ciascuna delle quali aveva al volante un mago dall'aria furtiva in uniforme di velluto verde smeraldo sali harry disse il signor weasley guardando a destra e a sinistra nella strada affollata harry salì e ben presto fu seguito da ermione ron e con grande disgusto di ron persi il viaggio fino a king's cross fu molto tranquillo in confronto alla gita di harry sul nottetempo le auto del ministero della magia sembravano quasi normali anche se harry notò che sgusciavano nel traffico come la macchina nuova della ditta di zio vernon non sarebbe mai riuscita a fare raggiunsero king's cross con venti minuti di anticipo gli autisti del ministero trovarono dei carrelli scaricarono i bauli salutarono il signor weasley sfiorandosi il berretto e ripartirono riuscendo misteriosamente a scattare in testa una fila di macchine ferme ai semafori il signor weasley scortò harry dentro la stazione bene disse guardandosi intorno andiamo due a due visto che siamo in tanti io passo per primo con harry il signor weasley puntò verso la barriera che separava i binari nove e dieci spingendo il carrello di harry apparentemente molto interessato all'intercity 125 che era appena arrivato al binario nove con un'occhiata eloquente a harry si appoggiò in maniera casuale alla barriera harry lo imitò un attimo dopo l'attraversarono ritrovandosi sul binario nove e tre quarti davanti all'hogwarts express un treno a vapore scarlatto che sbuffava fumo su un binario affollato di streghe e maghi che salutavano i loro figli persi e ginni apparvero all'improvviso dietro a harry ansimavano e sembrava che avessero corso ah ecco penelope disse persi lisciandosi i capelli e diventando tutto rosa ginni intercettò lo sguardo di harry ed entrambi si voltarono per nascondere le risate mentre persi avanzava verso una ragazza dai lunghi capelli ricci camminando col petto così in fuori che nessuno avrebbe potuto ignorare il distintivo splendente quando gli altri weasley e ermione li ebbero raggiunti harry e il signor weasley aprirono la strada verso la coda del treno oltre una serie di scompartimenti affollati fino a una carrozza che sembrava vuota i ragazzi caricarono i bauli edvige e grattastinchi poi tornarono sulla banchina per salutare i signori weasley la signora weasley baciò tutti i suoi figli poi ermione e alla fine erry che fu un po' imbarazzato ma anche contento quando la mamma di ron lo strinse in un abbraccio supplementare farai attenzione vero erry gli disse cercando di ricomporsi con gli occhi stranamente lucidi poi aprì la capata face borsetta e disse ho preparato i sandwich per tutti tieni ron no non è carne in scatola fred dove è fred eccoti qui caro erry disse piano il signor weasley vieni qui un momento scivolò dietro una colonna erry lo seguì lasciando gli altri attorno alla signora weasley c'è una cosa che devo dirti prima che tu parta esordì il signor weasley con voce tesa va tutto bene signor weasley disse erry lo so già lo sai come fai a saperlo io io vi ho sentiti parlare ieri sera lei e la signora weasley non ho proprio potuto evitarlo aggiunse in fretta mi dispiace non volevo che lo scoprissi così disse il signor weasley ansioso no davvero va tutto bene così lei non ha tradito la parola data a faggio e io so come stanno le cose erry sarai molto spaventato no disse erry con sincerità davvero aggiunse perché il signor weasley lo guardava incredulo non sto cercando di fare l'eroe ma insomma sirius black non può essere peggio di voldemort vero il signor weasley si ritrasse sentendo pronunciare quel nome ma ci passò sopra erry sapevo che sei di una tempra più forte di quanto non creda faggio e naturalmente sono felice che tu non abbia paura ma arthur gridò la signora weasley intenta far salire gli altri sul treno arthur che cosa fai è ora arriva molly disse il signor weasley ma poi si voltò di nuovo verso erry e riprese a parlare con voce più bassa in fretta questa volta ascolta voglio che tu mi dia la tua parola che farò il bravo e rimarrò al castello chiese erry rassegnato non solo disse il signor weasley più serio che mai erry giurami che non andrai a cercare black erry lo fissò che cosa si sentì un fischio acuto i controllori camminavano lungo il treno e chiudevano le porte promettimi erry disse il signor weasley parlando ancora più rapidamente che qualunque cosa accada perché dovrei andare a cercare qualcuno che vuole uccidermi chiese erry senza capire giurami che qualunque cosa sentirai arthur sbrigati strillò la signora weasley il vapore schizzava dal treno che aveva cominciato a muoversi erry corse verso la portiera ron la spalancò e fece un passo indietro per lasciarlo salire poi tutti si sporsero dal finestrino per salutare i weasley finché il treno non fece una curva e li cancellò dalla loro vista devo parlarvi in privato mormorò erry a ron e ermione mentre il treno prendeva velocità vai via gini disse ron sei proprio carino ribatte gini irritata e se ne andò erry ron e ermione si incamminarono lungo il corridoio alla ricerca di uno scompartimento vuoto ma erano tutti occupati tranne l'ultimo in fondo al treno dentro c'era un solo passeggero un uomo profondamente addormentato seduto vicino al finestrino erry ron e ermione rimasero sulla soglia a guardarlo l'hogworth espress di solito era riservato agli studenti e non avevano mai visto un adulto a bordo a parte la strega che portava il tè e i sandwich lo sconosciuto indossava un completo damago molto consunto rammendato in più punti aveva l'aria stanca e malata benché fosse piuttosto giovane i suoi capelli castano chiaro erano striati di grigio secondo voi chi è? sibilò ron mentre si sedevano chiudevano la porta e occupavano i posti più lontani dal finestrino il professore r.j lupin sussurrò pronta ermione come fai a saperlo? c'è scritto sulla valigia rispose ermione indicando la reticella sopra lo sconosciuto occupata da una valigetta lisa tenuta insieme da una grande quantità di spago legato con cura il nome professor r.j lupin era stampato su un angolo a lettere un po' sbucciate chissà che cosa insegna disse ron osservando il pallido profilo di lupin è ovvio sussurrò ermione c'è solo una materia a cui manca un professore no? difesa contro le arti oscure eri ron e ermione avevano già avuto due insegnanti di difesa contro le arti oscure ed entrambi avevano resistito un anno soltanto correva voce che quel posto portasse iella beh spero che sia all'altezza disse ron in tono dubbioso all'aria di uno che basta una bella fattura a sistemarlo no? comunque e si voltò verso eri che cosa dovevi dirci? eri raccontò della discussione tra il signore e la signora weasley e degli avvertimenti che il signor weasley gli aveva appena dato quando ebbe finito ron era sconvolto e ermione si teneva le mani sulla bocca alla fine le abbassò per dire sirius black è fuggito per venire a cercare te oh eri dovrai stare molto molto attento non andare in cerca di guai eri non vado in cerca di guai disse eri seccato di solito sono i guai che trovano me eri non è mica tanto scemo da andare a cercare un pazzo che vuole ucciderlo commentò ron scosso stavano prendendo la notizia peggio di quanto eri non si fosse aspettato a quanto pareva sia ron che ermione temevano sirius black molto più di lui non si sa come è riuscito a fuggire da askaban disse ron nervoso nessuno c'era mai riuscito prima ed era anche un sorvegliato speciale ma lo prenderanno vero intervenne ermione in tono vivace voglio dire ci sono anche tutti quei babbani che gli danno la caccia che cos'è questo rumore chiese ron all'improvviso era una sorta di fischio debole e tintinnante cercarono dappertutto nello scompartimento viene dal tuo baur eri disse ron alzandosi per raggiungere il bagaglio di eri sulla reticella un momento dopo aveva estratto lo spioscopio tascabile dalle cose di eri l'oggetto vorticava sul palmo della mano di ron scintillando quello è uno spioscopio disse ermione incuriosita avvicinandosi per vedere meglio si ma da due soldi disse ron è praticamente impazzito quando ho cercato di legarlo alla zampa di errol per spedirlo a eri stavi facendo qualcosa di scorretto chiese ermione pungente no beh non avrei dovuto usare errol non è adatto ai viaggi lunghi ma come facevo altrimenti a mandare il regalo a eri rimettino nel baule disse eri mentre lo spioscopio si bilava senza pietà o lo sveglieremo fece un cenno verso il professor lupin ron infilò lo spioscopio in un paio di vecchi calzini particolarmente orrendi di zio vernon che soffocarono il rumore poi richiuse il baule possiamo farlo controllare a hogsmeade disse ron e si sedette di nuovo da mondo mago di dervish and bang vendono robe del genere strumenti magici cose così me l'hanno detto fred e george che cosa sai di hogsmeade chiese ermione curiosa ho letto che l'unico insediamento completamente non babbano di tutta la gran bretagna si credo di sì disse ron in tono sbrigativo ma non è per quello che mi attira io voglio assolutamente andare da mielandia che cos'è chiese ermione e un negozio di dolci disse ron con aria sognante dove hanno di tutto le piperille che ti fanno uscire il fumo dalla bocca e dei cioccoli giganti ripieni di crema alla fragola e panna e certe deliziose penne d'oca di zucchero che puoi succhiare in classe e sembra che tu sia lì a pensare che cosa scrivere ma hogsmeade è un posto molto interessante vero insistette ermione entusiasta in siti storici della stregoneria c'è scritto che la locanda è stata il quartier generale della rivolta dei goblin nel 1612 e la stamberga strillante dovrebbe essere l'edificio più infestato dai fantasmi di tutto il paese ed enormi confetti frizzanti che ti alzano da terra mentre li succhi disse ron che evidentemente non aveva ascoltato una parola del discorso di ermione lei si rivolse a erri che bello poter uscire da scuola per un po e fare un giro a hogsmeade sì che bello disse erri in tono funereo poi mi racconterete che vuoi dire chiese ron non posso venire i darsley non mi hanno firmato il permesso e nemmeno fudge ron lo guardò ripilato non hai permesso di venire ma insomma la mcgonagall te lo darà o qualcun altro erri fece una risatina lugubre la professoressa mcgonagall direttrice della casa di grifondoro era molto rigorosa oppure possiamo chiedere a fredda e george loro conoscono tutti i passaggi segreti che portano fuori dal castello ron esclamò ermione decisa non credo che erri dovrebbe sgattaiolare fuori dalla scuola con black in libertà si suppongo che sarà quello che dirà la mcgonagall quando le chiederò il permesso disse erri amaramente ma se noi stiamo con lui disse ron a ermione black non oserà o ron non dire sciocchezze lo zitti ermione black ha già ucciso un mucchio di persone in una strada affollata credi davvero che rinuncerebbe ad aggredire erri solo perché ci siamo noi mentre parlava giocherellava con le cinghiette che chiudevano il cestino di grattastinchi non far uscire quella cosa disse ron troppo tardi grattastinchi balzò fuori dal cestino si stiracchiò sbadigliò e balzò sulle ginocchia di ron il rigonfiamento nella tasca di ron si mise a tremare mentre il ragazzo spingeva via il gatto con rabbia via di qui ron lascialo stare esclamò ermione arrabbiata ron stava per risponderle a tono quando il professor lupin si mosse lo guardarono preoccupati ma non fece altro che voltare la testa e continuare a dormire con la bocca leggermente aperta log wars express puntava dritto a nord e il paesaggio fuori dal finestrino diventava sempre più cupo e selvaggio mentre le nuvole nel cielo si infittivano oltre la porta dello scompartimento i ragazzi si rincorrevano avanti e indietro grattastinchi si era sistemato su un sedile vuoto col muso schiacciato rivolto verso ron e gli occhi gialli fissi sulla tasca interna della sua giacca a luna esatta la grassa strega col carrello del cibo si presentò sulla soglia credete che dovremmo svegliarlo chiese ron indicando con un cenno il professor lupin non gli farebbe male mangiare qualcosa mi sembra ermione si avvicinò cauta al professor lupin professore disse mi scusi professore il mago non si mosse non preoccuparti cara disse la strega porgendo a erri un vassoio di calderotti se quando si sveglia a fame mi trova nella vettura davanti con il macchinista ma dorme chieserò un piano mentre la strega richiudeva la porta voglio dire non è morto vero no no respira sussurrò ermione prendendo il calderotto che erri le offriva forse non era un tipo di gran compagnia ma la presenza del professor lupin nello scompartimento si rivelò utile a metà pomeriggio proprio mentre la pioggia cominciava a cadere confondendo i profili delle colline che scorrevano oltre il finestrino risuonarono dei passi nel corridoio e sulla soglia comparvero le tre persone meno gradite a erri e ai suoi amici draco malfoy accompagnato dai suoi scherani vincent kreb e gregory goyle draco malfoy e erri erano nemici sin dal momento in cui si erano incontrati durante il primo viaggio verso hogwarts malfoy che aveva un viso pallido appuntito e beffardo era nella casa dei serpeverde giocava da cercatore nella squadra di quidditch del serpeverde lo stesso ruolo di erri nel grifondoro kreb e goyle sembravano essere al mondo solo per eseguire gli ordini di malfoy erano entrambi grossi e muscolosi kreb era più alto con un taglio di capelli a scodella e il collo taurino goyle aveva ispi di capelli corti e lunghe braccia scimmiesche bene bene ma guarda chi c'è disse malfoy con il suo solito tono mellifluo aprendo la porta dello scompartimento potterino e lenticchia kreb e goyle ridacchiarono come due troll ho sentito dire che finalmente tuo padre ha messo le mani su un po di soldi weasley disse malfoy tua madre c'è rimasta secca dalla meraviglia ron si alzò così in fretta che rovesciò a terra il cestino di grattastinchi il professor lupin grugnì nel sonno quello chi è disse malfoy facendo istintivamente un passo indietro alla vista di lupin un nuovo insegnante disse herry che si era alzato a sua volta per trattenere ron che cosa stavi dicendo malfoy gli occhi pallidi di malfoy diventarono due fessure non era così sciocco da attaccare briga sotto gli occhi di un insegnante andiamo disse a crebbe goyle in tono risentito e il terzetto sparì herry e ron si risedettero ron si massaggiò alle nocche non ho intenzione di farmi insultare da malfoy quest'anno disse rabbioso nessuna intenzione se fa un'altra battuta sulla mia famiglia li prendo la testa e ron fece un gesto violento a mezz'aria ron si bilò ermione indicando il professor lupin attento ma il professor lupin era ancora profondamente addormentato la pioggia si infitti mentre il treno filava verso nord i finestrini ora erano di un grigio compatto e luccicante che si incupì gradualmente finché le luci non si accesero lungo i corridoi e sopra le reticelle il treno sferragliava la pioggia tambulellava il vento ululava ma il professor lupin continuò a dormire dovremmo esserci ormai disse ron sporgendosi per guardare oltre il professor lupin il finestrino ormai completamente nero in quel momento il treno prese a rallentare magnifico disse ron alzandosi e scavalcando con cautela l'insegnante addormentato per cercare di vedere fuori ho una fame da lupi voglio andare al banchetto non è possibile che ci siamo già disse ermione guardando l'orologio e allora perché ci fermiamo il treno perdeva velocità mentre il rumore degli stantuffi cessava il vento e la pioggia urlamano ancora più forte oltre i vetri harry che era il più vicino alla porta si alzò e dette un'occhiata in corridoio in tutto il vagone teste curiose spuntavano dagli scompartimenti il treno si arrestò con uno scossone e una serie di tonfi lontani annunciò loro che i bagagli erano caduti dalle reticelle poi senza alcun preavviso tutte le luci si spensero e cadde la più completa oscurità che cosa succede la voce di ron risuonò alle spalle di harry aia strillò ermione ron quello era il mio piede harry cercò il suo sedile a tentoni credete che ci sia un guasto non so si udì un rumore stridente e harry vide la scura sagoma di ron che puliva un pezzetto di finestrino e cercava di guardare fuori c'è qualcosa che si muove laggiù disse ron credo che qualcuno stia salendo la porta dello scompartimento si aprì all'improvviso e qualcuno inciampò nelle gambe di harry scusa sapete che cosa succede aia scusate ciao neville disse harry tendendo le mani nel buio fino ad afferrare neville per il mantello harry sei tu che cosa succede non lo so siediti ci fu un sibilo acuto e un gemito di dolore neville aveva cercato di sedersi su grattastinchi vado a chiedere al macchinista che cosa succede disse ermione harry la sentì passare udì la porta aprirsi di nuovo e poi un tonfo e due strilli chi è là chi sei tu gini ermione che cosa fai stavo cercando ron entra e siediti non qui disse herry in fretta qui ci sono io aia gemette neville silenzio disse all'improvviso una voce roca a quanto pareva il professor lupin si era finalmente svegliato harry lo sentì muoversi nel suo angolo nessuno parlò si udì un basso crepitio e una luce tremolante riempì lo scompartimento il professor lupin teneva in mano una manciata di fiammelle gli illuminavano il viso grigio e stanco ma gli occhi erano attenti e guardinghi restate dove siete disse con la stessa voce roca e si alzò lentamente tenendo davanti a sé la manciata di fiammelle ma la porta si aprì piano piano prima che lupin potesse raggiungerla in piedi sulla soglia illuminata dalle fiammelle danzanti nella mano di lupin c'era una figura ammantata che torreggiava fino al soffitto aveva il volto completamente nascosto dal cappuccio gli occhi di herry sfrecciarono in basso e quello che vide gli diede una stretta allo stomaco una mano spuntava dal mantello ed era scintillante grigiastra viscida e rugosa come una cosa morta rimasta troppo a lungo nell'acqua ma fu visibile solo per un attimo come se la creatura sotto il mantello avesse avvertito lo sguardo di herry la mano si ritrasse all'improvviso nelle pieghe nere della stoffa poi la cosa quale che fosse trasse un lungo lento incerto sospiro come se cercasse di respirare qualcosa di più dell'aria un freddo intenso calò su di loro herry sentì il respiro mozzarsi nel petto il freddo penetrò fin sotto la pelle era dentro di lui si insinuava fino al cuore gli occhi di herry si rovesciarono non vedeva più niente annegava nel gelo sentì un rumore come uno scroscio d'acqua fu trascinato verso il basso e il rombo diventava più forte e poi da molto lontano sentì urlare urla terribili di orrore di supplica chiunque fosse herry pensò di aiutarlo ma non ci riuscì una fitta nebbia biancastra aleggiava vorticando attorno a lui dentro di lui herry herry ti senti bene qualcuno lo stava schiaffeggiando che cosa herry aprì gli occhi c'erano luci sopra di lui e il pavimento vibrava l'hogwarts express era di nuovo in movimento ed era tornata alla luce era scivolato a terra ron e ermione erano inginocchiati vicino a lui dietro di loro neville e il professor lupin lo stavano guardando herry si sentiva malissimo quando alzò la mano per aggiustarsi gli occhiali sentì il viso coperto di sudore freddo ron e ermione lo aiutarono a mettersi seduto stai bene gli chiese ron nervosamente sì rispose herry guardando in fretta verso la porta la creatura incappucciata era sparita che cosa è successo dov'è quella quella cosa chi è stata a urlare nessuno ha urlato disse ron ancora più nervoso herry si guardò intorno nello scompartimento illuminato ginny e neville lo fissavano pallidissimi ma io ho sentito gridare un colpo secco li fece sobbalzare tutti quanti il professor lupin stava spezzando un'enorme tavoletta di cioccolato tieni disse a herry e gliene tese un pezzo piuttosto grosso mangia ti farà bene herry prese il cioccolato ma non lo mangiò che cos'era quella cosa chiese a lupin un dissennatore disse lupin distribuendo il cioccolato agli altri uno dei dissennatori di azgaban tutti lo guardarono il professor lupin appallottolò la carta del cioccolato e se la mise in tasca mangiate ripete vi farà bene devo andare a parlare col macchinista scusate oltrepassò herry e scomparve nel corridoio sei sicuro di star bene herry disse ermione guardandolo preoccupata non capisco che cosa è successo chiese herry asciugandosi il sudore beh quella cosa il dissennatore era lì in piedi che si guardava intorno cioè credo non l'ho visto in faccia e tu tu credevo che ti prendesse un colpo disse ron ancora spaventato sei diventato tutto rigido e sei caduto dal sedile hai cominciato a muoverti strano e il professor lupin ti ha scavalcato e andato verso il dissennatore ha tirato fuori la bacchetta disse ermione e poi ha detto nessuno di noi tiene nascosto sirius black sotto il mantello vai via ma il dissennatore non si è mosso e così lupin ha mormorato qualcosa e dalla sua bacchetta è uscita una cosa d'argento diretta contro quell'essere e poi è volata via è stato orribile esclamò neville con voce più alta del solito hai sentito che freddo quando è entrato io mi sentivo strano disse ron stringendosi nelle spalle come se non potessi mai più essere felice ginni che era rannicchiata nel suo angolino con l'aria sconvolta quasi quanto erri ruppe in un piccolo singhiozzo ermione le si avvicinò e le mise un braccio attorno alle spalle ma nessuno di voi è caduto dal sedile chiese erri imbarazzato no rispose ron guardando di nuovo erri ginni tremava come una foglia però erri non capiva si sentiva debole e tremante come se si stesse rimettendo da un brutto raffreddore sentiva anche le prime avvisaglie della vergogna perché lui era crollato così e gli altri no il professor lupin era tornato entrando si guardò intorno e disse con un sorrisetto non ho messo il veleno in quel cioccolato sapete erri ne stacò un morso e con sua grande sorpresa sentì un fiotto di calore invaderlo da capo a piedi saremo a hogwarts tra dieci minuti disse il professor lupin stai bene erri erri non chiese come faceva a sapere il suo nome sì mormorò imbarazzato non parlarono molto durante il resto del viaggio finalmente il treno si fermò alla stazione di hogsmead e la discesa fu un gran caos i gufi tubavano i gatti miagolavano e il rospo di neville gracidava da sotto il berretto del suo padrone sulla stretta banchina si gerava scrosciava una pioggia ghiacciata quelli del primo anno da questa parte gridò una voce familiare riron e ermione si voltarono e all'altro capo della banchina videro la sagoma gigantesca di agrid che riuniva i nuovi spaventatissimi studenti per la tradizionale traversata del lago state bene voi tre urlò agrid sopra la folla lo salutarono con la mano ma non poterono parlare con lui perché la corrente di ragazzi li spingeva lungo il binario riron e ermione seguirono gli altri fino a un sentiero fangoso dove almeno cento carrozze attendevano il resto degli studenti ciascuna era trainata ne dedusse eri da un cavallo invisibile perché quando furono saliti ed ebbero chiuso le portiere le carrozze partirono da sole formando una lunga fila tra ballante e oscillante la carrozza aveva un vago odore di muffa e paglia eri si sentiva meglio dopo il cioccolato ma era ancora debole ron e ermione continuavano a lanciargli occhiate preoccupate come se temessero di vederlo svenire di nuovo mentre la carrozza attraversava una maestosa cancellata in ferro battuto affiancata da colonne di pietra sormontate da cinghiali alati eri vide altri due dissenatori torreggianti e incappucciati che facevano la guardia ai lati dell'ingresso un'ondata di freddo malessere minacciò di assalirlo di nuovo appoggiò la schiena al sedile bitorzoluto e chiuse gli occhi finché non furono passati la carrozza prese velocità sul lungo viale che saliva al castello ermione si sporse dal finestrino a guardare le torri e i torrioni avvicinarsi infine la carrozza si fermò e ron e ermione scesero mentre eri li seguiva una voce strascicata ed euforica gli risuonò nelle orecchie sei svenuto potter long bottom ha detto la verità sei davvero svenuto malfoy diede una gomitata ermione per bloccare la strada eri sui gradini che portavano al castello aveva una smorfia soddisfatta e i suoi occhi pallidi brillavano di malizia togliti di torno malfoy borbottò ron con la mascella contratta sei svenuto anche tu wesley esclamò malfoy ad alta voce quel brutto spaventoso dissennatore ha fatto paura anche a te wesley qualcosa non va disse una voce gentile il professor lupin era appena sceso dalla carrozza dietro la loro malfoy scoccò uno sguardo insolente al professor lupin che comprendeva le toppe sui suoi abiti e la valigia consunta con una vena di sarcazio appena percettibile rispose oh no professore poi fece un cenno di intesa a crebbe e goil e li guidò su per i gradini dentro il castello ermione diede una spinta a ron per farlo muovere e i tre si unirono alla folla che sciamava per le scale attraversava il portone di quercia ed entrava nella sala d'ingresso illuminata da torce fiammeggianti da cui partiva una maestosa scalinata di marmo che portava i piani superiori la porta della sala grande era aperta sulla destra harry seguì la folla e la oltrepassò ma aveva appena dato un'occhiata al soffitto incantato che quella sera era nero e coperto di nuvole quando sentì una voce potter granger voglio vedervi subito harry e ermione si voltarono sorpresi la professoressa mcgonagall insegnante di trasfigurazione e direttrice della casa di grifondoro li stava chiamando al di sopra della folla era una strega dall'aria severa con i capelli raccolti in uno stretto chignon i suoi occhi penetranti erano incorniciati da occhiali rettangolari harry si fece largo verso di lei con un vago presentimento la professoressa mcgonagall aveva un certo modo di farlo sentire sempre in colpa non c'è bisogno di fare quella faccia voglio solo parlarvi nel mio ufficio disse loro tu va pure avanti weasley ron rimase a guardare la professoressa mcgonagall che spingeva harry e ermione via dalla folla rumorosa insieme i tre attraversarono la sala d'ingresso salirono le scale e si incamminarono lungo un corridoio giunti nel suo ufficio una stanzetta con un gran camino asceso la professoressa mcgonagall fece segno a harry e ermione di sedersi si sedette dietro la schivania ed esortì senza preamboli il professor lupin ha mandato un gufo per avvertire che sei stato male in treno potter prima che harry potesse replicare qualcuno bussò piano alla porta e madame pomfrey l'infermiera entrò con aria affaccendata harry si sentì arrossire era già abbastanza spiacevole che fosse svenuto senza che tutti si agitassero tanto sto bene disse non ho bisogno di niente si tratta di te disse madame pomfrey senza battere il ciglio e chinandosi su di lui per osservarlo da vicino suppongo che stessi facendo di nuovo qualcosa di pericoloso è stato un dissenatore poppy spiegò la professoressa mcgonagall le due donne si scambiarono uno sguardo torvo e madame pomfrey fece un verso di disapprovazione mettere tutti quei dissenatori attorno alla scuola mormorò spingendo indietro i capelli di harry per sentirgli la fronte non è certo il primo a svenire sì è tutto appiccicoso sono terrificanti davvero e l'effetto che fanno su persone che sono già di per sé cagionevoli io non sono cagionevole esclamò harry imbronciato ma certo che no disse madame pomfrey distrattamente mentre gli sentiva il polso di cosa ha bisogno chiese la mcgonagall asciutta riposo è meglio se stanotte dormi in infermeria sto bene disse harry balzando in piedi l'idea di quello che avrebbe detto draco malfoi se lui avesse passato la notte in infermeria era una tortura beh come minimo dovrebbe mangiare un po di cioccolato disse madame pomfrey scrutando harry negli occhi ne ho già mangiato un po disse harry me l'ha dato il professor lupin l'ha dato a tutti davvero disse madame pomfrey in tono d'approvazione vuol dire che finalmente abbiamo un insegnante di difesa contro le arti oscure che conosce il suo mestiere sei sicuro di stare bene potter chiese la mcgonagall brusca sì rispose harry molto bene per favore aspetta qui fuori mentre scambio due parole con la signorina granger sui suoi orari poi andremo insieme al banchetto harry tornò in corridoio con madame pomfrey che si avviò verso l'infermeria parlottando tra sé dovete aspettare solo qualche minuto e poi ermione uscì con l'aria molto soddisfatta seguita dalla professoressa mcgonagall e il terzetto ridiscese le scale fino alla sala grande era un mare di cappelli neri a punta ognuna delle tavolate era affollata di studenti i visi illuminati dalle fiammelle di migliaia di candele che galleggiavano a mezz'aria sui tavoli il professor flitwick un piccolo mago con un gran ciuffo di capelli bianchi stava portando via un cappello antico e uno sgabello di sermione piano ci siamo persi lo smistamento i nuovi arrivati a hogwarts indossavano il cappello parlante che li assegnava strillando alle case a cui erano più adatti grifondoro corvo nero tasso frasso o serpe verde la professoressa mcgonagall si avviò verso il suo posto al tavolo degli insegnanti mentre erri e ermione si dirigevano cercando di non farsi notare verso il tavolo dei grifondoro tutti si voltarono a guardarli mentre strisciavano lungo il mulo della sala e alcuni indicarono erri la storia del suo svenimento davanti al dissenatore si era diffusa così in fretta lui e ermione si sedettero ai due lati di ron che aveva tenuto loro il posto che cosa è successo mormorò a erri erri cominciò a spiegargli tutto in un sussurro ma in quel momento il preside si alzò e così erri fu costretto a tacere il professor silente benché molto vecchio comunicava sempre una grande energia aveva i capelli e la barba d'argento piuttosto lunghi occhialetti a mezzaluna e il naso molto adunco spesso era stato definito il più grande mago del suo tempo ma non era per questo che erri lo rispettava non si poteva fare a meno di avere fiducia in albus silente e mentre erri lo guardava sorridere agli studenti si sentì davvero tranquillo per la prima volta da quando il dissenatore era entrato nello scompartimento del treno benvenuti disse silente con la luce delle candele che si riverberava nella barba benvenuti a un altro anno a hogwarts devo dirvi solo poche cose e siccome sono tutte molto serie credo che sia meglio toglierci il pensiero prima che finiate frastornati dal nostro ottimo banchetto silente si schiarì la voce e riprese come ormai tutti saprete dopo la perquisizione del hogwarts express la nostra scuola attualmente ospita alcuni dei dissenatori di azkaban che sono qui in missione per conto del ministero della magia si interruppe erri ricordò le parole del signor weasley su quanto silente non fosse affatto felice che i dissenatori sorvegliassero la scuola sono di guardia a tutti gli ingressi riprese silente e finché rimarranno con noi voglio che sia chiaro che nessuno deve allontanarsi da scuola senza permesso i dissenatori non devono essere presi in giro con trucchi o travestimenti né tantomeno coi mantelli dell'invisibilità aggiunse in tono neutro e erri e ron si scambiarono un'occhiata non fa parte della natura di un dissenatore comprendere eventuali scuse o suppliche di conseguenza vi metto in guardia tutti quanti non date loro motivo di farvi del male conto sui prefetti e sui nuovi capiscuola perché facciano in modo che nessuno entri in conflitto con i dissenatori disse persi che era seduto poco distante da erri spinse di nuovo il petto in fuori lanciando occhiate autoritarie tutti intorno silente tacque di nuovo fece scorrere uno sguardo molto serio sulla sala e tutti rimasero immobili in silenzio per passare a un argomento più allegro riprese sono lieto di dare il benvenuto a due nuovi insegnanti innanzitutto al professor lupin che ha gentilmente accettato la cattedra di difesa contro le arti oscure risuonò qualche applauso sparso e poco entusiasta solo i ragazzi che si erano trovati nello scompartimento di lupin batterono forte le mani e erri era uno di loro il professor lupin aveva l'aria particolarmente trasandata accanto agli altri insegnanti che indossavano i loro abiti migliori guarda piton si bilò ron all'orecchio di erri il professor piton l'insegnante di pozioni stava guardando il professor lupin tutti sapevano che piton desiderava moltissimo il posto di insegnante di difesa contro le arti oscure ma anche erri che odiava piton rimase stupito nel vedere l'espressione che gli deformava il viso scarno e olivastro era più che rabbia era disgusto allo stato puro erri conosceva fin troppo bene quell'espressione era lo sguardo che piton gli rivolgeva ogni volta che lo incontrava quanto alla nostra seconda nuova nomina riprese silente mentre il tiepido applauso per il professor lupin si spegneva sono spiacente di dovervi dire che il professor kettleborn il nostro insegnante di cura delle creature magiche è andato in pensione alla fine dell'anno scorso per godersi gli anni nonché gli arti che gli restano comunque sono lieto di annunciarvi che il suo posto verrà preso niente meno che da rubeus agrid che ha accettato di assumere il ruolo di insegnante in aggiunta al suo compito di guardacaccia erri ron e ermione si scambiarono una serie di occhiate stupefatte poi si unirono all'applauso che fu fragoroso soprattutto alla tavola dei grifondoro erri si protese per guardare agrid che era di un rosso paonazzo e si fissava le manone con un gran sorriso nascosto nel groviglio della barba nera dovevamo immaginarlo ruggì ron battendo il pugno sul tavolo chi altri poteva dirci di comprare un libro che morde erri ron e ermione furono gli ultimi a smettere di applaudire e mentre il professor silente riprendeva a parlare videro che agrid si asciugava gli occhi con la tovaglia bene credo di avervi detto tutte le cose importanti concluse silente che la festa cominci fu un banchetto delizioso la sala risuonava di chiacchiere risate e del tintinio di coltelli e forchette erri ron e ermione comunque non vedevano l'ora che finisse per poter parlare con agrid sapevano che cosa significasse per lui diventare insegnante agrid non era un mago diplomato era stato espulso da hogwarts al terzo anno per una colpa che non aveva commesso ed erano stati loro tre a riabilitarlo l'anno prima finalmente quando gli ultimi bocconi di torta di zucca furono spariti dai piatti d'oro silente annunciò che era ora di andare a dormire e i ragazzi colsero al volo l'opportunità congratulazioni agrid strillò ermione mentre si avvicinavano al tavolo degli insegnanti eccovi qui voi tre disse agrid asciugandosi la faccia umida di lacrime nel tovagliolo non ci credo ancora grande uomo silente è venuto da me dopo che il professor kettleborn ha detto che non ci stava più era proprio quello che desideravo sopraffatto dall'emozione nascose il viso nel tovagliolo e la professoressa mcgonagall fece loro cenno di andarsene harry ron e ermione si unirono ai grifondoro che sciamavano su per la scalinata di marmo e sempre più stanchi percorrevano altri corridoi e salivano altre scale fino all'ingresso nascosto alla torre di grifondoro un grande ritratto di una signora grassa vestita di rosa chiese loro parola d'ordine entrate entrate disse persi dalla folla la nuova parola d'ordine è fortuna mayor o no mormorò neville longbottom sconsolato per lui tenere a mente la parola d'ordine era sempre stato un problema dopo aver oltrepassato l'ingresso e la sala comune i ragazzi e le ragazze si separarono harry si arrampicò su per la scala a chiocciola senza alcun pensiero se non la gioia di essere di ritorno raggiunsero il familiare dormitorio circolare con i suoi cinque letti a baldacchino e harry guardandosi intorno si sentì finalmente a casa artigli e foglie di tè quando harry ron e ermione entrarono nella sala grande per la colazione la mattina dopo la prima cosa che videro fu draco malfoi impegnato a intrattenere un folto gruppo di serpe verde con una storia molto divertente mentre passavano malfoi si esibì in una ridicola imitazione di uno svenimento che fece scoppiare tutti a ridere ignoralo di sermione che era appena dietro harry ignoralo e basta non ne vale la pena e potter strillo pensi parkinson una ragazza di serpe verde con la faccia da carlino potter stanno arrivando i dissennatori potter si lasciò cadere su una sedia al tavolo dei fondoro accanto a george weasley i nuovi orari del terzo anno disse george passando dei fogli che cosa ti succede harry malfoi disse ron sedendosi dall'altro lato di george e lanciando un'occhiata al tavolo dei serpe verde george alzò gli occhi giusto in tempo per vedere malfoi che fingeva un'altra volta di svenire quel piccolo idiota disse tranquillamente non era così tronfio ieri sera quando i dissennatori sono saliti sul treno è entrato di corsa nel nostro scompartimento vero fred quasi se la faceva addosso disse fred scoccando a malfoi uno sguardo sprezzante non ero tanto contento nemmeno io disse george sono tremendi questi dissennatori è come se ti ghiacciassero dentro vero aggiunse fred però voi non siete svenuti disse harry a voce bassa lascia perdere harry lo esortò george papà è dovuto andare ad azkaban una volta ti ricordi fred e ha detto che è il posto peggiore in cui sia mai stato è tornato che era tutto un tremito è come se portassero via la felicità i dissennatori quasi tutti i prigionieri impazziscono là dentro comunque vedremo come riderà malfoi dopo la prima partita a quidditch disse fred grifondoro contro serpeverde il primo incontro della stagione ti ricordi l'unica volta che harry e malfoi si erano affrontati in una partita a quidditch malfoi ne era uscito decisamente malconcio un po rincuorato harry si servì di salsicce e pomodori fritti ermione stava studiando l'orario oh bene oggi cominciamo le nuove materie disse allegramente ermione disse ron accigliato guardando sopra la sua spalla hanno fatto un pasticcio col tuo orario guarda che hanno iscritto a dieci materie al giorno non c'è abbastanza tempo ce la farò ho deciso tutto insieme alla mcgonagall ma guarda esclamò ron ridendo hai visto stamattina cosa ti tocca alle nove divinazione e lì sotto alle nove babbanologia e ron avvicinò il foglio incredulo guarda sotto aritmanzia alle nove voglio dire lo so che sei brava ermione ma nessuno è così bravo come fai a seguire tre lezioni contemporaneamente non essere sciocco disse ermione secca certo che non seguirò tre lezioni contemporaneamente e allora passami la marmellata tagliò corto ermione ma o ron che cosa ti importa se il mio orario è un po affollato scattò ermione te l'ho detto ho deciso tutto con la mcgonagall in quel momento agrid entrò nella sala grande indossava il suo lungo capotto di pelliccia di talpa e in una delle manone teneva una moffetta morta che faceva dondolare distrattamente tutto bene disse allegro fermandosi al tavolo dei grifondoro voi siete nella mia prima lezione subito dopo pranzo sono in piedi dalle cinque che preparo tutto spero che va tutto bene io insegnante davvero fece un gran sorriso ai tre e si diresse al tavolo dei professori senza smettere di far dondolare la moffetta chissà che cosa ha preparato disse ron con una nota d'ansia nella voce la sala cominciava a svuotarsi mentre i ragazzi si avviavano alla prima lezione ron consultò il suo orario meglio andare guardate divinazione in cima alla torre nord ci vogliono dieci minuti per arrivarci finirono in fretta la colazione salutarono fredda e george e riattraversarono la sala mentre passavano accanto al tavolo dei serpeverde malfoy fece ancora finta di svenire le risate seguirono erri fino all'ingresso il tragitto fino alla torre nord fu lungo in due anni a hogwarts non avevano ancora imparato tutto sul castello e non erano mai stati nella torre nord prima d'allora ci deve pur essere una scorciatoia disse ron sbuffando mentre salivano la settima rampa di scale e approdavano su un pianerottolo sconosciuto dove non c'era altro che un grande dipinto di una striscia d'erba appeso al muro di pietra credo che sia da questa parte disse ermione dando un'occhiata al corridoio vuoto sulla destra non è possibile disse ron da quella parte c'è il sud si vede un pezzetto di lago dalla finestra erri stava guardando il quadro un grasso pony pomellato grigio si era appena fatto avanti e ora brucava con aria non curante erri era abituato al fatto che i soggetti dei quadri di hogwarts si muovessero e uscissero dalle cornici per farsi visita ma osservarli era sempre un divertimento un attimo dopo un basso tozzo cavaliere in armatura entrò nel quadro sferragliando all'inseguimento del pony a giudicare dalle macchie d'erba sulle ginocchiere di metallo era appena caduto urrò vedendo erri ron ermione che razza di villanzoni sono costoro che osano invadere le mie terre siete forse venuti a burlarvi di me via di qui canaglie cani i tre osservarono stupefatti il piccolo cavaliere che sfoderava la spada e prendeva a menare fendenti brutali saltellando su e giù furioso ma la spada era troppo lunga per lui un colpo particolarmente brusco gli fece perdere l'equilibrio e il cavaliere cadde nell'erba a faccia in giù tutto bene disse erri avvicinandosi al quadro indietro vile spaccone indietro forfante il cavaliere rialzò la spada e vi si puntellò per rimettersi in piedi ma la lama penetrò a fondo nell'erba e per quanto lui tirasse con tutte le sue forze non riuscì a sfilarla alla fine si lasciò cadere di nuovo a terra e sollevò il cimiero per asciugarsi il viso senta disse erri approfittando della stanchezza del cavaliere stiamo cercando la torre nord non sa dirci la strada per caso una missione l'ira del cavaliere svanì in un istante l'ometto si rialzò in un clangore metallico ed esclamò seguitemi cari amici e troveremo la nostra meta operiremo eroicamente nell'impresa diede alla spada un altro vano strattone cercò inutilmente di salire sul grasso poni rinunciò e gridò ora in marcia buoni signori e gentile damigella avanti avanti e prese a correre sferragliando verso il lato sinistro della cornice finché non scomparve lo inseguirono lungo il corridoio guidati dal clangore dell'armatura ogni tanto lo vedevano correre attraverso un quadro davanti a loro siate coraggiosi e di cuor saldo il peggio deve ancora venire esortò il cavaliere ricomparendo davanti a un gruppo di allarmate dame in crinolina ritratte in un quadro appeso sul muro di una stretta scala a chiocciola ansimando erri ron e ermione salirono i gradini ripidi sempre più stanchi e confusi finché finalmente non udirono un mormorio sopra le loro teste e capirono di aver raggiunto la classe addio gridò il cavaliere infilando la testa in un quadro che raffigurava alcuni monaci dall'aria sinistra addio miei compagni d'armi se mai avrete bisogno di un nobile cuore e nervi d'acciaio cercate di sir cadogan sì senz'altro mormorò ron mentre il cavaliere spariva se mai avremo bisogno di un pazzo salirono gli ultimi gradini e sbucarono su un piccolo pianerottolo dove era già radunata gran parte della classe non c'erano porte intorno ma ron diede un colpetto a erri indicando il soffitto sul quale si apriva una botola rotonda con una targa di ottone al centro sibyl trelonei insegnante di divinazione lesse erri come facciamo a salire come in risposta alla sua domanda la botola si aprì all'improvviso e una scala a pioli argentata calò fino ai piedi di erri tutti tacquerò dopo di te disse ron sorridendo così erri salì per primo spuntò nell'aula più strana che avesse mai visto in effetti non aveva l'aspetto di un'aula sembrava più un incrocio tra un solaio e una sala da te vecchio stile ospitava almeno 20 tavolini rotondi tutti circondati da poltroncine foderate di cinz e piccoli grassi sgabelli il tutto era illuminato da una bassa luce scarlatta le tende alle finestre erano tirate e le numerose lampade erano drappeggiate con sciarpe rosso scuro c'era un caldo soffocante e il fuoco che ardeva nel camino lambendo un grosso bollitore di rame emanava un profumo intenso quasi malsano gli scaffali che correvano tutto attorno ai muri circolari erano stipati di piume impolverate mozziconi di candele scatole di vecchie carte da gioco innumerevoli sfere di cristallo argentate e una gran varietà di tazze da te ron spuntò da dietro le spalle di erri mentre la classe si radunava attorno a loro sussurrando dov'è chiese ron una voce uscì all'improvviso dall'ombra una voce dolce e misteriosa benvenuti disse è bello vedervi in carne e ossa finalmente la prima impressione che erri ne ebbe fu quella di un grosso insetto luccicante la professoressa trelonei avanzò nel cerchio di luce del fuoco e videro che era molto magra gli spessi occhiali le rendevano gli occhi molto più grandi del normale ed era avvolta in uno scialle leggero tutto ricamato di perline innumerevoli catene e collane le pendevano dal collo esile e le mani e le braccia erano cariche di braccialetti e anelli sedete ragazzi miei sedete disse e tutti presero posto cautamente nelle poltrone o sprofondarono negli sgabelli erri ron e ermione si sedettero attorno allo stesso tavolino rotondo benvenuti a divinazione disse la trelonei che aveva preso posto in un'ampia poltrona davanti al fuoco io sono la professoressa trelonei può darsi che non mi abbiate mai visto ritengo che scendere troppo spesso nella confusione della scuola o fuschini occhio interiore nessuno commentò questa straordinaria dichiarazione la professoressa trelonei riaccomodò con grazie allo scialle e riprese allora avete deciso di studiare divinazione la più difficile di tutte le arti magiche devo però dirvi subito che se non avete la vista potrò insegnarvi assai poco i libri possono farvi progredire solo fino a un certo punto in questo campo erri e ron sorrisero e lanciarono un'occhiata ermione allarmata alla notizia che i libri non sarebbero stati di grande aiuto in questa materia molte streghe e molti maghi per quanto talento possano avere nell'ottenere grandi botti e puzze o nello sparire all'improvviso non sono tuttavia in grado di penetrare i misteri velati del futuro riprese la professoressa trelonei con gli enormi occhi scintillanti che si spostavano da un volto all'altro è un dono concesso a pochi tu ragazzo disse improvvisamente rivolta neville che quasi cadde dallo sgabello sta bene tua nonna credo di sì rispose neville con voce tremante non ne sarei così sicuro se fossi in te caro disse la professoressa trelonei mentre il fuoco traeva riflessi dai suoi lunghi orecchini di smeraldo neville deglutì la professoressa riprese tranquillamente quest'anno ci occuperemo dei metodi base della divinazione il primo trimestre sarà dedicato alla lettura delle foglie di te nel prossimo passeremo alla lettura della mano comunque mia cara disse rivolgendosi d'un tratto a parvati patil guardati da un uomo coi capelli rossi parvati scoccò uno sguardo stupito a ron che era dietro di lei e allontanò la sedia nell'ultimo trimestre proseguì la professoressa trelonei passeremo alla sfera di cristallo se avremo finito con i presagi del fuoco naturalmente purtroppo a febbraio avremo la classe decimata da una brutta epidemia di influenza io stessa perderò la voce e attorno a pasqua uno di noi ci lascerà per sempre un silenzio carico di tensione seguì questa dichiarazione ma la professoressa trelonei parve non notarlo tu cara disse a lavanda brown che era la più vicina e si ritrasse sulla sua sedia ti dispiace passarmi la teiera d'argento quella grande lavanda sollevata si alzò prese un'enorme teiera dallo scaffale e la pose sul tavolo davanti alla professoressa trelonei grazie cara ah fra l'altro quella cosa che temi succederà venerdì 16 ottobre lavanda prese a tremare ora voglio che formiate delle coppie prendete una tazza dallo scaffale venite da me e io la riempirò poi sedetevi e bevete bevete finché non rimangono solo i fondi fateli roteare nella tazza per tre volte con la mano sinistra poi rovesciate la tazza sul piattino aspettate che il tè rimasto coli via e passate la vostra tazza al compagno per la lettura interpreterete i disegni consultando le pagine 5 e 6 di svelare il futuro io girerò fra di voi e vi darò una mano oh caro esclamò afferrando per il braccio neville che si stava alzando dopo che avrai rotto la prima tazza vorresti essere così gentile da prenderne una di quelle con il disegno blu sono piuttosto affezionata a quelle rosa neville in effetti non aveva ancora raggiunto lo scaffale quando si udì un tintinio di ceramica infranta la professoressa trelonei si avvicinò al ragazzo gli tese palette e scopino e disse una di quelle blu caro se non ti dispiace grazie quando harry e ron ebbero riempito le loro tazze tornarono al tavolo e cercarono di bere in fretta il tè bollente fecero roteare i fondi come aveva detto la professoressa trelonei poi voltarono le tazze e se le scambiarono bene disse ron mentre aprivano i libri alla pagina 5 che cosa vedi nella mia un mucchietto di roba marrone bagnata rispose harry l'aroma intenso del fumo lo aveva reso sonnolento e intontito aprite le vostre menti cari e lasciate che i vostri occhi vedano al di là del concreto disse la professoressa trelonei nella penombra harry cercò di riscuotersi dal torpore bene nella tua c'è una specie di croce tutta storta disse consultando svelare il futuro vuol dire che dovrai affrontare prove e sofferenze mi dispiace ma c'è una cosa che potrebbe essere il sole aspetta vuol dire grande gioia quindi soffrirai ma poi sarai molto felice il tuo occhio interiore ha bisogno di una bella visita da miretta disse ron ed entrambi soffocarono le risate mentre la professoressa trelonei guardava dalla loro parte ora tocca a me ron scrutò l'interno della tazza di harry la fronte aggrottata per lo sforzo c'è un grumo che assomiglia a una bombetta disse forse andrai a lavorare al ministero della magia rigirò la tazza dall'altra parte però visto da qui assomiglia più a una ghianda cosa vuol dire studiò il libro una fortuna inaspettata oro a sorpresa ottimo così puoi prestarmene un po e qui c'è un'altra cosa disse rigirando di nuovo la tazza che sembra un animale sì se questa è la testa sembra un ippopotamo no una pecora la professoressa trelonei si avvicinò mentre harry scoppiava a ridere fammi vedere caro disse a ron in tono di rimprovero curvandosi per prendergli la tazza di harry tutti tacquero in attesa la professoressa trelonei guardò dentro la tazza facendola ruotare in senso anti orario il falco caro tu hai un nemico mortale ma questo lo sanno tutti disse ermione in un sussurro un po troppo forte la professoressa trelonei la fissò beh è così insistette ermione tutti sanno di harry e lei sa chi harry e ron la guardarono con un misto di stupore e ammirazione non avevano mai sentito ermione rivolgersi in quel tono a un professore la professoressa trelonei decise di non ribattere abbassò i grandi occhi sulla tazza di harry e riprese a farla ruotare il bastone un agguato oh caro questa non è una tazza benigna credevo che fosse una bombetta disse ron imbarazzato il teschio pericolo sul tuo cammino caro tutti fissavano esterrefatti la professoressa trelonei che fece roteare la tazza un'ultima volta trattenne il respiro e infine gettò un grido si udì un altro fragore di ceramica infranta neville aveva rotto la sua seconda tazza la professoressa trelonei sprofondò in una poltrona vuota con la mano scintillante posata sul cuore e gli occhi chiusi caro ragazzo povero caro ragazzo no è meglio non dire niente no non chiedermi che cosa c'è professoressa chiese dean thomas all'improvviso si erano alzati tutti e lentamente avevano circondato il tavolo di harry e ron avvicinandosi alla professoressa trelonei per guardare nella tazza di harry gli occhi dell'insegnante si spalancarono in maniera teatrale mio caro disse è il gramo il cosa chiese harry non era l'unico a non aver capito dean thomas alzò le spalle e lavanda brauno lo guardò perpressa ma quasi tutti gli altri si portarono le mani alla bocca orripilati il gramo mio caro il gramo esclamò la professoressa trelonei stupita che harry non avesse capito il cane fantasma gigante che infesta i cimiteri caro ragazzo è un presagio il peggior presagio di morte harry sentì una stretta allo stomaco quel cane sulla copertina di presagi di morte al ghirigoro il cane nella penombra in magnolia crescent anche lavanda brown si portò le mani alla bocca tutti fissavano harry tutti tranne ermione che si era alzata ed era alle spalle dell'insegnante non mi sembra che assomiglia un gramo disse con voce piatta la professoressa trelonei fissò ermione con crescente antipatia mi perdonerai se te lo dico cara ma sento pochissima aura attorno a te pochissima sensibilità agli echi del futuro simus finnigan inclinò la testa da una parte all'altra sembra un gramo se lo guardi così disse strizzando gli occhi fin quasi a chiuderli ma visto da qui sembra più un asino disse piegandosi a sinistra avete finito di decidere se devo morire o no disse harry cogliendo tutti anche se stesso di sorpresa ora nessuno sembrava aver voglia di guardarlo credo che per oggi ci fermeremo qui disse la professoressa trelonei con la sua voce più velata sì vi prego di portar via le vostre cose in silenzio i ragazzi riportarono le tazze all'insegnante presero i libri e li riposero nelle borse perfino ron evitava lo sguardo di harry buona fortuna a tutti disse la professoressa trelonei con un filo di voce fino al prossimo incontro oh e tu caro disse rivolta a neville la prossima volta arriverà in ritardo quindi ricordati che dovrai lavorare di più per metterti in pari harry ron e ermione scesero la scaletta e la scala a chiocciola in silenzio poi si diressero alla lezione di trasfigurazione della professoressa mcgonagall ci misero tanto a trovare la sua classe che per quanto fossero usciti in anticipo da divinazione arrivarono appena in tempo harry prese posto in fondo all'aula ma era come se si fosse seduto nell'occhio di un riflettore tutti gli altri continuavano a rivolgerli occhiate furtive come se dovesse cadere morto da un momento all'altro sentì astento quello che la professoressa diceva degli animagi maghi che potevano trasformarsi al loro piacere in animali e non la vide nemmeno trasformarsi davanti a loro in un gatto soriano con i segni degli occhiali attorno agli occhi ma insomma che cosa avete oggi domandò la professoressa mcgonagall tornando se stessa con un debole pop e guardandoli tutti quanti uno a uno non che sia importante ma è la prima volta che la mia trasformazione non viene accolta da un applauso tutti si voltarono di nuovo verso harry ma nessuno parlò poi ermione alzò la mano ci scusi professoressa abbiamo appena avuto la prima ora di divinazione e stavamo leggendo le foglie di te e ah certo esclamò la professoressa mcgonagall accigliata non c'è bisogno di aggiungere altro signorina granger ditemi chi di voi morirà quest'anno tutti la fissarono io disse harry alla fine capisco commentò la professoressa mcgonagall guardando harry con i suoi occhi piccoli e lucenti allora è bene che tu sappia potter che sibyl trelonei ha predetto la morte di uno studente all'anno da quando è arrivata in questa scuola nessuno è ancora morto vedere presagi di morte dappertutto è il suo modo preferito di dare il benvenuto a una nuova classe se non fosse che non ho l'abitudine di parlare male dei miei colleghi la professoressa mcgonagall si interruppe e tutti notarono che aveva le narici bianche e dilatate poi riprese più tranquilla la divinazione è uno dei settori più imprecisi della magia non vi nasconderò che faccio fatica a tollerarla i veri veggenti sono molto rari e la professoressa trelonei si interruppe di nuovo e poi disse in tono molto pratico a me sembra in perfetta salute potter quindi mi scuserai se non ti dispenso dai compiti oggi ti assicuro che se dovessi morire non sei tenuto a consegnarli ermione rise erri si sentì un po meglio era più difficile aver paura di un mucchietto di foglie di tè lontano dalla debole luce rossa e dal profumo troppo intenso dell'aula della professoressa trelonei non tutti erano convinti comunque ron aveva ancora l'aria preoccupata e lavanda sussurrò ma allora la tazza di neville quando la lezione di trasfigurazione fu terminata si unirono tutti alla folla che si dirigeva rumorosamente verso la sala grande per il pranzo allegro ron disse ermione spingendo verso di lui un piatto di stufato hai sentito che cosa ha detto la professoressa mcgonagall ron si servì e prese la forchetta ma non cominciò a mangiare erri chiese con voce bassa e seria tu non hai visto un grosso cane nero da nessuna parte vero sì che l'ho visto rispose erri ne ho visto uno la notte che sono scappato dai darsley ron mollò la forchetta che cadde con un tintinio probabilmente era un randaggio disse ermione tranquillamente ron guardò ermione come se fosse impazzita ermione se erri ha visto un gramo è è una cosa brutta disse mio mio zio bilius ne ha visto uno ed è morto ventiquattro ore dopo una coincidenza disse ermione in tono leggero versandosi del succo di zucca non sai che cosa dici esclamò ron che stava cominciando ad arrabbiarsi i grammi ghiacciano il sangue di mago nelle vene ecco appunto disse ermione intorno di superiorità vedono il gramo e muoiono di paura il gramo non è un presagio è la causa della loro morte erri è ancora con noi perché non è così stupido da vederne uno e pensare va bene meglio che adesso tiri le cuoia ron rimase senza parole davanti a ermione che prese la borsa estrasse il libro nuovo di aritmanzia e lo aprì appoggiandolo contro la caraffa di succo credo che divinazione sia una materia piuttosto confusa disse cercando la pagina giusta più che altro si indovina se vuoi saperlo non c'era niente di confuso nel gramo dentro quella tazza esclamò ron infuriato non sembravi così sicuro di te quando hai detto a erri che era una pecora di sermione gelida la professoressa trelonei ha detto che non hai laura giusta è solo che non ti va giù di non essere brava in qualcosa una volta tanto aveva toccato un nervo scoperto ermione sbatte il libro di aritmanzia così bruscamente che pezzetti di carne e carote volarono dappertutto se essere bravi in divinazione vuol dire che devo far finta di vedere presagi di morte in un mucchietto di foglie di tè non sono sicura che continuerò a studiarla quella lezione è stata davvero una schifezza rispetto ad aritmanzia si alzò di scatto afferrò la borsa e se ne andò ron la guardò accigliato ma che cosa dice chiese a erri non c'è ancora andata a lezione di aritmanzia erri fu lieto di uscire dal castello dopo pranzo la pioggia del giorno prima era sparita il cielo era grigio pallido e l'erba umida e morbida sotto i piedi mentre si amano alla loro primissima lezione di cura delle creature magiche ron e ermione non si rivolgevano la parola erri marciò accanto a loro in silenzio mentre attraversavano i prati scendendo verso la capanna di agrid al limitare della foresta proibita fu solo quando riconobbe tre schiene fin troppo familiari che si rese conto che avrebbero dovuto seguire la lezione con i serpe verde malfoy stava discutendo animatamente con crebbe goyle che ridacchiavano erri era sicuro di sapere di cosa stessero parlando agrid aspettava gli allievi sulla soglia della sua capanna era in piedi imbacuccato nel cappotto di pelliccia di talpa con zanna il cane danese accanto a sé e sembrava impaziente di cominciare forza avanti muovetevi disse mentre i ragazzi si avvicinavano oggi ho una cosa specialissima per voi una gran lezione ci siete tutti bene allora seguitemi per un terribile istante erri temette che agrid li stesse per condurre nella foresta dove aveva vissuto tanti brutti momenti da bastargli per tutta la vita invece agrid si limitò a costeggiare gli alberi esterni e cinque minuti più tardi si arrestarono accanto a un recinto dentro non c'era niente tutti attorno alla staccionata qui gridò agrid ecco mettetevi così che vedete bene adesso per prima cosa aprite i libri come disse la voce fredda e strascicata di draco malfoi e disse agrid come facciamo ad aprire i libri ripete malfoi prese la sua copia del libro mostro dei mostri che aveva chiuso con uno spago anche gli altri estrassero i loro alcuni come erri avevano chiuse i libri con una cintura altri li avevano infilati in borse strettissime o avevano fissato le pagine con un mucchio di graffette ness nessuno di voi è riuscito ad aprire il suo libro chiese agrid disorientato tutti scossero la testa dovete accarezzarlo spiegò agrid come se fosse la cosa più ovvia del mondo guardate prese la copia di ermione e strappò via il magiscotch che la teneva chiusa il libro cercò di morderlo ma agrid fece scorrere il gigantesco indice lungo il dorso e il libro rabbrividì poi si aprì e rimase immobile nella sua mano oh che sciocchi si bilò malfoi dovevamo accarezzarli perché non l'abbiamo capito subito beh sono divertenti no disse agrid a ermione in tono incerto oh terribilmente divertenti esclamò malfoi davvero spiritoso assegnarci un libro che cerca di mangiarti le mani taci malfoi disse arry piano agrid sembrava abbattuto e arry desiderava che la sua prima lezione fosse un successo va bene riprese agrid un po smarrito allora avete tutti il libro e adesso vi servono delle creature magiche sì io vado e le prendo voi state qui si allontanò da loro e si addentrò nella foresta mio dio questo posto è caduto davvero in basso disse malfoi ad alta voce quell'idiota che fa l'insegnante a mio padre prenderà un colpo quando glielo dirò taci malfoi ripete erri attento potter c'è un dissenatore dietro di te strillò lavanda brown indicando il lato opposto del recinto almeno una dozzina di creature le più bizzarre che erri avesse mai visto trotterellavano verso di loro avevano i corpi le zampe posteriori e le code da cavallo le zampe anteriori le ali e la testa di aquile giganti becchi feroci color dell'acciaio e grandi occhi di un arancione squillante gli artigli sulle zampe davanti erano lunghi più di 15 centimetri e avevano l'aria letale ciascuna delle bestie portava uno spesso collare di cuoio attorno al collo fissato a una lunga catena e tutte le estremità delle catene erano strette nelle manone di agrid che entrò correndo nel recinto dietro le creature fermi qui adesso ruggì agitando le catene e spingendo le creature verso lo steccato dove i ragazzi erano in attesa tutti fecero un passo indietro mentre agrid li raggiungeva e legava le creature alla staccionata ipogrifi ruggì allegramente agrid agitando una mano belli eh henry capì che cosa intendeva dire agrid una volta superato il primo moto di spavento alla vista di una cosa che era metà cavallo metà uccello cominciavi ad apprezzare i mantelli lucenti degli ipogrifi che mutavano gradualmente da piuma a pelo ciascuno di un colore diverso grigio tempesta bronzo fulvorosato castano lucente nero inchiostro allora disse agrid sfregandosi le mani e sorridendo se volete venire un po più vicini nessuno sembrava desideroso di farlo henry ron e ermione comunque si avvicinarono cautamente alla staccionata ora la prima cosa da sapere degli ipogrifi è che sono orgogliosi disse agrid facili da offendere ecco come sono mai insultarne uno perché può essere l'ultima cosa che fate malfoi crebbe goyle non ascoltavano stavano parlottando henry aveva la spiacevole sensazione che stessero tramando per rovinare la lezione dovete sempre lasciargli fare la prima mossa continuò agrid è educato capito camminate verso l'ipogrifo fate un inchino e aspettate se anche lui fa un inchino potete toccarlo se non lo fa via veloci perché quegli artigli fanno male bene chi va per primo i ragazzi per tutta risposta si ritrassero ancora di più anche henry ron e ermione erano intimoriti gli ipogrifi scuotevano le teste fiere e agitavano le ali poderose sembrava che non gradissero di restare così legati nessuno disse agrid con uno sguardo supplichevole io esclamò henry dietro di lui tutti trattennero il respiro lavanda e parvati sussurrarono oh no henry ricordati le foglie di te henry le ignorò si arrampicò sulla staccionata bravo henry ruggì agrid vediamo come te la cavi con fiero becco slegò una delle catene allontanò l'ipogrifo grigio dai suoi compagni e gli sfilò il collare di cuoio dall'altra parte del recinto i ragazzi trattennero il fiato gli occhi di malfoi si strinsero malvagi piano ora henry disse agrid a bassa voce hai stabilito un contatto visivo adesso cerca di non chiudere gli occhi gli ipogrifi non si fidano di te se strizzi troppo gli occhi gli occhi di henry presero subito a lacrimare ma non li chiuse fiero becco aveva voltato la testa e lo fissava con un'altera pupilla arancione così disse agrid così henry ora fai l'inchino henry non aveva molta voglia di esporre il collo nudo a fiero becco ma fece come gli diceva agrid si inchinò in fretta e poi alzò gli occhi l'ipogrifo continuava a fissarlo altezzoso non si mosse disse agrid preoccupato va bene adesso torna indietro henry henry piano ma in quel momento con grande sorpresa di henry l'ipogrifo piegò all'improvviso le ginocchia squamose e si abbassò in quello che era un inconfondibile inchino ben fatto henry esclamò agrid estasiato va bene adesso puoi toccarlo accarezzagli il becco avanti anche se avrebbe preferito ritrarsi henry avanzò lentamente verso l'ipogrifo e tese una mano gli carezzò il becco alcune volte e l'ipogrifo chiuse pigramente gli occhi soddisfatto la classe applaudì tutti tranne malfoy crebbe goyle che sembravano profondamente irritati va bene così henry disse agrid ora ti lascia salire in groppa guarda era più di quanto henry desiderasse era abituato a un manico di scopa ma non era certo che un ipogrifo sarebbe stato la stessa cosa sali da lì dietro l'ala disse agrid e ricordati di non strapparci nessuna piuma lui non è contento se lo fai henry mise il piede sull'ala di fiero becco e si so sul suo dorso fiero becco si alzò henry non sapeva bene dove aggrapparsi davanti a lui era tutto coperto di piume avanti rugì agrid dando una manata sul fianco dell'ipogrifo senza preavviso le ali lunghe più di tre metri si spalancarono henry ebbe appena il tempo di afferrare il collo dell'ipogrifo e già quello si librava nell'aria non era affatto come un manico di scopa henry sapeva quale dei due preferiva le ali dell'ipogrifo battevano scomodamente urtandogli le gambe e dandogli l'impressione di stare per cadere da un momento all'altro le piume lucenti scivolavano sotto le sue dita henry d'altra parte non osava aggrapparsi più forte abituato ai movimenti fluidi della sua nimbus 2000 ora beccheggiava avanti e indietro mentre i fianchi dell'ipogrifo si alzavano e si abbassavano insieme alle ali fiero becco gli fece fare un giro del recinto e poi puntò di nuovo verso terra era questo il momento temuto da henry si ritrasse mentre il collo liscio si abbassava certo di scivolare sul becco dell'animale poi sentì un colpo secco mentre le quattro zampe male assortite toccavano terra e riuscì a stento a reggersi e a raddrizzarsi bravo henry ruggì agride mentre tutti tranne malfoy crebbe goyle lo festeggiavano ok c'è qualcun altro che vuole provare incoraggiati dal successo di henry gli altri ragazzi si arrampicarono cautamente sulla staccionata agrid slegò gli ipogrifi uno a uno e ben presto tutti furono impegnati in una serie di nervosi inchini neville si ritrasse dal suo ipogrifo che sembrava non avere nessuna intenzione di inchinarsi ron e ermione fecero qualche prova con quello castano mentre henry li guardava malfoy crebbe goyle avevano scelto fiero becco c'era inchinato a malfoy che ora gli accalessava il becco con aria sprezzante è facilissimo borbottò malfoy abbastanza forte da farsi sentire da henry lo sapevo se ce l'ha fatta potter scommetto che non sei per niente pericoloso vero disse all'ipogrifo vero brutto bestione fu un attimo un lampo di artigli d'acciaio malfoy cacciò uno strillo acuto agrid infilò di nuovo il collare a fiero becco e si chinò rapido sul ragazzo che giaceva rannicchiato sull'erba col sangue che sgorgava a fiotti insuppandogli i vestiti muoio strillo malfoy mentre tutta la classe seguiva la scena terrorizzata muoio guardate mi ha ucciso non muori disse agrid pallidissimo se qualcuno mi aiuta bisogna portarlo via di qua ermione corse ad aprire il cancello mentre agrid sollevava malfoy senza sforzo mentre passavano henry vide che malfoy aveva una lunga profonda ferita al braccio il sangue colava macchiando l'erba agrid corse su per la collina verso il castello con il ragazzo fra le braccia molto scossa la classe di cura delle creature magiche li seguì a poca distanza i serpe verde erano infuriati con agrid dovrebbero licenziarlo subito esclamò pensi parkinson in lacrime è tutta colpa di malfoy ribatted in thomas crebbe goyle gli mostrarono i pugni con aria minacciosa salirono i gradini di pietra ed entrarono nella sala d'ingresso deserta vado a vedere se sta bene disse pensi e corse su per la scalinata i serpe verde sempre confabulando contro agrid si avviarono verso la loro sala comune nei sotterranei henry ron e ermione salirono verso la torre di grifondoro credete che se la caverà chiese ermione nervosa ma certo madame pomfris a curare i tagli in un secondo la rassicurò henry che l'infermiera aveva prodigiosamente guarito da ferite ben più gravi è un vero peccato che sia successo alla prima lezione di agrid però vero disse ron preoccupato ci scommetto che malfoy cercherà di metterlo nei guai furono tra i primi a raggiungere la sala grande all'ora di cena con la speranza di vedere agrid ma il loro amico non c'era non lo licenzieranno vero chiese ermione ansiosa senza toccare il pasticcio di l'ognone sarà meglio di no disse ron anche lui non riuscì a mangiare henry teneva d'occhio il tavolo dei serpe verde un bel gruppo che comprendeva crebbe goyle era immerso in un fitto conciliabolo henry era sicuro che stessero mettendo a punto la loro versione di come malfoy era rimasto ferito beh non si può dire che come primo giorno non sia stato interessante disse ron con aria cupa dopo cena salirono nell'affollata sala comune di grifondoro e cercarono di fare i compiti assegnati dalla professoressa mcconagall ma tutti e tre continuavano a distrarsi e a guardare fuori dalla finestra c'è una luce accesa in casa di agrid disse erri all'improvviso ron guardò l'orologio se ci sbrighiamo possiamo andare a trovarlo è ancora presto non so disse ermione lentamente guardando erri io ho il permesso di attraversare il parco esclamò erri piccato sirius black non ha ancora superato la sorveglianza lei di senatori no così riposero i libri e uscirono dal buco del ritratto con somma soddisfazione non incontrarono nessuno fino al portone dal momento che non erano proprio sicuri di poter uscire l'erba era ancora umida e sembrava quasi nera alla luce del crepuscolo arrivati alla capanna di agrid bussarono e una voce bolbottò entrate agrid era seduto in maniche di camicia a rozzotavolo di legno il suo cagnone zanna gli teneva la testa in grembo bastò loro uno sguardo per capire che agrid aveva bevuto davanti a lui c'era una caraffa di peltro grossa come un secchio e il loro amico sembrò metterli a fuoco a fatica mi sa che è un record farfugliò quando li ebbe riconosciuti credo che non hanno mai avuto un insegnante che è durato un giorno solo non ti avranno licenziato agrid esclamò ermione non ancora disse agrid penosamente trangugiando una gran sorsata del contenuto della caraffa ma è solo questione di tempo certo dopo che malfoi come sta chiese ron mentre si sedevano niente di grave vero madame ponfri l'ha sistemato come poteva disse agrid triste ma dice che gli fa ancora male è tutto bendato si lamenta fa finta disse subito erri madame ponfri sa curare qualunque cosa l'anno scorso mi ha fatto ricrescere metà delle ossa è solo che malfoi cerca di sfruttare la situazione come può il consiglio della scuola lo sa certo disse agrid dice che ho cominciato con una cosa troppo difficile dovevo lasciare gli ipogrifi per dopo cominciare con i vermicoli o cose del genere e io pensavo che era una bella prima lezione è tutta colpa mia è tutta colpa di malfoi agrid esclamò ermione vivacemente noi abbiamo visto tutto disse erri tu hai detto che gli ipogrifi attaccano se li insulti è un problema di malfoi se non ti ha ascoltato diremo a silente che cosa è successo veramente sì non pensarci agrid noi siamo con te intervenne ron dagli angoli dei lucidi occhi neri di agrid caddero calde lacrime l'omone afferrò erri e ron e li stritolò in un abbraccio da frattura credo che tu abbia bevuto abbastanza agrid disse ermione in tono deciso prese la caraffa dal tavolo e riuscì a vuotarla sì forse lei ha ragione balbettò agrid lasciando andare erri e ron che barcollarono un po' massaggiandosi le costole agrid si alzò a fatica dalla sedia e seguì ermione all'aperto con passo malfermo si udì un gran sciacquio che cosa ha fatto chiese erri teso mentre ermione rientrava con la caraffa vuota ha infilato la testa nell'abbeveratoio rispose ermione riponendo la caraffa agrid tornò dentro i lunghi capelli e la barba grondanti acqua e si asciugò gli occhi adesso va meglio disse scuotendo la testa come un cane e schizzandoli tutti sentite è stato bello che siete venuti a trovarmi davvero agrid si immobilizzò e fissò erri come se si fosse reso conto solo in quell'istante che c'era anche lui che cosa credi di fare ruggì così all'improvviso che fecero un salto tutti e tre tu non devi andare in giro quando c'è buio erri e voi due che glielo lasciate fare si avvicinò a erri lo afferrò per un braccio e lo spinse verso la porta andiamo esclamò arrabbiato vi riaccompagno a scuola e non voglio più vedere voi che uscite e venite a trovare me con il buio mai più non ne vale la pena il molliccio nell'armadio malfoy non si ripresentò a lezione fino a martedì mattina tardi quando i serpe verde i grifondoro erano a metà della doppia ora di pozioni entrò spavaldo nel sotterraneo il braccio destro bendato e appeso al collo con l'aria baldanzosa almeno secondo erri di uno che è eroicamente sopravvissuto a una tremenda battaglia come va a draco gli chiese pensi parkinson tutta uno zucchero ti fa tanto male sì disse malfoy inalberando un cipiglio coraggioso ma erri lo vide strizzare l'occhio a crebbe a goil quando pensi distorse lo sguardo al posto al posto disse mollemente il professor piton harry e ron si scambiarono sguardi cupi piton non si sarebbe limitato a dire al posto se fossero stati loro ad arrivare in ritardo li avrebbe puniti e basta invece malfoy se la cavava sempre alle lezioni di piton che era il direttore dei serpe verde e di solito riservava un trattamento di favore agli studenti della sua casa quel giorno stavano provando una nuova pozione restringente malfoy sistemò il suo paiolo vicino a erri e ron che si trovarono così a dover preparare gli ingredienti sullo stesso tavolo signore disse malfoy signore ho bisogno che qualcuno mi aiuti a tagliare queste radici di margherita perché ho il braccio weasley taglia tu le radici a malfoy disse piton senza alzare gli occhi ron diventò paonazzo il tuo braccio sta benissimo sibilò a malfoy malfoy fece una smorfia weasley hai sentito che cosa ha detto il professor piton tagliami quelle radici ron prese il coltello afferrò le radici di malfoy e prese a tritarle grossolanamente a pezzi di grandezza diversa professore disse malfoy con la sua voce strascicata weasley sta mutilando le mie radici piton avanzò verso il tavolo avvicinò il naso adunco alle radici poi rivolse a ron un sorriso sgradevole da sotto la cortina di lunghi neri capelli unticci dai le tue radici a malfoy weasley ma professore ron aveva passato l'ultimo quarto d'ora a sezionare con cura le sue radici dividendole in pezzi tutti uguali adesso disse piton con un tono che non ammetteva repliche ron spinse le sue radici ben tagliate verso malfoy e riprese il coltello signore ho bisogno che qualcuno mi sbucci questo grinzafico disse malfoy ridacchiando sotto i baffi potter sbuccia il grinzafico di malfoy disse piton rivolgendo a eri lo sguardo di disgusto che riservava sempre e soltanto a lui eri prese il grinzafico di malfoy mentre ron cercava di riparare il danno fatto alle radici che era costretto a usare sbucciò il grinzafico più veloce che poté e lo lanciò a malfoy senza dire una parola malfoy sfoderò un ghigno ancora più ampio del solito avete visto il vostro amichetto agrid ultimamente chiese non sono affari tuoi ribatterò naspro senza alzare lo sguardo temo che non farà l'insegnante ancora a lungo disse malfoy sarcastico mio padre non è molto contento della mia ferita continua a parlare malfoy e la ferita te la ritroverai davvero si bilò ron ha protestato con il consiglio della scuola e con il ministero della magia mio padre è un uomo molto influente sapete è una ferita permanente come questa disse sospirando chissà se il mio braccio tornerà mai come prima allora è per questo che fai tutta sta scena disse eri tremante di rabbia decapitando per sbaglio un acqua morto per cercare di far licenziare agrid beh disse malfoy abbassando la voce fino a un sussurro in parte è così potter ma ci sono anche degli altri vantaggi weasley affettami il bruco qualche paiolo più in là neville era nei guai le lezioni di pozioni gettavano sempre neville nel panico era la materia in cui andava peggio e il terrore che gli incuteva il professor piton non faceva che peggiorare le cose la sua pozione che sarebbe dovuta essere di uno splendente verde acido era diventata arancione longbottom disse piton pescandone un po con il mestolo e facendola colare di nuovo nel calderone in modo che tutti vedessero arancione dimmi ragazzo non ti entra proprio niente in quel testone non mi hai sentito quando ho detto che bastava una sola milza di ratto non ho detto che bastava una spruzzata di succo di sanguisuga che cosa devo fare perché tu capisca longbottom neville era rosso e tremava tutto sembrava sul punto di piangere la prego professore disse ermione per favore mi permetta di aiutare neville a sistemare le cose non ricordo di averti chiesto di esibirti signorina granger disse piton gelido ermione diventò rossa come neville longbottom alla fine della lezione daremo un po della pozione al tuo rospo e staremo a vedere che cosa succede forse così imparerai a fare le cose per bene piton si allontanò lasciando neville senza fiato per la paura aiutami gemette il ragazzo rivolto a ermione e ieri disse simus finnegan allungandosi sul tavolo per prendere in prestito la bilancia dottone di erri hai sentito pare che sirius black sia stato avvistato c'era scritto sulla gazzetta del profeta di oggi dove chiesero erri e ron in fretta all'altro capo del tavolo malfoi al solo sguardo e si mise in ascolto non lontano da qui disse simus eccitato l'ha visto una babbana naturalmente non è che ci abbia capito molto i babbani sono convinti che sia un criminale comune no così ha chiamato il numero speciale quando sono arrivati quelli del ministero della magia era sparito non lontano da qui ripete ron rivolgendo a erri uno sguardo eloquente si voltò e vide malfoi che li guardava fisso che cosa vuoi malfoi hai bisogno che ti sbucci qualcos'altro ma gli occhi di malfoi brillavano di una luce perfida ed erano puntati su erri malfoi si chinò sul tavolo stai pensando di catturare black da solo potter si proprio così disse erri in tono disinvolto la bocca di malfoi si piegò in un sorriso malvagio naturalmente se si trattasse di me disse tranquillo avrei già fatto qualcosa non me ne starei qui a scuola come un bravo bambino sarei in giro a cercarlo di che cosa stai parlando malfoi chiese ron bruscamente non lo sai potter si bilò malfoi socchiudendo gli occhi pallidi non so che cosa malfoi scoppiò in una bassa risatina forse è meglio che non rischi la pelle disse meglio lasciar fare i dissennatori vero ma se si trattasse di me vorrei vendicarmi sarei io a dargli la caccia cosa diavolo stai dicendo esclamò erri rabbiosamente ma in quel momento piton disse ormai dovreste aver finito di mescolare gli ingredienti questa pozione ha bisogno di cuocere prima che sia possibile berla mettete via tutto mentre bolle e poi proveremo quella di long bottom crebbe goyle scoppiarono a ridere alla vista di neville che sudava mescolando febbrilmente la sua pozione ermione gli suggeriva cosa fare a mezza voce cercando di non farsi vedere né sentire da piton erri e ron riposero gli ingredienti inutilizzati e andarono a lavare mani e mestoli nell'acquaio di pietra nell'angolo che cosa voleva dire malfoi mormorò erri a ron ficcando le mani sotto il getto ghiacciato che sprizzava da una bocca di gargoyle perché dovrei vendicarmi di black non mi ha fatto niente non ancora si sta inventando tutto disse ron furibondo sta cercando di farti fare qualcosa di stupido ormai la lezione era quasi finita piton si avvicinò a neville rannicchiato accanto al suo paiolo tutti qui ordinò piton con gli occhi neri che scintillavano e guardate che cosa succede al rospo di long bottom se è riuscito a preparare una pozione restringente diventerà un girino se ha sbagliato e non ho alcun dubbio in proposito è probabile che il suo rospo finisca avvelenato i grifondoro osservarono la scena intimoriti i serpeverde avevano l'aria eccitata piton prese il rospo e lo sistemò nella mano sinistra immerse un cucchiaino nella pozione di neville che ora era verde e ne fece colare alcune gocce nella gola di trevor ci fu un attimo di silenzio e trevor deglutì poi si udì un piccolo pop e trevor il girino si contorse nella mano di piton il grifondoro applaudirono piton irritato prese una bottiglietta dalla tasca del mantello e versò qualche goccia sul rospo che ritornò della sua taglia adulta cinque punti in meno per il grifondoro disse piton cancellando in un attimo i sorrisi dalle facce dei ragazzi ti avevo detto di non aiutarlo signorina granger la lezione è finita harry ron e ermione risalirono i gradini che conducevano alla sala d'ingresso harry stava ancora pensando alle parole di malfoy mentre ron si lamentava di piton cinque punti in meno perché la pozione andava bene perché non hai mentito ermione dovevi dire che neville l'aveva preparata da solo ermione non rispose ron si guardò intorno dov'è finita anche erri si voltò erano in cima ai gradini e gli altri li stavano superando diretti alla sala grande per il pranzo era qui dietro di noi disse ron preoccupato malfoy li oltrepassò scortato da crebbe goil fece una smorfia a erri e sparì eccola la disse erri ermione saliva le scale in fretta ansante in una mano teneva stretta la borsa con l'altra sembrava che si stesse infilando qualcosa sotto il vestito come hai fatto chiese ron che cosa disse ermione raggiungendoli un attimo fa eri dietro di noi e poi eccoti di nuovo in fondo alle scale cosa ermione sembrava un po confusa sono tornate indietro a prendere una cosa o no una cucitura della sua borsa era saltata erri non ne fu stupito dentro c'erano almeno una dozzina di libri grossi e pesanti perché ti porti dietro tutta questa roba le chiese ron lo sai quante materie ho scelto rispose ermione senza fiato me li puoi tenere ma ron guardò le copertina dei libri che lei gli porgeva oggi non ci sono queste lezioni nel pomeriggio abbiamo solo difesa contro le arti oscure oh sì disse ermione vaga rimettendo tutti i libri nella borsa spero che per pranzo ci sia qualcosa di buono o una fame aggiunse dirigendosi verso la sala grande non hai la sensazione che ermione ci stia nascondendo qualcosa chiese ron a erri il professor lupin non c'era quando arrivarono alla prima lezione di difesa contro le arti oscure tutti presero posto tirarono fuori i libri le penne e le pergamene e stavano chiacchierando quando finalmente l'insegnante entrò nell'aula lupin sorrise in modo vago e posò la vecchia valigia mar ridotta sulla cattedra era trasandato come sempre ma aveva l'aria più sana che sul treno l'aria di uno che ha consumato qualche pasto come si deve buon pomeriggio disse vi prego di rimettere i libri nelle borse oggi faremo una lezione pratica vi occorrono solo le bacchette i ragazzi riposero i libri scambiandosi occhiate curiose non avevano mai seguito una lezione pratica di difesa contro le arti oscure a meno di non prendere in considerazione la lezione memorabile dell'anno prima quando l'insegnante aveva portato in classe una gabbia di pixi e li aveva liberati bene disse il professor lupin quando tutti furono pronti se ora volete seguirmi perplessi ma interessati i ragazzi si alzarono e seguirono il professor lupin che li guidò fuori dalla classe lungo il corridoio deserto e oltre un angolo dove la prima cosa che videro fu pivs il poltergeist che fluttuava a mezz'aria a testa in giù e ficcava una gomma masticata nella toppa più vicina pivs fece finta di niente finché il professor lupin non gli fu vicinissimo poi agitò i piedi dalle dita arricciate e canticchiò stralunato stralunato lupin stralunato stralunato lupin per quanto in genere fosse maleducato e intrattabile di solito pivs rispettava gli insegnanti tutti guardarono il professor lupin per vedere come avrebbe risposto con loro grande sorpresa stava sorridendo se fossi in te pivs toglierei quella cicca dalla toppa disse in tono amabile o il signor filch non riuscirà a prendere le sue scope filch era il custode di hogwarts un mago fallito dal pessimo carattere perennemente in guerra contro gli studenti e anche contro pivs comunque pivs non prestò attenzione alle parole del professor lupin e anzi fece una fragolosa pernacchia spruzzando saliva dappertutto il professor lupin sospirò ed estrasse la bacchetta ecco un piccolo utile incantesimo disse rivolto alla classe vi prego di osservare attentamente sollevò il braccio disse wadi wasi e puntò la bacchetta verso pivs con la forza di un proiettile la pallottola di gomma da masticare schizzò fuori dalla toppa e si infilò su per la narice sinistra di pivs che sobbalzò e filò via imprecando forte signore disse dean thomas stupefatto grazie dean disse il professor lupin mettendo via la bacchetta procediamo ripartirono i ragazzi ora guardavano il trasandato professor lupin con un nuovo rispetto lui li guidò lungo un secondo corridoio e si fermò davanti alla porta della sala professori entrate prego disse il professor lupin aprendola la sala una stanza lunga rivestita di legno piena di vecchie sedie scompagnate era vuota tranne che per un insegnante il professor piton era seduto in una poltrona bassa e al solo sguardo mentre la classe entrava aveva gli occhi scintillanti e una smorfia antipatica sul viso mentre il professor lupin entrava e chiudeva la porta alle sue spalle piton disse lasciala aperta lupin preferisco non assistere si alzò e si allontanò con il mantello nero che fluttuava alle sue spalle giunto sulla soglia si voltò e disse forse nessuno ti ha avvertito lupin ma in questa classe c'è nevi longbottom ti consiglio di non affidargli i compiti troppo difficili a meno che la signorina granger non gli borbotti suggerimenti nell'orecchio nevil si fece paunazzo harry fissò piton era già abbastanza spiacevole che maltrattasse nevil durante le sue ore figuriamoci davanti agli altri insegnanti il professor lupin inarco le sopracciglia speravo che nevil mi assistesse nella prima fase dell'operazione osservò e sono certo che lo farà egregiamente la faccia di nevil diventò se possibile ancora più scarlatta le labbra di piton si arricciarono ma il mago se ne andò sbattendo la porta allora disse il professor lupin radunando la classe verso l'altro capo della stanza occupato solo da un vecchio armadio in cui gli insegnanti tenevano i mantelli di ricambio mentre il professor lupin si avvicinava l'armadio ondeggiò all'improvviso sbattendo contro il muro alcuni ragazzi balzarono indietro spaventati niente paura commentò il professore con la massima calma c'è un molliccio lì dentro quasi tutti sembravano convinti che ci fosse da aver paura e come nevil rivolse al professor lupin un'occhiata di puro terrore e simus finnegan fissò con apprensione la maniglia che aveva preso a sbatacchiare i mollicci amano i luoghi chiusi e oscuri spiegò il professor lupin gli armadi gli spazi sotto i letti le antine sotto i lavandini una volta ne ho incontrato uno che si era insediato in una pendola questo si è trasferito lì dentro ieri pomeriggio e ho chiesto al preside di lasciarcelo per poter fare un po di pratica con voi del terzo anno allora la prima domanda che dobbiamo porci è questa che cos'è un molliccio ermione alzò la mano è un muta forma disse può assumere l'aspetto di quello che ritiene ci spaventi di più non avrei saputo dirlo meglio approvò il professor lupin e ermione sorrise radiosa quindi il molliccio che sta lì al buio non ha ancora assunto una forma non sa ancora che cosa spaventerà la persona dall'altra parte della porta nessuno sa che aspetto a un molliccio quando è solo ma quando lo farò uscire diventerà immediatamente ciò di cui ciascuno di noi ha più paura questo significa disse il professor lupin ben deciso a ignorare il farfugliare terrorizzato di neville che abbiamo un grosso vantaggio sul molliccio prima di cominciare hai capito quale erri cercare di rispondere a una domanda con ermione al fianco che saltellava da un piede all'altro la mano per aria era piuttosto spiazzante ma erri ci provò forse siccome siamo in tanti lui non sa che forma prendere precisamente disse il professor lupin e ermione abbassò il braccio un po delusa è sempre meglio avere compagnia quando si ha a che fare con un molliccio così lo si confonde che cosa diventerà un cadavere senza testa o una rumaca carnivora una volta ho visto un molliccio commettere l'errore di cercare di spaventare due persone contemporaneamente alla fine si è trasformato in mezza lumaca nemmeno lontanamente spaventoso l'incantesimo per respingere un molliccio continuò lupin è semplice ma richiede una grande forza mentale sapete ciò che sconfiggio un molliccio sono le risate quello che dovete fare è costringerlo ad assumere una forma che trovate divertente ora proveremo l'incantesimo senza le bacchette dopo di me prego ridiculus ridiculus ripeterono tutti in coro bene disse il professor lupin molto bene questo però era il meno temo vedete la parola da sola non basta ed è qui che entri in campo tu neville l'armadio tremò di nuovo anche se non tanto quanto neville che avanzò con l'aria di un condannato a morte bene neville disse il professor lupin innanzitutto qual è la cosa che ti fa più paura al mondo le labbra di neville si mossero ma non ne uscì nulla scusa neville non ho capito disse il professor lupin incoraggiante neville si guardò intorno terrorizzato come per chiedere aiuto poi mormorò poco più che in un sussurro il professor piton quasi tutti risero anche neville sorrise a mo di scusa il professor lupin invece parve impensierito il professor piton neville tu vivi con la nonna vero sì ammise neville nervosamente ma non voglio che il molliccio si trasformi in lei no no mi hai frainteso disse il professor lupin con un sorriso mi chiedevo solo se puoi dirci che genere di abiti porta di solito tua nonna neville parve stupito ma rispose beh ha sempre lo stesso cappello un cappello alto con un avvoltoio impagliato in cima e un vestito lungo quasi sempre verde e a volte un collo di volpe e la borsetta gli suggerì il professor lupin ne ha una grande rossa rispose neville va bene disse il professor lupin riesci a immaginarti bene questi vestiti neville riesci a vederli con l'occhio della mente sì disse neville in tono incerto era chiaro che si chiedeva cosa sarebbe venuto dopo quando il molliccio uscirà dall'armadio neville e ti vedrà assumerà l'aspetto del professor piton disse lupin e tu alzerai la bacchetta così griderai ridiculus e ti concentrerai al massimo sugli abiti di tua nonna se tutto va bene ci ritroveremo davanti il professor molliccio piton con tanto di cappello avvoltoio vestito verde e grande borsa rossa tutti scoppiarono a ridere l'armadio si agitò ancora più violentemente se neville ce la fa è probabile che il molliccio concentri la sua attenzione su ciascuno di noi a turno proseguì il professor lupin vorrei che tutti voi ora vi soffermaste a pensare qual è la cosa che più vi fa paura e a immaginare come fare per renderla comica nella stanza scese il silenzio harry riflette di cosa aveva più paura in assoluto il suo primo pensiero andò a voldemort un voldemort ancora al culmine dei suoi poteri ma prima ancora di cominciare a pensare a un possibile contrattacco da sferrare contro un molliccio voldemort una cosa orribile affiorò nella sua mente fluttuando una mano lucida in decomposizione che scivolava fuori da un mantello nero un lungo respiro spezzato che usciva da una bocca invisibile poi un freddo così pungente che era come a negare harry rabbrividì poi si guardò attorno nella speranza che nessuno si fosse accorto di niente molti dei suoi compagni avevano gli occhi chiusi ron stava borbottando fra sé strappagli le zampe harry era sicuro di sapere a cosa alludeva ciò che ron temeva di più erano i ragni siete pronti chiese il professor lupin harry si sentì invadere da un'ondata di paura non era pronto come si poteva rendere meno spaventoso un dissenatore ma non voleva chiedere altro tempo tutti gli altri avevano risposto di sì e si stavano rimboccando le maniche neville noi tutti faremo un passo indietro disse il professor lupin si sgombriamo il campo d'accordo sarò io a chiamare il prossimo ora tutti indietro così neville può vedere bene si ritrassero tutti lungo le pareti lasciando neville solo di fronte all'armadio era pallido e spaventato ma si era rimboccato le maniche del mantello e teneva pronta la bacchetta al tre neville disse il professor lupin puntando la bacchetta verso la maniglia dell'armadio uno due tre ora un getto di scintille sprizzò dalla punta della bacchetta di lupin e colpì la maniglia l'armadio si spalancò ne uscì il professor piton arcigno e minaccioso gli occhi che lampeggiavano puntati su neville neville arretrò la bacchetta levata cercando in vano di parlare piton avanzava minacciosamente verso di lui frugando sotto il mantello ridiculus strillò neville si udì come uno schiocco di frusta piton barcollò ora indossava un lungo abito orlato di pizzo in testa aveva un alto cappello con sopra un avvoltoio mangiato dalle tarme e agitava una grossa borsa scarlatta i ragazzi scoppiarono a ridere il molliccio si fermò confuso e il professor lupin urlò parvati tocca a te parvati avanzò con fare deciso piton le girò intorno si udì un altro schiocco e al suo posto comparve una mummia tutta fasciata grondante sangue il suo volto senza occhi era rivolto verso parvati e la cosa cominciò ad avanzare verso di lei molto lentamente strascicando i piedi le braccia rigide che si alzavano ridicolus gridò parvati una benda si dipanò dai piedi della mummia che inciampò cadde in avanti e perse la testa che rotolò via simus rugì il professor lupin simus prese il posto di parvati crack al posto della mummia c'era una donna con i capelli neri lunghi fino a terra e il volto scheletrico e verdastro una banshee la mostruosa strega delle brughiere l'essere spalancò la bocca e un suono disumano riempì la stanza un lungo gemito ululante che fece drizzare i capelli a erri ridicolus urlò simus la banshee emise un verso rasposo e si afferrò la gola le era sparita la voce crack la banshee si trasformò in un topo che corse in tondo cercando di prendersi la coda e poi crack diventò un serpente a sonagli che si contorse prima di diventare crack una pupilla insanguinata è confuso gridò lupin ce la facciamo din din avanzò in fretta crack la pupilla diventò una mano tagliata che si drizzò sulle dita e cominciò ad arrancare sul pavimento come un granchio ridiculus srillò din risuonò un colpo secco e la mano finì chiusa in una trappola per topi eccellente ron a te ron balzò in avanti crack qualcuno urlò un ragno gigante alto due metri e coperto di peli avanzava verso ron facendo schioccare le tenaglie minaccioso per un attimo erri pensò che ron fosse come paralizzato e poi ridiculus gridò ron con rabbia e le zampe del ragno scomparvero la bestia prese a rotolare su se stessa lavanda brown strillò balzando all'indietro il corpo rotolò fino ai piedi di erri che levò la bacchetta pronto quando di qua esclamò il professor lupin all'improvviso correndo in avanti crack il ragno senza zampe era sparito per un attimo tutti si guardarono intorno per capire dov'era finito poi videro una sfera di un bianco argenteo galleggiare a mezz'aria davanti al lupin che disse ridiculus quasi pigramente crack avanti neville finiscilo disse lupin mentre il molliccio cadeva a terra sotto forma di scarafaggio crack ricomparve piton questa volta neville avanzò con aria decisa ridiculus gridò e tutti per un brevissimo istante ebbero una seconda visione di piton vestito di pizzo poi neville scoppiò a ridere il molliccio esplose e si risolse in mille volute di fumo eccellente tuonò il professor lupin mentre la classe applaudiva eccellente neville siete stati tutti bravi vediamo un po cinque punti per ciascuno ai grifondoro che hanno affrontato il molliccio dieci a neville perché l'ha fatto due volte e cinque per ciascuno a ermione e erri ma io non ho fatto niente osservò erri tu ermione avete risposto correttamente alle mie domande all'inizio della lezione erri disse lupin in tono allegro molto bene è un'ottima lezione per compito siete pregati di leggere il capitolo sui mollicci e di farne il riassunto consegna lunedì è tutto chiacchierando eccitati i ragazzi uscirono dalla sala professori erri però non si sentiva soddisfatto il professor lupin gli aveva deliberatamente impedito di affrontare il molliccio perché era perché aveva visto erri svenire sul treno e credeva che non fosse in grado di farcela credeva forse che erri avrebbe perso conoscenza un'altra volta ma nessuno degli altri sembrava aver notato nulla visto come l'ho sfidata quella banshee urlò simus e la mano disse dean agitando la sua e piton con quel cappello e la mia mummia chissà come mai il professor lupin ha paura delle sfere di cristallo si chiese lavanda pensierosa è stata la più bella lezione di difesa contro le arti oscure che abbiamo mai seguito vero disse ron eccitato mentre tornavano in classe a prendere le borse sembra un ottimo insegnante disse ermione in tono d'approvazione ma avrei voluto provarci anch'io con il molliccio e per te che cosa sarebbe diventato le chiese ron ridacchiando un compito in cui prendi nove invece dei tuoi soliti dieci la fuga della signora grassa in un lampo difesa contro le arti oscure diventò la lezione più amata solo draco malfoi e la sua banda di serpeverde avevano qualcosa di sgradevole da dire sul professor lupin guardate un po i suoi vestiti ripeteva malfoi in un sussurro quando passava il professor lupin si veste come il nostro vecchio elfo domestico ma nessun altro badava gli abiti lisi e rattoppati del professor lupin le lezioni che seguirono furono interessanti quanto la prima dopo i mollicci studiarono i berretti rossi piccole malvagie creature simile a goblin che si aggiravano ovunque vi fosse stato uno spargimento di sangue nelle segrete dei castelli e nelle buche dei campi di battaglia deserti in attesa di colpire con un randello chi si era smarrito dai berretti rossi passarono ai k tetre creature acquatiche che sembravano scimmie squamose con mani palmate pronte a strangolare gli ignari nuotatori negli stagni harry desiderava solo che anche altri corsi fossero altrettanto piacevoli il peggiore di tutti era pozioni piton in quel periodo era particolarmente vendicativo e nessuno aveva dubbi sul perché la storia del molliccio che aveva assunto le sue sembianze e di come neville gli aveva fatto indossare gli abiti di sua nonna si era propagata per tutta la scuola alla velocità del fulmine piton non la trovò affatto divertente i suoi occhi lampeggiavano minacciosi solo a sentir nominare il professor lupin e strapazzava neville più che mai harry era arrivato a temere anche le ore che trascorreva nella torretta soffocante della professoressa trelonei decifrando forme e simboli sbilenchi cercando di ignorare gli enormi occhi dell'insegnante che si riempivano di lacrime tutte le volte che lo guardava la professoressa trelonei non riusciva a piacergli anche se gran parte della classe la trattava con un rispetto che sconfinava nella reverenza parvati patil e lavanda brown avevano cominciato a frequentare la torre all'ora di pranzo e tornavano sempre con un irritante atteggiamento di superiorità come se sapessero cose ignote agli altri avevano cominciato anche a parlare sottovoce quando si rivolgevano a harry come se fosse sul letto di morte a nessuno piaceva davvero cura delle creature magiche che dopo la prima lezione tutta emozioni e colpi di scena era diventata estremamente tediosa agrid sembrava aver perso la fiducia in se stesso ora passavano lezioni intere a imparare come badare ai vermicoli che probabilmente erano tra le creature più noiose del mondo perché uno dovrebbe occuparsi di loro disse ron dopo un'altra ora trascorsa infilando striscioline di lattuga giù per le gole viscide dei vermicoli all'inizio di ottobre comunque harry ebbe qualcos'altro a cui pensare qualcosa di così piacevole da compensare le lezioni insoddisfacenti si avvicinava la stagione del quidditch e oliver wood capitano della squadra dei grifondoro un giovedì sera indisse una riunione per discutere le tattiche per il nuovo campionato una squadra di quidditch era formata da sette giocatori tre cacciatori il cui compito consisteva nel segnare i punti facendo passare la pluffa una palla rossa grande come un pallone da calcio in uno degli anelli posti all'altezza di 15 metri alle due estremità del campo due battitori provvisti di mazze robuste per respingere i bolidi due pesanti palle nere che sfrecciavano in giro cercando di colpire i giocatori un portiere che difendeva gli anelli e il cercatore che aveva il compito più difficile quello di prendere il boccino d'oro una pallina alata grossa come una noce la cui cattura poneva fine alla partita e faceva guadagnare alla squadra del cercatore 150 punti extra oliver wood era un corpulento ragazzo di 17 anni che frequentava il settimo e ultimo anno a hogwarts c'era una sorta di quieta disperazione nella sua voce quando si rivolse ai sei compagni di squadra negli spogliatoi gelidi ai confini del campo di quidditch già immerso nelle tenebre questa è la nostra ultima possibilità la mia ultima possibilità di vincere la coppa di quidditch disse camminando avanti e indietro alla fine di quest'anno me ne andrò non avrò un'altra occasione il grifondoro non vince da sette anni ok siamo stati sfortunatissimi prima gli incidenti poi l'annullamento del torneo l'anno scorso wood deglutì come se il ricordo gli facesse venire ancora un groppo in gola ma sappiamo anche che la nostra è la squadra migliore della scuola disse battendo col pugno sul palmo della mano con l'antico bagliore fanatico negli occhi abbiamo tre ottimi cacciatori wood indicò alicia spinnet angelina johnson e katie bell abbiamo due battitori imbattibili pianta la oliver ci metti in imbarazzo dissero in coro freddo e george weasley fingendo di arrossire e abbiamo un cercatore che ci ha sempre portato alla vittoria ruggì wood fissando erri con una sorta di furioso orgoglio e poi ci sono io disse come ripensandoci anche tu sei molto bravo oliver disse george un diavolo di portiere commentò fred il punto è continuò wood riprendendo a camminare avanti e indietro che la coppa di quidditch avrebbe dovuto essere nostra negli ultimi due anni da quando erri è entrato in squadra ho pensato che ce l'avessimo in tasca ma non abbiamo vinto e quest'anno è l'ultima possibilità che abbiamo di vedere il nostro nome inciso sul trofeo wood era così abbattuto che perfino fred e george si mostrarono comprensivi oliver questo è il nostro anno disse fred ce la faremo oliver esclamò angelina ma certo aggiunse erri carica di determinazione la squadra riprese gli allenamenti tre sere alla settimana il tempo era sempre più freddo e umido le notti più buie ma né fango né vento né pioggia potevano offuscare la meravigliosa visione di erri che si immaginava finalmente nell'atto di vincere la grossa coppa di quidditch in argento una sera dopo gli allenamenti erri tornò nella sala comune di grifondoro intirizzito indolenzito ma soddisfatto di com'erano andate le cose e trovò la stanza pervasa da un ronzio eccitato che cosa è successo chiese a ron e ermione seduti in due dei posti migliori vicino al camino intenti a completare delle mappe stellari per astronomia il primo fine settimana a hogsmeade disse ron indicando un cartello appeso alla vecchia bacheca alla fine di ottobre per halloween ottimo disse fred che aveva seguito erri attraverso il buco del ritratto devo andare da zonco sono accorto di pallotto le puzzole erri si lasciò cadere in una sedia accanto a ron mentre il suo buon umore svaniva ermione parve leggergli nella mente erri sono sicura che la prossima volta potrai venire disse è probabile che presto catturino black è già stato avvistato una volta black non è così sciocco da tentare qualcosa a hogsmeade disse ron chiedi alla mcgonagall se puoi venire questa volta erri la prossima chissà quando sarà ron esclamò ermione erri deve rimanere a scuola non può essere l'unico del terzo anno che non viene disse ron chiedi alla mcgonagall dai erri si credo che lo farò decise erri ermione apri la bocca per ribattere ma in quel momento grattastinchi le balzò in grembo dalla bocca gli pensolava un grosso ragno morto deve proprio mangiarlo davanti a noi chiese ron accigliato bravo grattastinchi l'hai preso tutto da solo disse ermione grattastinchi masticò lentamente il ragno gli occhi gialli che fissavano ron con insolenza tienilo lì disse ron irritato tornando al compito c'è crosta che dorme nella mia borsa erri sbadigliò voleva andare a dormire ma anche lui doveva completare la mappa stellare si tirò vicino la borsa dei libri prese pergamena inchiostro e penna e cominciò puoi copiare la mia se vuoi disse ron scrivendo il nome dell'ultima stella con un ghirigoro e spingendo il foglio verso erri ermione che disapprovava chi copia strinse le labbra ma non disse niente grattastinchi continuava fissare ron senza battere ciglio agitando la punta della coda cespugliosa poi senza preavviso balzò ehi ruggì ron afferrando la borsa mentre grattastinchi vi affondava gli artigli e cominciava a tirare e strappare con furia vattene stupido animale ron cercò di sottrarre la borsa a grattastinchi ma il gatto vi rimase aggrappato soffiando e graffiando ron non fargli del male strillò ermione tutti seguivano lo spettacolo ron fece roteare la borsa con il felino ancora saldamente ancolato e crosta volò fuori prendete quel gatto urlò ron mentre grattastinchi si districava dai resti della borsa sfrecciava sotto il tavolo e si gettava l'inseguimento di uno spaventatissimo crosta george weasley cercò di bloccare il gatto ma non ci riuscì crosta passò attraverso venti paia di gambe e si sotto un vecchio cassettone grattastinchi si immobilizzò si appiattì e prese a sferrare zampate furiose sotto il mobile ron e ermione corsero verso di lui ermione lo afferrò e lo portò via ron si gettò pancia a terra e con grande difficoltà tirò fuori crosta prendendolo per la coda guardalo disse infuriato a ermione facendole pensolare il topo davanti al naso è pelle e ossa tienigli lontano quel gatto grattastinchi non può capire disse ermione con voce tremante tutti i gatti danno la caccia ai topi ron quell'animale ha qualcosa di strano esclamò ron cercando di convincere un agitatissimo crosta a tornare dentro la tasca ha sentito che dicevo che nella mia borsa c'è la crosta oh che sciocchezza disse ermione impaziente grattastinchi ha sentito l'odore ron altrimenti come avrebbe fatto a quel gatto ce l'ha con crosta insistette ron ignorando i compagni che cominciavano a ridacchiare e crosta era qui prima di lui ed è anche malato ron attraversò la sala comune salì le scale e sparì nel dormitorio dei ragazzi il giorno dopo ron era ancora arrabbiato con ermione quasi non le rivolse la parola per tutta la lezione di erbologia anche se lui ermione stavano lavorando insieme sullo stesso puffagiolo come sta crosta chiese ermione timidamente mentre spogliavano le piante dei loro grassi baccelli rosa e sgranavano i fagioli luminosi in un secchio di legno è nascosto sotto il letto e trema di paura disse ron arrabbiato mancando il secchio e spargendo fagioli per tutto il pavimento della serra attento weasley attento esclamò la professoressa sprout mentre i fagioli germogliavano all'improvviso davanti ai loro occhi subito dopo avevano trasfigurazione erli che aveva deciso di chiedere alla professoressa mcgonagall se poteva andare a hogsmeade con gli altri si unì alla coda fuori dalla classe pensando al modo migliore di sostenere la propria causa ma qualcosa all'inizio della fila lo distrasse lavanda brown era in singhiozzi parvati le teneva un braccio attorno alle spalle e spiegava qualcosa a simus finnigan e a dean thomas entrambi molto seri che cosa è successo lavanda chiese ermione ansiosa mentre lei ron e herry si univano al gruppo ha ricevuto una lettera da casa stamattina sussurrò parvati e il suo coniglio pinky è stato ucciso da una volpe oh esclamò ermione mi dispiace lavanda dovevo aspettarmelo disse lavanda in tono tragico lo sapete che giorno è oggi il 16 ottobre quella cosa che temi succederà il 16 ottobre vi ricordate aveva ragione aveva ragione ora tutta la classe era riunita attorno alla vanda simus scosse la testa con punto ermione esitò poi disse tu tu avevi paura che binky venisse ucciso da una volpe beh non necessariamente da una volpe disse lavanda alzando gli occhi pieni di lacrime verso ermione ma naturalmente avevo paura che morisse oh commentò ermione fece un'altra pausa poi riprese binky era vecchio no si inghiossò lavanda e era solo un cucciolo parvati strinse più forte il braccio attorno alle spalle dell'amica ma allora perché avevi paura che morisse chiese ermione parvati le rivolse uno sguardo torvo beh cercate di vederla con un po di logica disse ermione rivolta al resto del gruppo voglio dire binky non è nemmeno morto oggi è solo che a lavanda la notizia è arrivata oggi lavanda gemette e non è possibile che se lo aspettasse perché per lei è stata una brutta sorpresa non badare a ermione lavanda disse ronna ad alta voce a lei non importa niente degli animali degli altri in quel momento per fortuna la professoressa mcgonagall aprì la porta della classe ermione e ron si stavano guardando in cagnesco e una volta entrati presero posto ai due lati di harry e non si rivolsero la parola per tutta la lezione harry non aveva ancora deciso che cosa dire alla professoressa mcgonagall quando suonò la campana alla fine della lezione ma fu lei ad affrontare l'argomento hogsmed per prima un momento prego esclamò a voce alta mentre i ragazzi si preparavano a uscire dal momento che siete tutti della mia casa dovete consegnarmi i permessi per andare a hogsmed prima di halloween niente permesso niente gita al villaggio quindi cercate di ricordarvene neville alzò la mano mi scusi professoressa credo di aver perso tua nonna l'ha spedito direttamente a me longbottom disse la professoressa mcgonagall a quanto pare credeva che fosse più sicuro bene tutto potete andare chiediglielo adesso sibilò ron a harry o ma disse ermione tai harry insistette ron harry attese che il resto della classe se ne fosse andato poi avanzò verso la cattedra era nervoso sì potter harry fece un gran respiro professoressa mio zio e mia zia si sono dimenticati di fermare il modulo disse la professoressa mcgonagall lo fissò al di sopra degli occhiali rettangolari ma non rispose quindi crede che vada bene voglio dire va bene se se vado anch'io hogsmith la professoressa mcgonagall abbassò lo sguardo e prese a riordinare i fogli sulla cattedra temo di no potter disse mi hai sentito niente permesso niente gita è la regola ma professoressa i miei zii lo sa sono babbani e non capiscono bene le cose di hogwarts i moduli e tutto il resto obiettò harry mentre ron lo esortava ad andare avanti annuendo con vigore se lei dice che posso andare ma io non lo dico lo interruppe la professoressa mcgonagall alzandosi e infilando le carte riordinate dentro un cassetto nel modulo è scritto chiaramente che a dare il permesso deve essere un genitore o il tutore si voltò a guardarlo con una strana espressione compassione forse mi dispiace potter ma è la mia ultima parola meglio che ti sbrighi o arriverà in ritardo alla prossima lezione non c'era niente da fare ron apostrofò la professoressa mcgonagall con una serie di epiteti che infastidirono molto ermione quanto a lei assunse un'espressione da meglio così che irritò ancora di più ron harry dovette sopportare le chiacchiere allegre dei compagni che parlavano di quello che avrebbero fatto appena arrivate a hogsmeade c'è sempre il banchetto disse ronna harry sforzandosi di tirargli sul morale il banchetto di halloween la sera si commentò harry cupo magnifico il banchetto di halloween era sempre grandioso ma avrebbe avuto un altro sapore se fosse arrivato a chiusura di una giornata a hogsmeade con tutti gli altri niente di quello che dissero i ragazzi riuscì a consolare harry din thomas che era abile con la penna si offrì di falsificare la firma di zio vernon sul modulo ma dal momento che harry aveva già detto alla professoressa mcgonagall che il permesso non era stato firmato era del tutto inutile ron suggerì con scarso entusiasmo l'uso del mantello dell'invisibilità ma ermione fu irremovibile e gli ricordò che silente aveva detto loro che i dissennatori potevano vedere anche attraverso di essi quanto a persi riuscì a pronunciare le parole meno consolanti in assoluto parlano tanto di hogsmeade ma te l'assicuro harry non è come raccontano disse serio certo il negozio di caramelle non è male e l'emporio degli scherzi di zonco è decisamente pericoloso e sì la stamberga strillante vale una visita ma sul serio a parte queste cose non ti perdi proprio niente la mattina di halloween harry si svegliò con gli altri e scese a colazione completamente avvilito anche se fece del suo meglio per comportarsi normalmente ti porteremo un sacco di dolci di mielandia disse ermione profondamente dispiaciuta per lui sì un mucchio ribadì ron lui e ermione alla fine avevano dimenticato la lite scatenata da grattastinchi di fronte ai problemi di harry non preoccupatevi per me disse harry in un tono che sperava suonasse disinvolto ci vediamo al banchetto divertitevi li accompagnò fino all'ingresso il signor filch il custode era in piedi sulla porta e controllava i nomi di chi usciva su una lunga lista scrutando i ragazzi uno per uno con sospetto e assicurandosi che nessuno sgattaiolasse fuori senza avere il permesso resti qui potter gridò malfoy in fila con crebbe goyle paura dei dissennatori harry lo ignorò e si avviò tutto solo su per la scalinata di marmo attraversò i corridoi deserti e tornò alla torre di grifondoro parola d'ordine chiese la signora grassa riscuotendosi da un pisolino fortuna mayor rispose harry in tono distratto il ritratto si aprì harry entrò attraverso il buco nella sala comune era piena di studenti del primo e del secondo anno che chiacchieravano e c'era anche qualche studente più anziano che evidentemente aveva visitato hogsmit tante di quelle volte da non trovarla più una novità eccitante harry harry ciao harry era colin crevey uno del secondo anno che provava una grande ammirazione per harry e non perdeva occasione per rivolgergli la parola non vai a hogsmit harry come mai ehi colin guardò i suoi amici con impazienza perché non viene a sederti qui con noi harry no grazie colin disse harry che non aveva voglia di star lì con decine di occhi avidamente puntati sulla sua cicatrice devo devo andare in biblioteca a fare una ricerca dopodiché non ebbe scelta si voltò e riattraversò il buco del ritratto perché mi hai svegliato gli disse brontolando la signora glassa mentre harry si allontanava il ragazzo vagò scoraggiato in direzione della biblioteca ma a metà strada cambiò idea non aveva voglia di studiare si voltò e si trovò faccia a faccia con filch che doveva avere appena congedato l'ultimo dei ragazzi in partenza per hogsmit che cosa fai grugnì filch sospettoso niente disse harry sincero niente ripete aspro filch con le guance frosce che tremolavano figuriamoci sei qui che va in giro tutto furtivo perché non sei a hogsmit da comprare pallotto le puzzole polvere ruttosa e vermi sibilanti come le canagliette dei tuoi amici harry scrollò le spalle allora fila nella tua sala comune è là che devi stare esclamò sgarbatamente filch e rimase a guardare storto harry finché il ragazzo non scomparve ma harry non tornò nella sala comune salì una scala pensando vagamente di andare alla guferia a trovare edvige e stava percorrendo un altro corridoio quando una voce proveniente da una delle stanze disse harry harry tornò sui suoi passi per andare a vedere chi aveva parlato e scorse il professor lupin sulla porta del suo studio che cosa fai gli chiese in un tono molto diverso da quello di filch dove sono ron e ermione a hogsmit disse harry sforzandosi di suonare neutro ah disse lupin studiò harry per un attimo perché non entri mi è appena arrivato un avvincino per la prossima lezione un che cosa chiese harry seguì lupin nel suo studio nell'angolo c'era un grande acquario pieno una creatura di un verde malsano con piccole corna sulla fronte schiacciava il muso contro il vetro facendo delle smorfie e piegando le lunghe dita magre un demone acquatico disse lupin studiando l'avvincino sopra pensiero non dovremo avere problemi con lui non dopo i k il trucco è allentare la sua presa vedi che dita lunghe ha forti ma molto fragili l'avvincino scoprì i denti verdi e poi sprofondò in un groviglio di alghe in un angolo una tazza di tè chiese lupin cercando il bollitore con lo sguardo stavo giusto per farlo va bene accettò harry timidamente lupin batte il bollitore con la bacchetta e uno sbuffo di vapore si alzò istantaneamente dall'ugello siediti disse lupin togliendo il coperchio da un barattolo polveroso ho solo del tè in bustine temo ma sospetto che tu ne abbia abbastanza di foglie di tè no harry lo guardò lo sguardo di lupin ebbe un guizzo divertito come fa a saperlo chiese harry me l'ha detto la professoressa mcgonagall rispose lupin porgendogli un tazzone sbeccato non sei preoccupato vero no disse harry pensò per un attimo di raccontare a lupin del cane che aveva visto in magnolia crescent ma decise che era meglio di no non voleva che lupin lo credesse un vigliacco soprattutto perché il professore sembrava già convinto che non potesse affrontare un molliccio parte dei suoi pensieri dovette leggergli sin faccia perché lupin disse c'è qualcosa che ti preoccupa harry no mentì lui beve un sorso di tè osservando l'avvincino che brandiva un pugno minaccioso contro di lui sì disse all'improvviso posando la tazza sulla scrivania di lupin si ricorda il giorno che abbiamo sfidato il molliccio sì disse lupin lentamente perché non mi ha permesso di affrontarlo chiese harry bruscamente lupin sollevò le sopracciglia credevo che fosse ovvio harry rispose sorpreso harry che si aspettava che lupin negasse rimase interdetto perché chiese di nuovo beh disse lupin un po accigliato ho pensato che se il molliccio ti avesse visto avrebbe assunto la forma di volle mort harry lo fissò stupito non solo era l'ultima risposta che si sarebbe aspettato ma lupin aveva pronunciato il nome di voldemort l'unica altra persona che osasse farlo ad alta voce a parte harry era il professor silente ovviamente mi sbagliavo riprese lupin sempre molto serio ma ho pensato che non era una buona idea che voldemort si materializzasse in sala professori immagino che avrebbe seminato il panico non stavo pensando a voldemort disse harry con onestà io io pensavo a uno di quei dissennatori capisco disse lupin assorto bene bene sono colpito fece un piccolo sorriso quando vide la sorpresa sul viso di harry ciò rivela che quello di cui hai più paura è la paura molto saggio harry harry non sapeva che cosa replicare così beve un altro sorso di te allora hai creduto che non ti ritenessi in grado di combattere il molliccio chiese lupin con perspicacia beh sì disse harry all'improvviso si sentiva molto meglio professor lupin lei sa che i dissennatori fu interrotto da qualcuno che bussava alla porta avanti disse lupin la porta si aprì ed entrò piton aveva in mano un calice da cui saliva un fumo leggero e si fermò alla vista di harry con gli occhi neri che si stringevano in due fessure ah severus lo salutò lupin sorridendo grazie mille puoi metterlo sulla scrivania piton posò il calice fumante e fece scorrere lo sguardo da harry a lupin stavo mostrando a harry il mio avvincino spiegò lupin in tono amichevole indicando l'acquario affascinante disse piton senza guardare dovresti berla subito lupin sì sì disse lupin ne ho fatto un paiolo riprese piton se ne vuoi ancora probabilmente ne prenderò dell'altra domani grazie mille severus di niente disse piton ma nei suoi occhi balenò un'espressione che non piacque a harry uscì dalla stanza senza sorridere guardingo harry osservò il calice incuriosito lupin sorrise il professor piton è stato così gentile da prepararmi una pozione disse io non sono mai stato un granché a distillare pozioni e questa è particolarmente complicata prese il calice e lo annusò peccato che lo zucchero ne annulli i poteri aggiunse bevendone un sorso con un brivido di disgusto perché harry esordì lupin lo guardò e rispose alla domanda lasciata a metà mi sento un po giù di tono disse questa pozione è l'unico rimedio sono molto fortunato a lavorare con un collega come piton non sono molti i maghi in grado di prepararla il professor lupin beve un altro sorso e harry ebbe il folle istinto di strappargli di mano il calice il professor piton è molto attratto dalle arti oscure esclamò davvero disse lupin dimostrando solo un vago interesse mentre beveva un'altra sorsata della pozione c'è chi dice harry esitò poi proseguì irrefrenabile c'è chi dice che farebbe qualunque cosa per ottenere la cattedra di difesa contro le arti oscure lupin vuotò il calice e fece una smorfia disgustosa dichiarò bene harry ora è meglio che torni al lavoro ci vediamo al banchetto più tardi va bene disse harry posando il tazzone da te il calice vuoto continuava a fumare ecco qui disse ron abbiamo preso tutto quello che potevamo una pioggia di caramelle dai colori brillanti si rovesciò in grembo a harry era il tramonto e ron e ermione erano appena apparsi nella sala comune le guanci accese dal vento freddo con l'aria di che ha appena trascorso la più bella giornata della sua vita grazie disse harry prendendo un pacchetto di minuscole piperille nere come è hogsmeade dove siete andati a quanto pareva dappertutto da mondo mago il negozio di accessori magici all'emporio degli scherzi di zonco ai tre manici di scopa per bere una pinta di burro birra bollente e in molti altri posti e l'ufficio postale harry ci sono 200 gufi tutti sugli scaffali divisi per colore secondo la velocità che vuoi per la tua lettera da mirandia hanno un nuovo tipo di caramello c'erano gli assaggi gratis eccono un pezzo guarda forse abbiamo visto un orco davvero c'è di tutto ai tre manici di scopa avremmo voluto portarti un po di burro birra sapessi come scalda e tu che cosa hai fatto chiese ermione ansiosa hai fatto i compiti no disse harry lupin mi ha offerto il tè nel suo studio e poi è entrato piton raccontò loro del calice ron rimase a bocca aperta lupin l'ha bevuta esclamò ma è pazzo ermione guardò l'ora meglio scendere sapete il banchetto comincia fra cinque minuti corsero via attraverso il buco del ritratto e si tuffarono nella folla continuando a parlare di piton ma se insomma ermione abbassò la voce guardandosi intorno con aria nervosa se stava davvero tentando di di avvenenare lupin non l'avrebbe fatto davanti a harry se può darsi disse harry mentre raggiungevano l'ingresso ed entravano nella sala grande era stata decorata con centinaia e centinaia di zucche piene di candele accese un nugolo di pipistrelli veri svolazzanti e tantissime stelle filanti di un color arancione fiammeggiante che guizzavano pigramente lungo il soffitto coperto di nuvole come luminosi serpenti d'acqua il cibo era delizioso anche ermione e ron che erano pieni da scoppiare di caramelle di mielandia si servirono una seconda porzione di tutto harry continuava a guardare verso il tavolo degli insegnanti il professor lupin sembrava allegro e quanto mai in forma discuteva animatamente con il piccolo professor flitwick l'insegnante di incantesimi lo sguardo di harry percorse tutto il tavolo e si arrestò su piton era la sua immaginazione o gli occhi di piton dardeggiavano verso lupin più spesso di quanto non fosse normale il banchetto si concluse con uno spettacolo offerto dagli spettri di hogwarts balzarono fuori dai muri e su dai tavoli per fare un numero di volo in formazione nick quasi senza testa il fantasma di grifondoro riscosse un grande successo reinterpretando la scena della propria maldestra decapitazione la serata era stata così piacevole che il buon umore di harry non fu scalfito nemmeno da malfoi che urlò tra la folla mentre uscivano dalla sala grande i dissennatori ti mandano i loro più cari saluti potter harry ron e ermione seguirono il resto dei grifondoro lungo il consueto percorso fino alla torre ma quando raggiunsero il corridoio che finiva con il ritratto della signora grassa lo trovarono stipato di studenti perché non entrano chiese ron incuriosito harry cercò di guardare oltre la folla di teste davanti a lui il ritratto sembrava chiuso fatemi passare per favore disse persi facendosi largo nella calca con aria di importanza che cos'è questo ingorgo non è possibile che abbiate dimenticato la parola d'ordine tutti quanti scusate sono il capo scuola e poi il silenzio cadde sulla folla a partire da chi era davanti così che una corrente gelata parve di lagare per il corridoio persi disse con voce improvvisamente aspra qualcuno vada a chiamare il professor silente subito i ragazzi si voltarono quelli nelle ultime file si alzarono in punta di piedi che cosa succede chiese gini che era appena arrivata un attimo dopo ecco il professor silente avanzare verso il ritratto i grifondoro si fecero da parte per lasciarlo passare e riron e ermione si avvicinarono per vedere che cosa stava succedendo o cielo ermione afferrò erri per un braccio la signora grassa era sparita dal ritratto che era stato lacerato con tanta violenza che il pavimento era coperto di strisce di tela grossi pezzi erano stati strappati via silente diede una rapida occhiata al quadro distrutto e si voltò incupito mentre i professori mcgonagall lupin e piton lo raggiungevano di corsa dobbiamo trovarla disse silente professoressa mcgonagall la prego di andare dal signor filch e di dirgli di cercare la signora grassa in tutti i quadri del castello buona fortuna disse una voce ghignante era pivs il poltergeist che fluttuava sopra la folla soddisfattissimo come sempre quando qualcosa non andava per il verso giusto che cosa vuoi dire pivs gli chiese silente con calma e il ghigno di pivs si attenuò non osava farsi beffe di silente invece mise fuori una vocetta untuosa non più gradevole della sua risatina beffarda si vergogna signor capo signore non vuole farsi vedere è un vero disastro l'ho vista correre dentro il paesaggio al quarto piano signore e nascondersi dietro gli alberi urlava qualcosa di terribile disse allegramente poverina aggiunse senza peraltro suonare convincente ha detto chi è stato chiese silente con calma oh sì capodirettore signore disse pivs con l'aria di uno che sta per sganciare una bomba sa si è arrabbiato moltissimo quando lei non l'ha lasciato entrare pivs fece una capriola e rivolse un ghigno a silente di sotto in su con la testa che spuntava tra le gambe che caratteraccio quel sirius black una grama sconfitta il professor silente rispedì tutti i ragazzi del grifondoro nella sala grande dove dieci minuti più tardi li raggiunsero gli studenti di tasso frasso corvo nero e serpe verde tutti estremamente confusi io e gli insegnanti dobbiamo perquisire il castello disse loro silente mentre i professori mcgonagall e flitwick chiudevano tutte le porte della sala temo che per la vostra sicurezza dovrete passare la notte qui voglio che i prefetti facciano la guardia agli ingressi affido la responsabilità ai capiscuola ogni anomalia deve essermi riferita immediatamente aggiunse rivolto a persi che si dava grandi aria di importanza comunicate via fantasma il professor silente tacque fece per andarsene poi disse oh sì avrete bisogno di un cenno casuale della mano e i lunghi tavoli si addossarono alle pareti un altro cenno e il pavimento si coprì di centinaia di soffici sacchi a pelo violetti buonanotte disse il professor silente chiudendosi la porta alle spalle la sala si riempì in un attimo di mormori eccitati i grifondoro raccontarono l'accaduto al resto della scuola tutti nei sacchi a pelo esclamò persi forza basta con le chiacchiere fra dieci minuti luci spente andiamo disse ron a harry e ermione presero tre sacchi a pelo e li trascinarono in un angolo credete che black sia ancora nel castello sussurrò ermione preoccupata è chiaro che silente è convinto di sì rispose ron per fortuna ha scelto proprio questa sera disse ermione mentre si infilavano nei sacchi a pelo completamente vestiti e si puntellavano sui gomiti per chiacchierare l'unica sera che non eravamo nella torre suppongo che abbia perso la nozione del tempo essendo in fuga disse ron non si è reso conto che era halloween altrimenti sarebbe venuto qui ermione rabbrividì tutto intorno a loro i ragazzi si rivolgevano la stessa domanda come ha fatto a entrare forse è capace di materializzarsi disse un corvo nero vicino a loro sa apparire dal nulla insomma probabilmente si è travestito suggerì un tasso frasso del quinto anno potrebbe essere entrato volando azzardò dean thomas ma insomma io sono l'unica che si è presa la briga di leggere storia di hogwarts disse ermione irritata harry e ron è probabile rispose ron perché perché il castello è protetto da qualcosa di più che dalle mura disse ermione ci sono incantesimi di ogni sorta per impedire alla gente di entrare di soppiatto non ci si può materializzare basta qui mi piacerebbe vedere il travestimento in grado di ingannare i dissennatori sorvegliano ogni singolo ingresso se fosse venuto in volo lo avrebbero visto e filce conosce tutti i passaggi segreti immagino che siano sorvegliati anche quelli si spengono le luci gridò persi tutti nei sacchi a pelo e silenzio assoluto le candele si spensero tutte in una volta l'unica luce residua emanava dai fantasmi argentati che fluttuavano parlando in tono serio con i prefetti e dal soffitto incantato che come il cielo fuori dalle finestre era trapunto di stelle un po per quello un po per i sussurri che ancora echeggiavano a harry parve di dormire all'aperto sotto un vento leggero ogni ora un insegnante tornava nella sala per controllare che tutto fosse a posto verso le tre del mattino quando molti studenti finalmente si erano addormentati entrò il professor silente henry lo vide cercare persi che si aggirava tra i sacchi a pelo sgridando che ancora chiacchierava persi era a poca distanza da henry ron e ermione che finselo subito di dormire mentre i passi di silente si avvicinavano qualche traccia di lui professore chiese persi in un sussurro no qui tutto bene tutto sotto controllo signore bene ora è inutile spostarli ho trovato un guardiano temporaneo per il ritratto del grifondoro domani potrai farli trasferire e la signora grassa signore si è nascosta in una cartina del larga air shore al secondo piano a quanto pare si è rifiutata di far entrare black senza la parola d'ordine così lui l'ha aggredita è ancora molto scossa ma quando si sarà calmata chiederò al signor filci di restaurarla henry sentì la porta della sala aprirsi di nuovo cigolando e altri passi avvicinarsi preside era piton henry rimase immobile con le orecchie tese tutto il terzo piano è stato perquisito non è lì e filci ha ispezionato le segrete anche la sotto niente e la torre di astronomia la stanza della professoressa trelonei la guferia tutto controllato molto bene severus non che mi aspettassi di trovarlo a idea di come possa essere entrato preside chiese piton henry alzò appena la testa per sentirci anche con l'altro orecchio parecchie severus una meno probabile dell'altra henry aprì gli occhi per un istante e li strizzò nella direzione delle voci silente gli dava le spalle ma poteva vedere il volto di persi concentratissimo e il profilo di piton che sembrava arrabbiato si ricorda la nostra conversazione preside appena prima dell'inizio del trimestre disse piton a labbra strette come se cercasse di non farsi sentire da persi sì severus rispose silente con una nota d'avvertimento nella voce sembra quasi impossibile che black sia potuto entrare nella scuola senza un aiuto dall'interno avevo espresso la mia preoccupazione quando lei ha assegnato non credo che nel castello ci sia una sola persona che avrebbe aiutato black a entrare ribatte silente facendo capire che l'argomento era chiuso così chiaramente che piton non osò replicare devo scendere dai dissennatori disse silente ho detto che li avrei informati alla fine dell'ispezione non hanno offerto la loro collaborazione signore chiese persi oh sì disse silente gelido ma temo proprio che nessun dissennatore varcherà la soglia di questo castello finché io sono il preside persi parve confuso silente uscì dalla sala a passi rapidi e silenziosi piton rimase ancora un attimo guardando il preside con un'espressione di profondo rancore poi se ne andò a sua volta harry rivolse un'occhiata a ron e ermione entrambi avevano gli occhi spalancati che riflettevano il cielo stellato ma che sta succedendo sussurrò ron nei giorni seguenti a scuola non si parlò d'altro che di sirius black le teorie su come era riuscito a penetrare nel castello diventarono sempre più improbabili anna abbott di tassofrasso trascorse gran parte della lezione di erbologia dicendo a tutti che black era in grado di trasformarsi in un cespuglio fiorito la tela strappata della signora grassa era stata staccata dalla parete e sostituita con il ritratto di sir cadogan e del suo grasso pony grigio nessuno ne fu felice sir cadogan passava metà del tempo a sfidare la gente a duello e il resto a inventare complicate parole d'ordine che cambiava almeno due volte al giorno è completamente pazzo disse simus finnigan a persi non potremmo avere qualcun altro come guardiano nessuno degli altri quadri ha accettato il compito disse persi hanno paura di quello che è successo alla signora grassa sir cadogan è stato l'unico ad avere il coraggio di farsi avanti sir cadogan comunque era l'ultimo dei pensieri di erri ora era tenuto sotto strettissima sorveglianza gli insegnanti inventavano scuse per scortarlo lungo i corridoi e per si weasley che agiva erri ne aveva il sospetto su ordine di sua madre lo seguiva ovunque come un cane da guardia estremamente pomposo e per finire la professoressa mcgonagall convocò erri nel suo ufficio con un'espressione così cupa che erri pensò che fosse morto qualcuno è inutile nascondertelo ancora a lungo potter disse in tono molto serio so che per te sarà uno shock ma sirius black so che sta cercando me disse erri stancamente ho sentito i genitori di ron che ne parlavano il signor weasley lavora per il ministero della magia la professoressa mcgonagall parve molto sorpresa fissò erri per qualche istante poi disse capisco bene in questo caso potter comprenderai perché non credo che sia una buona idea che tu prenda parte agli allenamenti di quidditch la sera fuori nel campo solo con i tuoi compagni è troppo rischioso potter ma sabato c'è la prima partita di campionato esclamò erri sconvolto devo allenarmi professoressa la mcgonagall lo fissò intensamente erri sapeva che ci teneva molto alle sorti della squadra dei grifondoro dopo tutto lei era stata la prima a proporlo come cercatore attese trattenendo il respiro la professoressa mcgonagall si alzò e guardò fuori dalla finestra verso il campo da quidditch a stento visibile attraverso la pioggia beh il cielo sa quanto vorrei che finalmente vincessimo la coppa ma comunque potter sarei più tranquilla se fosse presente un insegnante chiederò a madame muc di assistere ai vostri allenamenti il tempo peggiorò costantemente mentre si avvicinava la prima partita di quidditch imperterrita la squadra dei grifondoro si allenava più decisa che mai sotto gli occhi di madame muc poi agli ultimi allenamenti prima della partita del sabato oliver wood comunicò alla sua squadra alcune spiacevoli novità non giochiamo contro serpeverde disse con aria molto arrabbiata flint è appena venuto a trovarmi l'incontro è con i tasso frasso perché chiese in coro il resto della squadra la scusa di flint è che il loro cercatore ha il braccio ancora fuori uso spiegò wood digrignando i denti furioso ma è chiaro il perché non vogliono giocare con questo tempo credono di avere meno possibilità aveva piovuto forte e tirato vento tutto il giorno e mentre wood parlava udirono un rombo di tuono in lontananza il braccio di malfoi non ha niente che non va esclamò erri rabbioso fa finta lo so ma non possiamo dimostrarlo disse wood amaramente abbiamo provato tutte quelle tattiche convinti di incontrare i serpeverde e invece sfidiamo i tasso frasso e il loro stile totalmente diverso hanno un nuovo capitano e un nuovo cercatore cedric digori angelina alicia e katy presero a ridacchiare che c'è disse wood irritato da quel comportamento così superficiale è quello alto e carino vero chiese angelina forte e silenzioso aggiunse katy e ripresero a ridere è silenzioso solo perché è troppo tonto per mettere due parole in fila disse freddi impaziente non so perché ti preoccupi oliver i tasso frasso sono una facile preda l'ultima volta che abbiamo giocato contro di loro harry ha preso il boccino d'oro dopo cinque minuti ti ricordi ma giocavamo in condizioni completamente diverse urlò wood gli occhi un po sporgenti digori ha messo su una squadra molto forte è un ottimo cercatore era proprio quello che temevo che la prendeste così alla leggera non dobbiamo rilassarci dobbiamo restare concentrati i serpeverde stanno cercando di prenderci in contropiede dobbiamo vincere oliver calmati disse freddi un po allarmato stiamo prendendo tasso frasso molto sul serio sul serio il giorno prima della partita il vento prese a ululare e la pioggia cadde più fitta che mai era così buio che nei corridoi e nelle classi furono accese torce e lanterne supplementari la squadra dei serpeverde era molto soddisfatta e malfoi più di tutti ah se solo il mio braccio stesse un po meglio sospirava mentre la tempesta scuoteva le finestre harry non aveva altro in mente se non la partita oliver wood continuava a correre da lui tra una lezione e l'altra per dargli dei suggerimenti la terza volta wood lo trattenne così a lungo che harry all'improvviso si rese conto di essere in ritardo di dieci minuti per difesa contro le arti oscure e si allontanò correndo con wood che gli urlava alle spalle digori è molto veloce a scartare harry quindi dovresti provare col giro della morte harry si fermò con uno scivolone fuori dalla classe di difesa contro le arti oscure aprì la porta e sfrecciò dentro mi scusi professor lupin sono in ritardo ma non fu il professor lupin a guardarlo dalla cattedra era piton la lezione è cominciata dieci minuti fa potter quindi suppongo che dovremo togliere dieci punti ai grifondoro siediti ma harry non si mosse dov'è il professor lupin chiese ha detto che oggi stava troppo male per fare lezione disse piton con un sorriso storto credevo di averti detto di sederti ma harry rimase dove era che cos'ha gli occhi neri di piton scintillarono niente di mortale disse con l'aria di desiderare che invece fosse così altri cinque punti meno per i grifondoro e se devo chiederti un'altra volta di sederti diventeranno 50 harry andò lentamente al suo posto e si sedette piton guardò la classe come dicevo prima che potter ci interrompesse il professor lupin non mi ha lasciato appunti sugli argomenti che avete affrontato finora signore abbiamo fatto i mollicci i berretti rossi i k e gli avvincini disse ermione in fretta e stavamo per cominciare zitta disse piton gelido non ti ho chiesto informazioni stavo solo commentando la mancanza di organizzazione del professor lupin è il migliore insegnante di difesa contro le arti oscure che abbiamo mai avuto disse din thomas coraggiosamente accompagnato dal mormorio di approvazione della classe piton parve più minaccioso che mai vi accontentate di poco lupin non vi sta certo caricando di lavoro saper affrontare i berretti rossi e gli avvincini è roba da primo anno oggi parleremo di eri lo guardò sfogliare il libro di testo fino all'ultimo capitolo al quale piton doveva ben saperlo non erano ancora arrivati lupi mannari disse piton ma signore salto su ermione senza riuscire a trattenersi non dovremmo fare i lupi mannari non ancora dovremmo cominciare i fuochi fatui signorina granger disse piton con voce mortalmente calma ero convinto di dover essere io a tenere questa lezione non tu e io vi dico di andare a pagina 394 si guardò intorno tutti adesso con molti sguardi torvi e delusi e qualche mormorio imbronciato i ragazzi aprirono i libri chi di voi sa dirmi come si fa a distinguere un lupo mannaro da un lupo vero chiese piton tutti rimasero seduti zitti e immobili tutti tranne ermione la cui mano come accadeva spesso scattò in aria nessuno chiese piton ignorando ermione col sorriso storto di prima volete dire che il professor lupi non vi ha insegnato nemmeno la differenza fondamentale tra gliel'abbiamo detto esclamò parvati non siamo ancora arrivati ai lupi mannari siamo ai silenzio si bilò piton bene 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 non avrei mai pensato di incontrare una classe del terzo anno che non sapesse nemmeno riconoscere un lupo mannaro mi premurerò di comunicare al professor silente quanto siete indietro signore di sermione con la mano ancora a mezz'aria il lupo mannaro è diverso da un vero lupo per molti dettagli il muso del lupo mannaro è la seconda volta che parli non richiesta signorina granger disse tranquillamente piton altri cinque punti in meno ai grifondoro per essere un insopportabile so tutto io ermione diventò rossissima abbassò la mano e fissò il pavimento con gli occhi pieni di lacrime la versione della classe per piton si rivelò appieno negli sguardi cupi che si concentrarono su di lui tutti avevano chiamato ermione so tutto io almeno una volta e ron che glielo ripeteva almeno due volte alla settimana disse ad alta voce lei ci ha fatto una domanda e ermione sa la risposta perché lo chiede se poi non vuole ascoltarla la classe seppe all'istante che ron si era spinto troppo in là piton avanzò lentamente verso ron e tutti trattennero il respiro punizione per weasley disse piton con voce soave avvicinando il volto a quello di ron e se ti sento ancora criticare il mio modo di insegnare te ne farò pentire nessuno fece un solo rumore durante il resto della lezione rimasero seduti a prendere appunti sui lupi mannari copiando dal libro mentre piton andava su e giù tra i banchi osservando il lavoro che avevano fatto con il professor lupin spiegazione insufficiente questo è sbagliato il k si trova più comunemente in mongolia il professor lupin ti ha dato otto per questa roba per me non ti meritavi un tre quando finalmente suonò la campana piton li trattenne dovete fare un tema su come si riconoscono e si uccidono i lupi mannari voglio due rotoli di pergamena e li voglio per lunedì mattina è ora che qualcuno prenda in pugno questa classe weasley rimani dobbiamo decidere la tua punizione harry e ermione uscirono con il resto della classe che aspettò finché non fu fuori portata e poi esplose in una furiosa invettiva contro piton piton non si è mai comportato così con gli altri insegnanti di difesa contro le arti oscure anche se voleva lui il posto disse eri a ermione perché ce l'ha con lupin credi che sia per via del molliccio non so disse ermione pensierosa ma spero tanto che il professor lupin guarisca presto ron li raggiunse cinque minuti dopo arrabbiatissimo sapete che cosa mi infermeria senza magia respirava forte e aveva i pugni stretti perché black non si è nascosto nello studio di piton almeno poteva farlo fuori una buona volta la mattina dopo harry si svegliò molto presto così presto che era ancora buio per un attimo gli parve di essere stato svegliato dal fischio del vento poi sentì una corrente fredda dietro il collo e sedette di scatto pivs il poltergeist gli aleggiava accanto e gli aveva soffiato nell'orecchio perché l'hai fatto chiese eri furioso pivs gonfiò le guance soffiò forte e schizzò fuori dalla stanza ridacchiando eri cercò attentoni la sveglia e la guardò erano le quattro e mezzo maledicendo pivs si ridistese e cercò di riprendere sonno ma era molto difficile ora che era sveglio ignorare il rombo del tuono l'urto del vento contro i muri del castello e gli scricchioli lontani degli alberi nella foresta proibita di lì a poche ore sarebbe stato fuori sul campo da quidditch a combattere nella tempesta alla fine rinunciò a dormire si alzò si vestì prese la sua nimbus 2000 e uscì dal dormitorio senza fare rumore mentre apriva la porta qualcosa gli si strusciò contro la gamba si chinò appena in tempo per afferrare grattastinchi per la coda cespugliosa e trascinarlo fuori lo sai credo che ron abbia ragione su di te disse eri sospettoso rivolto al gatto ci sono un sacco di topi qui in giro vai a prenderli dai aggiunse spingendo grattastinchi col piede giù per la scala a chiocciola lascia in pace crosta il fragore della tempesta sembrava più forte dalla sala comune eri sapeva che la partita non sarebbe stata cancellata gli incontri di quidditch non venivano annullati per sciocchezze come i temporali comunque cominciava a preoccuparsi wood gli aveva indicato cedric digori in corridoio digori era uno del quinto anno molto più robusto di eri di solito i cercatori erano leggeri e veloci ma il peso di digori sarebbe stato un vantaggio con quel tempaccio perché era meno probabile che finisse spazzato via eri trascorse davanti al fuoco le ore che lo separavano dall'alba alzandosi ogni tanto per impedire a grattastinchi di sgattaiolare di nuovo su per la scala dei ragazzi alla fine pensando che fosse ora di colazione si diresse da solo verso il buco del ritratto fermati e combatti fellone esclamò sir cadogan o stai zitto ribatte eri sbadigliando davanti a una grossa ciotola di porridge si sentì meglio e quando ebbe addentato il pane tostato anche il resto della squadra era seduto a tavola sarà dura disse wood che non toccò cibo smettila di preoccuparti oliver disse alicia cercando di consolarlo non sarà un po di pioggia a fermarci ma era molto di più di un po di pioggia il quidditch era così popolare che tutta la scuola voleva assistere alla partita come sempre ma tutti corsero giù per il prato verso il campo da quidditch con le teste chine per opporsi al vento feroce con gli ombrelli che volavano via strappati dalle loro mani appena prima di entrare negli spogliatoi eri vide malfoi crebbe goyle che ridevano e lo additavano da sotto un enorme ombrello diretti allo stadio la squadra si infilò la divisa scarlatta e attese che wood facesse il solito discorsetto di incoraggiamento pre partita ma il discorso non venne wood cercò più volte di prendere la parola e mise uno strano singulto poi scosse la testa sfiduciato e fece loro cenno di seguirlo il vento era così forte che entrando in campo balcollarono se la folla applaudì non la sentirono ogni altro rumore era sovrastato dai tuoni la pioggia schizzava gli occhiali di eri come accidenti avrebbe fatto a vedere il boccino d'oro i tassofrasso avanzavano dall'altra parte del campo nelle loro divise giallo canarino i capitani si diressero uno verso l'altro e si strinsero la mano digori sorrise a wood ma wood sembrava avere la mascella paralizzata e fece appena un cenno eri vide le labbra di madame mooch scandire le parole in sella alle scope e strasse il piede destro dal fango con uno schaff e montò sulla nimbus 2000 madame mooch si portò il fischietto alle labbra e ne trasse un fischio penetrante e lontano era cominciata harry decollò rapido ma la sua nimbus oscillava leggermente per via del vento cercò di tenerla più dritta che poteva strizzando gli occhi per vedere nella pioggia di lì a cinque minuti era bagnato fradicio e congelato e riusciva a stento a vedere i suoi compagni per non parlare del minuscolo boccino volò avanti e indietro per il campo rincorrendo sagome sfocate rosse e gialle senza avere idea di cosa stesse succedendo non sentiva i commenti con quel vento la folla era nascosta sotto un mare di mantelli e ombrelli malconci harry rischiò due volte di essere disarcionato da un bolide la sua vista era così appannata dalla pioggia sugli occhiali che non li aveva visti arrivare perse il senso del tempo tenere dritto il manico di scopa divenne sempre più difficile il cielo si incupiva come se la notte avesse deciso di arrivare in anticipo due volte harry quasi si scontrò con un altro giocatore senza sapere se fosse un compagno o un avversario ormai erano tutti così zuppi e la pioggia era così fitta che riusciva a malapena a distinguerli con il primo lampo arrivò anche il suono del fischietto di madame mouche harry intravide nella pioggia la sagoma di wood che gli faceva cenno di scendere tutta la squadra atterrò schizzando nel fango ho chiesto un time out rugì wood venite qui sotto si strinsero al bordo del campo sotto un grosso ombrello harry si sfilò gli occhiali e li asciugò in fretta sulla maglietta a quanto siamo 50 a 0 per noi disse wood ma se non prendiamo in fretta il boccino giocheremo al buio non ce la faccio con questi disse harry esasperato sventolando gli occhiali in quel momento accanto a lui comparve ermione aveva il mantello sulla testa e inesplicabilmente sorrideva ho un'idea harry dammi i tuoi occhiali svelto lui gli ritese e mentre la squadra assisteva stupita ermione li colpì con la sua bacchetta esclamando impervious ecco disse restituendoli a harry respingeranno la pioggia wood l'avrebbe baciata ottimo le gridò dietro con voce rauca mentre ermione spariva tra la folla ok squadra avanti l'incantesimo di ermione fece il miracolo harry era ancora intirizzito era ancora più zuppo di quanto non fosse mai stato in vita sua ma almeno ci vedeva pieno di una nuova determinazione spinse la scopa nell'aria turbolenta cercando il boccino in tutte le direzioni evitando un bolide tuffandosi sotto digori che filava nella direzione opposta si udì un altro tuono seguito immediatamente da un fulmine a zigzag il gioco era sempre più pericoloso harry doveva prendere il boccino in fretta si voltò deciso a tornare verso il centro del campo ma in quell'istante un altro lampo illuminò le tribune e harry vide qualcosa che lo sconvolse la sagoma di un enorme cane nero dal pelo ispido stagliata nettamente contro il cielo immobile nella vuota fila di sedili più in alto le mani infreddolite di harry scivolarono sul manico di scopa e la sua nimbus scese di alcuni metri scuotendosi via dagli occhi la frangia inzuppata harry guardò di nuovo verso la tribuna il cane era sparito harry tagli anelli arrivò l'urlo angosciato di wood harry dietro di te harry si guardò intorno disperatamente cedric digori filava su per il campo e un minuscolo frammento d'oro brillava nell'aria gonfia di pioggia che li separava con un moto di panico harry si appiattì sul manico di scopa e filò verso il boccino dai urlò alla sua animbus mentre la pioggia gli schiaffeggiava il volto più veloce ma stava succedendo qualcosa di strano un silenzio lugubre cadde sullo stadio il vento benché più forte che mai non rugiva più era come se qualcuno avesse spento l'audio come se harry fosse diventato sordo all'improvviso che cos'era e poi un'ondata di gelo orribilmente familiare si abbattè su di lui lo invase mentre harry cominciava a distinguere qualcosa che si muoveva laggiù sul campo prima di avere il tempo di riflettere harry distolse lo sguardo dal boccino e guardò in basso sotto c'erano almeno un centinaio di dissennatori con le teste incappucciate rivolte verso di lui fu come se il suo petto si riempisse di acqua gelata che gli perforava lo stomaco e poi lo udì di nuovo qualcuno gridava gridava dentro la sua testa una donna no harry no ti prego spostati stupida spostati harry no prendi me piuttosto uccidi me ma non harry una nebbia confusa e vorticante riempiva la mente di harry che cosa stava facendo perché era in volo doveva aiutarla stava per morire stava per essere uccisa harry cadde cadde nella nebbiolina ghiacciata non harry ti prego per favore lui no una voce penetrante rideva la donna gridava harry non capì più nulla per fortuna il terreno era molle credevo che fosse morto ma se non si è nemmeno rotto gli occhiali harry sentiva un mormorio di voci ma non avevano alcun senso non aveva idea di dove fosse o di come ci fosse arrivato o di cosa avesse fatto prima tutto quello che sapeva e che aveva male dappertutto come se qualcuno l'avesse picchiato è la cosa più spaventosa che ho visto spaventosa la cosa più spaventosa nere figure incappucciate freddo grida harry spalancò gli occhi era in infermeria la squadra di 15 dei grifondoro schizzata di fango da capo a piedi era riunita attorno al suo letto c'erano anche ron e ermione con l'aria di essere appena usciti da una piscina harry disse fred pallidissimo sotto lo strato di fango come ti senti era come se la memoria di harry avesse premuto il tasto di avanzamento veloce i lampi il gramo il boccino e i dissennatori che cosa è successo chiese rizzandosi a sedere così di colpo che tutti rimasero a bocca aperta sei caduto spiegò fred da almeno 15 metri credevamo che fossi morto disse alicia tremante ermione fece un verso stridulo aveva gli occhi rossi ma la partita chiese harry che cosa è successo è stata sospesa nessuno disse nulla la terribile verità sprofondò dentro harry come una pietra non avremo perso digori ha preso il boccino disse george dopo che sei caduto non si è accorto di quello che era successo quando si è guardato indietro e ti ha visto per terra ha cercato di far sospendere la partita voleva che rigiocassimo ma hanno vinto lealmente lo ha ammesso anche wood dov'è wood chiese harry notando all'improvviso la sua assenza è alle docce disse fred crediamo che stia tentando di annegarsi harry lasciò cadere la testa fra le ginocchia e si mise le mani nei capelli fred lo prese per la spalla e lo scosse con forza dai harry non avevi mai perso un boccino doveva pur succedere prima o poi lo consolò george non è ancora finita disse fred abbiamo perso per cento punti giusto quindi se tasso frasso perde con corvo nero e noi battiamo corvo nero e serpe verde tasso frasso dovrebbe andar sotto di almeno 200 punti disse george ma se battono corvo nero impossibile il corvo nero sono troppo bravi ma se serpe verde perde contro tasso frasso dipende tutto dal punteggio un margine di cento punti in più o in meno harry rimase disteso in silenzio avevano perso per la prima volta aveva perso una partita a quidditch dopo una decina di minuti madame pomfrey venne a dire alla squadra di lasciarlo in pace verremo a trovarti più tardi gli disse fred non buttarti giù harry sei sempre il miglior cercatore che abbiamo mai avuto i ragazzi uscirono lasciando dietro di sé una scia di fango madame pomfrey chiuse la porta alle loro spalle con uno sguardo di disapprovazione ron e ermione si avvicinarono al letto di erri silente era arrabbiatissimo il sermione con voce tremula non l'avevo mai visto così è corso in campo mentre cadevi ha agitato la bacchetta e tu hai rallentato la caduta poi ha puntato la bacchetta contro i dissennatori gli ha spedito contro una roba d'argento se ne sono andati subito era su tutte le furie perché erano entrati l'abbiamo sentito poi ha fatto apparire una barella e ti ci ha fatto salire con un incantesimo disse ron ed è tornato a scuola con te che ci galleggiavi sopra tutti credevano che fossi la sua voce si spense ma erri quasi non se ne accorse stava pensando a quello che gli avevano fatto i dissennatori alla voce che urlava alzò gli occhi e vide ron e ermione che lo guardavano così preoccupati che cercò in fretta qualcosa di concreto da dire qualcuno ha preso la mia nimbus ron e ermione si scambiarono una rapida occhiata che c'è chiese erri spostando lo sguardo dall'uno all'altra beh quando sei caduto è stata spazzata via dal vento disse ermione esitante e poi e poi è finita è finita oh erri è finita sul salice schiaffeggiante erri si sentì torcere dentro il salice schiaffeggiante era un albero molto violento che si trovava nel bel mezzo del parco isolato e poi chiese temendo la risposta beh lo sai com'è il salice schiaffeggiante disse ron a lui a lui non piace essere colpito il professor flitwick la riportata indietro poco prima che ti svegliassi disse ermione con una vocina piccola piccola lentamente si chinò per prendere una borsa ai suoi piedi la rovesciò e fece cadere sul letto dei pezzetti di legno e saggina scheggiati e spezzati i soli resti della fedele scopa di erri definitivamente distrutta la mappa del malandrino madame pomfrey insistette per trattenere erri in infermeria per tutto il fine settimana lui non discusse e non si lamentò ma non le permise di buttare via i miseri resti della sua nimbus 2000 sapeva che era stupido sapeva che la nimbus non poteva essere riparata ma era più forte di lui era come se avesse perduto uno dei suoi migliori amici erri ebbe fiumi di visitatori tutti decisi a tenerlo di buon umore agrid gli mandò un mazzo di fiori infestato da forficole che sembravano cavoli gialli e genie weasley arrossendo furiosamente si presentò con un biglietto d'auguri che aveva fatto lei e che cantava a squarciagola a meno che erri non lo tenesse chiuso sotto la ciotola della frutta la squadra dei grifondoro tornò a fargli visita domenica mattina questa volta accompagnata da wood che con voce cupa e desolata assicurò a erri che non lo riteneva assolutamente responsabile della sconfitta ron e ermione si allontanavano dal letto di erri solo la sera ma nulla e nessuno poteva far stare meglio erri perché nessuno sapeva nemmeno la metà di ciò che lo turbava non aveva raccontato a nessuno del gramo nemmeno a ron e ermione perché sapeva che ron si sarebbe spaventato e ermione lo avrebbe preso in giro comunque restava il fatto che ormai era apparso due volte e che entrambe le sue apparizioni erano state seguite da incidenti quasi mortali la prima volta aveva rischiato di essere travolto dal nottetempo la seconda era volato giù dalla scopa e da una grande altezza il gramo aveva intenzione di perseguitarlo fino a ottenere la sua morte doveva passare il resto dei suoi giorni a guardarsi le spalle dalla bestia e poi c'erano i dissennatori erri si sentiva umiliato tutte le volte che ci pensava tutti dicevano che i dissennatori erano orribili ma nessun altro sveniva tutte le volte che gli si avvicinavano nessun altro udiva risuonare nella testa l'eco della voce dei propri genitori in punto di morte perché erri ormai sapeva di chi erano quelle grida aveva sentito quelle parole le aveva sentite risentite durante le ore della notte in infermeria mentre giaceva sveglio a guardare le strisce di luce lunare sul soffitto quando i dissennatori gli si avvicinavano riascoltava gli ultimi istanti di vita di sua madre i suoi tentativi di proteggere lui erri da voldemort e la risata di voldemort appena prima che la uccidesse erri dormiva sonni agitati sprofondava in sogni affollati di mani marce appiccicose e di suppliche impietrite e si soffiava di soprassalto cercando di fissare nella mente la voce di sua madre cercando di ricordarla per erri fu un sollievo tornare al caos della scuola il lunedì essere costretto a pensare ad altro anche se dovete sopportare la persecuzione di draco malfoi malfoi era quasi fuori di sé per la gioia dopo la sconfitta dei grifondoro finalmente si era tolto le bende e festeggiava il recuperato uso di entrambe le mani producendosi in ispirate imitazioni di erri che precipitava dalla scopa malfoi trascorse gran parte della lezione di pozioni imitando i dissenatori per tutto il sotterraneo ron alla fine non ne poté più e gli lanciò contro un grosso viscido cuore di coccodrillo che gli si spiaccicò sulla faccia e diede a piton l'opportunità di togliere 50 punti ai grifondoro se piton insegna ancora difesa contro le arti oscure mi do malato disse ron mentre si dirigevano verso l'aula di lupin dopo colazione guarda chi c'è dentro il mione il mione spiò dentro la classe tutto bene il professor lupin era tornato aveva proprio l'aria di chi è stato malato il suo vecchio mantello pensolava più largo e c'erano ombre scure sotto i suoi occhi però sorrisi ai ragazzi mentre prendevano posto e tutti esplosero in un fiume di lamentele sul comportamento di piton durante la sua assenza non è giusto era solo una supplenza perché ci ha dato dei compiti non sappiamo niente dei lupi mannari due rotoli di pergamena avete detto al professor piton che non ce l'avamo ancora arrivati chiese lupin un po accigliato sì ma lui ha detto che eravamo indietro non ha ascoltato due rotoli di pergamena il professor lupin sorrise all'indignazione sulle loro facce non preoccupatevi parlerò io col professor piton non dovete fare il tema o no esclamò ermione delusa io l'ho già finito la lezione fu molto piacevole il professor lupin aveva portato con sé un barattolo di vetro con dentro un fuoco fatuo una piccola creatura con una zampa sola dall'aria fragile innocua che sembrava fatta di fili di fumo attira i viaggiatori nelle paludi spiegò il professor lupin e tutti presero appunti vedete la lanterna appesa alla mano lui avanza a saltelli la gente segue la luce e poi il fuoco fatuo emise un rumore orrendo e si scagliò contro il vetro quando suonò la campana tutti raccolsero i libri e si diressero alla porta compreso erri ma aspetta un momento erri disse lupin vorrei parlarti erri tornò indietro e osservò il professor lupin che ricopriva il barattolo del fuoco fatuo con un telo mi hanno detto della partita disse lupin tornando verso la cattedra e cominciando a stipare la valigetta di libri e mi dispiace per la tua scopa c'è qualche speranza di ripararla no disse erri l'albero l'ha fatta a pezzi lupin sospirò hanno piantato il salice schiaffeggiante l'anno che sono arrivato a hogwarts allora facevamo un gioco bisognava cercare di avvicinarsi e toccare il tronco alla fine un ragazzo davy gudgeon ha quasi perso un occhio e c'è stato proibito di avvicinarci sarebbe ora di sradicarlo ne parlerò con il professor silente le hanno detto anche dei dissennatori chiese erri a fatica lupin gli scoccò un rapido sguardo sì credo che nessuno abbia mai visto il professor silente così infuriato sono irrequieti da un po di tempo sono arrabbiati perché si rifiuta di farli entrare nell'area della scuola è per quello che sei caduto immagino sì disse erri esitò e poi la domanda gli salì spontanea alle labbra perché perché mi tormentano così sono solo non ha niente a che vedere con la debolezza disse il professor lupin seccamente come se gli avesse letto nel pensiero i dissennatori tormentano te più degli altri perché nel tuo passato ci sono cose terribili che gli altri non hanno vissuto un raggio di sole invernale attraversò la classe illuminando i capelli grigi di lupin e i segni sul suo giovane volto i dissennatori sono le creature più disgustose della terra infestano i luoghi più cupi e sporchi esultano nella decadenza e nella disperazione svuotano di pace speranza e felicità l'aria che li circonda perfino i babbani avvertono la loro presenza anche se non li vedono se ti avvicini troppo a un dissenatore ogni sensazione piacevole ogni bel ricordo ti verrà succhiato via se appena può il dissenatore si nutrirà di te abbastanza a lungo da farti diventare simile a lui malvagio e senza anima non ti rimarranno altro che le peggiori esperienze della tua vita e le cose peggiori che sono successe a te erri bastano a far precipitare chiunque da una scopa non hai niente di cui vergognarti quando mi si avvicinano erri fissò la cattedra di lupin con la gola stretta sento voldemort che uccide mia madre lupin fece un gesto improvviso come se volesse mettere una mano sulla spalla di erri ma poi ci ripensò ci fu un attimo di silenzio e poi perché sono venuti alla partita disse erri amaramente cominciano ad aver fame rispose lupin tranquillo chiudendo la valigetta con un colpo secco silente non li lascia entrare a scuola quindi la loro provvista di prede umane si è esaurita credo che non abbiano resistito al pensiero della folla attorno al campo da quidditch tutta quell'eccitazione le emozioni al massimo per loro è come un banchetto askaban deve essere un posto tremendo mormorò erri lupin annui cupo la fortezza si trova su un'isoletta in mezzo al mare ma non servono mura e acqua per trattenere i prigionieri non quando sono tutti intrappolati nelle proprie teste incapaci di formulare un solo pensiero allegro quasi tutti impazziscono entro qualche settimana ma sirius black è fuggito disse erri lentamente ce l'ha fatta la valigetta di lupin scivolò dalla cattedra lui la ferrò di scatto prima che cadesse si confermò rialzandosi black deve aver trovato il modo di combatterli non l'avrei creduto possibile i dissennatori sono in grado di prosciugare un mago dei suoi poteri se rimane nelle loro mani troppo a lungo ma lei è riuscito a mandar via quel dissennatore sul treno disse erri all'improvviso ci sono delle difese a cui si può ricorrere disse lupin ma c'era un solo dissennatore sul treno più sono più è difficile resisterli quali difese chiese subito erri me le puoi insegnare non ho la pretesa di essere un esperto nella lotta ai dissennatori erri tutt'altro ma se i dissennatori vengono a un'altra partita di quidditch io devo saperli combattere lupin guardò il volto determinato di erri esitò poi disse beh d'accordo cercherò di aiutarti ma temo che dovremo aspettare il prossimo trimestre ho molto da fare prima delle vacanze ho scelto un momento molto poco opportuno per ammalarmi un po per la promessa di lupin di dargli qualche lezione anti dissennatore un po per il pensiero che forse non avrebbe mai più dovuto riascoltare la morte di sua madre un po per il fatto che corvo nero aveva schiacciato tasso frasso nell'incontro alla fine di novembre l'umore di erri migliorò decisamente grifondoro dopo tutto non era fuori gara anche se non poteva permettersi di perdere un'altra partita wood tornò in possesso della sua energia frenetica e fece lavorare la squadra come sempre nei turbini di pioggia gelida che continuarono anche in dicembre erri non vide traccia di dissennatori nel territorio della scuola la furia di silente sembrava trattenerli nelle loro postazioni agli ingressi due settimane prima della fine del trimestre il cielo si illuminò all'improvviso di un candore opalino e abbagliante e una mattina i prati fangosi si ricoprirono di gelo lucente nel castello c'era aria di natale il professor flitwick l'insegnante di incantesimi aveva già decorato le classi con luci scintillanti che si rivelarono essere autentiche fate svolazzanti gli studenti discutevano allegramente dei loro progetti per le vacanze sia ron che ermione avevano deciso di rimanere a hogwarts e anche se ron disse che era perché non poteva sopportare l'idea di due settimane compersi e ermione insistette che aveva bisogno di andare in biblioteca erri sapeva benissimo che lo facevano per tenergli compagnia e gliene fu molto grato con gran gioia di tutti tranne erri l'ultimo fine settimana del trimestre fu programmata un'altra gita a hogsmeade possiamo comprare lì i regali di natale disse ermione i miei andranno matti per i fil di menta interdentali di mielandia rassegnato al fatto che sarebbe stato l'unico studente del terzo anno a rimanere al castello erri prese in prestito da wood una copia di guida alla scelta della scopa e decise di passare la giornata a informarsi sulla fabbricazione delle scope agli allenamenti cavalcava una scopa in dotazione alla scuola una vecchia stella sfreccia che era molto lenta e instabile decisamente aveva bisogno di una scopa nuova il sabato mattina della gita a hogsmeade erri salutò ron e ermione imbacucati in mantelli e sciarpe poi salì da solo la scalinata di marmo e si diresse verso la torre di glifondoro fuori aveva cominciato a nevicare il castello era molto tranquillo a metà del corridoio del terzo piano si voltò e vide george e fred che lo guardavano sporgendosi da dietro la statua di una strega gobba con un occhio solo che cosa fate chiese erri incuriosito perché non siete andati a hogsmeade era per fare un po di festa con te prima di partire disse fred con una misteriosa strizzatina d'occhi vieni indicò una classe vuota sulla sinistra della statua orba erri seguì fred e george george chiuse piano la porta e si voltò sorridendo regalo di natale in anticipo per te erri con un gesto teatrale fred trasse qualcosa da sotto il mantello e lo posò su un banco era un foglio di pergamena grande quadrato molto consunto assolutamente vuoto erri sospettando uno degli scherzi di fred e george lo fissò che cosa dovrebbe essere questo erri è il segreto del nostro successo disse george sfiorando il foglio darlo a te è una vera sofferenza disse fred ma ieri sera abbiamo deciso che tu ne hai più bisogno di noi comunque lo sappiamo a memoria disse george lo affidiamo a te a noi non serve più e cosa me ne faccio di una vecchia pergamena chiese erri una vecchia pergamena esclamò fred chiudendo gli occhi con una smorfia come se erri lo avesse offeso a morte spiega tu george beh quando eravamo al primo anno erri giovani spensierati e innocenti erri sbuffò dubitava che fred e george fossero mai stati innocenti beh più innocenti di adesso abbiamo avuto qualche guaio con filch abbiamo buttato una cacca bomba nel corridoio e questo l'ha fatto arrabbiare chissà perché così ci ha trascinato nel suo ufficio e ha cominciato a minacciarci con il solito repertorio di punizioni e squartamenti e noi non abbiamo potuto fare a meno di notare un cassetto in uno dei suoi armadi con sopra scritto cose requisite pericolo non vorrete dire che esordi erri sorridendo beh tu che cosa avresti fatto chiese fred george l'ha distratto lanciando un'altra cacca bomba io ho aperto il cassetto e ho preso questa non è una brutta azione come sembra sai disse george sospettiamo che filch non abbia mai scoperto come usarla probabilmente avevo una vaga idea di che cosa era altrimenti non avrebbe requisita e voi sapete come usarla ma certo disse fred con un ghigno questo tesorino ci ha insegnato più cose di tutti gli insegnanti della scuola messi insieme volete prendermi in giro disse erri guardando la vecchia pergamena strappata ma davvero disse george estrasse la bacchetta sfiorò il foglio e disse giuro solennemente di non avere buone intenzioni e all'improvviso sottili righe d'inchiostro cominciarono a spuntare come una ragnatela dal punto in cui la bacchetta di george aveva toccato il foglio si univano si incrociavano si allargavano in tutti gli angoli della pergamena parole presero a fiorire in testa alla pagina grosse parole verdi e aggraziate che proclamavano i signori luna storta codaliscia felpato e ramoso consiglieri e alleati dei magici malfattori sono fieri di presentarvi la mappa del malandrino era una mappa che mostrava ogni particolare del castello e del parco di hogwarts ma la cosa davvero sorprendente erano le minuscole macchie d'inchiostro che si muovevano sulla carta ciascuna contrassegnata da un nome scritto molto piccolo su un cartiglio stupefatto erri si curvò sulla cartina una macchiolina con il suo cartiglio nell'angolo superiore sinistro mostrava il professor silente intento a camminare su e giù per il suo studio il gatto del custode missis norris si aggirava per il secondo piano e pivsi il poltergeist al momento attraversava balzi la sala dei trofei e mentre il suo sguardo percorreva i familiari corridoi erri notò qualcos'altro la mappa mostrava una serie di passaggi segreti che non aveva mai esplorato e molti di essi avevano l'aria di condurre dritto hogsmith disse fred indicandone uno col dito ce ne sono sette in tutto ora filch conosce questi quattro e li segnò ma siamo certi di essere i soli a conoscenza di questi lascia perdere quello dietro lo specchio del quarto piano l'abbiamo usato fino all'inverno scorso ma c'è stata una frana e adesso è bloccato e crediamo che nessuno abbia mai usato questo perché il salice schiaffeggiante si trova proprio sopra l'entrata ma questo porta dritto nella cantina di mielandia l'abbiamo usato un sacco di volte e come avrai notato l'ingresso è fuori da questa stanza si passa dalla gobba di quella vecchiaccia orba l'una storta codaliscia felpato e ramoso sospirò george accarezzando la parte superiore del foglio gli dobbiamo così tanto nobili signori che hanno lavorato instancabilmente per aiutare una nuova generazione di fuori legge disse freddo sorrennemente giusto aggiunse george in tono vivace e non dimenticare di cancellarla dopo che l'hai usata altrimenti potranno leggerla tutti disse freddo in tono d'avvertimento devi solo darle un altro colpetto e dire fatto il misfatto e sparirà tutto allora giovane harry disse freddo in un'inquietante imitazione di persi comportati bene ci vediamo da mielandia disse george con una strizzatina d'occhi e i due giamelli uscirono con una smorfia soddisfatta harry rimase lì a fissare la mappa miracolosa osservò la minuscola mrs norris d'inchiostro girare a sinistra e fermarsi ad annusare qualcosa per terra se filch davvero non sapeva non avrebbe dovuto passare davanti ai dissennatori ma mentre era lì invaso dall'eccitazione gli venne in mente una cosa detta tempo prima dal signor weasley non fidarti mai di una cosa che pensa da sé se non sai dove hai il cervello la mappa era uno di quei pericolosi oggetti magici da cui il signor weasley li aveva messi in guardia consiglieri e alleati dei magici malfattori ma comunque ragionò harry lui voleva usarla solo per andare a hogsmeade non era come se volesse rubare qualcosa o aggredire qualcuno e fredde george l'avevano usata per anni e non era successo niente di terribile harry seguì con la punta del dito il passaggio segreto che portava a mielandia poi all'improvviso come rispondendo a un ordine arrotolò la mappa la infilò sotto gli abiti e corse alla porta della classe la socchiuse non c'era nessuno fuori con grande cautela uscì dalla stanza e si infilò dietro la statua della strega con un occhio solo che cosa doveva fare estrasse di nuovo la mappa e vide con grande stupore che era comparsa una nuova figurina d'inchiostro con sotto un cartiglio che diceva harry potter la figurina si trovava esattamente dove si trovava il vero harry potter circa a metà del corridoio del terzo piano harry la guardò con attenzione il suo minuscolo doppio d'inchiostro stava colpendo la strega con la sua microscopica bacchetta harry prese rapidamente la sua bacchetta e colpì la statua non successe nulla guardò di nuovo la mappa vicino alla figurina era comparsa una minuscola nuvola con dentro una parola dissendium dissendium sussurrò harry dando di nuovo un colpetto alla strega di pietra subito la gobba della statua si aprì quel tanto che bastava a far passare una persona piuttosto esile harry diede una rapida occhiata su e giù per il corridoio poi ripose la mappa si infilò nel buco a testa in giù e si spinse in avanti sdrucciolò per un bel tratto lungo quello che sembrava uno scivolo di pietra poi atterrò sul terreno freddo e umido si alzò e si guardò intorno era buio pesto alzò la bacchetta mormorò lumos e vide che si trovava in un cunicolo molto stretto basso scavato nel terriccio prese la mappa la colpì con la punta della bacchetta e mormorò fatto il misfatto la mappa si cancellò subito harry la piegò con cura la mise via di nuovo e poi col cuore che batteva forte eccitato e preoccupato insieme partì il passaggio era tutto curve e zigzag un po come la tana di un coniglio gigante harry lo percorse in fretta inciampando spesso sul terreno sconnesso la bacchetta sfoderata davanti a sé gli ci volle un secolo ma il pensiero di mielandia lo sosteneva dopo quella che gli parve almeno un'ora il passaggio cominciò a salire ansante harry accelerò il viso bollente i piedi gelati dieci minuti dopo giunse a una gradinata di pietra consunta che partiva davanti a lui e si perdeva nel buio stando attento a non far rumore harry prese a salire cento gradini duecento gradini perse il conto guardandosi i piedi poi a sorpresa urtò con la testa contro qualcosa di duro sembrava una botola harry rimase lì a massaggiarsi la testa in ascolto sopra di lui non si sentiva nessun rumore molto lentamente spinse la botola la socchiuse e spiò fuori si trovava in una cantina piena di casse e scatole di legno harry uscì dalla botola e la chiuse combaciava così perfettamente con il pavimento polveroso che era impossibile individuarla harry strisciò lentamente verso la scala di legno che portava di sopra ora sentiva delle voci oltre al tintinio di un campanello e a una porta che si apriva e si chiudeva incerto sul da farsi all'improvviso sentì una porta spalancarsi molto più vicino qualcuno stava per scendere e prendi un'altra scatola di lumache gelatinose caro sono quasi finite disse una voce femminile un paio di piedi scendeva le scale harry balzò dietro una cassa enorme e attese che i passi sparissero sentì che l'uomo spostava delle scatole contro il muro di fronte forse non avrebbe avuto un'altra possibilità svelto e silenzioso harry sbucò dal suo nascondiglio e salì le scale guardò indietro e vide una schiena immensa e una lucida testa calva sprofondate in una scatola harry raggiunse la porta in cima alle scale la superò e si trovò dietro il banco di mielandia si chinò strisciò di lato e poi si alzò mielandia era così affollato di studenti di hogwarts che nessuno notò harry il ragazzo si fece largo tra loro guardandosi intorno e soffocò una risatina immaginando lo stupore sulla faccia porcina di dudley se avesse potuto vederlo in quel momento c'erano scaffali su scaffali di dolci e caramelle i più deliziosi che si potessero immaginare blocchi di torrone cremoso quadrotti rosa lucenti coperti di glassa al cocco mu color del miele centinaia di tipi diversi di cioccolato disposti in pile ordinate c'era un barile di gelatine tutti gusti più uno e un altro di api frizzole i confetti frizzanti che facevano levitare di cui aveva parlato ron lungo un'altra parete c'erano le caramelle effetti speciali le gomme bolle drubol che riempivano una stanza di palloni colorgenziana che si rifiutavano di scoppiare per giorni interi i curiosi frammenti di fil di mente interdentali le minuscole piperille nere sputate fuoco davanti ai vostri amici i topoghiacci per far squittire i vostri denti i rospi alla menta saltano nello stomaco come se fossero veri fragili penne d'oca di zucchero caramellato e bombone esplosivi harry si infilò in un crocchio di ragazzi del sesto anno e vide un cartello appeso nell'angolo più lontano del negozio sapori insoliti sotto c'erano ron e ermione intenti a esaminare un soio di lecca lecca al gusto di sangue harry si intrufolò alle loro spalle no a harry non piaceranno sono per vampiri immagino stava dicendo ermione e questi chiese ron infilando un barattolo di scarafaggi a grappolo sotto il naso di ermione direi proprio di no disse harry ron fece quasi cadere il barattolo harry squitti ermione che cosa ci fai qui come come hai wow disse ron impressionato hai imparato a materializzarti certo che no disse harry abbassò la voce per non farsi sentire da quelli del sesto anno e raccontò loro della mappa del malandrino e come mai fredda george non l'hanno mai data a me esclamò ron offeso sono loro fratello ma harry non se la terrà disse ermione come se l'idea fosse ridicola la consegnerà alla professoressa mcgonagall vero harry niente affatto disse harry sei impazzita disse ron a ermione sgranando gli occhi consegnare una cosa così utile se la consegno dovrò dire dove l'ho presa filch scoprirebbe che l'hanno rubata fredda e george e sirius black disse ermione in un soffio potrebbe usare uno dei passaggi che ci sono su quella mappa per entrare nel castello gli insegnanti lo devono sapere non può entrare attraverso un passaggio segreto disse harry in fretta ce ne sono sette sulla mappa giusto fredda e george suppongono che filch ne conosca già quattro quanto agli altri tre uno è bloccato quindi nessuno può prenderlo uno ha il salice schiaffeggiante piantato sull'ingresso quindi di lì non si può uscire e quello che ho appena usato beh è molto difficile vedere l'entrata giù in cantina quindi a meno che non sapesse già della sua esistenza harry esitò e se black sapeva di quel passaggio ron comunque si schiarì la voce in maniera eloquente e indicò un cartello appeso all'interno della porta del negozio per ordine del ministero della magia si ricorda alla clientela che fino a ulteriore comunicazione i dissennatori pattuglieranno le strade di hogsmeade tutte le notti dopo il calar del sole questa misura è stata presa per garantire la sicurezza degli abitanti di hogsmeade e sarà revocata solo dopo la cattura di sirius black è quindi consigliabile portare a termine le compere ben prima del tramonto buon natale visto disse piano ron vorrei proprio vederlo sirius black che cerca di entrare da mielandia con il villaggio che brulica di dissennatori comunque emione i proprietari di mielandia lo sentirebbero se ci provasse non credi abitano sopra il negozio sì ma ma ermione sembrava decisa trovare un altro problema insomma harry non dovrebbe venire comunque a hogsmeade non ha il permesso firmato se qualcuno lo scopre finirà nei guai e guai seri e non è ancora il calar del sole cosa succede se sirius black si fa vedere oggi adesso magari farebbe una bella fatica trovare harry là in mezzo disse ron indicando con un cenno la neve fitta che vorticava oltre le finestre a pannelli dai ermione è natale harry si merita una tregua ermione si morse le labbra sembrava molto preoccupata ha intenzione di denunciarmi le chiese harry con un sorriso certo che no ma davvero harry hai visto le api frizzole harry disse ron trascinandolo verso un barile e le lumache gelatinose e i pallini acidi fred me ne ha dato uno quando avevo sette anni mi ha fatto un buco nella lingua mi ricordo che mamma gliele ha date con la scopa ron fissò la scatola dei pallini acidi sopra pensiero chissà se fred mangerebbe un po di scarafaggi a grappolo se gli dico che sono noccioline quando ron e ermione ebbero pagato tutti i dolci il terzetto uscì da mielandia e si tuffò nella tormenta hogsmeade sembrava un biglietto natalizio i piccoli cottage col tetto spiovente e i negozi erano coperti da uno strato di neve fresca c'erano girrande di agrifoglio sulle porte e candele incantate appese agli alberi harry tremava a differenza degli altri due non aveva il mantello risalirono la via le teste chine contro il vento ron e ermione intenti a urlare attraverso le sciarpe quello è l'ufficio postale zonco è da quella parte potremo andare fino alla stamberga strillante sapete cosa vi dico propose ron coi denti che battevano perché non andiamo a prenderci una burro birra ai tre manici di scopa harry era più che d'accordo il vento era tagliente e lui aveva le mani gelate così attraversarono la strada e dopo qualche minuto entravano nella piccola locanda era molto affollata rumorosa calda e fumosa una donna bentornita con un viso grazioso stava servendo una comitiva di chiassosi stregoni al bancone quella è madame rosmerta disse ron vado a prendere da bere d'accordo aggiunse arrossendo un pochino harry e ermione si fecero strada fino in fondo al locale dove c'era un tavolino libero tra la finestra e un bell'albero di natale vicino al camino ron tornò cinque minuti dopo con tre boccali schiumanti di burro birra bollente buon natale disse allegramente alzando il suo harry beve a lunghi sorsi era la cosa più squisita che avesse mai assaggiato e gli parve che lo scaldasse tutto da dentro una corrente improvvisa gli scompigliò i capelli la porta dei tre manici di scopa si era riaperta harry gettò uno sguardo in quella direzione da sopra l'orlo del boccale e la burro birra gli andò di traverso i professori mcgonagall e twig erano appena entrati nel pub in un vortice di fiocchi di neve seguiti a poca distanza da agrid immerso in una fitta conversazione con un uomo tarchiato che indossava una bombetta verde acido e un mantello gessato cornelius fudge ministro della magia in un attimo ron e ermione spinsero la testa di harry sotto il tavolo accoccolandosi al riparo grondante di burro birra harry strinse spasmodicamente il boccale vuoto e osservò i piedi degli insegnanti e di fudge avanzare verso il bancone fermarsi poi voltarsi e puntare proprio verso di lui da qualche parte di sopra ermione sussurrò mobili arbust l'albero di natale accanto al tavolo si sollevò di mezzo metro scivolò di lato e atterrò con un tonfo morbido esattamente davanti al loro tavolo nascondendoli alla vista degli insegnanti attraverso i fitti rami più in basso harry vide quattro sedi allontanarsi dal tavolo accanto a loro poi sentì grugniti i sospiri degli insegnanti e del ministro mentre si sedevano subito dopo vide avvicinarsi un altro paio di piedi calzati in scintillanti scarpe turchese col tacco alto e sentì una voce femminile un'acqua viola piccola per me disse la professoressa mcgonagall quattro pinte di idromele aromatico azzie rosmertha disse agrid uno sciroppo di ciliegia con seltz ghiaccio e ombrellino disse il professor flitwick schioccando le labbra quindi il rum di ribes rosso deve essere suo ministro grazie rosmertha cara disse fudge è davvero bello rivederti prendi qualcosa anche tu unisciti a noi beh grazie mille ministro harry vide i tacchi scintillanti allontanarsi e poi tornare indietro il cuore gli pulsava in gola perché non gli era venuto in mente che era l'ultimo fine settimana del trimestre anche per gli insegnanti e quanto sarebbero rimasti disseduti aveva bisogno di tempo per intrufolarsi di nuovo dentro mielandia se voleva tornare a scuola prima di notte la gamba di ermione scattò nervosa vicino a lui allora che cosa l'ha portata qui in mezzo ai boschi ministro chiese madame rosmertha harry vide la parte inferiore del corpo di fudge agitarsi sulla sedia come per controllare che nei dintorni nessuno origliasse poi disse a voce bassa chi altri mia cara se non sirius black credo che tu abbia sentito che cos'è successo sua scuola halloween mi sono giunte delle voci ammise madame rosmertha l'hai raccontato a tutto il pub agrid chiese la professoressa mcgonagall irritata crede che black sia ancora da queste parti ministro sussurrò madame rosmertha ne sono certo disse seccamente fudge lo sa che i dissennatori hanno perquisito il mio locale per ben due volte disse madame rosmertha con la voce un po' inclinata mi hanno fatto scappar via tutti i clienti è una cosa che danneggia gli affari ministro rosmertha cara a me non piacciono più che a te disse fudge imbarazzato una precauzione necessaria spiacevole ma insomma ne ho appena incontrati alcuni sono furiosi con silente non gli lascia metter piede nel territorio del castello direi proprio di no disse la professoressa mcgonagall decisa come faremmo a insegnare con quegli orrori in circolazione infatti infatti squitti il piccolo professor flitwick con i piedi che pensolavano dalla sedia comunque insistette fudge loro sono qui per proteggervi tutti da qualcosa di assai peggiore sappiamo tutti di che cosa è capace black lo sa che faccio ancora fatica a crederci disse madame rosmertha pensierosa di tutti quelli che passano al lato oscuro sirius black era l'ultimo che mi sarei immaginata voglio dire me lo ricordo da ragazzo a hogwarts se lei mi avesse detto allora che cosa sarebbe diventato avrei pensato che forse aveva bevuto troppo idromele non hai la più pallida idea di quello che ha fatto rosmertha disse fudge burbero le cose peggiori non sono note ai più le cose peggiori chiese madame rosmertha incuriosita peggio che uccidere tutta quella povera gente intende dire proprio così rispose fudge non ci posso credere che cosa potrebbe essere peggio di questo dici che te lo ricordi a hogwarts rosmertha mormorò la professoressa mcgonagall ti ricordi chi era il suo migliore amico ma certo rispose madame rosmertha con una risatina dove c'era uno c'era anche l'altro vi ricordate quante volte sono stati qui o mi facevano ridere come che coppia sirius black e james potter harry lasciò cadere il boccale che finì a terra con un tonfo ron gli sferrò un calcio precisamente disse la professoressa mcgonagall black e potter i capi della loro piccola banda tutti e due molto brillanti è ovvio straordinariamente brillanti in effetti ma non credo che a scuola ci siano mai state delle pesti come loro mica lo so disse agride ridacchiando fred e george weasley mi sa che gli darebbero del filo da torcere a quelli sì sembrava che black e potter fossero fratelli intervenne il professor flitwick inseparabili ma certo disse fudge potter si filava di black più che di ogni altro suo amico quando finirono la scuola nulla cambiò black fece da testimone quando james sposò lili poi lo scelsero come padrino di harry harry non lo sa naturalmente potete immaginare come l'idea lo torturerebbe perché black alla fine si è rivelato complice di voi sapete chi sussurrò madame rosmerta molto peggio mia cara fudge abbassò la voce e continuò in una sorta di basso bruntolio i potter sapevano che voi sapete chi dava loro la caccia silente che naturalmente lavorava senza sosta per fermare voi sapete chi aveva parecchie utili spie una di loro lo avvertì e lui lo disse subito a james e lidi consigliò loro di nascondersi beh naturalmente non era facile nascondersi da voi sapete chi silente disse loro che la cosa migliore era usare l'incanto fidelius come funziona chiese madame rosmerta col fiato sospeso per la curiosità il professor flitwick si schiarì la voce è un incantesimo incredibilmente complesso disse stridulo che consiste nel nascondere con la magia un segreto dentro una sola persona vivente l'informazione è nascosta dentro la persona prescelta o custode segreto e quindi è impossibile da trovare a meno che naturalmente il custode segreto non decida di renderla nota finché il custode segreto si fosse rifiutato di parlare voi sapete chi avrebbe potuto perquisire per anni il paesino dove erano nascosti james e lidi senza trovarli nemmeno se fosse andato a sbattere il naso contro la finestra del loro salotto allora black era il custode segreto dei potter sussurrò madame rosmerta ma certo disse la professoressa mcgonagall james potter disse a silente che black sarebbe morto piuttosto che rivelare dove si trovavano che lo stesso black progettava di nascondersi eppure silente rimase preoccupato ricordo che si offrì lui stesso come custode segreto per i potter sospettava di black chiese madame rosmerta sbalordita era certo che qualcuno vicino ai potter stesse tenendo informato voi sapete chi sui loro spostamenti disse cupamente la professoressa mcgonagall in verità da qualche tempo sospettava che qualcuno dalla nostra parte avesse tradito e stesse passando un sacco di informazioni a voi sapete chi ma james potter insistette per affidarsi a black si disse fudge tetro e poi appena una settimana dopo che l'incanto fidelius era stato eseguito black li tradì mormorò madame rosmerta proprio così black era stanco di fare il doppio gioco era pronto a dichiarare apertamente che stava dalla parte di voi sapete chi e pare che avesse progettato di farlo alla morte dei potter ma come tutti sappiamo voi sapete chi fallì col piccolo harry potter svaniti i suoi poteri terribilmente debole fuggì e questo lasciò black in una posizione molto spiacevole il suo signore era caduto proprio nel momento in cui lui black aveva mostrato la sua vera anima di traditore non ebbe altra scelta se non fuggire a sua volta sporco schifoso volta gabbana disse agrid così forte che metà degli avventori ammutolirono disse la professoressa mcgonagall io l'ho incontrato ringhiò agrid devo essere stato l'ultimo che l'ha visto prima che ammazzasse tutte quelle persone sono io che ho portato via harry dalla casa di lily e james dopo che li ha uccisi l'ho portato via da quelle rovine povero piccolino con una ferita grossa sulla fronte e i suoi genitori morti e sirius black salta fuori con quella sua moto volante non avevo capito che cosa faceva là non sapevo che era il custode segreto dei potter pensavo che aveva appena sentito la notizia dell'attacco di voi sapete chi e che era venuto a vedere cosa poteva fare tutto bianco e tremante era e sapete che cosa ho fatto ho consolato quel traditore assassino rugì agrid agrid ti prego disse la professoressa mcgonagall parla piano come facevo a sapere che non era disperato per lily e james invece lui pensava voi sapete chi e poi mi dice dammi harry agrid sono il suo padrino lo curo io ma io avevo ordini precisi da silente e ho detto a black che no che silente ha detto che harry deve andare da suo zio e sua zia black ha insistito ma alla fine si è arreso mi ha detto di prendere la sua moto per portare via harry a me non serve più dice ma io dovevo saperlo che c'era qualcosa che non andava lui amava quella moto perché allora la dava a me perché non gli serviva più perché era troppo facile da trovare silente lo sapeva che lui era il custode segreto dei potter black sapeva che doveva scappare quella notte sapeva che era questione di ore prima che il ministero gli dava la caccia e se gli davo harry ci scommetto che lo buttava giù dalla moto dritto in mare il figlio del suo migliore amico ma quando un mago passa al lato oscuro non c'è niente a nessuno che gli importa più un lungo silenzio seguì il racconto di agrid poi madame rosmerta disse piuttosto soddisfatta ma non è riuscito a sparire il ministero della magia l'ha catturato il giorno dopo ahimè magari disse faggia amaramente non siamo stati noi a trovarlo è stato il piccolo peter pettigrew un altro amico dei potter impazzito di dolore senza dubbio sapendo che black era il custode segreto dei potter è andato a cercarlo pettigrew quel ragazzino grasso che gli correva sempre dietro hogwarts chiese madame rosmerta venerava black e potter erano i suoi idoli disse la professoressa mcgonagall ma non era dotato come loro spesso sono stata dura con lui potete immaginare come come mi dispiace adesso era come se all'improvviso le fosse venuto il raffreddore su su minerva disse faggia gentilmente pettigrew è morto da eroe i testimoni babbani naturalmente poi abbiamo cancellato i loro ricordi ci hanno raccontato come pettigrew ha affrontato black dicono che si inghiozzava lili e james sirius come hai potuto e poi ha preso la detta beh naturalmente black è stato più veloce ha polverizzato pettigrew la professoressa mcgonagall si soffiò il naso e disse con voce confusa stupido ragazzo sciocco ragazzo era sempre un disastro nei duelli doveva lasciar fare al ministero parola mia se ero io a trovare black prima di pettigrew non perdevo tempo con le bacchette ma lo squartavo pezzo a pezzo ringhiò agrid non sai quello che dice agrid disse faggia severo nessuno a parte i maghi tiratori scelti della squadra speciale magica sarebbe riuscito a far fronte a black una volta in trappola io ero viceministro al dipartimento delle catastrofi magiche a quell'epoca e fui uno dei primi ad arrivare dopo che black uccise tutta quella gente io io non lo scorderò mai a volte me lo sogno ancora un cratere al centro della strada così profondo che aveva distrutto la fognatura corpi dappertutto babbani che urlavano e black lì in piedi che rideva davanti a ciò che era rimasto di pettigrew un mucchietto di stoffa macchiata di sangue e qualche qualche frammento faggia si interruppe bruscamente cinque nasi furono soffiati beh adesso lo sai non smerta disse faggia con voce roca black fu portato via da venti uomini della pattuglia della squadra speciale magica e pettigrew ricevette l'ordine di merlino prima classe alla memoria che credo fu di qualche consolazione per la sua povera madre da allora black è sempre rimasto ad azkaban madame rosmerta emise un lungo sospiro è vero che è pazzo ministro vorrei poterlo dire esclamò faggia lentamente credo che certamente la sconfitta del suo maestro lo abbia messo fuori gioco per un po l'assassinio di pettigrew e di tutti quei babbani fu l'atto di un uomo disperato senza via di scampo crudele e inutile ho incontrato black nella mia ultima ispezione ad azkaban sapete gran parte dei prigionieri stanno seduti e borbottano tra sé nel buio privi di senno ma vedere come black sembrava normale mi ha lasciato di stucco mi ha parlato come un essere ragionevole è stato snervante sembrava solo annoiato mi ha chiesto se avevo finito di leggere il giornale tranquillissimo ha detto che gli mancavano i cruciverba sì mi ha stupito lo scarso effetto che i dissennatori sembrano avere su di lui ed era uno dei prigionieri più sorvegliati sapete dissennatori fuori dalla sua cella giorno e notte ma perché crede che sia fuggito chiese madame rosmerta santo cielo ministro non starà cercando di riunirsi a lei sa chi vero oserei dire che questo è il suo piano finale disse faggio evasivo ma speriamo di catturarlo molto prima devo ammettere che voi sapete chi solo e senza complice è una cosa ma ridategli il suo servitore più fedele e tremo al pensiero di come potrebbe risorgere in fretta si udì un lieve tintinio di vetro contro legno qualcuno aveva posato il bicchiere cornelius se deve cenare con il preside sarà meglio che ci avviamo verso il castello disse la professoressa mcgonagall un paio dopo l'altro i piedi davanti a erri si caricarono di nuovo del peso dei loro proprietari orli di mantelli fluttuarono di fronte ai suoi occhi e i tacchi scintillanti di madame rosmerta sparirono dietro il bancone la porta dei tre manici di scopa si aprì di nuovo entrò un altro turbine di neve e gli insegnanti scomparvero i volti di ron e di ermione spuntarono sotto il tavolo lo fissarono entrambi senza parole la firebolt harry non aveva idea di come fosse riuscito a tornare nella cantina di mielandia nel tunnel e infine al castello sapeva solo che il viaggio di ritorno gli era parso rapidissimo e che si era a stento reso conto di quello che faceva perché nella sua testa rimbombava ancora la conversazione che aveva appena ascoltato perché nessuno gliel'aveva mai detto silente agrid il signor weasley cornelius fudge perché nessuno aveva mai accennato al fatto che i genitori di erri erano morti traditi dal loro migliore amico ron e ermione studiarono erri nervosamente per tutta la cena senza avere il coraggio di parlare di quello che avevano origliato perché persi era seduto accanto a loro quando salirono nella follata sala comune scoprirono che fredde george avevano fatto scoppiare una mezza dozzina di cacca bombe in un attacco di allegria da fine trimestre erri che non voleva che fredde george gli chiedessero se fosse riuscito a raggiungere hogsmeade sgattaiolo piano su nel dormitorio vuoto e si diresse verso il suo comodino spinse da una parte i libri e trovò subito quello che cercava l'album delle fotografie rilegato in cuoio che agrid gli aveva regalato due anni prima pieno di foto animate di suo padre e sua madre si sedette sul letto tirò le tende tutto attorno e cominciò a voltare le pagine cercando finché si soffermò su una foto del matrimonio dei genitori suo padre lo salutava con la mano sorridendo con i capelli neri arruffati come quelli di erri sparati in tutte le direzioni ecco sua madre splendente di felicità che lo teneva sotto braccio e lì vicino doveva essere lui il loro testimone erri non ci aveva mai pensato prima se non avesse saputo che si trattava della stessa persona non avrebbe mai indovinato che quello nella foto era black il suo viso non era incavato e cereo ma bello e ridente lavorava già per voldemort quando quella foto era stata scattata progettava già la morte delle due persone a lui più vicine sapeva che avrebbe dovuto affrontare 12 anni ad azkaban 12 anni che l'avrebbero reso irriconoscibile ma i dissennatori non gli fanno niente pensò erri fissando la bella faccia radiosa lui non sente gridare la mamma se si avvicinano troppo erri chiuse di colpo l'album lo rimise nel comodino si tolse i vestiti e gli occhiali e si infilò sotto le coperte controllando che le tende lo nascondessero ben bene la porta del dormitorio si aprì erri disse ron incerto ma erri rimase immobile fingendo di dormire sentì ron allontanarsi e si distese sulla schiena con gli occhi spalancati un odio che non aveva mai provato prima scorreva dentro di lui come veleno vedeva black che rideva di lui nell'oscurità come se qualcuno gli avesse incollato davanti agli occhi la foto dell'album rimase a guardare come se qualcuno gli mostrasse un frammento di film sirius black che fulminava peter pettigrew che somigliava a neville longbottom mandandolo in mille pezzi sentiva un basso mormorio eccitato anche se non aveva idea di come potesse suonare la voce di black è accaduto mio signore i potter mi hanno nominato loro custode segreto e poi ecco un'altra voce una risata penetrante la stessa risata che erri sentiva e che giare dentro la testa tutte le volte che i dissenatori si avvicinavano erri hai un un aspetto orribile erri non era riuscito a dormire fino all'alba al risveglio aveva trovato il dormitorio deserto si era vestito ed era sceso in una sala comune completamente vuota tranne che per ron che stava mangiando un rospo alla menta e si massaggiava lo stomaco e ermione che aveva sparpagliato libri e quaderni su tre tavoli dove sono tutti chiese erri partiti è il primo giorno di vacanza ricordi disse ron guardando erri da vicino è quasi ora di pranzo sarei venuto a svegliarti tra un minuto erri sprofondò in una poltrona vicino al fuoco la neve continuava a cadere oltre i vetri grattastinchi era disteso davanti al fuoco come un grosso tappeto rosso davvero hai l'aria di non stare troppo bene disse ermione guardandolo ansiosa sto bene replicò erri erri ascolta disse ermione scambiando uno sguardo con ron devi essere sconvolto per le cose che abbiamo sentito ieri ma comunque non devi fare niente di stupido tipo chiese erri tipo andare a cercare black disse ron seccamente erri capì che avevano provato quella conversazione mentre dormiva non disse nulla non lo farai vero erri chiese ermione perché non vale la pena di morire per black disse ron erri li guardò sembrava che proprio non capissero sapete che cosa vedo e sento tutte le volte che mi si avvicina un dissenatore ron e ermione scossero la testa preoccupati sento mia madre che grida e supplica voldemort e se voi sentiste vostra madre che urla così e sta per essere uccisa non ve la dimentichereste tanto in fretta e se scopriste che uno che doveva essere un suo amico l'ha tradita e ha messo voldemort sulle sue tracce tu non puoi farci niente esclamò ermione sconvolta i dissenatori prenderanno black e lui tornerà ad azkaban e e avrà quello che si merita hai sentito che cosa ha detto fudge azkaban non ha effetto su black per lui non è una condanna come lo è per gli altri e allora che cosa vorresti dire disse ron tesissimo vuoi uccidere black non essere sciocco intervenne ermione col panico nella voce erri non vuole uccidere nessuno vero erri ancora una volta erri non rispose non sapeva che cosa voleva fare sapeva solo che l'idea di non far niente mentre black era in libertà era più di quanto potesse sopportare malfoy lo sa disse bruscamente vi ricordate che cosa mi ha detto alla lezione se fossi io gli darei la caccia personalmente vorrei vendicarmi ha intenzione di seguire i consigli di malfoy invece dei nostri disse ron con rabbia ascolta lo sai che cosa hanno dato alla madre di pettigrew dopo che black ebbe finito con lui me l'ha detto papà l'ordine di merlino prima classe e un dito di pettigrew in una scatola il pezzo più grande che sono riusciti a ritrovare black è un pazzo erri ed è pericoloso malfoy deve averlo saputo da suo padre disse erri ignorando ron era uno degli amici di voldemort di tu sai chi per favore lo interruppe ron arrabbiato e quindi naturalmente i malfoy sapevano che black lavorava per voldemort e a malfoy piacerebbe tanto vederti esplodere in un milione di pezzi come pettigrew svegliati malfoy spera solo che tu ti faccia uccidere prima di doverti affrontare al quidditch erri ti prego disse ermione con gli occhi lucidi di lacrime ti prego si ragionevole black ha fatto una cosa terribile ma non devi metterti in pericolo è proprio quello che vuole o erri se andassi a cercarlo faresti il suo gioco tua madre e tuo padre non vorrebbero che tu ti facessi del male no non vorrebbero mai che tu andassi a cercare black non saprò mai che cosa vogliono o no perché grazie a black non ci ho mai parlato concluse erri cadde il silenzio grattastinchi si stiracchiò voluttuosamente estraendo gli artigli la tasca di ron raprividì sentite disse ron cercando di cambiare il discorso è vacanza è quasi natale andiamo andiamo a cercare agrid sono secoli che non andiamo a trovarlo no disse ermione in fretta erri non deve uscire dal castello ron sì andiamo disse erri così potrò chiedergli perché non ha mai parlato di black quando mi ha raccontato tutto dei miei genitori un'ulteriore discussione su sirius black chiaramente non era quello che ron aveva in mente oppure potremmo fare una partita a scacchi esclamò rapido o a gobiglie persi ha lasciato qui le sue no andiamo da agrid disse erri con fermezza così presero i mantelli passarono attraverso il ritratto combattete cani rognosi dal ventre giallo scesero nel castello deserto e uscirono dal portone di quercia si avviarono lentamente giù per il prato scavando uno stretto passaggio nella neve scintillante e polverosa le calze e gli orli dei mantelli inzuppati la foresta proibita sembrava avvolta da un incantesimo con tutti gli alberi drappeggiati d'argento e la capanna di agrid pareva un dolce con la glassa ron bussò ma nessuno rispose non sarà fuori vero disse ermione tremando sotto il mantello marron accostò l'orecchio alla porta sento un rumore strano disse ascoltate e zanna anche erri e ermione avvicinarono le orecchie alla porta dall'interno della capanna veniva una serie di bassi gemiti singhiozzanti e se andassimo a cercare qualcuno propose ron nervoso agrid gridò erri bussando forte agrid ci sei si udì un suono di passi pesanti poi la porta si aprì con uno scricchiolio agrid era lì gli occhi rossi e gonfi le lacrime che gli colavano sul gilet di cuoio avete saputo gemette gettandosi al collo di erri siccome agrid era grosso almeno il doppio di un uomo normale non era una cosa da ridere erri sul punto di crollare sotto il suo peso fu salvato da ron e ermione che afferrarono il guardacaccia da una parte e dall'altra e con l'aiuto di erri lo spinsero nella capanna agrid si lasciò condurre verso una sedia e si abbandonò sul tavolo singhiozzando in maniera incontrollabile il volto rigato di lacrime che gli scivolavano nella barba ingarbugliata agrid che cosa c'è chiese ermione turbata erri notò una lettera dall'aria ufficiale aperta sul tavolo che cos'è agrid i singhiozzi del guardacaccia raddoppiarono ma l'omone spinse la lettera verso erri che la prese e lesse ad alta voce caro signor agrid in seguito alla nostra inchiesta sull'aggressione di uno studente da parte di un ippogrifo durante la sua lezione abbiamo accettato le assicurazioni del professor silente sul fatto che lei non è responsabile del malaugurato incidente beh ma allora va tutto bene agrid disse ron battendogli su una spalla ma il guardacaccia non smise di singhiozzare e agitò una manona invitando erri a continuare ciò nonostante dobbiamo esprimere la nostra preoccupazione sull'ipogrifo in questione abbiamo deciso di accogliere la protesta ufficiale del signor lucius malfoi e il caso sarà dunque sottoposto al comitato per la soppressione delle creature pericolose l'udienza avrà luogo il 20 aprile le chiediamo di presentarsi con il suo ipogrifo nella data suddetta presso gli uffici del comitato a londra nel frattempo l'ipogrifo deve essere tenuto legato e isolato in fede seguiva l'elenco dei membri del consiglio della scuola o disse ron ma dicevi che fiero becco non è cattivo agrid scommetto che ce la farà tu non li conosci quei gargoyle del comitato per la soppressione delle creature pericolose esclamò agrid con voce soffocata asciugandosi gli occhi sulla manica loro ce l'hanno con le creature interessanti un rumore improvviso fece voltare erri ron e ermione fiero becco l'ipogrifo giaceva in un angolo della capanna masticando qualcosa che colava sangue sul pavimento non potevo lasciarlo legato là fuori nella neve esclamò agrid tutto solo a natale erri ron e ermione si scambiarono sguardi eloquenti non erano mai stati della stessa opinione di agrid su quelle che lui definiva creature interessanti e gli altri chiamavano mostri orribili d'altra parte non sembrava che fiero becco fosse particolarmente pericoloso in effetti rispetto alla media di agrid era piuttosto carino dovrai costruirti una difesa convincente agrid disse ermione sedendosi e passando una mano sull'enorme avambraccio dell'amico sono certa che puoi dimostrare che fiero becco è un animale tranquillo non cambierà niente singhiozzò agrid quei diavoli della soppressione lucius malfoi ce li ha in saccoccia hanno paura di lui e se perdo fiero becco agrid si passò il dito sulla gola poi diede in un alto gemito e si gettò in avanti nascondendo il viso fra le braccia il silente che cosa dice agrid chiese eri ha già fatto tante cose per me gemette agrid ha già tanto da fare per tenere quei dissennatori fuori dal castello e con sirius black nascosto in giro ron e ermione alzarono lo sguardo verso eri aspettandosi che cominciasse a rimproverare agrid di non avergli detto la verità su black ma eri non ci riuscì non con un agrid così depresso e spaventato ascolta agrid disse non puoi arrenderti ermione ha ragione hai solo bisogno di una buona difesa puoi chiamarci a testimoniare sono certa di aver letto di un ipogrifo che era stato provocato disse ermione pensosa e l'ipogrifo è stato assolto andrò a cercarlo agrid per vedere che cosa è successo esattamente agrid ululò ancora più forte eri e ermione cercarono con gli occhi l'aiuto di ron se preparassi il tè propose ron eri lo guardò sconcertato mia madre lo fa sempre quando qualcuno è sconvolto mormorò ron alzando le spalle alla fine dopo molte assicurazioni di aiuto davanti a una tazza di tè fumante agrid si soffiò il naso in un fazzoletto grande come una tovaglia e disse avete ragione non posso permettermi di andare a pezzi devo rimettermi in sesto zanna il grosso cane da caccia di agrid uscì timidamente da sotto il tavolo e posò la testa sul ginocchio del suo padrone io non sono più io ultimamente disse agrid accarezzando zanna con una mano e asciugandosi la faccia con l'altra sono preoccupato per fiero becco e per le mie lezioni che non piacciono a nessuno a noi piacciono mentì prontamente ermione sì sono straordinarie disse ron incrociando le dita sotto il tavolo come stanno i vermicoli morti disse agrid in tono lugubre troppa lattuga o no disse ron arricciando il labbro e quei dissennatori mi fanno sentire tutto strano disse agrid con un brivido improvviso ci devo passare davanti tutte le volte che vado ai tre manici di scopa per un goccetto è come essere ancora ad azkaban tacque e beve un sorso di tè ron e ermione lo guardarono senza fiato non avevano mai sentito agrid alludere al suo breve soggiorno ad azkaban dopo una pausa ermione chiese timidamente è brutto là dentro agrid non avete idea disse agrid piano mai stato in un posto così credevo di diventare matto continuavo a pensare cose terribili dentro la mia testa al giorno che mi hanno buttato fuori da hogwarts al giorno che il mio papà è morto al giorno che ho dovuto lasciar andare norberto gli occhi gli si riempirono di lacrime norberto era il cucciolo di drago che agrid una volta aveva vinto alle carte dopo un po non ti ricordi più chi sei e non sai più che senso a vivere mi ricordo che speravo di morire nel sonno quando mi hanno fatto uscire è stato come nascere un'altra volta tutto che tornava vivo la cosa più bella del mondo ma i dissennatori non erano contenti di lasciarmi andare ma eri innocente disse ermione agrid sbuffò credi che a quelli gli importa no che non gli importa basta che hanno cento duecento umani chiusi là con loro e gli possono succhiare via tutta la felicità e non gli importa mica chi ha la colpa e chi non ha la colpa agrid tacque un istante fissando il suo tè poi disse piano pensavo di liberare fiero becco cercare di farlo volar via ma come lo spieghi te a un ipogrifo che deve scappare a nascondersi e poi ho paura di infrangere la legge li guardò con le lacrime che gli inondavano il viso non voglio tornare mai più ad az cabal la gita da agrid tutt'altro che allegra aveva comunque sortito l'effetto sperato da ron e ermione anche se eri non si era certo scordato di black non poteva crogiolarsi di continuo nel pensiero della vendetta se voleva aiutare agrid a vincere l'udienza con il comitato per la soppressione delle creature pericolose lui ron e ermione andarono in biblioteca il giorno dopo e tornarono nella sala comune deserta carichi di libri utili per preparare la difesa di fiero becco tutti e tre sedettero davanti al fuoco acceso voltando lentamente le pagine di polverosi volumi che parlavano di casi celebri di animali feroci e ogni tanto quando si imbattevano in qualcosa di interessante la commentavano a voce alta sentite qui c'è stato un caso nel 1722 ma l'ippogrifo fu condannato beh guardate che cosa gli hanno fatto è orribile questo potrebbe servirci una manticora ha fatto a pezzi qualcuno nel 1296 e l'hanno lasciata andare oh no è stato solo perché avevano tutti troppa paura per avvicinarsi nel frattempo nel resto del castello erano state allestite le solite meravigliose decorazioni natalizie anche se non era rimasto quasi nessuno a godersene fitte ghirlande di vischio e agrifoglio furono appese nei corridoi luci misteriose brillavano dall'interno delle armature e la sala grande ospitava come sempre 12 abeti scintillanti di stelle d'oro un robusto delizioso aroma di cibo pervadeva i corridoi e per la vigilia di natale era diventato così intenso che anche crosta mise il muso fuori dal suo rifugio nella tasca di ron per annusare l'aria speranzoso la mattina di natale harry fu svegliato da ron che gli gettava addosso un cuscino ehi i regali harry afferrò gli occhiali e se li infilò socchiudendo gli occhi nella penombra per vedere bene il mucchietto di pacchi apparso ai piedi del letto ron stava già strappando via la carta dai suoi regali un altro maglione dalla mamma bordo un'altra volta guarda se ce l'hai anche tu harry ce l'aveva la signora weasley gli aveva mandato un golf scarlatto con il leone dei grifondoro ricamato davanti una dozzina di tortini fatti in casa un dolce di natale e una scatola di croccante alle nocciole mentre metteva da parte tutte queste cose scorse un lungo pacchetto sottile che era rimasto sotto che cos'è chiese ron con in mano un paio di calzini bordeaux appena scartati non lo so harry strappò la carta e trattenne il respiro mentre una meravigliosa scopa lucente rotolava sul copriletto ron lasciò cadere i calzini e balzò giù dal letto per vedere più da vicino non ci posso credere disse con voce roca era una firebolt la gemella della meraviglia che harry era andato a vedere tutti i giorni a diagonale il manico scintillò mentre lo afferrava harry lo sentì vibrare e lasciò la presa si librò a mezz'aria da solo esattamente all'altezza giusta per essere inforcato lo sguardo di harry si spostò dal numero di serie inciso in oro sulla punta del manico e poi giù giù fino agli aerodinamici ramoscelli di betulla perfettamente levigati che formavano la coda chi te lo manda chiese ron a mezza voce guarda se c'è un biglietto disse harry ron strappò la carta che aveva avvolto la firebolt non c'è niente cavolo chi spenderebbe così tanto per te beh disse harry stordito scommetto che non sono i darsley io scommetto che è stato silente disse ron che ora si aggirava attorno alla firebolt studiandone uno per uno i suntuosi dettagli anche il mantello dell'invisibilità te l'aveva mandato anonimo ma quello era di mio padre disse harry silente me l'ha solo consegnato non spenderebbe centinaia di galeoni per me non può permettersi di regalare cose del genere agli studenti ecco perché non vuole dire che è stato lui esclamò ron perché un idiota come malfoy non possa dire che fa dei favoritismi ehi harry aggiunse scoppiando a ridere malfoy aspetta che ti veda con quella ci resterà secco questa è una scopa mondiale non posso crederci mormorò harry facendo scorrere una mano sulla firebolt mentre ron sprofondava sul suo letto ridendo come un matto al pensiero di malfoy chi io lo so disse ron cercando di controllarsi io lo so chi può essere stato lupin cosa esclamò erry scoppiando a ridere a sua volta lupin ma se avesse tutto quel denaro potrebbe comprarsi dei vestiti nuovi sì però tu gli piaci disse ron ed era via quando la tua nimbus è andata in pezzi e può darsi che l'abbia sentito raccontare e che abbia deciso di andare a diagonale a prenderti questa come sarebbe a dire era via chiese erry era ammalato quando c'è stata quella partita beh in infermeria non c'era disse ron io ero là a pulire i vasi da notte per ordine di piton ti ricordi erry aggrottò la fronte non credo che lupin si possa permettere una cosa del genere perché ridete voi due ermione era appena entrata era in vestaglia e portava in braccio grattastinchi che aveva l'aria molto imbronciata e un festone argentato legato al collo non portarlo qui dentro disse ron estraendo in fretta crosta dalle profondità del suo letto e ficcandoselo nella tasca del pigiama ma ermione non gli diede retta lasciò cadere grattastinchi sul letto vuoto di simus e fissò la firebolt a bocca aperta oh erry chi te l'ha regalata non ne ho idea rispose erry non c'era nessun biglietto con sua grande sorpresa ermione non fu né eccitata né incuriosita dalla novità al contrario si fece seria e si morse un labbro che cos'hai le chiese ron non lo so disse ermione lentamente ma è un po strano no voglio dire è una bella scopa no ron sospirò esasperato è la scopa migliore che esiste ermione disse quindi deve essere molto costosa probabilmente costa più di tutte le scope dei serpe verde messe insieme disse ron allegramente beh chi regalerebbe a erry una scopa del genere senza nemmeno dirgli che è stato lui chiese ermione che cosa importa disse ron impaziente senti erry posso farci un giro posso credo che nessuno dovrebbe cavalcare quella scopa esclamò ermione erri e ron la fissarono che cosa pensi che ci farà erri spazzarci il pavimento chiese ron ma prima che ermione potesse rispondere gratastinchi balzò dal letto puntando dritto al petto di ron portalo fuori di qui ruggiron mentre gli artigli di gratastinchi gli strappavano il pigiama e crosta tentava una fuga disperata sulla sua spalla ron afferrò crosta per la coda e sferrò al gatto un calcio che invece colpì il baule ai piedi del letto di erry il baule si rovesciò e ron prese a saltellare strillando il pelo di gratastinchi si rizzò all'improvviso un acuto fischio metallico riempì la stanza lo spioscopio tascabile era scivolato fuori dai vecchi calzini di zio vernon e ora vorticava e riduceva sul pavimento me l'ero dimenticato disse erri chinandosi per raccoglierlo non mi metto mai quelle calze se posso evitarlo lo spioscopio girava e fischiava nel palmo della sua mano gratastinchi si bilava e soffiava contro il piccolo strumento è meglio se porti via quel gatto ermione disse ron furioso era seduto sul letto di erry e si massaggiava l'alluce non puoi spegnere quella roba aggiunse rivolto a erry mentre ermione usciva con glattastinchi che teneva ancora i maligni occhi gialli fissi su ron erry infilò di nuovo lo spioscopio dentro i calzini e li gettò nel baule ora si sentivano solo i gemiti e le imprecazioni di ron crosta era rannicchiato tra le mani del suo padrone erry che non lo vedeva da parecchio fu spiacevolmente sorpreso notando che crosta una volta così grasso era diventato molto magro e spelacchiato non ha l'aria di star bene vero chiese erry è lo stress ribatte ron starebbe benissimo se quella grossa stupida palla di pelo lo lasciasse in pace ma erry che ricordava quanto aveva detto la strega del serraglio stregato sul fatto che i topi vivono solo tre anni non pote fare a meno di pensare che a meno che crosta non possedesse poteri che non aveva mai rivelato la sua fine era vicina e nonostante ron si lamentasse spesso di crosta definendolo un topo noioso inutile erry era certo che ron sarebbe stato molto triste se crosta fosse morto lo spirito natalizio era decisamente scarso nella sala comune di grifondoro quella mattina ermione aveva chiuso grattastinchi nel dormitorio femminile ma era arrabbiata con ron perché aveva cercato di dargli un calcio ron era ancora furibondo per il recente tentativo di grattastinchi di divorare crosta erry rinunciò a cercare di farli parlare tra loro e si dedicò a un attento esame della firebolt che si era portato lì sotto per qualche motivo anche questo parve irritare ermione che non disse nulla ma continuò a guardare cupamente la scopa come se anche quella avesse criticato il suo gatto all'ora di pranzo scesero nella sala grande e scoprirono che i tavoli erano stati di nuovo disposti lungo le pareti e che al centro della stanza c'era un solo tavolo preparato per 12 i professori silente mcgonagall piton sprout e flitwick erano seduti con filch il guardiano che aveva sostituito il solito capotto marrone con un frac dall'aria molto vecchia e piuttosto muffita c'erano solo altri tre studenti due del primo anno che sembravano parecchio tesi e un imbronciato serpeverde del quinto anno buon natale esclamò silente mentre erri ron ermione si avvicinavano al tavolo siccome siamo così pochi ci sembrava sciocco usare i tavoli delle case sedete sedete erri ron ermione presero posto vicini all'altro capo del tavolo gli scoppiarelli disse silente entusiasta offrendo l'estremità di un involto d'argento a piton che lo prese con riluttanza e tirò con uno schiocco simile a un colpo di fucile il petardo magico si spezzò rivelando un grosso cappello da strega a punta sormontato da un avvoltoio impagliato erri memore del molliccio intercettò lo sguardo di ron ed entrambi sorrisero la bocca di piton diventò una fessura e l'insegnante spinse il cappello verso silente che lo indossò subito al posto del suo e ora dateci dentro disse con un sorriso mentre erri si serviva di patate arrosto le porte della sala grande si aprirono di nuovo era la professoressa trelone che scivolò verso di loro come se avesse le ruote per l'occasione indossava un abito verde coperto di lustrini che la faceva somigliare più che mai a una scintillante libellula gigante sibyl che bella sorpresa esclamò silente alzandosi stavo guardando nella sfera preside disse la professoressa trelonei con la sua voce più velata e remota e con mio grande stupore mi sono vista abbandonare il mio pranzo solitario e raggiungervi chi sono io per rifiutare i suggerimenti del destino sono scesa subito in fretta dalla mia torre e vi prego di perdonare il ritardo certo certo disse silente con gli occhi che brillavano permettimi di prenderti una sedia e in effetti con un cenno della bacchetta sollevò a mezz'aria una sedia che ruoteò su se stessa per qualche secondo prima di cadere con un tonfo tra il professor piton e la professoressa mcgonagall la professoressa trelonei comunque non si sedette i suoi occhi enormi passarono in rassegna il tavolo e all'improvviso lei emise una specie di strillo soffocato non oso professore se mi siedo con voi saremo in tredici la peggiore delle sfortune non dimenticate che quando tredici persone pranzano insieme la prima ad alzarsi sarà la prima a morire correremo questo rischio sibyl disse la professoressa mcgonagall impaziente siediti il tacchino si raffredda la professoressa trelonei esitò poi prese posto sulla sedia vuota gli occhi chiusi la bocca serrata come in attesa che un fulmine colpisse la tavola la professoressa mcgonagall affondò un grosso cucchiaio nella suppiera più vicina della trippa sibyl la professoressa trelonei la ignorò aprì gli occhi si guardò intorno un'altra volta e disse ma dov'è il caro professor lupin temo che il poverino sia di nuovo ammalato disse silente facendo cenno agli altri di servirsi un vero peccato che debba succedere proprio il giorno di natale ma naturalmente tu lo sapevi già vero sibyl disse la professoressa mcgonagall inarcando le sopracciglia la professoressa trelonei scoccò alla mcgonagall uno sguardo gelido certo che lo sapevo minerva disse piano ma non si ostenta la propria onniscienza spesso mi comporto come se non possedessi l'occhio interiore per non innervosire gli altri questo spiega molte cose ribatté mordace la professoressa mcgonagall la voce della trelonei si fece all'improvviso molto meno velata se vuoi proprio saperlo minerva il povero professor lupin non resterà fra noi molto a lungo sembra che sappia benissimo di non avere molto tempo davanti a sé è fuggito via quando mi sono offerta di guardare il suo futuro dentro la sfera di cristallo me lo immagino disse seccamente la professoressa mcgonagall dubito intervenne silente con voce allegra ma decisa a porre fine alla conversazione che il professor lupin corra un pericolo immediato severus gli hai preparato di nuovo quella pozione si preside disse piton bene disse silente quindi dovrebbe riuscire ad alzarsi molto presto derek hai preso un po di queste sono ottime il ragazzo del primo anno arrossì violentemente quando silente gli rivolse la parola e prese il piatto di salsicce con mani cremanti la professoressa trelonei si comportò quasi normalmente fino alla fine del pranzo di natale due ore più tardi con la pancia piena di cibo squisito indossando ancora i cappelli spuntati dagli scoppiarelli harry e ron furono i primi ad alzarsi da tavola e l'insegnante cacciò uno strillo miei cari chi di voi si è alzato per primo chi non lo so disse ron guardando incerto verso erri dubito che faccia molta differenza disse geri dalla professoressa mcgonagall a meno che un pazzo armato di ascia non sia appostato dietro la porta pronto a fare a pezzi il primo che attraversa l'ingresso anche ron rise la professoressa trelonei parve molto offesa vieni chiese erri a ermione no mormorò ermione devo dire una cosa alla professoressa mcgonagall probabilmente cercherà di farsi aumentare le lezioni disse ron con uno sbadiglio mentre attraversavano l'ingresso completamente sgombro di pazzi armati di ascia quando raggiunsero il ritratto trovarono ser cadogan che festeggiava il natale con un paio di frati parecchi precedenti presidi di hogwarts e il suo grasso pony sollevò il cimiero e brindò a loro alzando un calice di idromede buon natale parola d'ordine vile canaglia disse ron altrettanto a voi messere ruggì ser cadogan mentre il dipinto si spostava per lasciarli passare erri andò dritto al dormitorio prese la firebolt e il di manutenzione che ermione gli aveva regalato per il suo compreanno li portò di sotto e cercò di trovare qualcosa da fare alla firebolt ma non c'erano ramoscelli da potare e il manico splendeva talmente che era inutile lucidarlo lui e ron rimasero lì ad ammirarla da tutte le angolazioni finché il ritratto non si aprì lasciando entrare ermione accompagnata dalla professoressa mcgonagall anche se la mcgonagall era la direttrice di griffondoro erri l'aveva vista solo una volta nella sala comune ed era stato per dare un annuncio molto serio lui e ron la fissarono stringendo entrambi la firebolt ermione li superò si sedette prese il libro più vicino e vi nascose la faccia allora è questa vero disse la professoressa mcgonagall senza preamboli avvicinandosi al fuoco e osservando la firebolt la signorina granger mi ha appena informato che qualcuno ti ha regalato una scopa potter erri e ron guardarono ermione videro la sua fronte diventare rossa oltre il margine del libro che teneva a rovescio posso disse la professoressa mcgonagall e senza aspettare la risposta prese la firebolt dalle loro mani la esaminò con cura dalla punta alla coda e non c'era nessun biglietto potter niente nessun messaggio di nessun genere no disse erri in tono inespressivo capisco disse la professoressa mcgonagall beh temo che dovrò portarla via potter che cosa esclamò erri balzando in piedi perché dobbiamo controllare che non sia stata affatturata disse la professoressa mcgonagall io non sono un'esperta ma credo che madame ucce il professor flitwick la smonteranno la smonteranno ripeter ron come se la professoressa mcgonagall fosse pazza non ci vorrà più di qualche settimana disse l'insegnante la riavrai quando saremo sicuri che non sia stregata non ha niente che non va disse erri con un tremito nella voce davvero professoressa non puoi saperlo potter ribatte la professoressa mcgonagall in tono gentile non finché non l'hai provata e comunque temo che questo sia fuori questione finché non saremo sicuri che non sia stata manomessa ti terrò informato la professoressa mcgonagall girò sui tacchi e portando con sé la firebolt riattraversò il buco del ritratto che si chiusa alle sue spalle erri rimase a guardare nel vuoto anche quando fu sparita con il barattolo di lucido per manici ancora stretto in mano ron si voltò come una furia verso ermione perché sei andata a dirlo alla mcgonagall ermione gettò via il libro era ancora tutta rossa in faccia ma si alzò e guardò ron con aria di sfida perché pensavo e la professoressa mcgonagall è d'accordo con me che probabilmente è stato sirius black a mandare quella scopa a erri il patronus erri sapeva che ermione aveva agito con le migliori intenzioni ma questo non gli impedì di arrabbiarsi con lei per poche brevi ore era stato il proprietario di una delle migliori scope del mondo e ora grazie alla sua intromissione non sapeva se l'avrebbe mai più rivista era certo che al momento non ci fosse niente che non andava nella firebolt ma in che condizioni sarebbe stata dopo aver subito ogni genere di test antifattura anche ron era furioso con ermione per quello che lo riguardava smontare una firebolt nuova di zecca non era niente di meno che un crimine ermione sempre convinta di aver agito per il meglio prese a evitare la sala comune erri e ron immaginarono che si fosse rifugiate in biblioteca e non cercarono di convincerla a tornare dopo tutto furono contenti quando gli altri fecero ritorno a scuola subito dopo il primo dell'anno e la torre di grifondoro fu di nuovo affollata e rumorosa wood andò a cercare erri la sera prima dell'inizio delle lezioni hai passato un buon natale chiese e poi senza aspettare una risposta si sedette abbassò la voce e disse ho riflettuto un po' durante le vacanze erri dopo l'ultima partita sai se i dissennatori vengono anche alla prossima voglio dire non possiamo rischiare che tu beh wood si interruppe imbarazzato ci sto lavorando disse erri in fretta il professor lupin ha detto che mi avrebbe insegnato a tenere lontani i dissennatori dovremmo cominciare questa settimana ha detto che dopo natale avrebbe trovato il tempo ah esclamò wood illuminandosi bene in questo caso non volevo certo perdere un cercatore come te erri hai già ordinato una scopa nuova no rispose erri cosa sarà meglio che ti sbrighi sai non puoi cavalcare quella stella sfreccia contro il corvo nero gli hanno regalato una firebolt per natale disse ron una firebolt no davvero una una firebolt vera non agitarti oliver disse erri cupo non ce l'ho più me l'hanno requisita e raccontò tutto del controllo antifattura fattura e com'è possibile sirius black disse erri stancamente pare che mi dia la caccia quindi la mcgonagall crede che possa averla mandata a lui trascurando il fatto che un celebre assassino desse la caccia al suo cercatore wood disse ma black non avrebbe potuto comprare una firebolt è un evaso tutto il paese lo sta cercando come avrebbe potuto entrare da accessori di prima qualità per il quidditch e comprare una scopa lo so disse erri ma la mcgonagall ha deciso di farla smontare wood sbianco andrò a parlarle erri promise la farò ragionare una firebolt una vera firebolt nella nostra squadra lei vuole quanto noi che griffondoro vinca le farò capire una firebolt il giorno dopo ricominciarono le lezioni l'ultima cosa che si potesse desiderare era passare due ore all'aperto in una gelida mattina di gennaio ma agrid aveva preparato un falò pieno di salamandre per divertirli e trascorsero una lezione insolitamente piacevole raccogliendo legna secca e foglie per alimentare il fuoco mentre le bestiole scorrazzavano su e giù per i ceppi incandescenti che si sgretolavano la prima lezione di divinazione del nuovo trimestre fu molto meno divertente la professoressa trelonei era passata alla lettura della mano e informò subito erri che aveva le linee della vita più brevi che avesse mai visto era a difesa contro le arti oscure che erri aveva davvero voglia di andare dopo la conversazione con wood voleva cominciare le lezioni anti dissennatori il più presto possibile ah sì disse lupin quando erri gli ricordò la promessa alla fine della lezione fammi un po vedere cosa ne dici di giovedì sera alle otto la classe di storia della magia dovrebbe essere grande abbastanza dovrò pensare bene a come possiamo fare non possiamo far entrare nel castello un vero dissennatore per fare esercizio sembra ancora malato vero disse ron mentre percorrevano il corridoio diretti a cena secondo te che cosa alle loro spalle si udì un forte e impaziente era ermione seduta ai piedi di un'armatura intenta a sistemare la borsa così gonfia di libri che non si chiedeva cos'era quel chiese ron seccato niente rispose ermione con voce altera rimettendosi la borsa in spalla adesso mi spieghi ribatte ron mi stavo chiedendo che cosa lupin e tu beh ma non è ovvio disse ermione con un'aria di insopportabile superiorità se non vuoi dircelo non dircelo esclamò ron d'accordo disse ermione altezzosa prima di allontanarsi non lo sa commentò ron guardandola sta solo cercando di convincerci a parlarle di nuovo alle otto di giovedì sera eri uscì dalla torre di grifondoro e si dilesse verso la classe di storia della magia era buia e vuota quando arrivò ma accese le lanterne con la bacchetta e dopo soli cinque minuti apparve il professor lupin con una grossa cassa da imballaggio che posò sulla scrivania del professor beans che cos'è chiese eri un altro molliccio rispose lupin togliendosi il mantello è da martedì che setaccio il castello e per fortuna l'ho trovato nascosto nello schedario del signor filch è la cosa più simile a un dissennatore che abbiamo appena ti vedrà il molliccio si trasformerà in un dissennatore quindi potremo esercitarci con lui quando non lo usiamo posso tenerlo nel mio ufficio sotto la scrivania c'è un armadietto che gli piacerà d'accordo disse eri cercando di dare l'impressione di non essere preoccupato ma anzi assolutamente felice che lupin avesse trovato un così valido sostituto di un vero dissennatore allora il professor lupin estrasse la bacchetta e fece cenno a eri di imitarlo l'incantesimo che cercherò di insegnarti è magia molto avanzata eri molto al di sopra del fattucchiere ordinario si chiama incanto patronus come funziona chiese eri nervoso beh quando funziona correttamente evoca un patronus spiegò lupin che è una specie di anti dissennatore un guardiano che fa da schermo fra te e il dissennatore eri ebbe un'improvvisa visione di se stesso rannicchiato dietro una figura formato agrid armata di una grossa mazza il professor lupin riprese il patronus è una forza positiva una proiezione delle cose di cui si alimenta il dissennatore la speranza la felicità il desiderio di sopravvivere ma non può provare la disperazione come i veri esseri umani quindi i dissennatori non sono in grado di fargli del male devo però avvertirti eri che l'incantesimo potrebbe essere troppo avanzato per te molti maghi qualificati incontrano serie difficoltà che aspetto a un patronus chiese eri curioso ciascuno è unico per il mago che lo evoca e come si fa a evocarlo con un incantesimo che funziona soltanto se ti concentri con tutte le tue forze su un solo ricordo molto felice eri cercò un ricordo felice di sicuro nulla di quanto gli era successo dai darsley poteva andare alla fine scelse la prima volta che aveva cavalcato una scopa va bene disse cercando di richiamare alla mente con più precisione che poteva la meravigliosa sensazione del volo avvertita nello stomaco l'incantesimo è questo lupin si schiarì la voce expecto patronum expecto patronum ripete eri sottovoce expecto patronum ti stai concentrando bene sul tuo ricordo felice oh sì disse eri costringendosi a ripensare a quella prima cavalcata expecto patronum no patronum mi scusi expecto patronum expecto patronum qualcosa schizzò fuori all'improvviso dalla punta della sua bacchetta sembrava un filo di gas argenteo l'ha visto esclamò eri eccitato è successo qualcosa molto bene disse lupin con un sorriso ora sei pronto a provarci con un dissenatore si disserri stringendo forte la bacchetta e spostandosi al centro della classe deserta cercò di mantenere il pensiero fisso sul volo ma qualcos'altro continuava a interferire rischiava di risentire sua madre in ogni istante ma non doveva pensarci altrimenti l'avrebbe risentita davvero e non voleva o invece voleva lupin afferrò il coperchio della cassa e lo tolse un dissenatore si levò lentamente il viso incappucciato rivolto verso eri una mano spettrale e coperta di croste che tratteneva il mantello le lanterne tutto intorno guizzarono e si spensero il dissenatore uscì dalla cassa e prese ad avanzare in silenzio verso eri traendo respiri rotti e profondi un'ondata di gelo pungente investì il ragazzo expecto patronum urlò eri expecto patronum expecto ma la classe e il dissenatore si stavano dissolvendo eri cadeva di nuovo in una fitta nebbia bianca e la voce di sua madre era più acuta che mai e decheggiava dentro la sua testa eri no eri no per favore farò qualunque cosa scrosci di risa penetranti si divertiva al suo terrore eri eri tornò alla vita era disteso sul pavimento a pancia in su le lanterne della classe erano di nuovo accese non dovete chiedere che cos'era successo mi dispiace borbottò alzandosi a sedere mentre un sudore freddo gli colava dietro gli occhiali stai bene gli chiese lupin sì eri si aggrappò a un banco si alzò e vi si appoggiò ecco lupin gli porse una cioccorana mangiala prima di riprovare non mi aspettavo che ce la facessi la prima volta in effetti mi sarei stupito se ti fosse riuscito sta peggiorando mormorò eri staccando la testa della rana con un morso questa volta l'ho sentita più forte e lui voldemort lupin era più pallido del solito eri se vuoi che smettiamo ti capisco benissimo continuiamo esclamò eri deciso ficando si imbocca il resto della cioccorana devo farlo e se i dissennatori si presentano alla partita contro i corvo nero non posso permettermi di cadere di nuovo se perdiamo quell'incontro perderemo la coppa di quidditch allora va bene disse lupin forse vuoi scegliere un altro ricordo un ricordo felice voglio dire su cui concentrarti quello a quanto pare non era abbastanza intenso eri riflette e decise che i suoi sentimenti quando il grifondoro aveva vinto la coppa delle case l'anno prima si potevano proprio definire di grande felicità brandì di nuovo la bacchetta con forza e riprese il suo posto al centro della classe pronto gli chiese lupin afferrando il coperchio della cassa pronto rispose eri tentando con tutte le sue forze di riempirsi la testa di pensieri allegri sulla vittoria dei grifondoro e non di pensieri cupi su quello che sarebbe successo una volta aperta la cassa vai disse lupin sollevando il coperchio la stanza diventò di nuovo gelida e buia il dissenatore avanzò rantolando una mano in putrefazione si tese verso eri expecto patronum urrò eri expecto patronum expecto pat una nebbia bianca oscurò i suoi sensi grandi forme sfocate si muovevano attorno a lui poi udì una nuova voce la voce di un uomo che gridava preso dal panico lili prendi eri e scappa è lui scappa corri io cerco di trattenerlo il rumore di qualcuno che si precipita fuori da una stanza una porta che si spalanca una risatina acuta eri eri svegliati lupin lo stava schiaffeggiando questa volta eri ci mise un po di più a capire perché era disteso sul polveroso pavimento di una classe ho sentito mio padre mormorò è la prima volta che lo sento ha cercato di affrontare voldemort per dare a mia madre il tempo di fuggire eri all'improvviso si accorse che aveva il viso bagnato di lacrime chinò il capo più che poteva e si asciugò le guance con un lembo del vestito fingendo di allacciarsi la scarpa per non farsi vedere da lupin hai sentito james chiese lupin con una strana voce sì a volto asciutto eri alzò gli occhi perché lei non conosceva mio padre vero io sì in realtà disse lupin eravamo amici a hogwarts ascolta eri forse per questa sera dovremo lasciar perdere questo incantesimo è troppo avanzato non dovevo nemmeno proporti di provarci no esclamò eri si rialzò proverò un'altra volta non penso a cose abbastanza felici ecco cos'è aspetti si spremette le meningi un ricordo molto molto felice uno da poter trasformare in un buon patrono sforte il momento in cui aveva scoperto che era un mago e che avrebbe lasciato casa d'arsley per andare a hogwarts se non era quello un ricordo felice allora concentrandosi molto intensamente su ciò che aveva provato quando aveva capito che se ne sarebbe andato la prive drive eri si alzò e affrontò ancora una volta la cassa pronto chiese lupin con l'aria di agire contro ogni buon senso ti sei concentrato d'accordo vai alzò il coperchio della cassa per la terza volta e il dissenatore ne uscì la stanza divenne fredda e buia expecto patronum strillò eri expecto patronum expecto patronum l'urlo dentro la sua testa era ricominciato solo che questa volta era come se uscisse da una radio male sintonizzata diminuiva aumentava diminuiva di nuovo eri vide ancora il dissenatore si era fermato e poi una grande ombra argentea esplose dalla punta della bacchetta di eri si alzò fluttuando tra lui e il dissenatore e anche se eri si sentiva le gambe molli era ancora in piedi anche se non sapeva per quanto avrebbe resistito ridicolus ruggì lupin facendo un balzo in avanti qualcosa si spezzò sonoramente e il patronus nebuloso di eri sparì assieme al dissenatore eri si lasciò cadere su una sedia esausto come se avesse appena corso una maratona le gambe tremanti con la coda dell'occhio vide il professor lupin che a colpi di bacchetta costringeva il molliccio a rientrare nella cassa aveva preso di nuovo la forma di un globo argenteo eccellente disse lupin avvicinandosi eccellente eri davvero un buon inizio posso provare ancora solo una volta non ora disse lupin in tono fermo per una sola sera basta così ecco e porse a eri una grossa tavoletta del migliore cioccolato di mielandia mangialo tutto o madame bonfrey mi farà a pezzi ci vediamo la prossima settimana alla stessa ora ok disse eri diede un morso al cioccolato e guardò lupin che spegneva le lanterne che si erano riaccese dopo la scomparsa del dissenatore gli era appena venuta in mente una cosa professor lupin disse se conosceva mio padre allora deve aver conosciuto anche sirius black lupin si voltò in fretta che cosa te lo fa pensare disse in tono asciutto niente voglio dire so solo che anche loro erano amici qui a hogwarts il volto di lupin si rilassò sì lo conoscevo rispose brevemente o almeno così credevo è meglio che tu vada eri si sta facendo tardi eri uscì dalla classe percorse il corridoio e girò un angolo poi fece una deviazione dietro un'armatura e si sedette sul piedistallo per finire il cioccolato desiderando di non aver nominato black visto che chiaramente lupin non era entusiasta dell'argomento poi il pensiero di eri tornò a sua madre e suo padre si sentiva esausto e stranamente svuotato anche se era così pieno di cioccolato per quanto terribile fosse ascoltare gli ultimi istanti di vita dei suoi genitori ripetersi nella sua testa erano le sole volte che aveva sentito le loro voci da quando era molto piccolo ma non sarebbe mai stato in grado di far apparire un vero patronus se parte di lui desiderava riascoltare i suoi genitori sono morti si disse deciso sono morti e ascoltare i loro echi non li riporterà indietro meglio che ti controlli se vuoi quella coppa di quiddici si alzò si ficò in bocca l'ultimo pezzo di cioccolato e si diresse verso la torre di grifondoro corvo nero giocò contro serpeverde una settimana dopo l'inizio del trimestre vinse serpeverde anche se di stretta misura secondo wood era un bene per grifondoro che si sarebbe piazzato secondo se a sua volta avesse battuto corvo nero quindi wood portò il numero degli allenamenti a cinque alla settimana con le lezioni anti di senatore di lupin che da sole erano più faticose di sei allenamenti di quiddici henry aveva solo una sera alla settimana per fare i compiti anche così non parve accusare lo sforzo tanto quanto ermione il cui immenso carico di lavoro cominciava a farsi sentire tutte le sere senza eccezioni ermione se ne stava in un angolo della sala comune con parecchi tavoli coperti di libri schemi di aritmanzia dizionali di rune diagrammi di babbani che sollevavano oggetti pesanti e quaderni su quaderni di appunti fitti fitti quasi non parlava con nessuno e quando veniva interrotta scattava nervosissima come fa bisbigliò ron rivolto a erri una sera mentre quest'ultimo cercava di finire un tema complicato sui veleni riconoscibili per piton erri alzò gli occhi ermione si vedeva a stento dietro una pila di libri in bilico a far cosa a star dietro a tutte le lezioni disse ron questa mattina l'ho sentita che parlava con la professoressa vector quella di aritmanzia discutevano della lezione di ieri ma ermione non può esserci andata perché era con noi a cura delle creature magiche ed ernie mcmillen mi ha detto che non ha mai perso una lezione di babbanologia ma metà delle ore coincidono con divinazione e non è mai saltata una neanche di quelle erri non aveva tempo di lambicarsi sul mistero dell'orario impossibile di ermione doveva finire il tema per piton due secondi dopo comunque fu interrotto di nuovo questa volta da wood brutte notizie erri sono appena stato dalla professoressa mcgonagall a parlare della firebolt lei si è un po' arrabbiata con me mi ha detto che non capivo che cos'è più importante ha detto che mi importava di più di vincere la coppa che della tua vita solo perché le ho detto che non era un problema se la scopa ti disalcionava purché prima tu fossi riuscito a prendere il boccino wood scosse la testa incredulo davvero dovevi sentire come urlava neanche avessi detto una cosa terribile poi le ho chiesto quanto tempo pensava di tenersela fece una smorfia e imitò la voce severa della professoressa mcgonagall per tutto il tempo necessario wood credo che sia ora di ordinarti una scopa nuova erri c'è un modulo in fondo a guida alla scelta della scopa potresti prendere una nimbus 2001 come quella di malfoy non ho intenzione di comprare niente che sia buono per malfoy di serri con voce sorda gennaio si trasformò quietamente in febbraio senza alcun cambiamento nel tempo ancora freddo pungente la partita contro il corvo nero si avvicinava ma erri non aveva ancora ordinato una scopa nuova ormai chiedeva alla professoressa mcgonagall notizie della firebolt dopo ogni lezione di trasfigurazione con ron ritto al suo fianco speranzoso e ermione che li superava guardando dall'altra parte no potter non puoi ancora riaverla gli disse la professoressa mcgonagall la dodicesima volta prima ancora che aprisse bocca abbiamo controllato quasi tutte le maledizioni principali ma il professor flittwick ritiene che la scopa potrebbe essere infestata da un maleficio eiettore te lo dirò quando avremo finito di ispezionarla ora ti prego smettila di tormentarmi a peggiorare le cose le lezioni anti di senatore non stavano andando affatto bene come sperava per parecchie volte di fila erri riuscì a produrre una confusa ombra argentata tutte le volte che il molliccio di senatore gli si avvicinava ma il suo patronus era troppo debole per scacciarlo non faceva altro che alleggiare come una nuvola semi trasparente prosciugando le energie di erri che lottava per trattenerlo erri era arrabbiato con se stesso e si sentiva in colpa per il suo segreto desiderio di risentire le voci dei genitori pretendi troppo da te stesso dichiarò severamente il professor lupin la quarta settimana di lezioni per un mago di 13 anni anche un patronus confuso è un gran risultato e poi non svieni più no credevo che un patronus schiacciasse i dissenatori o roba del genere disse erri scoraggiato che li facesse sparire un vero patronus lo fa confermò lupin ma tu hai fatto grandi progressi in pochissimo tempo se i dissenatori si fanno vedere alla prossima partita di quidditch sarà in grado di tenerli a bada abbastanza a lungo da riuscire a tornare a terra ha detto che è più difficile se sono in tanti disse erri ho la massima fiducia in te lo incoraggiò lupin sorridendo ecco ti sei meritato una bibita arriva dai tre manici di scopa non credo che tu l'abbia mai assaggiata che strasse due bottiglie dalla valigia burro birra esclamò erri senza riflettere sì mi piace quella roba lupin alzò un sopracciglio oh ron e ermione me ne hanno portata un po' quando sono andati a hogsmeade menti rapido erri capisco disse lupin sospettoso beviamo alla vittoria di grifondoro contro corvo nero anche se io non dovrei tenere per nessuno essendo un insegnante aggiunse in fretta bevvero la burro birra in silenzio finché erri non decise di chiedere qualcosa a cui pensava da un po' che cosa c'è sotto il cappuccio dei dissenatori il professor lupin abbassò la bottiglia pensieroso beh i soli a saperlo non sono in grado di raccontarcelo vedi il dissenatore abbassa il cappuccio solo per usare la sua arma estrema la peggiore che cos'è lo chiamano il bacio del dissenatore disse lupin con un sorriso un po' obliquo è quello che fanno i dissenatori quando vogliono distruggere completamente qualcuno immagino che ci siano delle fauci di sotto perché le stringono sulla bocca della vittima e le succhiano l'anima erri sputò un po' di burro birra cosa uccidono oh no disse lupin è molto peggio puoi esistere anche senza l'anima sai purché il cuore e il cervello funzionino ancora ma non avrai più nessuna idea di te stesso nessun ricordo nulla non è possibile guarire esisti e basta come un guscio vuoto e la tua anima se n'è andata per sempre è perduta lupin prese un altro sorso di burro birra e poi disse è la sorte che attende sirius black c'era scritto stamattina sulla gazzetta del profeta il ministero ha dato ai dissenatori il permesso di procedere se lo trovano erri per un attimo rimase colpito all'idea che a qualcuno venisse succhiata via l'anima dalla bocca ma poi pensò a black se lo merita disse all'improvviso lo credi davvero gli chiese lupin quasi casualmente credi davvero che qualcuno possa meritare una cosa del genere sì rispose erri intorno di sfida per per certe cose avrebbe voluto dire a lupin della conversazione su black che aveva origliato ai tre manici di scopa di come black aveva tradito sua madre e suo padre ma per farlo avrebbe dovuto rivelare di essere andato hogsmeade senza permesso e sapeva che a lupin questo non sarebbe piaciuto così finì la sua burro birra ringraziò lupin e uscì dall'aula di storia della magia erri quasi rimpianse di aver chiesto che cosa c'era sotto il cappuccio di un dissenatore la risposta era così orribile e lui era così assorto a chiedersi che cosa si dovesse provare a farsi succhiar via l'anima che a metà delle scale andò a sbattere dritto contro la professoressa mcgonagall guarda dove vai potter mi scusi professoressa sono appena venuta a cercarti nella sala comune di grifondoro beh allora abbiamo fatto tutto quello che ci veniva in mente e sembra che non abbia niente che non va hai un vero amico da qualche parte potter erri rimase a bocca aperta l'insegnante gli stava porgendo la firebolt splendida come sempre posso riaverla chiese erri debolmente sul serio davvero rispose la professoressa mcgonagall con un sorriso direi che hai bisogno di prendere confidenza con lei prima della partita di sabato o no e potter cerca di vincere d'accordo o saremo fuori gioco per l'ottavo anno di fila come il professor piton è stato così carino da ricordarmi non più tardi di ieri sera a mutolito erri portò la firebolt di sopra nella torre di grifondoro mentre girava un angolo vide ron che sfrecciava verso di lui con un sorriso da un orecchio all'altro della data ottimo senti mi fai fare un giro domani sì certo disse erri con il cuore leggero come una piuma sai dovremmo fare pace con ermione in fondo voleva solo aiutarmi sì d'accordo disse ron adesso è nella sala comune che studia tanto per cambiare svoltarono nel corridoio che portava alla torre di grifondoro e videro neville longbottom che supplicava ser cadogan che non voleva lasciarlo entrare le ho scritte piagnucolava neville ma il foglietto deve essermi caduto bella storia ruggì ser cadogan poi vedendo erri e ron buonasera miei giovani cavalieri mettete in ceppi questo babbeo che sta cercando di forzare l'ingresso alle vostre stanze o stai zitto disse ron mentre lui e erri si avvicinavano a neville ho perso le parole d'ordine disse loro neville desolato mi ero fatto dire tutte le parole d'ordine che usava questa settimana visto che continuo a cambiarle e adesso non so dove sono finite zio del cielo disse erri a ser cadogan che fu molto deluso e si spostò malvolentieri per lasciarli entrare nella sala comune un improvviso mormorio d'eccitazione si propagò tra i ragazzi e in un attimo erri si ritrovò circondato da una piccola folla eccitata dove l'hai presa erri mi fai fare un giro l'hai già provata erri il corvo nero non avranno scampo hanno tutti delle tornado sette me la fai tenere erri dopo una decina di minuti durante i quali la firebolt passò di mano in mano e fu ammirata da tutte le angolazioni la folla si disperse e erri e ron videro ermione la sola a non essersi precipitata su di loro china sui libri bene attenta a evitare i loro occhi erri e ron si avvicinarono al suo tavolo e alla fine lei alzò lo sguardo me l'hanno ridata disse erri con un sorriso alzando la firebolt visto ermione non aveva niente che non andava esclamò ron beh ma poteva anche non essere così rispose ermione voglio dire almeno adesso sai che è sicura sì credo di sì disse erri è meglio se la porto di sopra la porto io si offrirò entusiasta devo dare a crosta il suo sciroppo ratto prese la firebolt e reggendola come se fosse fatta di vetro la portò via verso la scala dei ragazzi posso sedermi allora erri chiese ermione credo di sì rispose ermione spostando da una sedia un mucchio di pergamene erri guardò il tavolo sovraccarico il lungo tema di aritmanzia con l'inchiostro ancora umido il tema ancora più lungo di babbanologia perché i babbani hanno bisogno dell'elettricità e la traduzione in rune su cui era china ermione come fai a cavartela con tutta questa roba le domandò oh beh sai studio tanto disse ermione da vicino erri notò che aveva l'aria stanca quasi quanto lupin perché non lasci perdere un paio di materie le chiese mentre lei spostava i libri per cercare il vocabolario runico non potrei mai rispose ermione scandalizzata aritmanzia sembra spaventosa disse erri prendendo uno schema numerico dall'aria molto complicata oh no è meravigliosa disse ermione entusiasta è la mia materia preferita e ma erri non scoprì mai che cosa ci fosse di tanto meraviglioso nell'aritmanzia in quel preciso istante un urlo strozzato e che gioda la scala dei ragazzi tutti i presenti tacquero e fissarono l'ingresso pietrificati poi risuonarono passi frettolosi sempre più forti e alla fine comparve ron trascinando un lenzuolo guarda urlò avvicinandosi al tavolo di ermione guardate gridò scuotendo il lenzuolo davanti agli amici ron che cosa crosta guardate crosta ermione si ritrasse sconvolta erri guardò il lenzuolo c'era qualcosa di rosso sopra qualcosa che assomigliava orribilmente a sangue urlò ron nel silenzio attonito non c'è più e sapete che cosa ho trovato per terra no disse ermione con voce tremante ron gettò qualcosa sulla traduzione l'unica di ermione lei e erri si sporsero per vedere sulle strane forme spigolose c'erano parecchi lunghi peli rossi di gatto grifondoro contro corvo nero quella parve la fine dell'amicizia tra ron e ermione erano tutti e due così arrabbiati che erri non capiva come avrebbero potuto far pace ron era furioso perché ermione non aveva mai preso sul serio i tentativi di grattastinchi di divorare crosta non si era preoccupata di tenerlo d'occhio e tentava ancora di farlo passare per innocente visto che gli suggeriva di cercare il topo sotto i letti dei ragazzi ermione da parte sua sosteneva che ron non aveva nessuna prova che grattastinchi avesse mangiato crosta che i peli rossi potevano essere lì da natale e che ron era sempre stato prevenuto nei confronti del gatto fin da quando grattastinchi gli era balzato in testa al serraglio stregato personalmente erri era sicuro che grattastinchi si fosse mangiato crosta e quando cercò di far notare a ermione che tutte le prove puntavano in quella direzione lei perse la pazienza anche con lui ok stai con ron tanto lo sapevo disse con voce acuta prima la firebolt poi crosta è sempre colpa mia vero lasciami stare erri ho un sacco di compiti ron in effetti aveva preso molto male la scomparsa del topo dai ron non facevi che ripetere quant'era noioso crosta disse fred per consolarlo era giù da secoli se ne stava andando probabilmente è stato meglio per lui sparire così in un boccone non deve aver sentito niente fred esclamò ginny indignata non faceva che mangiare e dormire ron lo dicevi tu disse george una volta però ammorsicato goyle disse ron sconsolato ti ricordi erri sì è vero confermò erri il suo momento di gloria disse fred incapace di restare serio che la cicatrice sul dito di goyle sia perenne tributo alla sua memoria dai ron vai a hogsmeade e comprati un topo nuovo a cosa serve lamentarsi nell'estremo tentativo di rincuorare ron erri lo convince ad accompagnarlo all'ultimo allenamento dei grifondoro prima della partita contro i corvo nero così alla fine avrebbe potuto fare un giro sulla firebolt la cosa parve distrarre per un attimo ron dal pensiero di crosta splendido posso provare a fare qualche gol e così i due ragazzi si diressero insieme verso il campo madame muc che continuava ad assistere agli allenamenti dei grifondoro per tenere d'occhio erri fu colpita dalla firebolt quanto gli altri prima del decollo la prese la studiò da vicino ed espresse il suo giudizio tecnico che equilibrio se la serie nimbus ha un difetto e un piccolo solco nella coda spesso dopo qualche anno comincia a fare attrito hanno anche modernizzato il manico è un po più sottile delle tornado mi ricorda le vecchie frecce d'argento peccato che abbiano smesso di produrre io ci ho imparato a volare ed era una gran bella vecchia scopa anche quella continuò così per un po finché wood disse madame muc le spiace restituire la firebolt a harry dovremmo proprio allenarci o certo ecco potter disse madame muc vado a sedermi con weasley lei e ron uscirono dal campo e presero posto sulle tribune mentre la squadra dei grifondoro si riuniva attorno a wood per le istruzioni finali prima della partita del giorno dopo harry ho appena scoperto chi sarà il cercatore di corvo nero ciò chan è una del quarto anno ed è bravina speravo che non fosse in forma ha avuto qualche problema wood espresse il suo disappunto per la completa ripresa di ciò chan poi disse d'altra parte cavalca una comet 260 che sarà semplicemente ridicola vicino alla firebolt dedicò alla scopa di harry uno sguardo di fervente ammirazione poi disse ok andiamo e finalmente harry si mise a cavalcioni della firebolt e decollò era come sognare la firebolt girava al minimo tocco sembrava obbedire ai suoi pensieri più che alla sua presa filava per il campo a una tale velocità che lo stadio diventò una macchia verde e grigia harry la fece voltare così bruscamente che alicia spinne turrò poi si tuffò in una picchiata perfettamente controllata sfiorando il campo erboso con le punte dei piedi prima di innalzarsi di nuovo a dieci dodici quindici metri harry ora libero il boccino gridò wood harry si voltò e inseguì un bolide fino agli anelli lo superò senza sforzo vide il boccino sfrecciare da dietro wood e di lì a dieci secondi lo teneva stretto in mano la squadra urlò di gioia harry lasciò andare il boccino gli diede un vantaggio di un minuto poi scattò all'inseguimento slalomando fra gli altri lo vide rotolare vicino al ginocchio di katie bell fece un giro della morte e lo afferrò di nuovo fu l'allenamento più riuscito di tutti la squadra contagiata dalla presenza della firebolt provò le sue tattiche migliori senza errori e quando atterrò di nuovo wood non ebbe una sola critica da fare cosa che come fece notare george weasley non era mai successa prima di allora non so proprio che cosa potrebbe fermarci domani disse wood a meno che harry hai risolto il tuo problema con i dissennatori vero sì rispose harry pensando al suo debole patronus e desiderando che fosse più forte i dissennatori non torneranno oliver silente andrebbe su tutte le furie disse fred fiducioso beh speriamo di no disse wood comunque buon lavoro a tutti torniamo alla torre a letto presto io resto qui ancora un po ron vuole fare un giro sulla firebolt disse harry a wood e mentre il resto della squadra si avviava agli spogliatoi harry andò verso ron che superò con un balzo la barriera e gli venne incontro madame hutch si era addormentata eccola qui disse harry e tese la firebolt a ron ron con espressione statica montò la scopa e filò nell'oscurità che si infittiva harry si spostò al bordo del campo per guardarlo e la notte calò prima che madame hutch si destasse con un sussulto sgridasse harry e ron per non averla svegliata e insistesse per farli tornare al castello harry si mise in spalla la firebolt e lui e ron uscirono dallo stadio buio discutendo l'andatura straordinariamente regolare della scopa la sua fenomenale accelerazione e la sua precisione nelle svolte erano a metà strada quando harry guardando a sinistra vide qualcosa che gli mozzò il fiato due occhi che scintillavano nell'oscurità harry si mobilizzò col cuore che gli sbatacchiava contro le costole che cosa succede chiese ron harry indicò gli occhi ron estrasse la bacchetta e mormorò lumos un raggio di luce attraversò l'erba colpì un albero e ne illuminò i rami lì accovacciato tra le foglie nuove c'era gratta stinchi fattene via ruggì ron chinandosi per raccogliere un grosso sasso ma prima che lo potesse lanciare gratta stinchi sparì con un guizzo della lunga coda rossiccia visto disse ron furioso lasciando cadere il sasso continua a lasciarlo andare dove vuole probabilmente adesso sta mandando giù crosta con un paio di uccelli harry non disse niente respirò a fondo lasciandosi pervadere dal sollievo per un attimo aveva creduto che quegli occhi appartenessero al gramo ripartirono alla volta del castello vergognandosi un po di quell'attacco di panico harry non disse nulla a ron e non si guardò né a destra né a sinistra finché non furono nella sala d'ingresso bene illuminata la mattina dopo harry scese a colazione accompagnato dagli altri ragazzi del suo dormitorio convinti che la firebolt meritasse una sorta di drappello d'onore quando harry entrò nella sala grande tutti si voltarono a guardare la firebolt e si diffuse un mormorio di eccitazione harry vide con enorme soddisfazione che la squadra dei serpe verde sembrava colpita da un fulmine visto che faccia ha fatto esclamò ron allegramente fissando malfoi non ci può credere che bello anche wood si pavoneggiava nella gloria riflessa della firebolt mettila qui harry suggerì posando la scopa in mezzo al tavolo e voltandola in modo che il nome fosse ben visibile alcuni ragazzi di corvo nero e tasso frasso si avvicinarono per darle un'occhiata cedric digori andò a complimentarsi con harry per aver acquistato una sostituta così straordinaria della nimbus e la fidanzata di persi penelope clearwater di corvo nero chiese se poteva prenderla in mano su su penny niente sabotaggi disse persi cordialmente mentre la ragazza esaminava la firebolt da vicino io e penelope abbiamo fatto una scommessa disse agli altri dieci galeoni sul risultato della partita penelope rimise la scopa al suo posto ringraziò harry e tornò al suo tavolo harry fa in modo di vincere si raccomandò persi in un sussurro frettoloso io non ce li ho dieci galeoni si vengo penny e si affrettò a raggiungerla davanti a una fetta di pane tostato sei sicuro di riuscire a controllare quella scopa potter disse una fredda voce strascicata draco malfoi si era avvicinato per vedere meglio con crebbe goil alle spalle sì credo di sì rispose harry in tono indifferente ha un sacco di effetti speciali vero chiese malfoi con gli occhi che brillavano maligni peccato che non abbia anche un paracadute nel caso si avvicini un dissennatore crebbe goil ridacchiarono peccato che non ti possa spuntare un braccio in più malfoi rispose harry così forse ce la faresti a prendere il boccino la squadra dei grifondoro scoppiò in una sonora risata gli occhi pallidi di malfoi diventarono due fessure e il ragazzo si allontanò lo guardarono raggiungere il resto della squadra di serpe verde che si riunì a confabulare certo per chiedere a malfoi se la scopa di harry fosse davvero una firebolt alle 11 minun quarto la squadra di grifondoro si avviò agli spogliatoi il tempo non avrebbe potuto essere più diverso da quello della partita contro tasso frasso era una giornata limpida e fresca con un venticello leggero questa volta non ci sarebbero stati problemi di visibilità harry seppur nervoso cominciava ad avvertire l'eccitazione che solo una partita di quidditch poteva portare con sé udirono il resto della scuola che prendeva posto nello stadio harry si tolse la divisa scolastica nera estrasse la bacchetta dalla tasca e la infilò nella maglietta che avrebbe indossato sotto la divisa da quidditch sperava solo di non averne bisogno all'improvviso si chiese se il professor lupin sarebbe stato tra la folla a guardare sapete che cosa dobbiamo fare disse wood mentre si preparavano a uscire dagli spogliatoi se perdiamo questa partita siamo fuori gara voi comportatevi come all'allenamento di ieri e andrà tutto bene uscirono in campo accolti da un tumultuoso applauso la squadra di corvo nero vestita di blu era già schierata a metà campo il loro cercatore ciò chan era l'unica ragazza della squadra era più bassa di harry gli arrivava sì e no alle spalle e harry non poteva fare a meno di notare pur teso com'era che era molto carina lei sorrise a harry mentre le squadre si fronteggiavano dietro i loro capitani e lui avvertì una lieve stretta dalle parti dello stomaco una cosa che non aveva nulla a che fare con i nervi wood davis stringetevi la mano disse madame mucce spiccia e wood tese la mano al capitano di corvo nero salite sulle scope al mio fischio tre due uno harry si librò a mezz'aria e la firebolt scattò più alta e più veloce di ogni altra scopa il suo cavaliere fece un giro di prova sopra lo stadio e prese a guardarsi in giro in cerca del boccino ascoltando la cronaca affidata all'amico dei gemelli weasley lee jordan sono partiti e l'attenzione di tutti in questa partita è puntata sulla firebolt che harry potter cavalca per grifondoro secondo la guida alla scelta della scopa la firebolt sarà la scopa prescelta dalle squadre nazionali alla coppa del mondo di quest'anno jordan ti dispiacerebbe dirci che cosa succede in campo lo interruppe la voce della professoressa mcgonagall sicuro professoressa stavo dando solo qualche informazione in più la firebolt tra parentesi monta di serie un incantesimo autofrenante jordan ok ok grifondoro in possesso di palla katy bell di grifondoro sta cercando il gol harry oltrepassò katy puntando nella direzione opposta e guardandosi in giro in cerca di uno scintillio dorato cho chan se ne accorse subito lo tallonava era una giocatrice esperta continuava a tagliargli la strada costringendolo a cambiare direzione falle vedere come acceleri harry urlò fred superandolo per puntare a un bolide che si dirigeva verso alicia harry spinse in avanti la firebolt mentre giravano attorno alle porte di corvo nero e cho rimase indietro proprio mentre katy segnava il primo gol della partita e i giocatori di grifondoro esultavano lo vide il boccino era quasi a terra e svolazzava vicino a una delle barriere harry scese in picchiata cho lo vide e si lanciò al suo inseguimento harry accelerò pervaso dall'eccitazione le picchiate erano la sua specialità mancavano solo tre metri in quel momento un bolide colpito da uno dei battitori di corvo nero balzò fuori dal nulla harry deviò e lo evitò per un pelo in quei pochi cruciali istanti il boccino sparì dai tifosi di grifondoro si alzò un grosso di delusione e dall'ala di corvo nero esplose un fragoroso applauso per il battitore george weasley manifestò il suo disappunto sparando il secondo bolide direttamente contro il battitore avversario che fu costretto a rovesciarsi a mezz'aria per evitarlo grifondoro in vantaggio per 80 a 0 e guardate quella firebolt come fila potter la sta mettendo davvero alla prova guardate come la fa girare e la comet di chan non è certo all'altezza la precisione l'equilibrio della firebolt sono davvero straordinari in questi lunghi jordan ti pagano per fare pubblicità le firebolt vai avanti con la cronaca corvo nero si riscosse segnò tre gol lasciando a grifondoro un vantaggio di soli 50 punti se ciò avesse preso il boccino prima di harry corvo nero avrebbe vinto harry planò verso il basso evitando di stretta misura un cacciatore di corvo nero e scrutò il campo in ansia un brillio d'oro un palpito di piccole ali il boccino era raggiù attorno alle porte di grifondoro harry accelerò gli occhi incollati al frammento d'oro davanti a lui ma un attimo dopo ciò apparve dal nulla e gli sbarrò la strada harry non è il momento di fare il gentiluomo ruggì wood mentre harry deviava per evitare l'urto falla cadere dalla scopa se devi harry si voltò e vide ciò che sorrideva il boccino era sparito di nuovo harry puntò verso l'alto la firebolt e presto fu sei metri sopra dove si stava svolgendo il gioco con la coda dell'occhio vide che ciò lo seguiva aveva deciso di marcarlo stretto invece di andare a cercare il boccino benissimo se voleva inseguirlo doveva subirne le conseguenze si tuffò di nuovo in picchiata e ciò convitta che avesse visto il boccino cercò di stargli dietro harry si rialzò bruscamente e lei continuò a precipitare lui scattò di nuovo veloce come un proiettile e poi lo vide per la terza volta il boccino scintillava alto sul campo dalla parte di corvo nero accelerò così fece ciò parecchi metri più in basso harry era in vantaggio si avvicinava al boccino ogni secondo di più e poi oh urlò ciò indicando qualcosa distratto harry guardò in basso tre dissennatori tre alti neri dissennatori incappucciati guardavano verso di lui non si fermò a pensare si infilò una mano sotto la divisa estrasse la bacchetta e rugì expecto patronum qualcosa di enorme di un bianco argenteo spuntò dall'estremità della bacchetta harry sapeva di averla puntata direttamente verso i dissennatori ma non si fermò a vedere che cosa succedeva con la mente ancora miracolosamente sgombra guardò davanti a sé c'era quasi tese la mano che ancora stringeva la bacchetta e riuscì a stento a serrare le dita attorno al minuscolo boccino che si divincolava ma da munch fischiò harry si voltò a mezz'aria e vide sei macchie scarlatte che puntavano su di lui un attimo dopo tutta la squadra lo abbracciava così forte che quasi lo fece cadere dalla scopa in basso echeggiavano le urla dei grifondoro tra la folla così si fa ripeteva voodoo urlando alicia angelina e katy avevano baciato harry fred lo teneva così stretto che la testa rischiava di saltargli via nel caos più totale la squadra riuscì a scendere a terra harry smontò dalla scopa e vide un branco schiamazzante di tifosi di grifondoro che correvano in campo ron in testa prima di rendersene conto si trovò circondato da una folla festante sì strillò ron alzando il braccio di harry sì sì ben fatto harry disse persi entusiasta ho vinto dieci galeoni devo andare a cercare penelope scusa bravo harry ruggì simus finnegan maledettamente bravo esplose agrid da sopra le teste dei grifondoro che si accalcavano quello sì che era un patronus disse una voce all'orecchio di harry harry si voltò e vide il professor lupin insieme scosso e compiaciuto i dissennatori non mi hanno fatto niente disse harry eccitato non ho sentito niente forse perché non erano dissennatori disse il professor lupin vieni a vedere guidò harry via dalla folla finché non giunsero in vista dell'estremità del campo hai fatto prendere un bello spavento al signor malfoy disse lupin harry guardò la scena stupefatto per terra in un mucchio aggrovigliato c'erano malfoy crab goyle e marcus flint il capitano dei serpeverde che lottavano per liberarsi dei loro lunghi mantelli neri col cappuccio a quanto pareva malfoy doveva essere salito sulle spalle di goyle la professoressa mcgonagall furiosa come non mai era in piedi di fronte a loro davvero un tiro spregevole urlava un basso vile tentativo di sabotare il cercatore dei grifondoro siete tutti in punizione e 50 punti in meno per serpeverde ne parlerò con il professor silente non dubitate eccolo che arriva fu il miglior suggello alla vittoria dei grifondoro ron che si era fatto largo tra la folla al fianco di harry era piegato in due dalle risate mentre malfoy cercava di districarsi dal mantello in cui era ancora impigliata la testa di goyle andiamo harry disse george avvicinandosi andiamo a festeggiare nella sala comune di grifondoro subito d'accordo disse harry felice come non lo era da secoli lui e il resto della squadra ancora in divisa scarlatta guidarono la folla fuori dallo stadio e verso il castello era come se avessero già vinto la coppa di quidditch la festa proseguì per tutto il giorno fino a sera tarda fredde george weasley scomparvero per un paio d'ore e tornarono con bracciate di bottiglie di burro birra zucca fizz e parecchi sacchetti pieni di dolci di mielandia come avete fatto strillò angelina johnson mentre george lanciava rospi alla menta tra la folla con un piccolo aiuto di luna storta codaliscia felpato e ramoso sussurrò fredda all'orecchio di harry solo una persona non si unì ai festeggiamenti ermione incredibile ma vero rimase seduta in un angolo cercando di leggere un libro enorme intitolato vita domestica e abitudini sociali dei babbani inglesi harry si allontanò dal tavolo dove fredde george avevano cominciato a fare i giocolieri con le bottiglie di burro birra e le si avvicinò sei venuta alla partita le chiese ma certo rispose ermione con una strana voce acuta senza alzare gli occhi e sono contenta che abbiamo vinto e credo che tu sia stato bravissimo ma devo finire questo libro per lunedì dai ermione viene a mangiare qualcosa disse erri cercando ron con lo sguardo e chiedendosi se l'amico fosse abbastanza di buon umore da seppellire lascia di guerra non posso erri ho ancora 422 pagine da leggere disse ermione in tono lievemente isterico comunque anche lei guardò dalla parte di ron lui non mi vuole non c'era niente da ribattere visto che ron scelse proprio quel momento per dire ad alta voce se crosta non fosse stato appena divorato avrebbe potuto mangiare un po di queste mosche al caramello gli piacevano tanto ermione scoppiò in lacrime prima che erri potesse dire o fare qualcosa si infilò il libro sotto braccio e tra i singhiozzi corse verso la scala che portava al dormitorio delle ragazze non puoi lasciarla un po in pace chiese erri a ron piano no rispose ron in tono aspro se almeno fosse un po dispiaciuta ma non ammetterà mai di avere torto ermione si comporta ancora come se crosta fosse in vacanza la festa dei grifondoro finì solo quando la professoressa mcgonagall comparve in vestaglia scozzese e retina sui capelli a luna di notte insistendo perché andassero tutti a dormire erri e ron salirono nel dormitorio discutendo la partita alla fine esausto erri si infilò nel letto chiuse le tende del baldacchino per schermare un raggio di luna si distese e scivolò quasi immediatamente nel sonno fece un sogno molto strano camminava in una foresta con la firebolt in spalla seguendo qualcosa di un bianco argenteo che scivolava tra gli alberi davanti a lui e che erri intravedeva a fatica tra le foglie ansioso di raggiungere la cosa si affrettò ma la sua preda accelerava erri prese a correre e altrettanto fece la cosa ora correva e davanti sentiva un frastuono di galoppo poi svoltò in una radura e erri si svegliò di colpo come se qualcuno gli avesse dato uno schiaffo disorientato nell'oscurità totale trafficò con le tende sentiva dei movimenti attorno a sé e la voce di simus finnigan dall'altra parte della stanza esclamò che cosa succede erri credette di sentire sbattere la porta del dormitorio alla fine riuscì a dividere le tende le aprì di scatto e nello stesso istante dean thomas accese la lanterna ron era seduto sul letto terrorizzato e le sue tende erano tutte lacerate da una parte black sirius black con un pugnale che cosa era qui un momento fa ha tagliato le tende mi ha svegliato sicuro che non fosse un sogno ron chiese dean guarda le tende te l'ho detto era qui balzarono giù dal letto erri raggiunse per primo la porta del dormitorio e filarono tutti giù per le scale si aprirono porte e che giarono voci assonnate chi ha gridato che cosa succede la sala comune era illuminata dal barlume del fuoco ormai quasi spento ancora in gombra dei resti della festa era deserta sei sicuro che non è stato un sogno ron ve l'ho detto l'ho visto cos'è tutto questo baccano la professoressa mcgonagall ci ha detto di andare a dormire alcune ragazze erano scese dalla loro scala sbadigliando e infilandosi la vestaglia anche i ragazzi comparvero un po alla volta magnifico ricomincia la festa esclamò allegramente fred weasley tornate tutti di sopra disse persi entrando di corsa nella sala comune e agganciandosi il distintivo di caposcuola sul pigiama pers sirius black disse ron debolmente nel nostro dormitorio con un pugnale mi ha svegliato sulla sala comune scese il silenzio sciocchezze esclamò persi stupefatto hai mangiato troppo ron hai avuto un incubo ti dico che insomma quando è troppo è troppo era la professoressa mcgonagall sbatte il ritratto alle sue spalle entrando nella sala comune e si guardò intorno furente sono felice che grifondoro abbia vinto la partita ma la cosa sta diventando ridicola persi da te mi aspettavo di più certo non sono stato io a dar loro il permesso professoressa disse persi indignato stavo proprio dicendo loro di tornare a letto mio fratello ron ha avuto un incubo non era un incubo urlò ron professoressa mi sono svegliato e sirius black era sopra di me con un pugnale in mano la professoressa mcgonagall lo fissò in credula non dire sciocchezze weasley come avrebbe fatto a passare attraverso il ritratto glielo chieda disse ron puntando un dito tremante verso il retro del quadro di sir cadogan gli chieda se ha visto guardando ron con sospetto la professoressa mcgonagall riaprì il ritratto e uscì tutta la sala comune tese le orecchie il fiato sospeso sir cadogan avete lasciato entrare un uomo nella torre di grifondoro ma certo madame strillò sir cadogan un silenzio attonito si diffuse dentro e fuori la sala comune davvero disse la professoressa mcgonagall ma la parola d'ordine ce le aveva rispose sir cadogan fiero aveva le parole d'ordine di tutta la settimana mia signora le ha lette su un foglietto di carta la professoressa mcgonagall tornò dall'altra parte del ritratto dove la tendeva una folla turbata era bianca come gesso chi mai disse con voce spezzata chi mai è stato di una stupidità così abissale da scrivere le parole d'ordine della settimana e da lasciarle in giro calò il silenzio totale rotto solo da una specie di pigolio nevi longbottom tremando dalla punta dei capelli ai piedi calzati in soffici pantofole alzò lentamente la mano l'ira di piton quella notte nessuno dormì nella torre di grifondoro sapevano che il castello sarebbe stato perquisito un'altra volta e tutta la casa rimase sveglia nella sala comune in attesa di scoprire se black era stato catturato la professoressa mcgonagall tornò all'alba per far sapere ai ragazzi che era riuscito a fuggire il giorno dopo riconobbero ovunque i segni di una sorveglianza più stretta il professor flitwick stava insegnando alle porte principali a riconoscere sirius black da una grossa foto filch andava su e giù per i corridoi a inchiodare assi dappertutto dalle minuscole crepe nelle pareti alle tane di topo sir cadogan era stato licenziato il suo ritratto era stato riportato su al solitario pianerottolo del settimo piano e la signora grassa era tornata era stata restaurata da mani esperte ma era ancora molto nervosa e aveva accettato di tornare al lavoro solo con la garanzia di una protezione speciale un gruppo di scontrosi troll era stato reclutato per sorvegliarla marciavano per il corridoio in un pello minaccioso parlando a grugniti e confrontando la misura delle loro mazze harry non poteva fare a meno di notare che la statua della strega orba al terzo piano era rimasta incustodita pareva che fredde george avessero avuto ragione nel dire che solo loro e ora harry ron ermione sapevano del passaggio segreto al suo interno credi che dovremmo dirlo a qualcuno chiese harry a ron siamo sicuri che non è da mielandia che entra tagliò corto ron se qualcuno avesse scassinato il negozio lo avremmo saputo harry fu felice che ron la pensasse così se bloccavano anche la strega orba non sarebbe mai più potuto andare a hogsmith in un baleno ron diventò una celebrità per la prima volta tutti dedicavano più attenzione a lui che a harry ed era chiaro che ron si stava godendo il momento ancora parecchio scosso dagli eventi della notte era comunque felice di raccontare l'accaduto a chiunque glielo chiedesse con gran ricchezza di particolari stavo dormendo quando ho sentito un rumore come una cosa che si strappava e credevo che fosse un sogno insomma ma poi c'era uno spiffero mi sono svegliato e una tenda del mio letto non c'era più mi sono girato e l'ho visto in piedi sopra di me come uno scheletro con una massa di capelli sporchi e aveva un coltello lunghissimo almeno 30 centimetri e mi ha guardato e io l'ho guardato e poi ho urlato e lui è fuggito perché poi aggiunse rivolto a harry mentre il gruppo di ragazze del secondo anno che avevano ascoltato la ghiacciante racconto si allontanava perché è fuggito harry si era chiesto la stessa cosa perché black una volta sbagliato letto non aveva messo a tacere ron e cercato lui black aveva dimostrato 12 anni prima che non aveva alcuno scrupolo a uccidere persone innocenti e questa volta si era trovato di fronte a cinque ragazzi disarmati quattro dei quali addormentati forse sapeva che sarebbe stato difficile uscire di nuovo dal castello dopo che tu ti eri messo a gridare avevi svegliato tutti disse harry pensieroso avrebbe dovuto uccidere tutta la casa per riuscire a ripassare dal buco del ritratto poi avrebbe incontrato gli insegnanti neville era nella disgrazia più totale la professoressa mcgonagall era così arrabbiata con lui che gli aveva interdetto qualunque futura gita a hogsmeade lo aveva messo in punizione e aveva proibito a tutti di dirgli la parola d'ordine per entrare nella torre il povero neville era costretto ad aspettare tutte le sere fuori dalla sala comune che qualcuno lo facesse entrare mentre i troll della sorveglianza lo fissavano minacciosi nessuna di queste punizioni comunque uguagliava quella che sua nonna aveva in serbo per lui due giorni dopo l'incursione di black spedì a neville la cosa peggiore che uno studente di hogwarts potesse ricevere per colazione una strillettera i gufi della scuola planarono nella sala grande portando la posta come al solito e a neville andò il boccone di traverso mentre un grosso gufo atterrava davanti a lui con una lettera scarrata nel becco harry e ron che erano seduti di fronte riconobbero subito la lettera ron ne aveva ricevuta una così da sua madre l'anno prima scappa neville gli consigliò ron non glielo dovette ripetere due volte neville afferrò la busta e tenendola davanti a sé come se fosse una bomba corse fuori dalla sala mentre il tavolo dei serpe verde scoppiava a ridere sentirono la strillettera che partiva nell'ingresso la voce della nonna di neville prodigiosamente aumentata di volume di almeno cento volte che strillava i quattroventi come il nipote aveva coperto di vergogna tutta la famiglia harry era troppo occupato a compiangere neville per notare che c'era una lettera anche per lui edvige attirò la sua attenzione beccandolo forte sul polso aia grazie edvige harry strappò la busta mentre edvige trangugiava i cornflakes di neville il biglietto diceva cari harry e ron cosa ne dite di venire a prendere il tè da me oggi pomeriggio verso le sei vengo a prendervi io al castello aspettate me nell'ingresso non dovete uscire da soli saluti agrid forse vuole che io gli racconti di black disse ron e così alle sei del pomeriggio harry e ron uscirono dalla torre di grifondoro superarono di corsa i troll della sorveglianza e scesero nella sala d'ingresso agrid li stava aspettando tutto bene agrid disse ron suppongo che tu voglia sapere di sabato notte vero so già tutto disse agrid aprendo la porta incamminandosi davanti a loro oh disse ron un po deluso la prima cosa che videro entrando nella capanna di agrid fu fiero becco allungato sulla coperta patchwork di agrid le enormi ali ripiegate strette accanto al corpo che si gustava un grosso piatto di furetti morti distogliendo lo sguardo da quella visione sgradevole harry vide un enorme vestito peloso marrone e un'orrenda cravatta gialla e arancione pensolare nell'armadio di agrid a cosa servono agrid chiese per l'udienza di fiero becco contro il comitato per la soppressione delle creature pericolose disse agrid è questo venerdì io e lui andiamo a londra insieme ho preso due cucette sul nottetempo harry fu sopraffatto dai sensi di colpa si era completamente dimenticato che il processo a fiero becco era così vicino e a giudicare dallo sguardo imbarazzato di ron anche lui se n'era scordato avevano dimenticato anche la loro promessa di aiutare agrid a preparare la difesa dell'ippogrifo l'arrivo della firebolt l'aveva cancellata dalle loro momenti agrid servì loro il tè e offrì un piatto di panini dolci all'uvetta che rifiutarono avevano già sperimentato fin troppe volte la cucina di agrid ho qualcosa da discutere con voi due disse agrid sedendosi tra loro con aria insolitamente seria cosa chiese erri ermione disse agrid perché disse ron perché non sta bene ecco perché è venuta qui a trovarmi tante volte da natale si sente sola prima non ci parlavate con lei per via della firebolt adesso non ci parlate perché il suo gatto ha mangiato crosta lo interruppe ron furioso perché il suo gatto ha fatto come fanno tutti i gatti continuò agrid ostinato ha pianto tante volte sapete è un brutto momento per lei troppi impegni se volete saperlo con tutto il lavoro che sta cercando di fare ma ha trovato lo stesso il tempo di aiutarmi con il caso di fiero becco sapete ha trovato della roba davvero buona credo che lui ha qualche possibilità adesso agrid avremmo dovuto aiutarti anche noi scusa esordi erri imbarazzato non ti rimprovero mica disse agrid respingendo le scuse di erri con tutto quello che ci hai avuto per la testa ti ho visto che ti allenavi a quiddici a tutte le ore del giorno e della notte ma ve lo devo dire credevo che a voi due vi importava di più della vostra amica che di una scopa o di un topo ecco erri e ron si guardarono entrambi a disagio era davvero sconvolta poverina quando black ti ha aggredito ron lei sì che ha il cuore al posto giusto lei e voi due che non ci parlate nemmeno se solo si sbarazzasse di quel gatto io le parlerei ancora disse ron arrabbiato ma lo difende sempre è un criminale e lei non vuole nemmeno sentirselo dire ah beh la gente a volte un po stupida quando ci parli dei suoi animali disse agrid saggiamente alle sue spalle fiero becco sputò qualche osso di furetto sul cuscino passarono il resto della visita a discutere delle aumentate possibilità di grifondoro di vincere la coppa di quiddici alle nove agrid li riaccompagnò al castello di ritorno nella sala comune videro un folto gruppo di ragazzi che si accalcava attorno alla bacheca hogsmid il prossimo fine settimana disse ron sporgendosi sopra la folla di teste per leggere il nuovo avviso cosa ne dici sussurrò a harry mentre andavano a sedersi beh filcio non ha fatto niente al passaggio per mielandia disse harry ancora più piano harry disse una voce nel suo orecchio destro harry sobbalsò e cercò con lo sguardo ermione che era seduta al tavolo dietro di loro e si apriva un varco nel muro di libri che la nascondeva harry se torni a hogsmid dirò della mappa alla professoressa mcgonagall dichiarò ermione hai sentito qualcuno parlare harry ringhio ron senza guardarla ron come puoi permettergli di accompagnarti dopo quello che sirius black ha fatto a te parlo sul serio lo dirò e così adesso stai cercando di fare spellere harry disse ron furibondo non hai già fatto abbastanza danni per quest'anno ermione aprì la bocca per ribattere ma grattastinchi le balzò in grembo soffiando dolcemente ermione lanciò uno sguardo spaventato a ron prese in braccio grattastinchi e corse via verso il dormitorio delle ragazze dicevamo disse ron a harry come se non fossero stati interrotti dai l'ultima volta che siamo andati non hai visto praticamente niente non sei nemmeno entrato da zonco harry si guardò intorno per controllare che ermione non fosse a portata di orecchie ok disse ma questa volta mi porto il mantello dell'invisibilità il sabato mattina harry mise il mantello dell'invisibilità nella borsa si fece scivolare in tasca la mappa del malandrino e scese a far colazione con tutti gli altri ermione continuava a scoccargli occhiate sospettose ma lui ne evitò lo sguardo e fece in modo che lei lo vedesse risalire la scalinata di marmo mentre tutti gli altri si dirigevano verso la porta d'ingresso ciao disse harry a ron ci vediamo al tuo ritorno ron sorrise e gli fece l'occhiolino harry corse al terzo piano e mentre saliva estrasse la mappa del malandrino si accovacciò dietro la strega orba estese la cartina un puntino avanzava nella sua direzione harry strizzò gli occhi per metterlo a fuoco la scritta minuscola accanto al puntino recitava neville longbottom harry estrasse in fretta la bacchetta mormorò dissendium e spinse la borsa dentro la statua ma prima che riuscisse a seguirla neville girò l'angolo harry mi ero dimenticato che anche tu non vai a hogsmeade ciao neville disse harry allontanandosi in fretta dalla statua e rimettendosi in tasca la mappa che cosa fai niente disse neville scrollando le spalle ti va una partita spara schiocco non ora pensavo di andare in biblioteca a fare quel tema sui vampiri per lupin vengo con te esclamò neville allegramente anch'io non ho ancora fatto aspetta si dimenticavo l'ho finito ieri sera magnifico così puoi aiutare me disse neville con un'espressione di ansia sul volto paffuto non riesco a capire quella faccenda dell'aglio devono mangiarlo neville si interruppe con un sussulto fissando un punto sopra la spalla di harry era piton neville si nascose rapido dietro harry e voi due che cosa fate qui chiese piton spostando lo sguardo dall'uno all'altro strano posto per darvi appuntamento con grande preoccupazione di harry gli occhietti neri di piton dardeggiarono verso le porte che davano sul corridoio e poi si soffermarono sulla strega orba noi non ci siamo dati appuntamento disse harry ci siamo incontrati per caso davvero disse piton tu hai l'abitudine di apparire nei posti più inaspettati potter ed è raro che sia senza una buona ragione suggerirei che voi due torniate alla torre di grifondoro è precisamente là che dovete stare harry e neville si allontanarono senza ribattere mentre giravano l'angolo harry si voltò piton stava passando una mano sulla testa della strega orba e la osservava da vicino harry riuscì a liberarsi di neville davanti alla signora grassa pronunciando la parola d'ordine e fingendo poi di aver lasciato il tema sui vampiri in biblioteca per poter tornare indietro una volta lontano dalla vista dei troll della sorveglianza estrasse di nuovo la mappa e l'avvicinò al naso il corridoio del terzo piano sembrava deserto harry esaminò la mappa con cura e vide con sollievo che il puntino sotto cui c'era scritto severus piton era tornato nel suo studio corse fino alla strega orba le aprì la gobba ci si infilò e scivolò giù raggiungendo la borsa ai piedi dello scivolo di pietra cancellò di nuovo la mappa del malandrino e partì di gran carriera harry completamente nascosto sotto il mantello dell'invisibilità emerse alla luce del sole fuori da mielandia e diede a ron una pacca sulla schiena sono io sussurrò come mai ci hai messo tanto sibilò ron c'era in giro piton si avviarono lungo la strada principale dove sei bisbigliò ron con l'angolo della bocca ci sei ancora è strano andarono all'ufficio postale ron finse di controllare il prezzo di un gufo per billy in egitto e così harry pote dare un'occhiata in giro i gufi almeno 300 erano appollaiati tutto intorno e tubavano si andava dai grandi esemplari di gufo grigio fino ai piccoli assioli solo con segne locali così minuscoli che avrebbero potuto stare nel palmo della mano di harry poi andarono da zonco così affollato che harry dovette fare molta attenzione per non calpestare nessuno seminando il panico c'erano giochi e scherzi che avrebbero soddisfatto i desideri più sfrenati di george e fred harry sussurrò a ron una serie di ordini e gli passò del denaro da sotto il mantello uscirono da zonco con i portamonete decisamente alleggeriti ma in compenso avevano le tasche gonfie di cacca bombe dolci singhiozzini sapone di uova di rana più una tazza da tè mordinaso per ciascuno era una bella giornata ventosa e nessuno dei due aveva voglia di stare al chiuso così oltrepassarono i tre manici di scopa e salirono la collina per andare a visitare la stamberga strillante il luogo più infestato di fantasmi di tutta la gran bretagna era situata un po più in alto del resto del villaggio e anche alla luce del giorno era vagamente inquietante con le finestre chiuse da tavolati e il cupo giardino inselvatichito anche i fantasmi di hogwarts la evitano disse ron mentre si arrampicavano sulla staccionata per guardare meglio ho chiesto a nick quasi senza testa dice che sa che ci vivono dei tipi poco raccomandabili nessuno può entrare fred e george ci hanno provato naturalmente ma tutti gli ingressi sono chiusi con i sigilli harry accaldato per la salita meditava di togliersi il mantello per qualche minuto quando sentirono delle voci avvicinarsi qualcuno saliva verso la casa dall'altra parte della collina un istante dopo apparve malfoi seguito da vicino da crebbe goil dovrei ricevere un gufo da mio padre a momenti disse malfoi è andato all'udienza per raccontare del mio braccio che non ho potuto muoverlo per tre mesi crebbe goil soghignarono mi piacerebbe proprio sentire quel grosso babbeo peloso che cerca di difendersi non è cattivo davvero quell'ippogrifo è già bello e morto malfoi all'improvviso scorse ron il suo volto pallido fu attraversato da un ghigno malvagio che cosa fai weasley malfoi guardò la casa diroccata alle spalle di ron suppongo che ti piacerebbe viverci eh weasley che sogno avere una camera tutta per te ho sentito dire che a casa vostra dormite tutti nella stessa stanza è vero harry trattenne ron afferrandolo per gli abiti per impedirgli di saltare addosso a malfoi ci penso io si bilò all'orecchio dell'amico l'occasione era troppo perfetta per sprecarla harry strisciò in silenzio dietro malfoi crebbe goyle si chinò e raccolse una grossa manciata di fango dal sentiero stavamo proprio parlando del tuo amico agrid disse malfoi a ron cercavamo di immaginarci che cosa sta dicendo al comitato per la soppressione delle creature pericolose credi che piangerà quando taglieranno la testa splat la testa di malfoi scattò in avanti mentre il fangolo colpiva rivoli di melma presero a colare dai suoi capelli di un biondo argentato ma che cosa ron scoppiò a ridere così fragorosamente che dovette aggrapparsi alla staccionata per non cadere malfoi crebbe goyle girarono stupidamente su se stessi guardandosi intorno furenti mentre malfoi cercava di ripulirsi i capelli che cosa è stato chi è stato è pieno di fantasmi qui vero disse ron con il tono di uno che parla del tempo crebbe goyle sembravano spaventati i loro grossi muscoli erano inutili contro i fantasmi malfoi scrutava di rato il paesaggio deserto harry sgattaiolo giù per il sentiero verso una pozzanghera particolarmente melmosa che conteneva una gelatina verde dall'odore terribile splat questa volta ne finì un po anche addosso a crebbe goyle goyle cominciò a saltellare furiosamente sul posto cercando di ripulirsi gli occhiettini espressivi è venuta da là disse malfoi pulendosi la faccia e fissando un punto a un paio di metri da harry crebbe scattò le lunghe braccia tese come uno zombie harry balso via prese un bastone e picchiò crebbe sulla schiena poi rimase lì piegato in due da una risata silenziosa mentre crebbe faceva una specie di pirouette a mezz'aria per cercare di vedere chi era stato siccome ron era l'unica persona in vista fu verso di lui che puntò ma harry tese la gamba crebbe inciampò e il suo piedone piatto si impigliò nell'orlo del mantello di harry che sentì uno strattone mentre il cappuccio gli scivolava via dal volto per un attimo malfoi rimase immobile a fissarlo urlò indicando la testa di harry poi si voltò e corse via a rotta di collo giù per la collina con crebbe goile alle calcagna harry si risistemò il mantello ma il guaio era fatto harry esclamò ron inciampando in avanti e fissando desolato il punto in cui l'amico era scomparso di nuovo è meglio se scappi se malfoi lo racconta a qualcuno è meglio se torni subito al castello presto ci vediamo dopo disse harry e senza aggiungere altro si avviò giù per il sentiero che portava a hogsmeade malfoi avrebbe creduto a quello che aveva visto qualcuno avrebbe creduto a malfoi nessuno sapeva del mantello dell'invisibilità nessuno tranne silente a harry si rovesciò lo stomaco silente avrebbe capito subito che cosa era successo se malfoi avesse parlato di ritorno a mielandia giù per i gradini della cantina sotto il pavimento di pietra attraverso la botola harry si sfilò il mantello se lo ficò sotto braccio e corse corse lungo il passaggio segreto malfoi sarebbe arrivato prima quanto ci avrebbe messo a trovare un insegnante ansimando il fianco trafitto da un dolore acuto harry non rallentò finché non raggiunse lo scivolo di pietra doveva lasciare lì il mantello che lo avrebbe tradito se malfoi aveva fatto la spiata un insegnante lo nascose in un angolo buio poi prese a salire più veloce che poteva le mani sudate che sdrucciolavano sui lati dello scivolo raggiunse l'interno della gobba della strega la colpì la bacchetta e si so fuori la gobba si chiuse e proprio mentre harry balzava fuori da dietro la statua sentì dei passi rapidi avvicinarsi era piton raggiunse harry con andatura decisa il manto nero che frusciava poi si fermò davanti a lui allora disse aveva un'espressione di trionfo represso harry cercò di assumere un'aria innocente ben sapendo di avere il viso sudato e le mani coperte di fango le nascose in fretta nelle tasche vieni con me potter disse piton harry lo seguì di sotto cercando di pulirsi le mani dentro i pantaloni senza farsi notare scesero fino ai sotterranei ed entrarono nello studio del professore harry c'era già stato solo una volta e anche in quell'occasione si trovava in guai seri da allora piton aveva aggiunto altre cose viscide e schifose alla sua collezione di barattoli schierati sugli scaffali dietro la sua scrivania scintillanti alla luce del fuoco un valido contributo all'atmosfera minacciosa siediti disse piton harry obbedì piton invece rimase in piedi il signor malfoi mi ha appena raccontato una strana storia potter disse piton harry rimase zitto dice che era vicino alla stamberga strillante quando ha incontrato weasley apparentemente solo harry continuò a tacere il signor malfoi mi ha detto che stava parlando con weasley quando una grossa quantità di fango l'ha colpito dietro la testa come credi che possa essere successo harry tentò di apparire vagamente sorpreso non lo so professore gli occhi di piton perforavano quelli di harry era esattamente come cercare di fissare un ipogrifo harry cercò disperatamente di non battere ciglio il signor malfoi poi ha visto una straordinaria apparizione riesci a immaginartela potter no disse harry tentando ora di mostrarsi ingenuamente curioso era la tua testa potter che galleggiava a mezz'aria cadde un lungo silenzio forse è meglio che vada a trovare madame pomfrey disse harry se ha delle visioni che cosa ci faceva la tua testa a hogsmeade potter disse piton piano la tua testa non ha il permesso di andare a hogsmeade nessuna parte del tuo corpo ha il permesso di andare a hogsmeade lo so disse harry sforzandosi di non sembrare colpevole o spaventato pare che malfoi abbia le allucine malfoi non ha le allucinazioni si bilò piton e si chinò verso harry posando le mani sui braccioli della sedia finché il suo viso non fu vicinissimo a quello del ragazzo se la tua testa era a hogsmeade vuol dire che c'era anche il resto ero su nella torre di grifondoro disse harry come ha detto lei c'è qualcuno che può confermarlo harry non disse nulla le labbra sottili di piton si arricciarono in un sorriso orribile allora disse rialzandosi tutti dal ministero della magia in giù stanno cercando di tenere il celebre harry potter alla larga da sirius black ma il celebre harry potter detta legge che sia la gente comune a preoccuparsi della sua sicurezza il celebre harry potter va dove vuole senza pensare alle conseguenze harry rimase zitto piton stava cercando di indurlo a dire la verità e lui non aveva nessuna intenzione di farlo piton non aveva prove non ancora sapessi quanto assomigli a tuo padre potter disse piton all'improvviso con un bagliore negli occhi anche lui era straordinariamente arrogante quel suo po di talento a quidditch gli dava la certezza di essere superiore agli altri come te andava in giro a pavoneggiarsi con i suoi amici e ammiratori la somiglianza fra voi due è straordinaria mio padre non si pavoneggiava disse harry prima di riuscire a trattenersi e nemmeno io neanche tuo padre dava molto peso alle regole riprese piton approfittando del vantaggio il volto magro pervaso di malvagità le regole erano fatte per i comuni mortali non per i campioni di quidditch aveva la testa piena stia zitto harry era scattato in piedi un'ira che non provava dalla sua ultima notte a private drive gli saettava in corpo non badò al fatto che il volto di piton si fosse irrigidito e che gli occhi neri lampeggiassero pericolosamente che cosa hai detto potter le ho detto di non dire più niente su mio padre gridò harry io so la verità va bene le ha salvato la vita me l'ha detto silente lei non sarebbe qui se non fosse per mio padre il volto già pallido di piton diventò del colore del latte inacidito e il preside ti ha raccontato le circostanze in cui tuo padre mi ha salvato la vita sussurrò o ha pensato che i dettagli fossero troppo spiacevoli per le orecchie delicate del caro potter harry si morsere labbra non sapeva che cosa era successo e non voleva ammetterlo ma sembrava che piton avesse indovinato la verità mi dispiacerebbe che tu ti facessi un'idea sbagliata di tuo padre potter disse mentre un ghigno orribile gli deformava la faccia hai forse immaginato un atto di glorioso eroismo allora lascia che ti corregga il tuo santissimo padre e i suoi amici hanno fatto uno scherzo davvero spiritoso che si sarebbe concluso con la mia morte se tuo padre all'ultimo momento non avesse avuto paura non ci fu niente di coraggioso in quello che fece fu solo per salvare la sua pelle quanto la mia se lo scherzo fosse riuscito sarebbe stato espulso da hogwarts i denti giallastri e irregolari di piton si scoprirono in un ghigno vuota le tasche potter esclamò il professore all'improvviso harry non si mosse gli pulsavano le orecchie vuota le tasche o andiamo dritti dal preside vuota le potter raggelato dal terrore harry estrasse lentamente il sacchetto di scherzi di zonco e la mappa del malandrino piton prese il sacchetto di zonco me l'ha dato ron disse harry sperando di riuscire ad avvertire l'amico prima che piton lo incontrasse lui li ha presi a hogsmead l'ultima volta davvero e tu te li porti in giro da allora commovente e questo cos'è piton aveva preso la mappa harry cercò con tutte le sue forze di restare impassibile un foglio di pergamena di riserva disse alzando le spalle piton lo rigirò lo sguardo fisso su harry di sicuro non ti serve a niente un foglio di pergamena così vecchio disse perché non lo buttiamo via e tese la mano verso il fuoco no disse harry in fretta allora esclamò piton le lunghe narici vibranti è un altro prezioso regalo del signor weasley o è qualcos'altro una lettera magari scritta con l'inchiostro invisibile oppure le istruzioni per andare a hogsmead senza dover passare davanti ai dissennatori harry batte le ciglia gli occhi di piton si illuminarono vediamo vediamo borbottò estraendo la bacchetta e aprendo la mappa sulla scrivania rivela il tuo segreto disse sfiorando la mappa con un colpo di bacchetta non successe niente harry si strinse le mani per arrestarne il tremito mostrati disse piton battendo forte sulla mappa il foglio rimase vuoto e ritrasse alcuni respiri profondi per cercare di calmarsi severus piton professore di questa scuola ti ordina di rivelare le informazioni che nascondi disse piton e colpì di nuovo la mappa con la bacchetta come se una mano invisibile vi scrivesse alcune parole apparvero sulla liscia superficie della mappa il signor luna storta porge i suoi ossequi al professor piton e lo prega di tenere il suo naso mostruosamente lungo lontano dagli affari altrui piton si irrigidì harry fissò il messaggio ammutolito ma la mappa non si fermò lì sotto la prima frase ne apparve un'altra il signor ramoso è d'accordo con il signor luna storta e ci tiene ad aggiungere che il professor piton è un brutto idiota sarebbe stato molto divertente se la situazione non fosse stata così seria e c'era dell'altro il signor felpato vorrebbe sottolineare il suo stupore per il fatto che un tale imbecille sia diventato professore harry chiuse gli occhi orripilato quando li riaprì la mappa concluse il signor codaliscia augura buona giornata al professor piton e gli dà un consiglio lavati i capelli sporcaccione harry aspettò l'esplosione allora disse piano piton la vedremo si avvicinò al fuoco afferrò una manciata di polvere scintillante da un barattolo sopra il camino e la lanciò tra le fiamme lupin gridò piton nel fuoco devo parlarti profondamente stupito harry fissò il fuoco una grossa forma vorticante apparve tra le fiamme un attimo dopo il professor lupin usciva dal camino scuotendosi via la cenere dagli abiti lisi mi hai chiamato severus disse dolcemente ma certo replicò piton il volto contorto per la rabbia mentre tornava alla scrivania ho appena chiesto a potter di vuotarsi le tasche ho trovato questo piton indicò il foglio di pergamena sul quale le parole dei signori luna storta ramoso felpato e coda liscia rilucevano ancora una strana espressione indecifrabile apparve sul volto di lupin allora chiese piton lupin continuò a fissare la mappa harry ebbe l'impressione che stesse riflettendo rapidamente allora ripete piton questa pergamena è chiaramente piena di magia oscura dovrebbe essere la tua specialità lupin dove credi che potter abbia trovato una cosa del genere lupin alzò gli occhi e con una sola occhiata verso harry lo avvertì di non interromperlo piena di magia oscura ripete tranquillo lo pensi davvero severus a me sembra solo un foglio di pergamena che insulta chiunque lo regga infantile ma certo non pericoloso immagino che harry l'abbia trovato in un negozio di scherzi davvero disse piton la sua mascella si era irrigidita dalla rabbia credi che un negozio di scherzi potrebbe vendergli una cosa del genere non credi che sia più probabile che l'abbia avuta direttamente da chi l'ha fatta harry non capiva di cosa stesse parlando piton e a quanto pareva nemmeno lupin vuoi dire dal signor codaliscia o da un altro di questi signori chiese harry conosci qualcuna di queste persone no rispose harry in fretta visto severus disse lupin voltandosi verso piton a me sembra un tipico articolo di zonco giusto in tempo ron entrò di corsa nello studio boccheggiava e si fermò davanti alla scrivania di piton tenendosi una mano sul petto dolorante e cercando di parlare l'ho data io a harry disse ansimando l'ho comprata da zonco un sacco di tempo fa bene disse lupin battendo le mani e guardandosi intorno allegramente la faccenda è chiarita severus la prendo io d'accordo ripiegò la mappa e se la vampiri se permetti severus harry non osò guardare piton mentre uscivano dallo studio lui ron e lupin non parlarono prima di aver raggiunto l'ingresso poi harry si voltò verso lupin professore io non voglio sentire spiegazioni disse lupin secco si guardò intorno nella sala d'ingresso deserta e abbassò la voce so che questa mappa fu requisita dal signor filch molti anni fa sì so che è una mappa disse in risposta agli sguardi stupiti di ron e harry non voglio sapere come ne sei entrato in possesso comunque sono esterrefatto che tu non l'abbia consegnata soprattutto dopo quello che è successo l'ultima volta che uno studente ha lasciato in giro delle informazioni sul castello e non posso restituirtela harry harry se l'era aspettato ed era troppo curioso di saperne di più per protestare perché piton credeva che l'avessi avuta da chi l'ha fatta perché lupin esitò perché questi cartografi volevano attirarti fuori dalla scuola l'avrebbero trovato estremamente divertente lei li conosce chiese harry colpito le ho visti una volta rispose laconico lupin guardò harry più serio che mai non sperare che ti copra un'altra volta harry non riesco a farti prendere sul serio sirius black ma credevo che quello che senti quando i disennatori ti si avvicinano avesse prodotto qualche effetto su di te i tuoi genitori hanno dato la loro vita per la tua harry bel modo di ricambiarli barattare il loro sacrificio con un sacchetto di scherzi magici si allontanò lasciando harry molto più depresso di quando si trovava nello studio di piton lentamente lui e ron salirono la scalinata di marmo mentre harry oltrepassava la strega orba gli venne in mente il mantello dell'invisibilità era ancora là sotto ma non osò andare a prenderlo è colpa mia disse ron bruscamente ti ho convinto io a venire lupin ha ragione siamo stati due stupidi non dovevamo si interruppe avevano raggiunto il corridoio sorvegliato dai troll e ermione avanzava verso di loro a harry bastò guardarla per convincersi che aveva sentito parlare dell'accaduto il cuore gli sprofondò in petto l'aveva denunciato alla professoressa mcgonagall sei venuta a gongolare un po' disse ron brutalmente mentre ermione si fermava davanti a loro o sei appena andata a fare la spia no disse ermione teneva in mano una lettera e le tremavano le labbra ho solo pensato che dovevate saperlo agrid ha perso la causa fiero becco sarà giustiziato la finale di quidditch mi ha mi ha mandato questa disse ermione tendendo la lettera erry la prese la pergamena era umida ed enormi lacrime avevano fatto sbavare l'inchiostro in parecchi punti tanto che si faceva fatica a leggere cara ermione abbiamo perso mi hanno dato il permesso di riportarlo a hogwarts la data dell'esecuzione deve essere ancora fissata a becco londra è piaciuta non dimenticherò l'aiuto che ci hai dato agrid non possono farlo di serri non possono fiero becco non è pericoloso il padre di malfoi ha terrorizzato quelli del comitato finché non si sono decisi disse ermione asciugandosi gli occhi lo sapete che tipo è quelli sono un branco di vecchi rammolliti tremebondi e hanno avuto paura ci sarà l'appello comunque c'è sempre ma non vedo speranze non cambierà niente sì invece disse ron deciso questa volta non dovrei fare tutto la sola ermione ti darò una mano oh ron ermione gettò le braccia al collo di ron e scoppiò a piangere senza ritegno ron terrorizzato la carezzò sulla testa in imbarazzo alla fine ermione si staccò da lui ron mi dispiace tanto per crosta singhiozzò oh beh era vecchio disse ron decisamente sollevato che l'avesse lasciato andare ed era un tantino inutile non si sa mai magari adesso i miei mi compreranno un gufo le misure di sicurezza imposte agli studenti dopo la seconda incursione di black impedivano erri ron e ermione di andare a trovare agrid la sera l'unica occasione per parlare con lui era la lezione di cura delle creature magiche l'omone sembrava stordito dallo shock del verdetto è tutta colpa mia non ho saputo cosa dire erano tutti lì seduti con i loro vestiti neri e continuavano a cadermi gli appunti e mi sono dimenticato tutte le date che mi avevi cercato ermione e poi lucius malfoi si è alzato in piedi e ha fatto il suo discorso e il comitato ha fatto quello che diceva lui c'è ancora l'appello esclamò ron non devi arrenderti ci daremo da fare stavano tornando al castello con il resto della classe davanti videro malfoi con crebbe goyle che continuava a voltarsi e a ridere sprezzante non va bene ron disse agrid tristemente mentre raggiungevano i gradini del castello lucius malfoi il comitato ce l'ha in pugno posso solo fare una cosa che quello che resta a becco da vivere sia più felice che mai glielo devo agrid si voltò e tornò di corsa alla capanna il viso sepolto nel fazzoletto guarda come frigna malfoi crebbe goyle si erano fermati appena dentro il castello ad ascoltare avete mai visto una cosa così patetica disse malfoi e dovrebbe essere il nostro insegnante furibondi harry e ron scattarono verso malfoi ma ermione fu più rapida e schiaff schiaffeggiò malfoi con tutte le sue forze malfoi barcollò harry ron crebbe goyle rimasero impietriti mentre ermione rialzava la mano non osare mai più dire che agride è patetico tu mostro tu razza di brutto ermione disse ron debolmente cercando di trattenerle la mano vai via ron ermione estrasse la bacchetta malfoi fece un passo indietro crebbe goyle lo guardarono in attesa di ordini assolutamente sconvolti andiamo borbottò malfoi e un attimo dopo i tre scomparvero nel corridoio che portava i sotterranei ermione esclamò di nuovo ron turbato e ammirato insieme harry sarà meglio che tu lo batta alla finale di quidditch minacciò ermione con voce acuta sarà meglio perché se serpe verde vince non riuscirò a sopportarlo dobbiamo andare a incantesimi disse ron continuando a fissare ermione con gli occhi sgranati meglio muoversi corsero su per la scaldinata di marmo verso la classe del professor flitwick siete in ritardo ragazzi li ammonì l'insegnante in tono severo mentre harry apriva la porta entrate presto fuori le bacchette oggi proviamo gli incantesimi rallegranti ci siamo già disposti a coppie harry e ron corsero fino a un banco nella fila dietro e aprirono le borse ron si guardò alle spalle dove è andata ermione anche harry si voltò a guardare ermione non era entrata in classe eppure lui sapeva che gli era accanto quando aveva aperto la porta è strano disse guardando ron forse forse andata in bagno ma ermione non comparve per il resto della lezione un incantesimo rallegrante avrebbe fatto bene anche a lei disse ron mentre tutti andavano a pranzo con un gran sorriso stampato in faccia l'incantesimo rallegrante aveva lasciato in loro una sensazione di grande appagamento ermione non si fece vedere nemmeno a pranzo quando ebbero finito la torta di mele gli ultimi strascichi dell'incantesimo rallegrante si dileguarono e harry e ron cominciarono a essere un po preoccupati credi che malfoire abbia fatto qualcosa chiese ron ansioso mentre salivano di corsa alla torre di grifondoro superarono i troll della sorveglianza dissero la parola d'ordine alla signora grassa spettegolone e attraversarono il buco del ritratto per entrare nella sala comune ermione era seduta al tavolo profondamente addormentata con la testa su un libro aperto di aritmanzia le si sedettero accanto harry le diede uno scrollone che cosa disse ermione svegliandosi di colpo e guardandosi intorno è ora di andare che che lezione ne abbiamo adesso divinazione ma mancano ancora venti minuti disse erry ermione perché non sei venuta incantesimi cosa o no gemette ermione ho dimenticato incantesimi ma come hai fatto le chiese erry eri con noi fino alla porta della classe non posso crederci disse ermione in un lamento il professor flitwick era arrabbiato è colpa di malfoi stavo pensando a lui e mi sono distratta la sai una cosa ermione disse ron guardando l'enorme libro di aritmanzia che ermione aveva usato come cuscino credo che ti stiano saltando i nervi stai cercando di fare troppe cose insieme no disse ermione scostandosi i capelli dagli occhi e guardandosi in giro desolata alla ricerca della sua borsa ho solo commesso un errore tutto qui è meglio che vada dal professor flitwick a chiedere scusa ci vediamo a divinazione venti minuti più tardi ermione li raggiunse ai piedi della scaletta che portava alla classe della professoressa trelonei estremamente turbata non posso crederci ho perso gli incantesimi dallegranti e scommetto che li chiederanno agli esami il professor flitwick mi ha fatto capire che è molto probabile insieme salirono fino alla cupa soffocante stanza nella torre su ogni tavolo riluceva una sfera di cristallo piena di una nebbia bianca per l'acea henry ron e ermione sedettero insieme allo stesso tavolo traballante credevo che non avremmo cominciato con la sfera di cristallo fino al prossimo trimestre borbottò ron guardandosi intorno con circospezione nel caso che la professoressa trelonei fosse nelle vicinanze non lamentarti vuol dire che almeno abbiamo chiuso con la lettura della mano ribatte erri in un mormorio cominciavo a essere stanco di vederla sobbalzare tutte le volte che mi guardava i palmi buona giornata a voi disse la familiare voce velata e la professoressa trelonei fece il suo solito ingresso teatrale dall'ombra parvati e lavanda tremavano dall'eccitazione i volti illuminati dal brillio lattiginoso della loro sfera ho deciso di cominciare con la sfera di cristallo un po in anticipo sul programma disse la professoressa trelonei sedendosi con la schiena rivolta al fuoco e guardandosi in giro la sorte mi ha informato che il vostro esame a giugno verterà sull'occhio e ci tengo che facciate abbastanza pratica ermione sbuffò o andiamo la sorte l'ha informata chi li decide gli esami lei che profezia straordinaria disse senza preoccuparsi di tener bassa la voce erri e ron dovettero soffocare le risate era difficile dire se la professoressa trelonei l'avesse sentita perché il suo viso era in ombra comunque riprese come se niente fosse la lettura della sfera di cristallo è un'arte particolarmente avanzata disse in tono sognante non mi aspetto che tutti voi vediate quando scruterete per la prima volta negli infiniti abissi dell'occhio cominceremo provando a rilassare la mente consapevole e gli occhi esterni ron prese a ridacchiare in maniera incontrollabile e dovette ficcarsi un pugno in bocca per soffocare il rumore così ripuliremo l'occhio interiore e il subconscio forse se saremo fortunati qualcuno di voi vedrà prima della fine della lezione e così cominciarono erri si sentiva un idiota a fissare con sguardo ebete la sfera di cristallo cercando di tenere sgombra la mente quando pensieri del tipo che cosa stupida continuavano ad attraversargliela le risatine di ron e i mormori perplessi di ermione certo non contribuivano visto niente chiese loro erri dopo un quarto d'ora di sguardi e silenzio sì c'è una bruciatura sul tavolo disse ron indicando la macchia qualcuno ha fatto cadere la cera dalla candela che perdita di tempo si bilò ermione potrei essere da un'altra parte a studiare qualcosa di utile potrei mettermi in pari con gli incantesimi rallegranti la professoressa trelone si avvicinò frusciando qualcuno vuole che lo aiuti a interpretare i misteriosi prodigi del suo occhio mormorò nel tintinio dei suoi braccialetti non ho bisogno di aiuto bisbigliò ron è chiaro quello che vuol dire ci sarà un sacco di nebbia stanotte erri e ermione scoppiarono a ridere insomma disse la professoressa trelonei mentre tutti si voltavano verso di loro parvati e lavanda erano scandalizzate così interferite con le vibrazioni della preveggenza l'insegnante si avvicinò al tavolo e scrutò la loro sfera di cristallo erri si sentì sprofondare il cuore in petto era sicuro di sapere che cosa sarebbe successo qui c'è qualcosa sussurrò la professoressa trelonei chinandosi sulla sfera che si riflette due volte nei suoi grandi occhiali qualcosa si muove che cos'è erri era pronto a scommettere tutti i suoi averi firebolt compresa che non erano buone notizie qualsiasi fossero e infatti mio caro mormorò la professoressa trelonei guardando erri è qui chiaro come non mai mio caro avanza verso di te si avvicina il gr oh santo cielo disse ermione a voce alta non sarà ancora quel ridicolo gramo la professoressa trelonei alzò gli occhi enormi verso ermione parvati sussurrò qualcosa alla vanda e anche loro guardarono ermione sprezzanti la professoressa trelonei si alzò e squadrò ermione con inequivocabile ira sono spiacente di dover dire che da quando hai messo piede in quest'aula mia cara è apparso evidente che tu non possiedi i requisiti necessari alla nobile arte della divinazione a dire il vero non ricordo di aver mai incontrato uno studente la cui mente fosse così illimediabilmente frivola ci fu un attimo di silenzio e poi bene disse ermione all'improvviso alzandosi e infilando svelare il futuro nella borsa bene ripete mettendosi in spalla la borsa e facendo quasi cadere ron dalla sedia ci rinuncio me ne vado e tra lo stupore di tutta la classe ermione si avviò verso la botola l'aprì con un calcio e sparì giù per la scala i ragazzi ci misero qualche minuto a calmarsi la professoressa trelonei sembrava essersi completamente dimenticata del gramo si allontanò bruscamente dal tavolo di eri ron respirando forte e stringendosi nello scialle di perline esclamò la vanda all'improvviso facendo sobbalzare tutti professoressa trelonei mi appena venuto in mente l'aveva visto che se ne sarebbe andata vero vero professoressa verso pasqua uno di noi ci lascerà per sempre l'ha detto secoli fa professoressa la professoressa trelonei le rivolse un sorriso svenevole sì mia cara in effetti sapevo che la signorina granger ci avrebbe lasciati uno spera sempre naturalmente di aver frainteso i segni l'occhio interiore può essere un fardello sapete lavanda e parvati sembravano profondamente colpite e si avvicinarono per far posto all'insegnante al loro tavolo che giornata per ermione mormorò ronna eri in tono rispettoso sì eri guardò nella sfera di cristallo ma non vide altro che una nebbia bianca vorticante la professoressa trelonei aveva visto davvero il gramo un'altra volta e lui l'ultima cosa di cui aveva bisogno era un altro incidente quasi letale con la finale di quidditch che si avvicinava le vacanze di pasqua non furono proprio distensive quelli del terzo anno non avevano mai avuto tanti compiti nevi longbottom sembrava sull'orlo di una crisi di nervi e non era il solo e le chiamano vacanze rugì simus finnigan un pomeriggio rivolto ai compagni in sala comune manca un secolo agli esami a che gioco stanno giocando ma nessuno aveva tanto da fare quanto ermione anche senza divinazione seguiva più materie di chiunque altro di solito era l'ultima a lasciare la sala comune di sera la prima a scendere in biblioteca la mattina dopo aveva le occhiaie come lupin e sembrava sempre sul punto di scoppiare in lacrime ron si era assunto la responsabilità dell'appello di fiero becco quando non faceva i compiti era chino su enormi volumi con titoli come manuale di psicologia dell'ippogrifo e malvagio malvisto studi sulla brutalità dell'ippogrifo era così concentrato che dimenticava perfino di trattar male grattastinchi harry nel frattempo doveva far convivere i compiti e le lezioni con allenamento quotidiano di quidditch per non parlare delle interminabili discussioni di tattica con wood la partita griffondoro serpeverde si sarebbe tenuta il primo sabato dopo le vacanze di pasqua serpeverde era in testa di 200 punti esatti il che voleva dire come wood ricordava costantemente alla sua squadra che dovevano vincere la partita con un vantaggio maggiore per conquistare la coppa voleva dire anche che la responsabilità della vittoria pesava soprattutto su harry perché la cattura del boccino valeva da sola 150 punti quindi devi prenderlo solo se siamo in vantaggio di più di 50 punti ripeteva vuda harry solo se siamo sopra di più di 50 punti harry altrimenti vinciamo la partita ma perdiamo la coppa hai capito vero devi prendere il boccino solo se lo so oliver urlò harry tutta la casa di griffondoro era ossessionata dall'imminente incontro griffondoro non vinceva il trofeo da quando il leggendario charlie weasley il secondo fratello di ron in ordine di età era cercatore ma harry dubitava che tutti loro wood compreso volessero vincere quanto lui la rivalità tra harry e malfoy era giunta al culmine a malfoy bruciava l'incidente col fango a hogsmeade ed era ancora più arrabbiato perché harry in qualche modo era riuscito a evitare la punizione harry non aveva dimenticato il tentativo di malfoy di farlo cadere nella partita contro corvo nero ma era la faccenda fiero becco a renderlo ancora più deciso a battere malfoy davanti all'intera scuola mai a memoria di nessuno l'attesa di una partita era trascorsa in un'atmosfera così elettrica alla fine delle vacanze la tensione tra le due squadre e le loro case era arrivata al punto di rottura nei corridoi esplosero piccole risse che culminarono in un brutto scontro in cui un quarto anno di grifondoro e un sesto anno di serpeverde finirono in infermeria con dei porri che gli spuntavano dalle orecchie per harry fu un gran brutto periodo non poteva andare a lezione senza che qualche serpeverde non cercasse di fargli lo sgambetto crebbe goyle sbucavano da tutte le parti e strisciavano via delusi quando lo vedevano circondato da altri ragazzi wood aveva dato istruzioni perché harry venisse scortato ovunque nel caso i serpeverde tentassero di metterlo fuori gioco tutta la casa di grifondoro raccolse la sfida con entusiasmo così che per harry era impossibile arrivare alle lezioni in orario perché era sempre circondato da un'enorme folla rumorosa era più preoccupato per la sicurezza della sua firebolt che per la propria quando non la cavalcava la chiudeva al sicuro nel suo baule e spesso durante gli intervalli sfrecciava su nella torre di grifondoro a controllare che ci fosse ancora la sera prima della partita tutte le attività abituali furono abbandonate nella sala comune di grifondoro anche ermione mise da parte i libri non posso studiare non riesco a concentrarmi disse nervosamente c'era un gran frastuono fred e george weasley affrontavano la tensione comportandosi in modo più chiassoso e scatenato che mai oliver wood era chino sul modellino di un campo da quidditch sul quale faceva avanzare minuscole figurine con la bacchetta borbottando fra sé angelina alicia e katy ridevano agli scherzi di george e fred harry era seduto con ron e ermione in disparte e cercava di non pensare al giorno dopo perché tutte le volte che ci pensava aveva l'orribile sensazione che qualcosa di molto grosso lottasse per uscire dal suo stomaco andrà tutto bene lo rassicurò ermione anche se sembrava decisamente terrorizzata hai una firebolt disse ron sì disse herry lo stomaco contratto fu un sollievo quando wood all'improvviso si alzò e disse squadra a letto herry dormì male prima sognò di aver dormito troppo e che wood gli strillava dove eri abbiamo dovuto far giocare neville al tuo posto poi sognò che malfoy e il resto della squadra di serpeverde erano arrivate alla partita a cavallo di draghi stava volando a rotta di collo cercando di evitare una fiammata uscita dalle fauci del destriero di malfoy quando gli venne in mente che aveva dimenticato la firebolt precipitò e si svegliò di soprassalto gli ci volle qualche secondo prima di ricordare che la partita non si era ancora svolta che era al sicuro nel suo letto e che alla squadra di serpeverde non sarebbe certo stato permesso di giocare a cavallo di draghi aveva molta sete più piano che poteva scese dal letto a baldacchino e andò a versarsi dell'acqua dalla brocca d'argento sotto la finestra i prati erano calmi e tranquilli nemmeno un alito di vento sfiorava le cime degli alberi della foresta proibita il salice schiaffeggiante era immobile e sembrava innocuo pareva che le condizioni per la partita sarebbero state perfette henry posò il calice e stava per tornare a letto quando qualcosa catturò la sua attenzione un animale si aggirava sul prato argentato henry scattò fino al comodino afferrò gli occhiali e se li infilò poi tornò di corsa alla finestra non poteva essere il gramo non ora non appena prima della partita scrutò di nuovo il prato e dopo un minuto di ricerca frenetica lo individuò ora costeggiava il bordo della foresta non era affatto il gramo era un gatto henry afferrò la cornice della finestra sollevato riconoscendo la coda cespugliosa era solo grattastinchi ma era davvero solo grattastinchi henry socchiuse gli occhi e schiacciò il naso contro il vetro a quanto pareva grattastinchi si era fermato henry era certo che qualcos'altro si stesse muovendo all'ombra degli alberi un attimo dopo comparve era un enorme cane nero peloso che si muoveva furtivo sul prato con grattastinchi che trottelellava al suo fianco henry sgranò gli occhi che cosa voleva dire se anche grattastinchi vedeva il cane come poteva essere un presagio di morte per henry ron si bilò henry ron svegliati devi dirmi se vedi qualcosa è ancora buio henry mormorò ron intontito che cosa stai blaterando raggiù henry tornò a guardare dalla finestra grattastinchi e il cane erano spariti henry si piccò sulla cornice della finestra per guardare giù nell'ombra proiettata dal castello ma non c'erano dove erano andati un grugnito rumoroso gli disse che ron si era riaddormentato henry e il resto della squadra di griffondoro la mattina dopo entrarono nella sala grande salutati da un fragoloso applauso henry non pote fare a meno di sorridere quando vide che anche i tavoli di corvo nero e di tassofrasso li applaudivano al loro passaggio dal tavolo di serpe verde si alzò un fischio acuto henry notò che malfoy era ancora più pallido del solito wood passò tutta la colazione esortando la sua squadra a mangiare ma lui non toccò cibo poi si affrettò a far di correre in campo prima che gli altri finissero per farsi un'idea delle condizioni in cui avrebbero giocato mentre uscivano dalla sala grande tutti applaudirono di nuovo buona fortuna henry gridò cho chan henry si sentì arrossire ok niente vento è fin troppo sereno il sole potrebbe abbagliarvi state attenti il terreno è duro bene il decollo sarà veloce wood percorse il campo guardandosi in giro con la squadra al seguito alla fine videro le porte del castello aprirsi in lontananza e il resto della scuola disperdersi nel prato agli spogliatoi disse wood asciutto nessuno parlò mentre indossavano le divise scarlatte henry si chiese se provavano la stessa cosa che provava lui era come se a colazione avesse inghiottito qualcosa di molto molto agitato dopo quello che parve un attimo wood disse ok è ora andiamo uscirono in campo accolti da un'ondata di fragoroso entusiasmo i tre quarti della folla portavano coccarde scarlatte agitavano bandiere scarlatte con il leone di grifondoro disegnato sopra o brandivano striscioni con slogan come vai grifondoro e la coppa i leoni dietro le porte di serpe verde comunque erano schierate almeno 200 persone in verde il serpente argentato di serpe verde scintillava sulle loro bandiere e il professor piton era seduto in prima fila vestito di verde come tutti gli altri con in faccia un sorriso sgradevole ed ecco i grifondoro urlò lee jordan che come al solito faceva la cronaca potter bell johnson spinnet weasley weasley e wood ampiamente accreditata come la squadra migliore che hogwarts abbia avuto da parecchi anni il commento di lee fu seppellito da una marea di boo dal fronte di serpe verde ed ecco la squadra di serpe verde guidata dal capitano flint il capitano ha portato alcune modifiche nello schieramento si direbbe che abbia privilegiato la taglia più che l'abilità altri boo dalla folla di serpe verde henry comunque pensava che lee avesse ragione malfoy era di gran lunga il più piccolo in campo tutti i suoi compagni erano enormi i capitani si diano la mano disse madame mucci flint e wood si avvicinarono e si strinsero forte la mano era come se ciascuno stesse cercando di spezzare le dita dell'altro in sella le scope disse madame mucci il fischio d'inizio andò perso nell'urlo della folla mentre quattordici scope si libravano a mezz'aria henry sentì i capelli volargli via dalla fronte la tensione si sciolse nell'emozione del volo si guardò intorno vide malfoy che lo tallonava e accelerò in cerca del boccino grifondoro in possesso di palla alicia spinnet di grifondoro alla pluffa e si dirige verso le porte di serpe verde vai così alicia ah no pluffa intercettata da warrington warrington di serpe verde attraversa il campo bel colpo di bolide per george weasley warrington perde la pluffa la prende johnson grifondoro è di nuovo in possesso forza angelina bel dribbling su montague stai giù angelina è un bolide e segna 10 a 0 per grifondoro angelina alzò il pugno mentre filava a bordo campo il mare scarlatto sotto di lei urlava di gioia aia angelina finì quasi disarcionata mentre marcus flint la urtava scusa disse flint mentre la folla in basso protestava scusate non l'ho vista un attimo dopo fred weasley colpì flint in testa con la sua mazza da battitore il naso di flinte finì spiaccicato contro il manico della sua scopa e prese a sanguinare basta così strillò madame mouche sfrecciando fra di loro rigore a grifondoro per attacco immotivato al suo cacciatore rigore a serpe verde per deliberata aggressione al suo cacciatore ma insomma signora ululò fred ma madame mouche soffiò il fischietto e alicia scattò in avanti per battere il rigore forza alicia strillò lee nel silenzio che era sceso sulla folla sì ha battuto il portiere 20 a 0 per grifondoro harry voltò bruscamente la firebolt e vide flint che sempre sanguinando abbondantemente volava in avanti per battere il rigore a favore di serpe verde wood era accovacciato davanti alla porta di grifondoro le mascelle serrate naturalmente wood è un ottimo portiere disse lee jordan alla folla mentre flinta aspettava il fischio di madame mouche superbo molto difficile da prendere davvero molto difficile sì non ci credo la parata sollevato harry sfrecciò via cercando il boccino con lo sguardo ben attento a non perdere una parola del commento di lee era fondamentale tenere malfoi lontano dal boccino finché grifondoro non avesse avuto almeno 50 punti di vantaggio grifondoro in possesso no è serpe verde in possesso no grifondoro torna in possesso ed è katie bell katie bell per grifondoro con la pluffa sta risalendo il campo l'ha fatto apposta montague un cacciatore di serpe verde aveva scartato davanti a katie e invece di prendere la pluffa le aveva afferrato la testa katie si rovesciò in aria riuscì a rimanere in sella ma lasciò cadere la pluffa il fischietto di madame muc si bilò di nuovo mentre lei sfrecciava verso montague e gli urlava contro un minuto dopo katie segnò un'altra rete 30 a 0 vi sta bene brutti imbroglioni jordan se non riesci a commentare in modo imparziale dico le cose come stanno professoressa harry avvertì un'ondata di eccitazione aveva visto il boccino scintillava accanto a una delle porte di grifondoro ma non doveva prenderlo non ancora e se lo vedeva malfoi fingendo un'improvvisa concentrazione harry voltò la firebolt e filò verso il campo di serpe verde funzionò malfoi si affrettò a inseguirlo convinto che harry avesse visto il boccino laggiù un bolide sfrecciò accanto all'orecchio destro di harry colpito dal gigantesco battitore di serpe verde derrick un attimo dopo il secondo bolide sfiorò il gomito di harry l'altro battitore bol si avvicinava harry ebbe una visione fugace di bolle derrick che filavano verso di lui con le mazze levate puntò la firebolt verso l'alto all'ultimo minuto e bolle derrick si scontrarono con un fragore assordante ha ha urlò lee jordan mentre i battitori di serpe verde si allontanavano l'uno dall'altro tenendosi la testa fra le mani peccato ragazzi dovete darvi una svegliata se volete battere una firebolt e griffondoro è di nuovo in possesso ecco johnson che prende la pluffa flint la segue colpiscilo nell'occhio angelina scherzavo professoressa scherzavo oh no flint in possesso flint vola verso le reti di griffondoro dai wood prendila ma flint aveva segnato ci fu uno scoppio di applausi dall'ala di serpe verde e lì disse una parolaccia così grossa che la mcgonagall cercò di strappargli il megafono magico mi perdoni professoressa mi perdoni non succederà più allora griffondoro in vantaggio 30 a 10 ed è in possesso stava diventando la partita più sporca a cui harry avesse mai preso parte furiosi che griffondoro fosse passato in vantaggio così in fretta i serpe verde ricorrevano ormai a ogni mezzo per prendere la pluffa ball colpì alicia con la mazza e si giustificò dicendo che l'aveva scambiata per un bolide george weasley in cambio diede una gomitata in faccia a ball madame hutch assegnò altri rigori a entrambe le squadre e wood fece un altro salvataggio spettacolare il punteggio era 40 a 10 per griffondoro il boccino era sparito di nuovo malfoy continuava a stare alle calcagna di harry che sorvolava la partita cercando di individuare la pallina scintillante quando griffondoro fosse stato in vantaggio di 50 punti che ti segnò 50 a 10 fred e george weasley le sfrecciarono intorno le mazze levate in caso che un serpe verde meditasse vendetta ball e derrick approfittarono dell'assenza di fred e george per sparare entrambi i bolidi contro wood lo colpirono allo stomaco uno dopo l'altro e wood rotolò nell'aria stretto alla scopa col fiato muzzo madame hutch era fuori di sé non si attacca il portiere se la pluffa non è nell'area di rigore trillo contro bolle derrick rigore per griffondoro e angelina assegnò 60 a 10 un attimo dopo fred weasley sparò un bolide contro warrington facendogli perdere la pluffa alicia la prese e la spedì nella porta di serpe verde 70 a 10 la folla di griffondoro si sgolava ora la squadra aveva 60 punti di vantaggio e se eri avesse preso il boccino avrebbe vinto la coppa eri sentiva centinaia di occhi seguirlo mentre volava per il campo alto sulla partita con malfoi che filava alle sue spalle e poi lo vide il boccino brillava sei metri più in alto eri accelerò bruscamente il vento gli fischiava nelle orecchie tese la mano ma all'improvviso la firebolt rallentò si guardò intorno con orrore malfoi si era lanciato in avanti aveva afferrato la coda della firebolt e la tratteneva a viva forza tu eri era talmente furioso che avrebbe volentieri picchiato malfoi ma non riuscì a raggiungerlo malfoi ansimava per lo sforzo di trattenere la firebolt ma i suoi occhi scintillavano maligni aveva ottenuto quello che voleva il boccino era di nuovo scomparso rigore rigore per griffondoro non ho mai visto un comportamento simile strillò madame mouche sfrecciando in su mentre malfoi riscivolava a cavalcioni della sua nimbus 2001 tu canaglia imbroglione ululava jordan nel megafono saltellando fuori dalla portata della professoressa mcgonagall tu sudicio impostore bass la mcgonagall non pensò nemmeno a zittirlo stava agitando la mano in direzione di malfoi aveva perso il cappello e urlava furibonda anche lei alicia batte il rigore per griffondoro ma era così arrabbiata che mancò la porta di diversi metri la squadra di griffondoro stava perdendo la concentrazione e i serpeverde eccitati dal fallo di malfoi su harry cavalcavano a sprombattuto sempre più in alto serpeverde in possesso serpeverde avanza verso la porta monteghiu segna gemette lì 70 20 per griffondoro harry ora marcava malfoi così stretto che le loro ginocchia continuavano a urtarsi harry non aveva intenzione di lasciare avvicinare malfoi al boccino vattene potter urlò malfoi irritato mentre cercava di voltarsi e si trovava la strada sbarrata angelina johnson prende la pluffa per il griffondoro dai angelina dai harry si voltò ogni singolo giocatore di serpeverde a parte malfoi stava risalendo il campo verso angelina compreso il portiere volevano bloccarla a tutti i costi harry puntò la firebolt si chinò tanto da aderire al manico e la spronò in avanti come un proiettile filò verso i serpeverde gli avversari si dispersero mentre la firebolt sfrecciava contro di loro angelina aveva via libera assegnato assegnato il griffondoro in testa 80 20 harry che era quasi finito a testa in giù nelle tribune si arrestò a mezz'aria si voltò e schizzò di nuovo a centrocampo e poi vide qualcosa che gli paralizzò il cuore malfoi era impicchiata trionfante laggiù a pochi piedi dalla superficie dell'erba c'era un lieve scintillio d'oro harry puntò rapido la firebolt verso il basso ma malfoi era chilometri davanti a lui vai vai harry spronò la scopa stava per raggiungere malfoi harry si appiattì lungo il manico mentre ball gli lanciava contro un bolide era le calcagna di malfoi era pari harry si gettò in avanti staccò entrambe le mani dalla scopa allontanò con un colpo secco il braccio di malfoi e si interruppe la picchiata la mano alzata in aria e lo stadio esplose harry volò sulla folla uno strano ronzio nelle orecchie il pallino d'oro stretto in pugno che sbatteva in vano le ali contro le sue dita poi wood sfrecciò verso harry accecato dalle lacrime gli saltò al collo e scoppiò in un pianto irrefrenabile sulla sua spalla harry sentì due colpi secchi sulle spalle il saluto di fredda e george poi le voci di angelina alicia e katy abbiamo vinto la coppa abbiamo vinto la coppa aggrovigliata in un enorme abbraccio collettivo la squadra di grifondoro scese lentamente a terra urlando a squarciagola ondate di tifosi scarlatti si riversarono in campo scavalcando le barriere manifestanti battevano sulle schiene dei giocatori harry ebbe una confusa impressione di rumore e di corpi che premevano contro il suo poi lui e il resto della squadra furono issati sulle spalle della folla spinto verso la luce vide agrid tappezzato di coccarde scarlatte li hai battuti harry li hai battuti aspetta solo che lo dico a fiero becco c'era persi che dimenticata ogni dignità saltava su e giù come un pazzo la professoressa mcgonagall si inghiozzava più forte di wood asciugandosi gli occhi in un enorme bandiera di grifondoro e laggiù c'erano ron e ermione che si facevano largo a fatica verso harry non trovarono le parole sorrisero e basta mentre harry veniva trasportato verso le tribune dove silente attendeva in piedi con l'enorme coppa di quidditch tra le mani se solo ci fosse stato un dissenatore nei dintorni mentre un singhiozzante wood passava la coppa a harry e lui l'alzava in aria sentì che avrebbe potuto far apparire il patronus migliore del mondo la profezia della professoressa trelonei l'euforia di harry per aver finalmente conquistato la coppa di quidditch durò almeno una settimana anche il tempo sembrava festeggiare con l'avvicinarsi di giugno le giornate si fecero serene e affose e l'unica cosa che veniva voglia di fare era passeggiare nei prati e gettarsi lunghi distesi sull'erba con parecchie pinte di succo di zucca gelato a giocare qualche distratta partita a gobiglie o a guardare l'enorme piovra che avanzava sognante sulla superficie del lago ma non potevano permetterselo gli esami erano vicini e invece di impigrire in giro gli studenti erano costretti a rimanere al castello cercando di obbligare i cervelli a concentrarsi mentre seducenti sbuffi di aria estiva penetravano dalle finestre anche fredde george weasley furono visti studiare dovevano ottenere il gufo grado ufficiale di fattucchiere ordinario persi invece si preparava per il mago magia avanzata di grado ottimale il diploma più alto che si potesse prendere a hogwarts dal momento che sperava di entrare al ministero della magia doveva ottenere il massimo dei voti diventava sempre più irritabile e assegnava punizioni molto severe a chiunque disturbasse la pace serale della sala comune in effetti l'unica persona più tesa di lui era elmione harry e ron avevano rinunciato a chiederle come facesse a seguire più corsi contemporaneamente ma non riuscirono a trattenersi quando videro l'orario degli esami che si era preparata nella prima colonna c'era scritto lunedì ore nove aritmanzia ore nove trasfigurazione pranzo ore tredici incantesimi ore tredici antiche rune ermione disse ron cautamente visto che in quel periodo l'amica tendeva a esplodere quando qualcuno la disturbava sei sicura di aver copiato gli orari giusti cosa sbottò ermione afferrando l'orario e osservandolo ma certo serve a qualcosa chiederti come farai a sostenere due esami insieme chiese erri no rispose ermione asciutta qualcuno ha visto la mia copia di numerologia e grammatica o sì l'ho presa io per leggere qualcosa prima di dormire disse ron molto piano ermione prese a sparpagliare fogli di pergamena sul tavolo in cerca del libro in quel momento alla finestra si udì un fruscio ed edvige entrò volando con un biglietto stretto nel becco è di agrid disse erri aprendo la busta l'appello di fiero becco è il 6 l'ultimo giorno degli esami disse ermione senza smettere di cercare il suo libro di aritmanzia e si terrà qui disse erri continuando a leggere verrà qualcuno del ministero della magia e un boia ermione alzò gli occhi stupita portano il boia all'appello ma è come se avessero già deciso sì disse erri non possono ululò ron ho passato secoli a leggere per agrid non possono far finta di niente ma erri aveva l'orribile sensazione che fosse stato il signor malfoi a decidere per il comitato per la soppressione delle creature pericolose draco che dal trionfo di grifondoro nella finale di quidditch era stato insolitamente tranquillo negli ultimi giorni aveva riacquistato un po della vecchia spavalderia a giudicare da qualche sprezzante osservazione colta per caso malfoi era certo che fiero becco sarebbe stato giustiziato e sembrava assolutamente soddisfatto di sé per essere riuscita a ottenere quel risultato erri riuscì a stento a trattenersi dal limitare ermione prendendo a schiaffi malfoi in quelle occasioni e la cosa peggiore era che non avevano né il tempo né la possibilità di andare a trovare agrid perché le nuove severe misure di sicurezza non erano state allentate e erri non osava recuperare il mantello dell'invisibilità dall'interno della strega orba la settimana degli esami cominciò e una quiete innaturale scese sul castello il lunedì i ragazzi del terzo anno uscirono da trasfigurazione all'ora di pranzo mogi e pallidi confrontando i risultati e lamentandosi per la difficoltà delle prove compresa la trasformazione di una teiera in una testuggine ermione riuscì a irritare tutti brontolando sul fatto che la sua testuggine sembrava più una tartaruga cosa che era l'ultima preoccupazione di tutti gli altri la mia aveva ancora il beccuccio al posto della coda che incubo le testugini sbuffano vapore aveva il guscio decorato a foglioline credi che mi abbasseranno il voto poi dopo un rapido pasto tutti di nuovo di sopra per l'esame di incantesimi ermione aveva ragione in effetti il professor flitwick chiese loro gli incantesimi rallegranti per la tensione harry esagerò un po tanto che ron che faceva coppia con lui ebbe un accesso di risatine isteriche e dovette restare rinchiuso in un posto tranquillo per un'ora prima di essere in grado di eseguire a sua volta l'incantesimo dopo cena gli studenti tornarono in fretta nelle sale comuni non per rilassarsi ma per ripassare cura delle creature magiche pozioni e astronomia la mattina dopo agrida assistette all'esame di cura delle creature magiche con aria davvero molto preoccupata sembrava che pensasse ad altro aveva preparato una grossa vasca di vermicoli per la classe e disse loro che per passare la prova il loro vermicolo doveva essere ancora vivo di lì a un'ora dal momento che i vermicoli prosperavano se lasciati a se stessi fu l'esame più facile che avessero mai sostenuto e in più diede a harry ronne e ermione la possibilità di parlare con agrid becco è un po giù disse agrid chinandosi con la scusa di controllare che il vermicolo di harry fosse ancora vivo è stato rinchiuso per troppo tempo comunque sapremo dopo domani in un modo o nell'altro quel pomeriggio ci fu l'esame di pozioni che fu un disastro totale per quanto ci avesse provato harry non riuscì a far addensare il suo intruglio confondente e piton che era rimasto lì a guardarlo con un'aria di vendicativa soddisfazione prima di allontanarsi scarabocchiò qualcosa di terribilmente simile a uno zero nei suoi appunti poi a mezzanotte fu la volta di astronomia sulla torre più alta il mercoledì mattina toccò a storia della magia e harry nel suo tema scrisse tutto quello che florean fortescue gli aveva raccontato sulla caccia alle streghe nel medioevo desiderando ardentemente uno dei gelati alla ciocco nocciola di fortescue visto il caldo soffocante il mercoledì pomeriggio ci fu erbologia alle serre sotto un sole cocente poi tutti di nuovo in sala comune con la nuca scottata a desiderare che fosse già il giorno dopo alla stessa ora quando sarebbe stato tutto finito il penultimo esame il giovedì mattina fu difesa contro le arti oscure il professor lupin aveva architettato la prova più insolita che avessero mai affrontato una sorta di corsa ostacoli all'aperto in cui dovevano attraversare una piccola vasca che conteneva un avvincino superare una serie di buche piene di berretti rossi farsi strada lungo un sentiero nella palude ignorando i consigli maliziosi di un fuoco fatuo e infine arrampicarsi dentro un vecchio tronco e combattere contro un molliccio ottimo erri mormorò lupin con un sorriso mentre erri usciva dal tronco punteggio pieno fiero del proprio successo erri rimase nei paraggi per vedere come se la cavavano ron e ermione ron andò molto bene finché non arrivò al fuoco fatuo che riuscì a confonderlo e a farlo sprofondare fino alla vita nell'acquitrino ermione fece tutto alla perfezione finché non arrivò al tronco con il molliccio dentro dopo un minuto sbucò fuori urlando ermione disse il professor lupin allarmato che cosa succede la professoressa mcgonagall esclamò ermione senza fiato indicando il tronco dice che sono stata bocciata in tutte le materie ci volle un po' per calmare ermione quando alla fine ebbe ripreso il controllo di sé lei erri e ron tornarono al castello ron aveva ancora una certa voglia di ridere del molliccio di ermione ma la lite fu sviata alla vista di ciò che gli attendeva in cima alle scale cornelius fudge lievemente accaldato nel suo mantello gessato era lì in piedi che guardava verso il parco alla vista di erri esclamò buongiorno erri hai appena sostenuto un esame suppongo hai quasi finito sì rispose erri ermione e ron che non avevano mai rivolto la parola al ministro della magia indugiarono imbarazzati alle sue spalle bella giornata disse fudge gettando un'occhiata al lago che peccato che peccato sospirò profondamente e guardò erri sono qui per una missione sgradevole erri il comitato per la soppressione delle creature pericolose ha richiesto un testimone per l'esecuzione di un ippogrifo rabbioso e siccome dovevo già venire a hogwarts per verificare come vanno le cose con black hanno mandato me vuol dire che c'è già stato l'appello lo interruppe ron facendo un passo avanti no no è fissato per oggi pomeriggio disse fudge guardando ron con curiosità allora può darsi che lei non debba assistere a nessuna esecuzione disse ron ostinato l'ipogrifo potrebbe anche cavarsela prima che fudge potesse rispondere due maghi uscirono dal castello e lo raggiunsero uno era così vecchio che sembrava avvizzire davanti a loro l'altro era alto e robusto con sottili baffi neri erri dedusse che fossero rappresentanti del comitato per la soppressione delle creature pericolose perché il primo mago strizzò gli occhi verso la capanna di agrid e disse con voce acuta ceno sono troppo vecchio per queste cose è alle due vero fudge il mago coi baffi neri stava sfiorando qualcosa che gli pendeva dalla cintura erri guardò meglio e vide che faceva scorrere il grosso pollice sulla lama di un'ascia lucente ron aprì la bocca per dire qualcosa ma ermione gli diede una gomitata e fece un cenno verso la sala d'ingresso perché mi ha interrotto disse ron furioso mentre entravano nella sala grande per il pranzo li hai visti hanno già l'ascia pronta questa non è giustizia ron tuo padre lavora per il ministero non puoi rivolgerti con quel tono al suo capo disse ermione ma anche lei era sconvolta se questa volta agrid si controlla e discute il caso come si deve non possono giustiziare fiero becco ma erri sapeva che ermione non credeva veramente a quello che diceva tutto attorno a loro i ragazzi parlavano animatamente aspettando allegri la fine degli esami quel pomeriggio ma erri ron e ermione preoccupati per agrid e fiero becco non li imitarono l'ultimo esame di erri e ron era divinazione quello di ermione babbanologia salirono insieme la scalinata di marmo ermione risalutò al primo piano erri e ron salirono fino al settimo dove molti della loro classe erano seduti sulla scala a chiocciola che portava all'aula della professoressa trelone impegnati in un ripasso affannoso dell'ultimo minuto ci vuole vedere uno alla volta l'informo neville mentre si sedevano vicino a lui aveva svelare il futuro aperto in grembo alle pagine dedicate alla lettura della sfera di cristallo qualcuno di voi ha mai visto qualcosa in una sfera di cristallo chiese loro con aria infelice no disse ron sbrigativo continuava a guardare l'orologio erri sapeva che contava i minuti che mancavano all'inizio dell'appello di fiero becco la coda di persone davanti alla classe si accorciava molto lentamente tutte le volte che uno di loro scendeva dalla scaletta d'argento gli altri chiedevano in un sussurro che cosa ti ha chiesto è andata bene ma tutti si rifiutavano di rispondere dice che la sfera di cristallo le ha detto che se parlo mi capiterà una cosa terribile squitti neville mentre scendeva le scale diretto verso erri e ron che ora erano sul pianerottolo comodo disse ron sprezzante sai sto cominciando a pensare che ermione avesse ragione a proposito di quella e puntò il pollice verso la botola in alto è davvero una vecchia impostora sì disse erri guardando a sua volta l'orologio erano le due in punto vorrei che si sbrigasse parvati scese raggiante di orgoglio dice che ho tutti i requisiti di una vera veggente dichiarò erri e ron ho visto un mucchio di cose buona fortuna e corse giù per la scala a chiocciola incontro alla vanda ron al weasley disse la familiare voce velata sopra le loro teste ron fece una smorfia rivolto a erri e sparì su per la scaletta d'argento erri era l'ultimo rimasto sedette per terra la schiena contro il muro ascoltando una mosca che lonzava contro la finestra inondata di sole il pensiero al di là del prato con agrid alla fine dopo una ventina di minuti i grossi piedi di ron ricomparvero sulla scala come è andata gli chiese erri alzandosi uno schifo rispose ron non ho visto niente così mi sono inventato qualcosa non credo di averla convinta comunque ci vediamo in sala comune mormorò erri mentre la voce della professoressa trelonei chiamava erri potter la stanza della torre era più calda che mai le tende erano tirate il fuoco acceso e il solito aroma nauseante fece tossire erri mentre inciampava nella folla di sedie e tavoli fino a raggiungere la professoressa trelonei che lo aspettava seduta davanti a una grossa sfera di cristallo buona giornata mio caro disse con voce dolce se gentilmente vuoi guardare nell'occhio fai pure con calma poi dimmi che cosa vedi erri si chinò sulla sfera di cristallo e la fissò più intensamente che poteva nella speranza che gli mostrasse qualcosa oltre alla solita nebbia bianca avorticante ma non successe nulla allora lo esortò la professoressa trelonei che cosa vedi il calore era soffocante e le narici di erri bruciavano per il fumo profumato che si alzava dal fuoco pensò a quello che aveva appena detto ron e decise di fingere disse una forma scura a cosa assomiglia sussurrò la professoressa trelonei pensaci erri si concentrò e gli venne in mente fiero becco a un ipogrifo disse deciso davvero bisbigliò la professoressa trelonei scarabocchiando furiosamente sulla pergamena che teneva in bilico sulle ginocchia ragazzo mio forse vedi le conseguenze dei guai del povero agrid con il ministero della magia guarda meglio ti sembra che l'ipogrifo abbia la testa sì di serri in tono fermo sicuro insistette la professoressa trelonei sei sicuro caro non lo vedi contorcesi a terra magari con una sagoma scura che brandisce l'ascia dietro di lui no di serri che cominciava ad avvertire un vago malessere niente sangue agrid non piange no ripete erri desideroso di andarsene da quella stanza e dal calore sta bene adesso vola via la professoressa trelonei sospirò beh caro credo che ci fermeremo qui un po deludente ma sono certa che hai fatto del tuo meglio sollevato erri si alzò prese la borsa e fece per andarsene ma poi una voce alta e dura parlò alle sue spalle accadrà questa notte erri si voltò la professoressa trelonei si era irrigidita sulla sedia lo sguardo perso e la bocca tremante come disse erri ma la professoressa trelonei parve non sentirlo i suoi occhi si rovesciarono erri rimase lì spaventato sembrava che lei stesse per avere una specie di attacco esitò pensando di correre fino all'infermeria poi la professoressa trelonei parlò di nuovo con quella voce dura così diversa dal solito il signore oscuro è solo e senza amici abbandonato dai suoi seguaci il suo servo è rimasto in catene per dodici anni questa notte prima di mezzanotte il servo si libererà e cercherà di unirsi al padrone il signore oscuro risorgerà con l'aiuto del servo più grande e più orribile che mai questa notte prima di mezzanotte il servo si libererà per unirsi al padrone la testa le ricadde sul petto l'insegnante emise una sorta di grugnito poi all'improvviso la sua testa si rialzò mi dispiace tanto caro ragazzo disse sognante deve essere il caldo sai mi sono addormentata erri continuò a guardarla c'è qualcosa che non va mio caro lei lei mi ha appena detto che il il signore oscuro risorgerà che il suo servo sta per tornare da lui la professoressa trelonei parve decisamente stupita il signore oscuro colui che non deve essere nominato mio caro ragazzo non è una cosa sulla quale si può scherzare risorgere addirittura ma l'ha detto lei un momento fa ha detto che il signore oscuro chi devi essere assopito anche tu caro disse la professoressa trelonei non avrei mai la presunzione di prevedere una cosa così inverosimile erri ridiscese la scaletta e la scala a chiocciola stupefatto aveva appena ascoltato la professoressa trelonei formulare una vera profezia o forse aveva solo pensato di concludere l'esame con una scena impressionante cinque minuti dopo superava i troll della sorveglianza verso l'ingresso della torre di grifondoro con in mente l'eco delle parole della professoressa trelonei i compagni lo incrociarono diretti dalla parte opposta ridendo e scherzando puntando verso i prati e un po di quella libertà a lungo agognata quando erri ebbe superato il buco del ritratto ed entrò nella sala comune la trovò quasi deserta in un angolo però c'erano ron e ermione la professoressa trelonei esclamò erri ansante mi ha appena detto ma si interruppe di colpo alla vista delle loro facce fiero becco ha perso disse ron pianissimo agrid ha appena mandato questo il biglietto di agrid questa volta era asciutto senza macchie di lacrime ma la sua mano doveva aver tremato mentre scriveva tanto che il messaggio si leggeva a stento appello perso esecuzione al tramonto nulla da fare non venite non voglio che vedete agrid dobbiamo andare disse subito erri non può stare là seduto da solo ad aspettare il boia al tramonto però disse ron che guardava nel vuoto fuori dalla finestra non ci daranno mai il permesso specialmente a te e erri erri si prese la testa tra le mani riflettendo se solo avessimo il mantello dell'invisibilità dov'è chiese ermione erri le disse di averlo lasciato nel passaggio sotto la strega orba se piton mi trova un'altra volta da quelle parti finisco nei guai e sul serio concluse è vero disse ermione alzandosi se vede te come si fa ad aprire la gobba della strega devi devi darle un colpo di bacchetta e dire dissendium rispose erri ma ermione non attese il resto della frase attraversò la stanza aprì con una spinta il ritratto della signora grassa e sparì dalla loro vista non sarà andata a prenderlo disse ron attonito e invece sì ermione tornò un quarto d'ora dopo con il mantello argente o piegato con cura e nascosto sotto gli abiti ermione non so che cosa ti prende ultimamente disse ron sballordito prima picchi malfoi poi pianti la lezione della treronei ermione parve piuttosto lusingata scesero a cena con tutti gli altri ma alla fine non tornarono alla torre di grifondoro erri aveva nascosto il mantello sotto i vestiti doveva tenere le braccia incrociate per nascondere il rigonfio si infilarono in una stanza vuota accanto alla sala d'ingresso in ascolto finché non furono certi che fosse deserta sentirono ancora qualcuno attraversare l'ingresso di corsa e una porta che sbatteva ermione fece capolino dalla porta ok sussurrò non c'è nessuno il mantello presto camminando molto vicini in modo che nessuno li vedesse attraversarono l'ingresso in punta di piedi coperti dal mantello poi scesero i gradini di pietra fino al prato il sole già calava dietro la foresta proibita spruzzando d'oro le cime degli alberi raggiunsero la capanna di agrid e bussarono il guardacaccia ci mise un po a rispondere e quando lo fece si guardò intorno in cerca del visitatore pallido e tremante siamo noi sibilo erri abbiamo addosso il mantello dell'invisibilità faccia entrare così possiamo levarcelo non dovevate venire mormorò agrid ma fece un passo indietro e i tre entrarono agrid chiuse in fretta la porta erri si sfilò il mantello agrid non piangeva né si gettò al collo di nessuno sembrava che non sapesse dove si trovava o che cosa doveva fare una disperazione la sua che era peggio delle lacrime volete del tè disse le sue manone tremarono afferrando il bollitore dov'è fiero becco agrid chiese ermione esitante io l'ho portato fuori rispose agrid versando un po di latte sul tavolo mentre riempiva il bricco è legato nell'orto delle zucche ho pensato che doveva vedere gli alberi e respirare l'aria buona prima di la mano di agrid tremava così forte che il bricco del latte gli scivolò tra le dita e finì in mille pezzi ci penso io agrid disse rapida ermione affrettandosi a ripulire ce n'è un altro nella credenza disse agrid sedendosi e asciugandosi la fronte sulla manica erri guardò ron che gli restituì lo sguardo desolato non c'è niente che si possa fare agrid chiese erri risoluto prendendo posto accanto a lui silente ci ha provato disse agrid non ha il potere lui di annullare quello che decide il comitato l'ha detto a loro che fiero becco è a posto ma hanno paura lo sapete com'è lucius malfoi li ha minacciati credo io e il boia mackner è un vecchio amico di malfoi ma farà in fretta e io gli starò vicino agrid deglutì i suoi occhi sfrecciavano da una parte all'altra della capanna in cerca di un briciolo di speranza e di conforto silente verrà quando quando succede mi ha scritto questa mattina dice che vuole vuole stare con me grande uomo silente ermione che stava cercando nella credenza di agrid si lasciò sfuggire un piccolo singhiozzo soffocato si raddrizzò con l'altro blicco in mano lottando per trattenere le lacrime anche noi resteremo con te agrid esclamò ma agrid scosse il testone arruffato voi dovete tornare al castello ve l'avevo detto non voglio che voi vedete e non dovevate essere qui comunque se fagge silente ti trovano fuori senza permesso erri sono guai grossi lacrime silenziose solcavano ora il viso di ermione che cercò di non farsi vedere da agrid dandosi da fare per preparare il tè poi mentre prendeva la bottiglia del latte per versarne un po nel brico si lasciò sfuggire uno strillo ron io non posso crederci è crosta ron la guardò a bocca aperta ma che cosa stai dicendo ermione posò il brico sul tavolo e lo rovesciò con uno squittio disperato agitando freneticamente le zampe nel tentativo di tornare dentro il topo crosta scivolò sul tavolo crosta esclamò ron esterrefatto crosta che cosa ci fai qui afferrò il topo che si contorceva tutto e lo sollevò crosta aveva un aspetto orribile era più magro che mai grosse chiazze di pelo erano cadute lasciando ampie macchie rosate e si dimenava tra le mani di ron cercando disperatamente di liberarsi va tutto bene crosta disse ron niente gatti nessuno ti farà del male agrid si alzò di scatto gli occhi puntati alla finestra il suo viso di solito rubicondo era diventato color pergamena arrivano henry ron e ermione si voltarono di scatto un gruppo di uomini scendeva ai gradini del castello davanti c'era albus silente la barba d'argento che scintillava nel sole morente vicino a lui trotterellava cornelius fudge gli seguivano il vecchio fragile membro del comitato e il boia mechner dovete andare disse agrid tremava tutto non devono trovarvi qui andate adesso ron si infilò crosta in tasca ermione prese il mantello vi faccio uscire dalla porta dietro disse agrid lo seguirono fino all'ingresso sul retro a henry parve tutto stranamente irreale tanto più quando vide fiero becco legato a un albero nell'orto delle zucche di agrid l'ippoglifo sembrava aver capito che stava per succedere qualcosa voltò la testa affilata da una parte e dall'altra e traspo il terreno nervosamente fa tutto bene becco disse agrid dolcemente tutto bene si voltò verso erri ron e ermione andate disse andate ma i tre non si mossero agrid non possiamo diremo loro che cosa è successo veramente non possono ucciderlo andate esclamò agrid deciso è già abbastanza brutto senza che finite tutti nei guai non avevano scelta mentre ermione gettava il mantello sopra erri e ron sentirono delle voci davanti alla capanna agrid guardò il punto in cui erano appena spariti andate svelti disse con voce roca non dovete sentire e tornò dentro la capanna mentre qualcuno bussava alla porta davanti lentamente in una sorta di orribile trance erri ron e ermione fecero in silenzio il giro della casa di agrid quando giunsero dall'altra parte la porta davanti si chiuse con un colpo secco ti prego muoviamoci sussurrò ermione non lo sopporto non ce la faccio presero a risalire il prato verso il castello ora il sole calava rapido il cielo era diventato di un grigio chiaro striato di viola ma verso ovest c'era un bagliore rosso rubino ron si fermò di colpo o ti prego ron esordì ermione è crosta non vuole stare tranquillo ron si chinò cercando di trattenere crosta dentro la tasca ma il topo era fuori di sé squittiva come un pazzo si agitava e si divincolava cercando di affondare i denti nella mano di ron crosta sono io stupido sono ron si bilò sentirono una porta aprirsi alle loro spalle e il suono di alcune voci maschili o ron muoviamoci ti prego stanno per farlo sussurrò ermione ok crosta stai buono proseguirono erri come ermione cercò di non prestare orecchio alle voci alle loro spalle ron si fermò di nuovo non riesco a tenerlo fermo crosta stai zitto ci sentiranno il topo squittiva selvaggiamente ma non abbastanza forte da coprire i rumori che arrivavano dal giardino di agrid si udì un intreccio indistinto di voci maschili poi venne il silenzio e poi senza preavviso l'inconfondibile sibilo di un ascia seguito da un tonfo ermione barcollò l'hanno fatto sussurrò a erri io non non ci posso credere l'hanno fatto gatto topo e cane erri fu come svuotato dallo shock tutti e tre rimasero lì paralizzati dall'orrore sotto il mantello dell'invisibilità gli ultimi raggi del sole che tramontava gettavano una luce insanguinata sui prati coperti di lunghe ombre poi udirono alle loro spalle un ululato selvaggio agrid mormorò erri senza riflettere fece per voltarsi ma ron e ermione lo afferrarono per le braccia non possiamo disse ron bianco come un cencio finirà in un altro guaio se scoprono che siamo andati a trovarlo il respiro di ermione era breve e irregolare come hanno potuto disse con voce soffocata come hanno potuto andiamo disse ron battendo i denti ripartirono alla volta del castello avanzando piano per rimanere nascosti sotto il mantello la luce ora diminuiva in fretta quando furono sui campi aperti l'oscurità calò come un incantesimo attorno a loro crosta stai fermo sibilò ron premendosi la mano sul petto il topo si divincolava come un pazzo ron si fermò di colpo e cercò di infilare crosta più a fondo dentro la tasca si può sapere che cos'hai stupido topo stai fermo aia mi ha morso ron stai zitto sussurrò in fretta ermione fudge sarà qui tra un minuto non vuole stare tranquillo crosta era chiaramente terrorizzato si agitava con tutte le forze cercando di liberarsi dalla stretta di ron che cosa ma harry aveva appena visto grattastinchi che scivolava verso di loro il corpo appiattito i grandi occhi gialli che scintillavano inquietanti nell'oscurità non seppe dire se li vedesse o se stesse seguendo gli squittii di crosta grattastinchi gemette ermione no vai via grattastinchi vai via ma il gatto si avvicinava crosta no troppo tardi il topo scivolò tra le dita di ron che cercava di trattenerlo cade a terra e fuggì in un balzo grattastinchi scattò alle sue calcagna e prima che harry o ermione potessero impedirglielo ron si tolse il mantello dell'invisibilità e sparì nell'oscurità ron gemette ermione lei e harry si scambiarono un'occhiata era impossibile correre sotto il mantello così uscirono allo scoperto e si gettarono all'inseguimento di ron con il mantello che sventolava dietro di loro come una bandiera sentivano i suoi passi risuonare davanti a loro e le sue grida contro grattastinchi fai via fai via crosta vieni qui si udì un colpo secco preso vattene via gattaccio puzzolente harry e ermione quasi inciamparono addosso a ron riuscirono a stento a fermarsi davanti a lui era per terra lungo disteso ma crosta era di nuovo nella sua tasca il ragazzo teneva le mani strette sul rigonfiamento tremante ron dai torna sotto il mantello ansimo ermione silente il ministro usciranno tra un attimo ma prima che riuscissero a ricoprirsi prima ancora che potessero riprendere fiato sentirono i tonfi soffocati di zampe giganti qualcosa avanzava a balzi verso di loro un enorme cane nero come la pece con gli occhi chiari harry cercò la bacchetta ma era troppo tardi il cane fece un balzo enorme e gli posò le zampe sul petto harry cadde all'indietro in un turbinio di pelo sentì il fiato caldo dell'animale vide le sue lunghe zanne ma la forza del balzo aveva portato la bestia troppo in là il cane rotolò via intontito con la sensazione di avere qualche costola rotta harry cercò di rialzarsi lo sentì ringhiare mentre si preparava un nuovo attacco ron era in piedi pronto mentre il cane balzava di nuovo verso di loro spinse da un lato harry le mascelle dell'animale si chiusero sul braccio teso di harry si protese e afferrò una manciata di peli della belva ma il cane trascinava via harry come se fosse una bambola di pezza poi dal nulla qualcosa colpì harry in viso così forte da farlo cadere di nuovo sentì che anche ermione strillava di dolore e cadeva harry cercò la bacchetta tentando di ricacciare indietro il sangue che gli colava negli occhi lumos sussurrò la luce della bacchetta illuminò il tronco di un grosso albero l'inseguimento di crosta li aveva portati all'ombra del salice schiaffeggiante e i suoi rami scricchiolavano come scossi da un forte vento menando frustate avanti e indietro per impedire loro di avvicinarsi e là alla base del tronco c'era il cane che trascinava ron dentro una grossa fessura delle radici ron lottava con furia ma già la testa il busto non si vedevano più ron urrò harry cercando di seguirlo ma un grosso ramo scattò ferocemente e il ragazzo fu costretto ad arretrare di nuovo tutto quello che si vedeva ormai era una gamba di ron agganciata a una radice nel tentativo di impedire al cane di trascinarlo più giù ma un terribile scricchiolio spezzò l'aria come un colpo di pistola la gamba di ron si era rotta e un attimo dopo il suo piede spariva nel buco harry dobbiamo andare a chiedere aiuto ansimo ermione sanguinava anche lei il salice le aveva ferito la spalla no quella cosa è grande abbastanza da divorarlo non abbiamo tempo non ce la faremo mai se qualcuno non ci aiuta un altro ramo scattò contro di loro i lamoscelli contratti come nocche se può entrare quel cane possiamo anche noi disse errico il fiato grosso correndo di qua e di là nel tentativo di aprirsi la strada fra i perfidi rami sibilanti ma non era possibile avvicinarsi alle radici senza finire a tiro dell'albero aiuto aiuto sussurrò ermione disperata saltellando incerta sul posto per favore grattastinchi balzò in avanti strisciò come un serpente tra i rami agitati e appoggiò le zampe anteriori sopra un nodo nel tronco all'improvviso l'albero cessò di muoversi come se fosse stato trasformato in marmo non si mosse più una foglia grattastinchi sussurrò ermione incerta poi strinse forte il braccio di erri tanto da fargli male come faceva a sapere è amico di quel cane disse erri incupito li ho visti insieme vieni e tieni pronta la bacchetta in un attimo raggiunsero il tronco ma prima di arrivare alla fessura nelle radici grattastinchi li precedette scivolando all'interno con un guizzo della coda cespugliosa erri lo seguì avanzò a quattro zampe e scivolò giù per una china di terra fino al fondo di un tunnel molto basso grattastinchi era un po più avanti gli occhi che lampeggiavano alla luce della bacchetta di erri un attimo dopo ermione strisciò al suo fianco dov'è ron sussurrò con voce terrorizzata da questa parte disse erri avanzando dietro grattastinchi con la schiena curva dove finisce questo tunnel chiese ermione senza fiato seguendolo non lo so è segnato sulla mappa del malandrino ma fred e george dicono che non l'ha mai usato nessuno finisce fuori dai confini della mappa ma sembrava che portasse a hogsmeade avanzavano più velocemente possibile quasi piegati in due davanti a loro la coda di grattastinchi spariva e riappariva la galleria proseguiva sembrava lunga almeno come quella per mielandia erri riusciva a pensare solo a ron e a quello che l'enorme cane poteva fargli boccheggiava traendo brevi respiri dolorosi e correva chino e poi il tunnel prese a salire poco dopo curvò e grattastinchi sparì erri vide una macchia di luce fiocca che penetrava da una piccola apertura lui e ermione si fermarono riprese lo fiato e si sporsero a guardare entrambi alzarono la bacchetta per vedere che cosa li attendeva era una stanza una stanza molto polverosa e disordinata la carta da parati si scollava dai muri il pavimento era tutto macchiato ogni mobile era rotto come se qualcuno lo avesse preso a randellate le finestre erano chiuse da tavole inchiodate erri lanciò uno sguardo a ermione che aveva l'aria molto spaventata ma annui erri si spinse fuori dall'apertura e si guardò attorno la stanza era deserta ma c'era una porta aperta alla loro destra che conduceva in un'anticamera buia all'improvviso ermione afferrò di nuovo il braccio di erri osservava le finestre sbarrate con gli occhi sgranati sussurrò credo che siamo dentro la stamberga strillante erri diede un'occhiata in giro lo sguardo gli cadde su una sedia di legno grossi pezzi erano saltati via una delle gambe era stata strappata non sono stati i fantasmi disse lentamente in quel momento sentirono uno scricchiolio sopra le proteste qualcosa si era mosso al piano di sopra fissarono entrambi il soffitto ermione gli stringeva il braccio così forte che erri stava perdendo la sensibilità delle dita la guardò alzando le sopracciglia lei annui e mollò la presa più silenziosamente possibile avanzarono nell'anticamera e presero a salire la scala che andava in pezzi tutto era ricoperto da uno spesso strato di polvere tranne il pavimento dove una larga striscia lucida indicava che qualcosa era stato trascinato di sopra raggiunsero il pianerottolo buio nox sussurrarono insieme e le luci sulla punta delle bacchette si spensero c'era solo una porta aperta mentre la raggiungevano furtivi avvertirono dei movimenti dall'altra parte un sordo gemito e poi un intenso ronzio diffusa si scambiarono un ultimo sguardo un ultimo cenno con la bacchetta ben stretta in mano e tesa davanti a sé erri sferrò un calcio alla porta e la spalancò su uno splendido letto a baldacchino con le cortine polverose era disteso grattastinchi alla loro vista le fusa si fecero più intense sul pavimento c'era ron che si teneva la gamba piegata con una strana angolatura erri e ermione si precipitarono verso di lui ron stai bene dov'è il cane non è un cane gemette ron digrignando i denti per il dolore erri è una trappola che cosa è lui il cane è un animagus ron guardò un punto oltre la spalla di erri erri si voltò con un tonfo l'uomo nell'ombra chiuse la porta una massa di sudici capelli aggrovigliati gli scendeva fino alle spalle se non avesse avuto quegli occhi brillanti dentro le orbite cupe infossate avrebbe potuto essere un cadavere la pelle cerea era così tirata sulle ossa del viso che questo sembrava un teschio i denti gialli erano scoperti in un ghigno era sirius black expelliarmus gracchiò puntando contro di loro la bacchetta di ron le bacchette di erri e ermione balzarono via dalle mani in alto e black le afferrò poi si avvicinò di un passo aveva gli occhi puntati su erri ero sicuro che saresti venuto ad aiutare il tuo amico disse rauco la sua voce aveva l'aria di non essere stata usata da un pezzo tuo padre avrebbe fatto lo stesso per me sei stato coraggioso a non andare a chiamare un insegnante te ne sono grato questo renderà le cose molto più semplici l'allusione a suo padre risuonò nelle orecchie di erri come se black l'avesse urlata un odio ribollente gli esplose nel petto e prese il posto della paura per la prima volta nella vita voleva riavere la bacchetta in mano non per difendersi ma per attaccare per uccidere senza sapere che cosa stava facendo avanzò ma ci fu un improvviso movimento ai suoi lati e due paia di mani lo afferrarono trattenendolo no erri ansimo ermione con un sussurro agghiacciato ron invece che si era rialzato a fatica si rivolse a black se vuoi uccidere erri dovrai uccidere anche noi disse con fierezza benché lo sforzo di reggersi in piedi lo rendesse sempre più pallido e oscillando leggermente qualcosa lampeggiò negli occhi cupi di black stenditi disse piano a ron o la tua gamba peggiorerà mi hai sentito disse ron debolmente aggrappandosi a fatica erri per non cadere dovrai ucciderci tutti e tre qui morirà una sola persona questa notte disse black e il suo ghigno si allargò perché esplose erri cercando di liberarsi dalla presa di ron e ermione l'ultima volta non ci hai badato vero non ti è importato niente di uccidere tutti quei babbani per arrivare a pettigrew che cosa succede azkaban ti ha ramollito erri protestò ermione stai zitto ha ucciso mia madre e mio padre ruggì erri e con grande sforzo si liberò dalla stretta di ron e ermione e balzò in avanti si era dimenticato della magia si era dimenticato di essere piccolo magro e di avere solo 13 anni mentre black era un uomo fatto e molto alto anche erri sapeva solo che voleva fargli più male che poteva e che non gli importava se veniva a sua volta ferito forse fu lo stupore nel veder fare a erri una cosa così sciocca ma black non alzò le bacchette in tempo una delle mani di erri si strinse attorno al suo polso ossuto deviando le bacchette l'altra colpì la testa di black e caddero tutti e due all'indietro verso il muro ermione strillò ron urlò ci fu un lampo accecante mentre le bacchette nella mano di black sparavano in aria un di scintille che mancò per un soffio il viso di erri quest'ultimo sentì il braccio rattrappito agitarsi follemente sotto le sue dita ma non mollò la presa mentre con l'altra mano colpiva tutte le parti di black che gli capitavano a tiro ma la mano libera di black afferrò erri per la gola no ringhiò ho aspettato troppo le dita si strinsero erri si sentì soffocare gli occhiali di traverso poi vide il piede di ermione scattar fuori dal nulla black lasciò andare erri con un grugnito di dolore ron si gettò sulla mano armata di bacchette di black e erri udì un lieve rumore si liberò dal groviglio di corpi e vide la sua bacchetta che rotolava sul pavimento si tuffò per prenderla ma grattastinchi si era tuffato nella mischia e aveva affondato gli artigli nel braccio di erri che se lo scrollò di dosso ma grattastinchi scattò verso la bacchetta non farlo urlò erri sferrando al gatto un calcio che lo fece balzare da una parte soffiando erri afferrò la bacchetta e si voltò toglietevi di mezzo gridò a ron e ermione non se lo fece lo dire due volte ermione cercando di riprendere fiato il labbro sanguinante scattò di lato recuperando la sua bacchetta e quella di ron ron strisciò fino al letto a baldacchino e vi si lasciò cadere ansante la faccia pallida ora quasi verdastra le mani che stringevano la gamba rotta black giaceva scompostamente vicino al muro il suo petto si alzava e si abbassava in fretta mentre lui osservava erri avvicinarsi lentamente la bacchetta puntata dritta al suo cuore vuoi uccidermi erri sussurrò erri si fermò sopra black la bacchetta ancora contro il suo petto e lo guardò un livido scuro gli si stava allargando sotto l'occhio sinistro e perdeva sangue dal naso hai ucciso i miei genitori disse erri con voce appena tremante ma la mano che reggeva la bacchetta rimase immobile black lo guardò di sotto in su con i suoi occhi infossati non lo nego disse molto piano ma se sapessi com'è andata com'è andata ripete erri con le orecchie che gli pulsavano furiosamente tu li hai venduti a voldemort è tutto quello che devo sapere devi ascoltarmi disse black con una nota di urgenza nella voce altrimenti lo rimpiangerai non capisci capisco molte più cose di quello che credi tu esclamò erri con voce più tremante che mai non l'hai mai sentita vero mia madre che cerca di impedire a voldemort di uccidermi e sei stato tu sei stato tu prima che uno dei due potesse aggiungere altro qualcosa di rosso sprecciò davanti a erri un attimo dopo grattastinchi balzò su black e si sistemò sul suo petto black batte le palpebre e guardò il gatto scendi mormorò cercando di spingerlo via ma grattastinchi affondò gli artigli negli abiti di black e non si mosse voltò il brutto muso schiacciato verso erri e lo guardò con gli occhioni gialli alla sua destra ermione ruppe in un singhiozzo erri guardò black e grattastinchi la presa sempre più salda sulla bacchetta e allora che cosa gli importava di dover uccidere anche il gatto era alleato di black se era pronto a morire per cercare di proteggerlo non erano affari di erri se black voleva salvarlo era solo la prova che gli importava più di grattastinchi che dei genitori di erri erri alzò la bacchetta era il momento di agire era il momento di vendicare suo padre e sua madre stava per uccidere black doveva uccidere black era la sua occasione i secondi si allungarono erri era ancora lì paralizzato la bacchetta a mezz'aria mentre black lo guardava tenendo grattastinchi sul petto dal baldacchino arrivava il respiro affannoso di ron ermione taceva e poi si udì un nuovo rumore passi attutiti e che giarono attraverso il pavimento qualcuno camminava al piano di sotto siamo quassù urlò ermione all'improvviso siamo quassù c'è sirius black presto black fece un gesto di sorpresa che riuscì quasi a far sloggiare grattastinchi erri strinse convulsamente la bacchetta fallo adesso disse una voce dentro di lui ma i passi ormai risuonavano sulle scale e erri non era ancora entrato in azione la porta della stanza si spalancò in una pioggia di scintille rosse erri si voltò mentre il professor lupin si precipitava dentro il viso esangue la bacchetta levata e pronta i suoi occhi guizzarono da ron disteso sul letto a ermione rannicchiata vicino alla porta a erri che torreggiava su black con la bacchetta alzata e infine a black rannicchiato e sanguinante ai piedi di erri expelliarmus gridò lupin la bacchetta di erri volò via ancora una volta così fecero le due che aveva ermione lupin le afferrò tutte al volo poi avanzò guardando black con grattastinchi sul petto a difenderlo erri si sentì all'improvviso svuotato non l'aveva fatto i nervi avevano ceduto black sarebbe stato riconsegnato ai dissenatori poi lupin parlò con voce molto alterata una voce che vibrava di un'emozione repressa dov'è sirius erri guardò in fretta lupin non capiva che cosa volesse dire dov'era chi si voltò di nuovo verso black black era privo di espressione per qualche secondo non si mosse poi molto lentamente alzò la mano vuota e indicò ron del tutto confuso erri guardò a sua volta ron che aveva l'aria completamente inebetita ma allora mormorò lupin guardando black così intensamente che sembrava volesse leggerli nella mente perché non si è mai rivelato finora a meno che gli occhi di lupin si allargarono all'improvviso come se vedesse qualcosa al di là di black qualcosa che nessun altro poteva vedere a meno che non fosse lui a meno che non vi siate scambiati senza dirmelo molto lentamente senza levare quegli occhi infossati dal viso di lupin black annui professore intervenne eri ad alta voce che cosa ma non finì mai la domanda perché quello che vide gli spense la voce in gola lupin stava abbassando la bacchetta un momento dopo era al fianco di black gli afferrava la mano lo aiutava a rialzarsi facendo cadere a terra grattastinchi e lo abbracciava come un fratello harry si sentì lo stomaco a pezzi non ci credo gridò ermione lupin lasciò andare black e si voltò verso di lei si era alzata da terra e indicava lupin lo sguardo febbrile lei lei ermione lei è lui ermione calmati non l'ho detto a nessuno strillò ermione le ho parato le spalle ermione ascoltami ti prego gridò lupin posso spiegare eri si sentì scuotere non dalla paura ma da una nuova ondata di rabbia io le credevo urlò a lupin con la voce che tremava incontrollata e lei è sempre stato suo amico ti sbagli disse lupin per 12 anni non sono stato amico di sirius ma ora lo sono lascia che ti spieghi no gridò ermione eri non credergli ha aiutato black a entrare nel castello anche lui ti vuole morto è un lupo mannaro scese un silenzio carico di tensione gli occhi di tutti erano fissi sul lupin che sembrava straordinariamente calmo anche se era piuttosto pallido questa volta non sei all'altezza di te stessa ermione disse ne hai azzeccata una su tre temo non ho aiutato sirius a entrare nel castello e di sicuro non voglio vedere eri morto uno strano tremito gli attraversò il viso ma non negherò che sono un lupo mannaro ron fece un eroico sforzo per rialzarsi ma ricadde con un gemito di dolore lupin gli si avvicinò preoccupato ma ron disse respirando affannosamente stai lontano da me lupo mannaro lupin si fermò di colpo poi con evidente fatica si voltò verso ermione e disse da quanto tempo lo sai da un secolo sussurrò ermione da quando ho fatto il tema per il professor piton ne sarà felice disse lupin freddamente ha assegnato quel tema nella speranza che qualcuno capisse che cosa significavano i miei sintomi hai controllato il calendario lunare e hai capito che ero sempre ammalato quando c'era la luna piena o hai capito che il molliccio si trasformava nella luna quando mi vedeva tutte e due le cose disse ermione piano lupin scoppiò in una risatina forzata per la tua età sei la strega più brillante che abbia mai conosciuto ermione no sussurrò ermione se fossi stata un po più sveglia avrei detto a tutti che cosa è lei ma lo sanno già disse lupin almeno i miei colleghi lo sanno silente l'ha assunta anche se sapeva che era un lupo mannaro esclamò ron sbalordito ma è matto alcuni colleghi erano di questo avviso disse lupin ha dovuto faticare parecchio per convincere certi insegnanti che sono affidabile e si sbagliava lei lo ha sempre aiutato urlò erri indicando black che all'improvviso andò verso il letto e vi sprofondò il volto nascosto da una mano tremante grattastinchi gli balzò accanto e gli spiazzò in grembo facendo le fusa ron si ritrasse da entrambi trascinando la gamba non ho aiutato sirius disse lupin se me ne date la possibilità vi spiegherò guardate prese le bacchette di erri ron e ermione una alla volta e le lanciò ai loro proprietari erri afferrò la sua stupefatto allora disse lupin infilando di nuovo la sua nella cintura voi siete armati noi no ora volete ascoltare erri non sapeva cosa pensare era un tranello se non l'ha aiutato disse lanciando a black uno sguardo furioso come faceva a sapere che era qui la mappa disse lupin la mappa del malandrino ero nel mio studio a guardarla sa come farla funzionare chiese erri sospettoso ma certo che so come farla funzionare disse lupin agitando la mano con impazienza ho dato una mano a disegnarla io sono luna storta i miei amici mi chiamavano così a scuola lei l'ha disegnata la cosa importante è che stasera la stavo guardando attentamente perché sospettavo che tu ron e ermione avreste cercato di sgattaiolare fuori dal castello per andare da agrid prima dell'esecuzione del suo ipogrifo e avevo ragione vero aveva cominciato a camminare avanti e indietro guardandoli nuvolette di polvere si alzavano ai suoi piedi era probabile che avresti usato il vecchio mantello di tuo padre erri come fa a sapere del mantello non sai quante volte ho visto james sparire lì sotto disse lupin agitando di nuovo la mano impaziente il fatto è che sulla mappa del malandrino ti si vede anche se indossi un mantello dell'invisibilità vi ho visto attraversare il parco ed entrare nella capanna di agrid venti minuti dopo vi siete congedati da agrid e siete tornati al castello ma con voi c'era qualcun altro cosa esclamò erri no non è vero non riuscivo a credere ai miei occhi disse lupin senza smettere di camminare avanti e indietro ignorando l'interruzione credevo che la mappa fosse difettosa come poteva trovarsi con voi ma non c'era nessuno con noi disse erri e poi ho visto un altro puntino che si spostava in fretta verso di voi e sotto c'era scritto sirius black l'ho visto scontrarsi con voi ho visto che trascinava due di voi dentro il salice schiaffeggiante uno di noi disse ron rabbioso no ron disse lupin due si era fermato gli occhi puntati su ron credi che potrei dare un'occhiata al tuo topo disse in tono pacato cosa disse ron che cosa c'entra crosta tutto disse lupin posso vederlo per favore ron esitò poi si infilò una mano sotto gli abiti ne emerse crosta che si divincolava disperatamente ron dovette afferrarlo per la lunga coda pelata per impedirgli di fuggire grattastinchi alzò la testa e soffiò lupin si avvicinò a ron parve trattenere il respiro mentre studiava crosta con grande attenzione cosa ripete ron tenendosi vicino crosta con aria spaventata che cosa c'entra il mio topo con tutto il resto quello non è un topo sbottò sirius black all'improvviso che cosa vuol dire ma certo che è un topo no che non lo è disse lupin piano è un mago un animagus disse black che si chiama peter pettigrew luna storta coda liscia felpato e ramoso ci volle qualche secondo prima che l'assurdità dell'affermazione colpisse nel segno poi ron espresse ad alta voce quello che anche erri stava pensando siete pazzi tutti e due è ridicolo disse ermione debolmente peter pettigrew è morto disse erri l'ha ucciso lui dodici anni fa indicò black il cui viso si contorsa in una smorfia avrei voluto borbottò scoprendo i denti ma il piccolo peter se l'è cavata non questa volta però e grattastinchi finì sul pavimento mentre black si scagliava contro crosta ron urlò di dolore quando black finì con tutto il suo peso sulla gamba rotta sirius no gridò lupin scattando in avanti allontanando di nuovo black da ron aspetta non puoi farlo così devono capire dobbiamo spiegare possiamo spiegarglielo dopo ringhiò black provando a liberarsi da lupin mentre con una mano germiva l'aria cercando di afferrare crosta che strillava come un porcellino e graffiava il viso e il collo di ron nel tentativo di fuggire hanno il diritto di sapere tutto ansimò lupin trattenendo black era l'animaletto di ron ci sono dettagli che non capisco nemmeno io erri a erri devi la verità sirius black cessò di lottare anche se i suoi occhi infossati rimasero puntati su crosta che era ben stretto tra le mani morsicate graffiate e sanguinanti di ron allora d'accordo disse black senza distogliere lo sguardo dal topo digli quello che vuoi ma fa in fretta remus voglio commettere l'assassinio per il quale sono stato condannato siete fuori di testa tutti e due ripete ron tremante cercando con lo sguardo il sostegno di erri e ermione ne ho abbastanza me ne vado cercò di puntellarsi sulla gamba sana ma lupin estrasse di nuovo la bacchetta e la puntò verso crosta ora mi ascolterai fino alla fine ron disse tranquillamente ricordati solo di tenere stretto peter mentre parlo non è peter è crosta urlò ron cercando di ricacciare il topo nella tasca davanti ma crosta si agitava troppo ron barcollò e perse l'equilibrio erri lo afferrò e lo risospinse sul letto poi ignorando black erri si voltò verso lupin c'erano dei testimoni che hanno visto pettigrew morire disse una strada intera non hanno visto quello che credevano di vedere esclamò black con violenza continuando a fissare crosta che si divincolava tra le mani di ron tutti hanno creduto che sirius avesse ucciso peter spiegò lupin io stesso ne ero convinto finché stasera non ho visto la mappa perché la mappa del malandrino non mente mai peter è vivo ce l'ha in mano ron erri erri fissò ron e mentre i loro sguardi si incrociavano convennero in silenzio black e lupin erano fuori di senno la loro storia non aveva alcun senso come faceva crosta a essere peter pettigrew azkaban doveva aver sconvolto la mente di black dopo tutto ma perché lupin gli dava corda poi ermione parlò cercando di controllare la voce tremula come per tentare di convincere lupin a essere ragionevole ma professor lupin crosta non può essere pettigrew non può essere vero lo sa che non è possibile perché non può essere vero chiese lupin tranquillamente come se fossero in classe e ermione avesse semplicemente incontrato una difficoltà in un esperimento con gli avvincini perché perché lo saprebbero tutti se peter pettigrew fosse stato un animagus abbiamo studiato gli animaggi al corso della professoressa mcgonagall e sono andato a fare una ricerca in biblioteca quando ho dovuto fare i compiti il ministero tiene sotto sorveglianza i maghi e le streghe che sanno trasformarsi in animali c'è un registro in cui c'è scritto che animali diventano e i loro segni particolari sono andata a cercare la professoressa mcgonagall sul registro e ho scoperto che ci sono stati solo sette animaggi in questo secolo e pettigrew non era sulla lista harry ebbe appena il tempo di stupirsi per lo zelo di ermione che lupin scoppiò a ridere hai ragione un'altra volta ermione disse ma il ministero non ha mai saputo che esistevano tre animaggi non classificati che si aggiravano a hogwarts se ha intenzione di raccontargli tutta la storia stringi ramos ringhiò black che continuava a studiare tutte le mosse disperate di crosta ho aspettato dodici anni e non ho intenzione di aspettare ancora a lungo va bene ma dovrai darmi una mano sirius disse lupin io so solo com'è cominciata lupin si interruppe alle sue spalle si udì un forte cigolio la porta si aprì da sola tutti e cinque la fissarono poi lupin andò a guardare fuori sul pianerottolo non c'è nessuno qui questo posto è stregato disse ron no disse lupin guardando la porta con aria perplessa la stamberga strillante non è mai stata stregata le urle e gli ululati che sentivano gli abitanti del villaggio erano opera mia si scostò dagli occhi i capelli ingrigiti riflette un attimo e poi disse comincia tutto da qui da quando sono diventato un lupo mannaro niente di tutto questo sarebbe successo se non fossi stato morso e se non fossi stato così sconsiderato aveva l'aria seria e stanca ron stava per interromperlo ma ermione disse e guardò lupin intensamente ero un bambino quando fui morso i miei genitori le provarono tutte ma a quei tempi non c'erano cure la pozione che mi prepara il professor piton è un ritrovato molto recente mi renda innocuo sapete se la prendo la settimana prima della luna piena riesco a mantenere il controllo quando mi trasformo mi rannicchio nel mio studio come un normalissimo lupo e aspetto che la luna tramonti prima che la pozione antilupo venisse scoperta comunque una volta al mese diventavo un mostro a tutti gli effetti sembrava impossibile che riuscissi a frequentare hogwarts gli altri genitori non avrebbero voluto che i loro figli entrassero in contatto con me ma poi silente diventò preside e trovò la soluzione disse che se prendevamo alcune precauzioni non c'era motivo per cui io non potessi venire a scuola lupin sospirò e guardò apertamente erri qualche mese fa ti ho detto che il salice schiaffeggiante fu piantato l'anno che sono arrivato a hogwarts la verità è che fu piantato perché sono arrivato a hogwarts questa casa e lupin si guardò intorno desolato e il tunnel che porta qui furono costruiti per me una volta al mese mi facevano uscire di nascosto dal castello e venivo qui a trasformarmi l'albero fu messo all'entrata del tunnel per impedire a chiunque di incrociarmi quando ero pericoloso erri non capiva dove andasse a parare quella storia ma ascoltava lo stesso rapito l'unico rumore oltre alla voce di lupin era lo squittio spaventato di crosta le mie trasformazioni in quei giorni erano erano terribili è molto doloroso trasformarsi in un lupo mannaro non avevo intorno degli umani da mordere così mordevo e graffiavo me stesso gli abitanti del villaggio udivano il rumore e le urla e credetelo che si trattasse di spiriti particolarmente violenti silente incoraggiò le dicerie anche adesso che la casa è silenziosa da anni gli abitanti di qui non osano avvicinarsi ma trasformazione a parte ero più felice di quanto non fossi mai stato per la prima volta avevo degli amici tre grandi amici sirius black peter pettigrew e naturalmente tuo padre erri james potter ora i miei tre amici non poterono fare a meno di notare che una volta al mese sparivo inventai ogni genere di storie dissi loro che mia madre era ammalata e che dovevo andare a casa a trovarla temevo che mi avrebbero abbandonato una volta scoperto chi fossi ma naturalmente loro scoprirono la verità come te ermione e non mi abbandonarono affatto anzi fecero per me una cosa che non solo rese le mie trasformazioni sopportabili ma le mutone i momenti più belli della mia vita diventarono animaggi anche mio padre chiese erri stupefatto sì certo rispose lupin gli ci vollero quasi tre anni per capire come fare tuo padre e sirius erano gli studenti più brillanti della scuola e per fortuna perché la trasformazione in animagus può finire molto male ecco perché il ministero tiene sotto stretta sorveglianza chi cerca di compierla peter ebbe bisogno di tutto l'aiuto di james e sirius per farcela alla fine il quinto anno di scuola ci riuscirono furono in grado di trasformarsi ciascuno in un animale diverso a loro piacimento ma come facevano ad aiutarla chiese ermione perplessa non potevano farmi compagnia da umani e così mi facevano compagnia da animali disse lupin un lupo mannaro è un pericolo solo per le persone ogni mese sgattaiolavano fuori dal castello sotto il mantello dell'invisibilità di james si trasformavano peter che era il più piccolo riusciva a scivolare sotto i rami aggressivi del salice e premeva il nodo che lo blocca poi si calavano nel tunnel e mi raggiungevano sotto il loro influsso diventai meno pericoloso il mio corpo era ancora lupesco ma la mia mente lo era molto meno quando stavo con loro sbregati remus ringhiò black che continuava a fissare crosta con orribile avidità ci sto arrivando sirius ci sto arrivando beh ora che potevamo trasformarci tutti e quattro ci si aprirono davanti parecchi eccitanti opportunità ben presto di notte prendemmo ad abbandonare la stamberga strillante e a vagare per i terreni intorno al castello e per il villaggio sirius e james si trasformavano in animali così grossi che erano più che in grado di tener testa un lupo mannaro dubito che qualche altro studente di hogwarts abbia mai scoperto più cose sul parco e su hogsmeade e fu così che finimmo per disegnare la mappa del malandrino e firmarla con i nostri soprannomi sirius è felpato peter è codaliscia james era ramoso che genere di animale esordi erri ma ermione lo interruppe ma era sempre molto pericoloso andare in giro nella notte con un lupo mannaro e se non fosse rimasto con gli altri e avesse morso qualcuno un pensiero che mi perseguita ancora disse lupin gravemente e ci andammo vicino molto spesso dopo ne ridevamo eravamo giovani sconsiderati ci facevamo trascinare dalla nostra abilità a volte mi sento in colpa per aver tradito la fiducia di silente è chiaro mi aveva ammesso a hogwarts quando nessun altro preside avrebbe fatto una cosa del genere e non aveva idea che io infrangessi le regole che aveva stabilito per la mia sicurezza e quella degli altri non seppe mai che avevo indotto tre compagni a diventare animagi illegalmente ma riuscivo sempre a dimenticare i miei sensi di colpa quando sedevamo insieme noi quattro a progettare l'avventura del prossimo mese e non sono cambiato il volto di lupin si era indurito e nella sua voce c'era scarsa stima di sé per tutto quest'anno ho combattuto con me stesso chiedendomi se dovevo dire a silente che sirius era un animagus ma non l'ho fatto perché perché ero troppo vigliacco avrebbe significato ammettere che avevo tradito la sua fiducia quando ero qui a scuola ammettere che avevo coinvolto altre persone e la fiducia di silente ha significato molto per me mi ha fatto entrare a hogwarts da ragazzo e da grande mi ha dato un lavoro quando tutti mi sfuggivano e non riuscivo a trovare un vero impiego a causa di quello che sono e così mi ero convinto che sirius cercasse di entrare a scuola servendosi di arti oscure apprese da voldemort che il fatto di essere un animagus non c'entrava nulla quindi in un certo senso piton ha sempre avuto ragione sul mio conto piton disse black con voce rauca distogliendo lo sguardo da crosta per la prima volta dopo parecchio tempo e fissando lupin che cosa c'entra piton è qui sirius disse lupin gravemente anche lui insegna qui guardò erri ron e ermione il professor piton era a scuola con noi si è battuto molto perché non mi venisse affidata la cattedra di difesa contro le arti oscure è tutto l'anno che ripete assilente che non bisogna fidarsi di me ha le sue ragioni vedete sirius gli fece uno scherzo che quasi lo uccise uno scherzo che coinvolse me black se ne uscì con una risatina di scherno se l'era meritato disse in tono beffardo sempre in giro a ficcare il naso dappertutto a cercare di scoprire che cosa facevamo sperando di riuscire a farci espellere severus era molto curioso di sapere dove andavo tutti i mesi spiegò lupin a ron erri e ermione eravamo nello stesso anno sapete e non non ci amavamo molto quello che gli piaceva meno di tutti era james era geloso credo del talento di james sul campo di quidditch comunque piton mi aveva visto attraversare il parco con madame pomfrey una sera mentre mi accompagnava al salice schiaffeggiante perché potessi trasformarmi sirius pensò che sarebbe stato divertente dire a piton che bastava premere il nodo sul tronco con un lungo bastone e avrebbe potuto seguirmi beh naturalmente piton lo fece se fosse riuscito ad arrivare fin qui avrebbe incontrato un lupo mannaro completamente sviluppato ma tuo padre che aveva scoperto cosa aveva fatto sirius seguì piton e lo fece tornare indietro mettendo a repentaglio la propria vita piton però riuscì a vedermi alla fine del tunnel silente gli proibì di raccontare agli altri che cosa aveva visto ma da allora seppe che cos'ero allora è per questo che lei non piace a piton disse eri lentamente perché credeva che lei fosse complice dello scherzo proprio così disse una voce fredda alle spalle di lupin severus piton si stava sfilando il mantello dell'invisibilità la bacchetta puntata verso lupin il servo di voldemort ermione urlò black balzò in piedi eri trasalì come se fosse stato colpito da una forte scarica elettrica l'ho trovato alle radici del salice schiaffeggiante disse piton gettando di lato il mantello bene attento a tenere la bacchetta puntata dritto al petto di lupin molto utile potter ti ringrazio piton era un po' ansante ma la sua espressione traboccava di trionfo represso forse vi state chiedendo come facevo a sapere che eravate qui disse gli occhi luccicanti sono appena stato nel tuo studio lupin questa notte hai dimenticato di prendere la tua pozione così te ne avevo portato un boccale intero e meno male meno male per me voglio dire sulla tua scrivania c'era una certa mappa mi è bastata un'occhiata per sapere tutto quello che volevo vi ho visti sparire in questo passaggio severus cominciò lupin ma piton non lo lasciò continuare ho detto e ridetto al preside che stavi aiutando il tuo vecchio amico black a entrare nel castello lupin ed ecco qui la prova nemmeno io mi sarei sognato che avresti avuto il coraggio di usare questa vecchia baracca come nascondiglio severus stai commettendo un errore disse lupin incalzante non hai sentito tutta la storia ti posso spiegare sirius non è qui per uccidere erri altri due criminali pronti per azgaban questa notte disse piton con gli occhi febbrili sono curioso di vedere come la prenderà silente era convinto che tu fossi innocuo sai lupin un lupo mannaro addomesticato stupido disse piano lupin vale la pena di rinchiudere un innocente ad azgaban